parte quarta solaria robot durante la cena travis era immerso nei propri pensieri mentre l'attenzione di bliss si concentrava sul cibo pelorat l'unico che sembrasse ansioso di parlare osservò che se il mondo su cui si trovavano era aurora e davvero era il primo mondo colonizzato allora doveva essere abbastanza vicino alla terra forse sarebbe il caso di esplorare lo spazio circostante suggerì in fondo si tratterebbe solo di esaminare poche centinaia di stelle travis borbottò che le ricerche a casaccio erano un sistema da adottare come ultima risorsa e che voleva il maggior numero di informazioni sulla terra prima di tentare di avvicinarsi anche se l'avesse trovata non aggiunse altro e pelorat evidentemente deluso rimase zitto a sua volta terminato il pasto visto che il mutismo di travis persisteva pelorat domandò incerto restiamo qui colan per questa notte almeno ho bisogno di riflettere un po ma siamo al sicuro a meno che non ci sia in giro qualcosa di peggio dei cani sull'astronave siamo al sicuro direi quanto ci vorrebbe per decollare nel caso ci fosse in giro qualcosa di peggio dei cani il computer è pronto al lancio dovremmo riuscire a farcela in due o tre minuti e se dovesse accadere qualcosa di insolito il computer ci avvertirà quindi suggerirei a tutti di dormire un po domattina deciderò la prossima mossa facile a dirsi pensò travis ritrovandosi a contemplare l'oscurità era rannecchiato semisvestito sul pavimento della sala comandi non era un posto comodo ma era certo che non sarebbe riuscito ad addormentarsi nemmeno a letto e lì se il computer avesse dato l'allarme avrebbe potuto entrare subito in azione poi sentì dei passi e automaticamente si drizzò a sedere battendo la testa contro il bordo della scrivania non tanto forte da ferirsi ma abbastanza da dover gemere e massaggiarsi janov chiamò con voce soffocata mentre gli occhi gli lacrimavano no sono bliss travis allungò una mano oltre l'urlo della scrivania per tentare un contatto parziale col computer e una luce tenue si diffuse nella stanza rivelando la ragazza avvolta in una specie di vestaglia rosa chiaro che c'è chiese travis ho guardato nella tua stanza ma non c'eri comunque ho seguito le tracce inconfondibili della tua attività neuronica ho capito che eri sveglio e sono entrata sì ma cosa vuoi bliss si sedette appoggiandosi alla parete e ranecchiò le ginocchia abbassando il mento su di esse non preoccuparti non intendo minacciare quel che rimane della tua virginità né su questo non ho alcun dubbio replicò travis sardonico perché non dormi hai bisogno di riposo più di noi due credimi disse bliss con voce bassa e sincera l'episodio dei cani è stato molto stressante ci credo ma dovevo parlarti mentre bell dormiva parlarmi di che quando bell ti ha spiegato del robot tu hai detto che questo fatto cambiava tutto in che senso non ci arrivi da sola abbiamo tre serie di coordinate tre mondi proibiti voglio visitarli tutti per scoprire il più possibile sulla terra prima di cercare di raggiungerla travis si avvicinò un po a lei per parlare a bassa voce ma si ritrasse di colpo senti non voglio che jano fa venga qui a cercarti chissà cosa penserebbe improbabile che venga dorme e io ho rinforzato leggermente il sonno se accenerà a svegliarsi lo saprò continua vuoi visitare tutti i tre mondi cosa è cambiato non rientrava nei miei piani sprecare tempo senza motivo su quei pianeti dal momento che questo mondo aurora è stato abbandonato dagli esseri umani 20.000 anni fa dubito che si possano trovare ancora informazioni preziose non voglio sprecare settimane o mesi setacciando la superficie del pianeta affrontando cani gatti e tori e chissà quali altri animali divenuti nel frattempo pericolosi nella speranza vaga di trovare un misero indizio in mezzo ai ruderi alla ruggine e alla polvere sugli altri due mondi d'altra parte potremmo trovare invece degli esseri umani e delle biblioteche ancora intatte in base a questo ragionamento intendevo ripartire subito da aurora se l'avessi fatto adesso saremmo nello spazio e dormiremmo tranquilli ma ma se esistono ancora dei robot funzionanti su questo mondo potrebbero essere in possesso di informazioni utili e affrontare dei robot dovrebbe essere meno rischioso che affrontare esseri umani perché stando a quel che ho sentito i robot devono obbedire agli ordini e non possono fare del male all'uomo così hai modificato i tuoi piani e adesso resterai su questo mondo in cerca di robot sono un po restio a farlo stento a credere che esistano automi in grado di durare 20.000 anni senza manutenzione eppure dato che tu ne hai visto uno che aveva ancora una scintilla di attività neuronica è chiaro che in fatto di robot non posso basarmi sulle mie opinioni personali non devo lasciarmi condizionare dall'ignoranza può darsi che siano più longevi di quanto immaginassi o che abbiano capacità di automanutenzione ascolta travis e per favore che rimanga tra noi tra noi fece travis alzando la voce per la sorpresa noi i due certo tra noi due bellorot non deve saperlo senti non modificare i tuoi piani avevi ragione fin dall'inizio non ci sono robot funzionanti su questo mondo e io non percepisco nulla del genere ha individuato l'attività neuronica di uno di loro però se ce n'è uno che funziona può darsi che non ho individuato un bel niente quel robot non funzionava da un pezzo ma hai detto so cosa ho detto pel credeva di aver visto del movimento di aver sentito un suono pel è un romantico è una vita che lavora dedicandosi alla raccolta di dati ma in questo modo non si diventa famosi nel mondo della cultura gli piacerebbe tanto fare un'importante scoperta da solo la parola aurora l'ha trovata lui è il suo merito legittimo e non immagini quanto fosse felice moriva dalla voglia di scoprire qualcos'altro mi stai dicendo che desiderava a tal punto fare una scoperta valida che è convinto di essersi imbattuto in un robot funzionante ma che in realtà non era così già e si è imbattuto in un ammasso di ruggine che non possedeva più coscienza della roccia a cui era appoggiato ma tu hai confermato la sua versione non sono riuscito a prevarlo della sua scoperta pel significa tanto per me travis la fissò a lungo poi disse ti spiace spiegarmi perché significa tanto per te voglio saperlo mi pare che non dovresti vedere in lui nient'altro che un uomo anziano senza alcun lato romantico è un isolato e tu disprezzi gli isolati sei giovane bella e ci saranno indubbiamente altre parti di gaia rappresentate da giovani belli dal corpo vigoroso con loro puoi avere relazioni fisiche capaci di risuonare in tutta gaia e raggiungere vertici e statici dunque che cosa trovi di speciale in janov blis lo guardò con espressione solenne tu non lo ami travis fece spallucce gli sono affezionato immagino si possa dire esulando dall'ambito sessuale che lo amo non lo conosci da molto travis perché allora lo ami esulando dall'ambito sessuale senza accorgersene travis sorrise è un tipo così strano credo davvero che nella sua vita non abbia mai pensato una sola volta a se stesso gli è stato ordinato di partire con me e l'ha fatto senza obiettare voleva che andassi su trantor ma quando gli ho detto che preferivo andare su gaia non ha protestato e adesso mi seguo in questa ricerca della terra pur sapendo probabilmente che è un'impresa pericolosa sono sicuro che se dovesse sacrificare la sua vita per me o per qualcun altro lo farebbe senza lamentarsi e tu daresti la vita per lui travis potrebbe darsi se non avessi il tempo di pensarci su se mi soffermassi per un attimo a riflettere beh e magari mi tirerei indietro per paura non sono buono quanto janov e proprio per questo avverto l'esigenza di proteggerlo perché rimanga come ora non voglio che la galassia gli insegni a cambiare in peggio capisci e devo proteggerlo da te non sopporto l'idea che tu possa gettarlo da parte quando avrai finito di divertirti con lui già immaginavo che avresti pensato qualcosa del genere e se io vedessi in pelle le stesse cose che vedi tu anzi in modo più approfondito dal momento che possa entrare in contatto diretto con la sua mente da come mi comporto ti pare che voglia fargli del male se me ne infischiassi di lui perché sarei stata al gioco a proposito del robot funzionante perché avrei sostenuto la sua illusione travis sono abituata al sentimento che tu definisci bontà perché ogni parte di gaia è pronta a sacrificarsi per il bene della collettività è l'unica linea di condotta che conosciamo e capiamo e comportandoci così non rinunciamo a nulla perché ogni parte è anche l'intero anche se non pretendo che tu lo capisca pel è diverso bliss non guardava più travis sembrava quasi che parlasse tra sé è un isolato non è altruista in quanto parte di un insieme più grande lo è basta gli spiego ha tutto da perdere nulla da guadagnare pure è quel che è di fronte lui mi vergogno perché io non devo vivere con la paura di perdere qualcosa mentre pel vive senza alcuna speranza di ottenere qualche vantaggio torno a fissare travis estremamente seria ti rendi conto che sono in grado di capirlo meglio di te pensi che possa davvero fargli del male bliss oggi mi hai chiesto su allora cerchiamo di essere amici e io ti ho risposto solo con un se vuoi da parte mia c'era una certa reluttanza perché ero preoccupato per quello che avresti potuto fare a janov adesso sono io a chiederlo su bliss facciamo amicizia puoi continuare a indicarmi i vantaggi di galaxia e io posso continuare a respingere i tuoi punti di vista ma nonostante questo facciamo amicizia e le tese la mano certo travis hanno i bliss mentre le mani si univano in una stretta vigorosa travis sorrise trassi era un sorriso interiore perché le sue labbra non si spostarono di un millimetro quando aveva usato il computer per trovare la fantomatica stella della prima serie di coordinate pelorat e bliss lo avevano osservato a sorti rivolgendogli delle domande adesso erano in camera loro e dormivano o comunque riposavano lasciando che travis se la sbrigasse da solo in un certo senso travis si sentiva lusingato gli sembrava una dimostrazione di fiducia ormai bliss e pelorat si erano resi conto che lui sapeva il fatto suo e non aveva bisogno di supervisori né di essere incoraggiato travis a sua volta dopo la prima esperienza aveva imparato a fare maggiore affidamento sul computer dato che era in grado di lavorare in perfetta autonomia o quasi un'altra stella luminosa e non registrata sulla mappa galattica apparve sullo schermo era più luminosa del sole di aurora quindi il fatto che non figurasse nella memoria del computer era ancora più significativo travis si meravigliò della particolarità della tradizione antica interi secoli potevano sparire nell'ignoto intere civiltà essere confinate nell'oblio eppure di quei secoli e di quelle civiltà talvolta sopravviveva un frammento una traccia concreta ricordata senza distorsioni come in quelle coordinate travis lo aveva fatto notare a pelorat qualche tempo prima e l'amico gli aveva risposto che era proprio quella particolarità a rendere lo studio dei miti e delle leggende così gratificante il trucco aveva detto pelorat consiste nell'individuare quali componenti di una leggenda abbiano un fondo preciso di verità non è un compito facile ed è probabile che mitologi diversi scelgano componenti diverse componenti che di solito tendono a soddisfare certe loro interpretazioni in ogni caso la stella si trovava nel punto indicato dalle coordinate di deniador opportunamente corrette in base al fattore tempo travis era disposto a scommettere una somma ingente sul fatto che anche la terza stella si sarebbe trovata nella posizione indicata in tal caso probabilmente la leggenda rispondeva a verità anche quando affermava che esistevano 50 mondi proibiti nonostante quella cifra tonda suscitasse qualche sospetto un mondo abitabile un mondo proibito ruotava in effetti intorno alla stella e questa volta la scoperta non provocò in trevis alcuna sorpresa si era aspettato di trovare il pianeta fin dall'inizio e la stella lontana cominciò a orbitare lentamente intorno ad esso la coltre di nubi era abbastanza rada e offriva un discreto panorama della superficie era un mondo acquatico come quasi tutti i mondi abitabili c'erano un oceano tropicale ininterrotto e due oceani polari simili in un punto a una latitudine mediana c'era un continente dai contorni serpeggianti con baie e istimi lungo le coste sul lato opposto la massa continentale era spezzata in tre tronconi ognuno dei quali a differenza dell'altro continente si restringeva da nord a sud travis rimpianse di non essere un esperto di climatologia e di non poter quindi predire le temperature e le stagioni partendo dalla sua osservazione dallo spazio per un attimo pensò di mettere al lavoro il computer e fargli risolvere il problema ma il clima era un fattore trascurabile era ben più importante il fatto che ancora una volta il computer non rilevasse alcuna radiazione di origine tecnologica il telescopio mostrava un pianeta che non era tarmato e non si scorgevano zone desertiche la terra scorreva in varie tonalità di verde ma sul lato diurno non c'era traccia di aree urbane e sul lato notturno non brillavano le luci un altro pianeta pieno di ogni forma di vita a eccezione degli esseri umani travis bussò alla porta dell'altra stanza bliss chiamò sottovoce e bussò di nuovo si udì un fruscio e la voce della ragazza disse sì puoi venire qui mi serve il tuo aiuto un attimo mi rendo presentabile quando finalmente bliss apparve a travis sembrò né più né meno presentabile delle altre volte era un po' seccato per quell'inutile attesa dal momento che lui non importava che aspetto avesse ma adesso erano amici così represse il proprio disappunto sorridendo il tono perfettamente cordiale bliss gli chiese cosa posso fare per te travis indicò lo schermo come puoi vedere stiamo sorvolando la superficie di un mondo che sembra assolutamente sano con un folto manto di vegetazione sulle aree emerse non ci sono luci notturne né radiazioni tecnologiche per favore ascolta e dimmi se esiste vita animale a un certo punto mi è parso di vedere delle mandrie che pascolavano ma non sono sicuro sai a volte può capitare di vedere quello che si vuole a tutti i costi bliss ascoltò è un'espressione di grande concentrazione si dipinse sul suo volto disse oh sì è ricco di vita animale mammiferi penso proprio di sì esseri umani bliss sembrò concentrarsi ancora di più passò un intero minuto un altro infine la ragazza si rilassò non sono in grado di dirlo di tanto in tanto mi è sembrato di percepire una traccia di intelligenza intensa che potrebbe essere considerata umana ma era troppo irregolare può darsi che anch'io abbia sentito quello che volevo sentire a tutti i costi no si interruppe assorta e travis la sollecitò con un allora bliss riprese il fatto che mi sembra di percepire qualcos'altro non si tratta di una cosa con cui abbia dimestichezza ma sono sicura che non possono essere che avanti bliss si rilassò direi robot robot sì e se percepisco la loro presenza mi pare che dovrei riuscire a percepire anche la presenza degli esseri umani invece niente robot ripete travis corrugando la fronte sì parecchi direi quando ricevette la notizia pelarat esclamò robot nello stesso tono di travis poi abbozzò un sorriso avevi ragione golan ma avevo sbagliato a dubitare di te non ricordo che tu abbia dubitato di me janoff beh non ho ritenuto opportuno esternare i miei dubbi ma in cuor mio ho pensato che fosse un errore lasciare aurora visto che avevamo l'opportunità di interrogare qualche robot superstite ma è chiaro che sapevi che qui avremmo trovato un numero maggiore di robot disponibili niente affatto janoff non lo sapevo ho solo tentato secondo bliss stando ai loro campi mentali i robot dovrebbero essere perfettamente funzionanti e a me sembra che non dovrebbero funzionare alla perfezione senza essere umani capaci di provvedere alla loro manutenzione comunque bliss non riesce ad avvertire alcuna traccia umana così stiamo ancora cercando pelarat studiò lo schermo pensieroso un mondo coperto di foresti direi in gran parte ma ci sono tratti aperti che potrebbero essere praterie il problema è che non vedo città che non ci sono luci notturne e si rilevano soltanto radiazioni termiche insomma nessun essere umano è né chissà bliss è in cambusa e sta cercando di concentrarsi ho fissato un meridiano fondamentale arbitrario così adesso il pianeta è diviso per latitudine e longitudine nel computer bliss ha un piccolo congegno che preme ogni volta che incontra una concentrazione insolita di attività mentale robotica immagino che non si possa parlare di attività neuronica riferendosi a dei robot ma del resto è pronta a rilevare eventuali tracce di pensiero umano il congegno è collegato al computer che in questo modo fa il punto della situazione usando varie coordinate per poi scegliere il luogo più adatto in cui atterrare pelarat pareva a disagio è prudente lasciarti questa decisione perché no janov è un calcolatore efficiente e in mancanza di riferimenti che male c'è a prendere in considerazione la sua scelta pelarat si illuminò hai ragione golan sai alcune delle leggende più antiche raccontano di persone che per scegliere lanciavano dei cubetti a terra nasi e cosa ottenevano vedi ogni faccia del cubo rappresentava una decisione si no forse rimandare e così via il lato rivolto verso l'alto era quello col consiglio da seguire oppure si faceva rotolare una sfera su un disco con tante fessure lungo il bordo e ogni fessura rappresentava una particolare decisione la decisione da prendere era quella scritta nella fessura in cui si fermava la sfera alcuni mitologi ritengono che queste attività fossero giochi d'azzardo più che sistemi divinatori ma io non ci vedo una gran differenza e in un certo caso noi giochiamo d'azzardo nello scegliere il punto d'atterraggio osservò travis bliss che stava uscendo dalla cambusa sentì l'ultimo commento non stiamo affatto giocando d'azzardo dichiarò ho premuto parecchi forse e un sì al cento per cento ed è verso quel sì che ci dirigeremo come mai un sì tanto sicuro domandò travis ho percepito una traccia di pensiero umano chiara e inconfondibile era piovuto perché l'erba era bagnata in cielo le nuvole filavano veloci e accennavano a diradarsi la stella lontana si era posata dolcemente accanto a un boschetto nel caso ci fossero anche lì cani selvatici penso travis scherzando solo in parte tutto intorno si estendeva una specie di pascolo e durante la discesa quando avevano raggiunto una quota adatta travis aveva scorto frutteti i campi di grano e questa volta senza ombra di dubbio animali che pascolavano non c'erano strutture nulla di artificiale per fortuna la regolarità della disposizione degli alberi da frutta e i contorni geometrici che delimitavano i campi erano di per sé tracce artificiali significative quanto una centrale a microonde possibile che gli interventi fossero esclusivamente opera di robot che l'uomo fosse assente travis sistemò in silenzio le fondine questa volta si era accertato che entrambe le armi fossero funzionanti e cariche al massimo per un attimo colse lo sguardo di bliss e si fermò fai pure disse bliss non credo che ti serviranno ma è quel che credevo anche la volta scorsa no vuoi armarti anche tu yanof chiese travis pelorat rabbrividi no grazie con la tua difesa fisica e quella mentale di bliss mi sento tranquillo immagino che sia un gesto vile da parte mia nascondermi sotto la vostra ala protettiva ma se devo essere sincero non mi vergogno dato che sono troppo contento di non dover ricorrere in alcun caso alla forza capisco ma non allontanarti mai da solo disse travis se bliss e io ci separeremo stai con lei o con me e che non ti venga in mente di dar retta alla curiosità e sgattaiolare chissà dove per conto tuo non preoccuparti travis intervenne bliss me ne occupo io travis scese dall'astronave per primo il vento era vivace e leggermente freddo in seguito alla pioggia ma lui preferiva così probabilmente prima che piovesse la caduta e l'umidità dovevano essere state opprimenti respirò sorpreso l'odore del pianeta era delizioso ogni pianeta un odore particolare lo sapeva un odore immancabilmente strano e di solito disgustoso forse solo perché era strano come se le cose insolite dovessero essere per forza sgradevoli in questo caso il profumo dipendeva probabilmente dalla pioggia recente o da una particolare stagione dell'anno venite disse travis si sta bene qui fuori è piacevole pallorata sbucò all'aperto disse piacevole è la parola giusta secondo te ha sempre questo profumo non importa tanto in un'ora ci saremo abituati i nostri recettori nasali saranno saturi e non sentiremo più alcun profumo speciale peccato fece pelorat l'erba è bagnata si lamentò bliss non piove su gaia chiese travis e in quel mentre un raggio di sole si posò su di loro attraverso uno squarcio tra le nubie di lì a poco il sole sarebbe uscito per un'apparizione meno fugace sì rispose bliss ma noi sappiamo quando pioverà e siamo preparati che fortuna disse travis così perdete il brivido dell'imprevisto ne hai ragione cercherò di essere meno provinciale pelorat si guardò intorno e disse in tonno deluso sembra proprio che qui non ci sia nulla sembra ma non è così disse bliss stanno arrivando vengono da dietro quell'altura si rivolse quindi a travis pensi che sia il caso di andargli incontro travis scosse il capo no per venire fin qui abbiamo percorso parecchi parsec lascia che siano loro a fare l'ultimo tratto di strada li aspetteremo solo bliss era in grado di percepire la loro presenza poi ad un tratto nella direzione indicata da lei una figura apparve sulla sommità dell'altura seguita subito dopo da una seconda e una terza credo che per il momento non ce ne siano altri annunciò la ragazza travis osservò incuriosito anche se non aveva mai visto un robot capì subito che quelli lo erano avevano la forma schematica degli esseri umani anche se non sembravano propriamente metallici la loro superficie corporea era opaca e dava un'impressione di morbidezza quasi fosse rivestita di un tessuto felpato ma chi gli garantiva che la morbidezza fosse solo un'impressione travis provò il desiderio improvviso di toccare quelle figure che avanzavano imperturbabili se quello era davvero un mondo proibito e se era vero che le astronavi lo evitavano il che era senza dubbio vero dal momento che il suo sole non figurava nella mappa galattica allora la stella lontana e le persone a bordo dovevano rappresentare qualcosa di estraneo all'esperienza dei robot eppure stavano sfoggiando la massima sicurezza quasi si trovassero ad affrontare una situazione ordinaria sotto voce travis disse può darsi che qui riusciamo a ottenere informazioni non disponibili in qualsiasi altro punto della galassia potremmo chiedere di indicarci la posizione della terra rispetto a questo mondo e se la conosceranno ce la diranno chissà da quanto tempo sono attivi potrebbero addirittura risponderci attingendo dai loro ricordi personali pensate d'altro canto replicò bliss può darsi che siano di fabbricazione recente e che non sappiano nulla o può darsi che sappiano ma che si rifiutino di rispondere aggiunse pelarat non credo che possano rifiutarsi di rispondere disse travis a meno che non abbiano ricevuto l'ordine di non farlo e dato che nessuno poteva aspettarsi il nostro arrivo secondo me è impossibile che abbiano ricevuto istruzioni del genere a una distanza di circa tre metri i robot si fermarono non dissero nulla e rimasero immobili travis la mano sul fulminatore disse a bliss tenendo d'occhio i robot percepisci qualche atteggiamento ostile a parte il fatto che non ho un minimo di dimestichezza con la loro struttura mentale non mi sembra di cogliere nulla di ostile rispose la ragazza travis staccò la mano destra dal calcio dell'arma ma non di molto alzò la sinistra con il palmo rivolto ai robot augurandosi che lo interpretassero come un gesto di pace e parlando lentamente disse vi saluto siamo venuti su questo mondo da amici il robot al centro del terzetto piegò la testa in una specie di goffo inchino che a un ottimista sarebbe potuto apparire come un gesto di pace quindi rispose travis restò a bocca aperta per lo stupore in un universo unito dal galattico era inconcepibile che venisse a mancare il sistema di comunicazione fondamentale neppure il robot non si esprimeva in galattico standard né in alcuna altra lingua che si avvicinasse vagamente a quella universale lui infatti non capì una sola parola la sorpresa di pelarat fu pare a quella dell'amico ma il suo era stupore misto a piacere che strano è osservò travis gli si rivolse con una nota di esprezza nella voce non è strano direi che è un farfugliare assurdo non è affatto un farfugliare assurdo lo contraddisse pelarat è galattico ma molto arcaico capisco qualche parola forse riuscirei a capire facilmente se le parole fossero scritte e la pronuncia è il vero ostacolo beh cosa ha detto che non ha capito quel che già hai detto bliss intervenne non so cosa abbia detto ma avverto una perplessità che mi pare appropriata certo sempre che possa fidarmi della mia analisi dei sentimenti robotici e ammesso che esistano parlando lentamente a fatica pelarat disse qualcosa e i tre robot piegarono la testa contemporaneamente traduci lo esortò travis ho detto loro che non so parlare bene questa lingua disse pelarat ma che farò del mio meglio ho chiesto una breve pausa santo cielo amico mio la faccenda è molto interessante molto deludente borbotò travis vedi ogni mondo abitabile della galassia elabora una propria varietà di galattico così esistono migliaia di dialetti che a volte sono praticamente incompatibili e incomprensibili a vicenda ma sono tutti unificati dal denominatore comune del galattico standard se questo mondo è rimasto isolato per 20.000 anni e la sua lingua si sarebbe dovuta discostare dalle altre lingue galattiche fino a trasformarsi in una lingua completamente diversa questo mutamento non è avvenuto e forse la spiegazione che questo mondo ha un sistema sociale che dipende da robot in grado di capire soltanto la lingua parlata all'epoca della loro programmazione non si è avuta una riprogrammazione continua la lingua è rimasta statica e adesso ci troviamo di fronte solo a una forma molto arcaica di galattico è un esempio della staticità dannosa e della degenerazione di una società robotizzata osservò travis ma amico mio protestò pelarat il carattere immutabile di una lingua non è necessariamente un segno di degenerazione presenta degli aspetti vantaggiosi i documenti conservano il loro significato per secoli per millenni il raggio d'azione e la precisione degli studi storici aumentano nel resto della galassia la lingua degli editti imperiali dell'epoca di harry selden comincia già a suonare antiquata e tu conosci questo galattico arcaico non si può dire che lo conosca ma studiando i vecchi miti e le leggende ho imparato a decifrarlo il vocabolario non è poi così diverso ma cambiano le coniugazioni certe espressioni idiomatiche non vengono più usate attualmente e la pronuncia è completamente cambiata posso fungere da interprete ma non aspettarti un collaboratore in gamba travis emise un sospiro vago sempre meglio che niente procedi pure yanoff pelarat si voltò verso i robot attese un attimo poi tornò a rivolgersi a travis cosa devo dire veniamo subito al dunque chiedi dov'è la terra pelarat pronunciò le parole una alla volta accompagnandole con gesti esagerati delle mani i robot si guardarono ed emisero dei suoni quello al centro parlò a pelarat che rispose muovendo le come se stesse tirando un pezzo di gomma il robot rispose scandendo le parole con la stessa meticolosità dello studioso pelarat disse travis probabilmente non riesco a spiegare di preciso cosa intendo per terra ho l'impressione che credano che mi riferisca a una regione del loro pianeta e dicono di non sapere dove si trovi questa regione indicano questo pianeta con un nome yanoff e se non questo nome nelle tue leggende no come non avevo mai sentito parlare di aurora beh chiedi se c'è un posto chiamato terra nel cielo o tra le stelle insistette travis indicando verso l'alto mostra la volta sopra di noi altra breve conversazione quindi pelarat si girò e annunciò golan tutto quello che sono riuscito a farmi dire è che non c'è nessun posto in cielo bliss intervenne chiedi ai robot quanti anni hanno o meglio da quanti anni funzionano non so come tradurre funzionare disse pelarat scuotando la testa anzi forse non sono neppure in grado di tradurre quanti anni e no non sono affatto un buon interprete fai del tuo meglio caro lo sollecitò la ragazza e dopo una discussione fitta con lo robot pelarat annunciò sono in funzione da 26 anni 26 anni borbotto travis disgustato hanno più o meno la tua età bliss ribatte inalberandosi di colpo si dà il caso lo so sei gaia e come tale hai migliaia di anni comunque questi robot non possono parlarci della terra per esperienza diretta ed è evidente che le loro memorie contengono soltanto dati necessari al funzionamento non sanno nulla di astronomia può darsi che da qualche parte ci siano robot diversi primordiali osservò pelarat ne dubito disse travis comunque se trovi le parole chiediglielo yanov questa volta la conversazione fu ancora più lunga e al termine pelarat era accaldato ma aveva un'aria delusa gollano ci sono parecchi punti che mi sfuggono eppure mi sembra di capire che i robot più vecchi siano usati per i lavori manuali e non sappiano nulla questo robot parla degli esemplari più vecchi in modo sprezzante o almeno con l'equivalente robotico del disprezzo umano afferma che loro tre sono robot domestici e vengono sostituiti prima di diventare vecchi sono quelli che sanno davvero come stanno le cose parole loro non mie e non granché grugni travis perlomeno di quello che ci interessa peccato che abbiamo lasciato aurora con tanta fretta osservò pelarat se avessimo trovato qualche robot superstite e l'avremmo sicuramente trovato dal momento che il primo che ho incontrato aveva ancora una scintilla di vita senza dubbio avrebbe saputo parlarci della terra per esperienza diretta sempre che avesse la memoria intatta janov disse travis ma possiamo sempre tornare su aurora e se sarà necessario lo faremo cani o non cani comunque se questi robot risalgono solo a un paio di decenni fa i loro costruttori devono essere ancora vivi e deve trattarsi per forza di esseri umani si rivolse a bliss sei sicura di aver percepito bliss lo interruppe alzando una mano e assunse un'espressione tesa concentrata sta arrivando disse sottovoce travis si girò in direzione dell'altura e dalle versanti opposto emerse la figura inconfondibile di un essere umano che scese con passi decisi verso di loro aveva una carnagione pallida lunghi e folti capelli chiari sulle tempie aveva un'espressione solenne ma giovanile le braccia e le gambe nude non erano particolarmente muscolose i robot si fecero rispettosamente da parte per lasciarlo passare e l'uomo avanzò arrestandosi in mezzo a loro quindi parlò con voce chiara e gradevole benché un po' antiquate le sue parole erano in galattico standard e facilmente comprensibili salve vagabondi dello spazio i sordi cosa avete chiesto ai miei robot travis non ebbe una reazione brillante ma disse banalmente parla il galattico il solariano sorrisse turvo e perché non dovrei già che non sono muto ma questi travis indicò i robot sono automi parlano la lingua come me io sono solariano e capto le comunicazioni iperspaziali provenienti dai mondi esterni così ho imparato il vostro modo di parlare come hanno fatto i miei predecessori essi hanno lasciato descrizioni della lingua eppure di continuo sento parole nuove ed espressioni che cambiano di anno in anno da questo deduco che voi siete capaci di colonizzare nuovi mondi ma non di fissare a rendere stabili le parole perché ti sorprende la mia comprensione della tua lingua non mi sarei dovuto mostrare sorpreso disse travis mi scuso solo che dopo aver parlato coi robot non mi aspettavo di sentir parlare il galattico su questo mondo studiò il solariano indossava una veste bianca leggera che gli pensolava abbondante sulle spalle con ampi giro manica per le braccia davanti era aperta e lasciava intravedere il petto nudo e un perizoma sottostante fatta eccezione per un paio di sandali non portava altro travis si rese conto di non poter stabilire se l'abitante di solaris fosse maschio o femmina il petto era certamente maschile ma glabro e il perizoma non mostrava alcun rigonfiamento si rivolse a bliss sottovoce potrebbe trattarsi di un altro robot un essere artificiale delle sembianze identiche muovendo impercettibilmente le labbra la ragazza rispose la sua mente è quella di un essere umano ma non di un robot non avete ancora risposto alla mia domanda disse il solariano scuserò la mancanza attribuendola alla vostra sorpresa ma ve la ripeto e non la dovete più eludere cosa avete chiesto ai miei robot siamo viaggiatori in cerca di informazioni che ci consentano di raggiungere la nostra destinazione rispose travis abbiamo chiesto di darci le informazioni necessarie ma non hanno saputo risponderci quali informazioni vi occorrono io potrei aiutarvi ci occorre la posizione della terra è in grado di indicarcela il solariano in arcole sopracciglia avrei pensato di essere l'oggetto primario della vostra curiosità e vi fornirò l'informazione non richiesta sono sarton bander e vi trovate all'interno della tenuta bander che si estende in ogni direzione a perdita d'occhio e oltre non posso dire che siate i benvenuti dal momento che avete commesso una violazione siete i primi coloni scesi su solaria da migliaia d'anni e come ottestea appurato siete venuti soltanto per scoprire la miglior via per raggiungere un altro mondo un tempo voi e la vostra astronave sareste stati distrutti senza preavviso è un modo barbaro di trattare persone che non hanno intenzioni ostili e non fanno alcun male ribatte travis cauto ne convengo ma quando i membri di una società in espansione mettono piede su un mondo inoffensivo e statico il semplice contatto è potenzialmente dannoso e pericoloso quando temevamo quel pericolo eravamo pronti a distruggere all'istante chiunque si avvicinasse da quando non abbiamo più motivo di temere come voi stessi vedete siamo disposti a parlare apprezzo le informazioni che ci ha fornito con tanta generosità disse travis ma non ha risposto alla mia prima domanda la ripeterò è in grado di indicarci la posizione della terra dicendo terra suppongo si riferisca al mondo su cui ebbe origine la specie umana e le varie specie di piante animali il solariano fece un ampio gesto aggraziato con la mano quasi ad abbracciare l'ambiente circostante proprio così signore una strana espressione di ripugnanza guizzò sul volto del solariano per favore se proprio dovete usare un appellativo chiamatemi semplicemente bander non rivolgetevi a me con parole che denotino un genere non sono maschio né femmina sono completo travis annui e non si era sbagliato come vuoi bander allora dove si trova la terra il pianeta d'origine di tutti noi non lo so né desidero saperlo e se lo sapessi o se riuscissi a scoprirlo non ne trarreste vantaggio poiché la terra in quanto mondo non esiste più ah bander allargò le braccia il sole è piacevole non vengo spesso in superficie e mai quando il sole non si mostra i miei robot vi si sono fatti incontro finché il sole era nascosto dalle nubi li ho seguiti soltanto quando il cielo si è schierito perché la terra non esiste più come mondo insistette travis preparandosi a sentire nuovamente la storia della radioattività ma bander ignoro la domanda o meglio la cantonò con non curanza è una storia troppo lunga mi hai detto che non siete venuti con intenzioni ostili certo allora a che scopo sei armato è una semplice precauzione non sapevo cosa avrei potuto incontrare su questo pianeta non ha importanza le tue piccole armi non costituiscono alcun pericolo per me tuttavia sono curioso ovviamente ho spesso sentito parlare delle armi e della vostra barbara storia che pare dipendere in gran misura dal loro uso malgrado ciò non ho mai visto un'arma vera e propria mi è consentito di vedere le tue travis indietreggiò di un passo e temo di no bander l'altro parve divertito l'ho chiesto solo per cortesia non era necessario che lo chiedessi tese una mano e dalla fondina destra di travis sgusciò fuori il fulminatore mentre la frusta neuronica si sollevava dall'altra travis annaspò per prendere le armi ma le sue braccia erano come strette in una morsa elastica sia pelarat sia bliss accennarono a intervenire ma furono incapaci di muoversi non prendetevi la briga di reagire sarebbe un tentativo vano non potete disse bander le armi volarono nelle sue mani e il solariano le osservò attentamente questo indicando il fulminatore sembra un proiettore di raggi a microonde che produce calore causando l'esplosione di qualsiasi corpo contenente liquidi e fluidi l'altra arma è più raffinata e lo confesso a prima vista mi sfugge quale possa essere il suo impiego comunque dato che non avete intenzioni ostili e non fate nulla di male queste non vi occorrono volendo posso scaricare la loro riserva energetica e anzi lo faccio immediatamente ora sono innocue a meno che non le si voglia usare come mazze ma sarebbero di scarsa maneggevolezza il solariano lasciò andare le armi che galleggiarono nell'aria verso trevis tornando a infilarsi nelle rispettive fondine non sentendosi più bloccato trevis estrasse il fulminatore rendendosi conto dell'inutilità del gesto il contatto era staccato ed era evidente che l'accumulatore era stato svuotato completamente la frusta neuronica aveva subito un trattamento identico solevo lo sguardo verso bunder che disse sorridendo sei del tutto inerme esterno volendo con la massima facilità potrai distruggere te e la tua astronave naturalmente sottoterra travis raggelò cercando di respirare normalmente si voltò verso bliss la ragazza cingeva il fianco di pelarat con fare protettivo e sembrava calmissima abbozzò un sorriso e annui in maniera quasi impercettibile travis tornò a rivolgersi a bunder nel complesso l'atteggiamento di bliss gli era parso fiducioso e sperando nella correttezza della propria interpretazione si rivolse al solariano con una certa sicumera come hai fatto bunder l'altro evidentemente di buon umore sorrise ditemi piccoli esterni credete nella stregoneria nella magia non ci crediamo piccolo solariano sbottò travis bliss gli tirò la manica murmurando non io ritardo è pericoloso e lo vedo benissimo disse travis faticando a tenere bassa la voce fai qualcosa allora sempre in un mormorio la ragazza replicò non ancora sarà meno aggressivo se si sentirà sicuro di sì bunder ignorò quello scambio di bisbigli e arretrò disinvolto mentre i robot si scostavano per lasciarlo passare poi girò la testa e piegò languidamente l'indice venite seguitemi tutti e tre vi racconterò una storia che può darsi non vi interessi ma interessami e continuò a camminare tranquillo travis restò dove era per un po indeciso sul da farsi bliss invece si mosse trascinando con se pelorat infine anche travis si incamminò per non rimanere in compagnia dei robot bliss commentò scherzando se bunder vuole essere così gentile da raccontarci una storia che forse non ci interesserà l'altro si voltò e fisso bliss come se la vedesse per la prima volta tu sei la semi umana femmina vero la metà inferiore la metà minore panda sì questi altri due sono i semi umani maschi dunque appunto hai già avuto il tuo bambino femmina mi chiamo bliss bunder non ho ancora avuto un bambino questi è trevis e l'altro è pelorat e di questi due maschi quale ti assisterà quando verrà il momento o ti assisteranno entrambi o magari nessuno mi assisterà pelle bander rivolse la propria attenzione a pelorat ai capelli bianchi vedo sì hanno i pelorat hanno quel colore da sempre no hanno cambiato con l'età e qual è la tua età 52 anni rispose pelorat e si continuo a camminare verso la sua dimora lontana immaginò trevis ma più lentamente ignoro a quanto corrisponda un anno galattico standard ma ritengo che non possa differire tanto da uno dei nostri che età avrai alla tua morte pel e chi può dirlo può darsi che viva altri 30 anni 82 dunque vita brevissima divisi in metà incredibile eppure i miei antenati erano come voi e vivevano sulla terra alcuni la lasciarono per fondare nuovi mondi in nuovi sistemi stellari mondi mirabili bene organizzati e numerosi trevis disse ad alta voce e non tanto numerosi 50 bender gli lanciò un'occhiata altezzosa e il buon umore sembrò affivolirsi travis è il tuo nome vero golan travis è il mio nome completo ho detto che i mondi spaziali erano 50 i nostri si contano a milioni dunque conoscete la storia che intendo raccontarvi se volevi raccontarci che un tempo esistevano 50 mondi spaziali e sì questo lo sappiamo non attribuiamo importanza soltanto al numero piccolo semiamano ribatte bander consideriamo anche la qualità erano 50 mondi ma qualitativamente uno solo di essi era superiore a tutti i vostri messi insieme e solaria era il cinquantesimo dunque il migliore se i mondi spaziali superavano di gran lunga la terra ebbene solaria superava di gran lunga gli altri mondi spaziali solo noi solariani apprendemmo il modo di vivere autenticamente non ci ammassammo né ci raggruppammo a frotte come avveniva sulla terra e persino su alcuni dei mondi spaziali ognuno di noi viveva da solo c'erano i robot ad aiutarci e ci osservavamo elettronicamente ogni volta che desideravamo farlo ma entrando in contatto diretto solo di rado sono trascorsi molti anni da che ho guardato degli esseri umani come ora sto guardando voi del resto voi siete semi umani e pertanto la vostra presenza non limita la mia libertà come non la limiterebbe la presenza di una mucca o di un robot un tempo noi stessi eravamo semi umani per quanto perfezionassimo la nostra libertà per quanto diventassimo padroni solitari di innumerevoli robot la libertà non era assoluta al fine di produrre giovani si rendeva necessaria la cooperazione di due individui naturalmente era possibile fornire spermatozoi e ovuli far sì che il processo di fecondazione e la successiva crescita embrionale avvenissero artificialmente grazie all'automazione era possibile affidare i neonati alle cure dei robot ma i semi umani non volevano rinunciare al piacere che accompagnava la fecondazione biologica di conseguenza sviluppavano un attaccamento emotivo perverso e la libertà svaniva vi rendete conto che questa situazione doveva essere modificata no bander la nostra concezione di libertà è diversa disse travis perché non sapete cosa sia davvero avete sempre vissuto in moltitudini e non conoscete che un solo sistema piegarvi in tutto e per tutto alla volontà altrui o cosa altrettanto abietta lottare costantemente per piegare gli altri alla vostra volontà dov'è la libertà in questo caso la libertà ha un unico significato vivere come si desidera fare esattamente tutto quello che si vuole poi venne un'epoca in cui gli abitanti della terra cominciarono di nuovo a sciamare e le soffocanti moltitudini tornarono a riversarsi nello spazio gli altri spaziali quelli che non si ammucchiavano come i terrestri o si ammucchiavano in misura minore cercarono di competere con loro noi solariani non lo facemmo prevedendo l'inevitabile fallimento dell'iniziativa ci trasferimo sottoterra interrompendo ogni contatto con il resto della galassia eravamo decisi a rimanere noi stessi a tutti i costi creammo robot e armamenti adatti a proteggere la superficie apparentemente deserta del nostro mondo e i dispositivi funzionarono a meraviglia arrivarono astronavi straniere furono distrutte e cessarono di importunarci il pianeta fu considerato abbandonato e dimenticato come speravamo nel frattempo lavoravamo sottoterra per risolvere i nostri problemi modificammo con cautela e delicatamente il patrimonio genetico ci furono insuccessi ma anche successi che sfruttammo a dovere impiegammo secoli ma infine diventammo esseri umani completi che inglobavano in un unico corpo caratteristiche maschili e femminili capaci di procurarci a nostra discrezione il piacere totale volendo potevamo produrre uova fecondate che avremmo affidato alla competenza dei robot per la maturazione ermafroditi disse pelerot è così che si dice nella vostra lingua chiese bander indifferente non ho mai sentito questa parola l'ermafroditismo porta all'arresto totale dell'evoluzione disse travis ogni figlio è il duplicato genetico del genitore ermafrodita via sbottò bander presentate l'evoluzione come un fenomeno affidato al caso siamo in grado di progettare i nostri bambini come desideriamo possiamo cambiare regolare i geni e occasionalmente lo facciamo ma siamo arrivati alla mia residenza entriamo il giorno avanza e il sole non diffonde più il calore necessario staremo meglio al coperto superarono una porta priva di serratura che si aprì allora arrivo e si chiuse non appena furono passati non c'erano finestre ma la stanza cavernosa in cui sbucarono aveva le pareti che spregionavano una vivida luminosità il pavimento era spoglio soffice ed elastico in ognuno dei quattro angoli c'era un robot immobile quella parete spiegò bander indicando un tratto del muro che a prima vista aveva indicato agli altri è il mio schermo visivo il mondo si apre davanti a me e ciò che vedo non limita in alcun modo la mia libertà perché non posso essere costretto ad usarlo e tu non puoi costringere un altro a usare il tuo schermo se vuoi vederlo disse travis costringere disse bander sprezzante ognuno faccia ciò che preferisce capato che io possa fare altrettanto davanti allo schermo c'era una sedia e bander si accomodò travis si guardò intorno come aspettandosi che dal pavimento uscissero altre sedie possiamo sedere anche noi se volete rispose bander bliss sorridendo si accovacciò sul pavimento e pelarat si sistemò accanto a lei travis si ostinò a restare in piedi quanti esseri umani vivono sul pianeta chiese bliss devi dire solariani semi umana bliss l'espressione esseri umani è inquinata dal fatto che i semi umani si finiscono tali noi potremmo chiamarci umani completi ma manca la scorrevolezza solariani è il termine adatto allora quanti solariani vivono sul pianeta non lo so di preciso noi non ci contiamo 1200 forse solo 1200 in tutto il mondo ben 1200 ecco che considerate di nuovo il numero mentre noi ci basiamo sulla qualità il concetto di libertà continua a sfuggirvi se un altro solariano potesse contrastare la mia assoluta supremazia su qualsiasi parte della terra che mi appartiene sui miei robot o su qualsiasi creatura vivente o oggetto inanimato di mia proprietà ecco che la libertà ne risulterebbe limitata già che esistono altri solariani bisogna contenere il più possibile le limitazioni della libertà allontanandoli più possibile finché i contatti diventano in pratica inesistenti solaria accoglie 1200 individui che vivono in condizioni quasi ideali aumentando il numero la libertà ne risentirebbe concretamente con conseguenze insostenibili il che significa che ogni nascita deve essere programmata in maniera tale da bilanciare il numero dei morti intervenne d'un tratto pelorat certamente è immagino che la regola valga per tutti i mondi con una popolazione stabile peorsino per il vostro mondo probabilmente dal momento che forse si verificano pochi decessi immagino che ci saranno pochi bambini pochi davvero pelorat annui in silenzio mi interessa scoprire come sei riuscito a far volare le mie armi non l'hai ancora spiegato disse travis ti ho proposto la stregoneria o la magia ti rifiuti di accettare una spiegazione simile e certo perché mi prendi e in tal caso crederesti alla conservazione dell'energia e all'aumento inevitabile dell'entropia naturalmente ma credo che in 20.000 anni non siate riusciti a modificarle di un micron hai ragione semi persona ma rifletti all'esterno c'è la luce solare bander compie un gesto aggraziato come se volesse ricreare la luce del sole e c'è l'ombra fa più caldo al sole che all'ombra e il calore fluisce spontaneamente dall'aria illuminata all'aria in ombra e non mi dici nulla di nuovo osservò travis lo so perfettamente forse proprio perché lo sai così bene non ti soffermi più a considerare il fenomeno di notte la superficie di solaria è più calda degli oggetti che si trovano oltre la sua atmosfera dunque il calore fluisce spontaneamente dalla superficie planetaria nello spazio esterno so anche questo sia di giorno sia di notte l'interno del pianeta è più caldo della superficie ergo il calore fluisce spontaneamente dall'interno verso la superficie immagino che tu sappia anche questo è in conclusione bander il flusso di calore tra due zone a temperatura diversa che deve avvenire per la seconda legge della termodinamica può essere sfruttato per compiere dei lavori in teoria sì ma la luce solare è diluita il calore della superficie planetaria è più diluito e quello proveniente dall'interno ha una concentrazione ancora più bassa la percentuale di flusso termico utilizzabile non sarebbe sufficiente a sollevare un sasso dipende dall'apparecchiatura usata disse bander il nostro congegno è stato perfezionato in un arco di tempo di migliaia d'anni e si tratta niente meno che di una parte del nostro cervello bander sollevò i capelli ai lati della testa mostrando la parte di cranio dietro le orecchie si girò ora da un lato ora dall'altro per far vedere due rigonfiamenti a forma e delle dimensioni di un uovo è questa parte del mio cervello che a voi manca e che sta ad indicare la differenza fra un solariano e tutti gli altri travis lanciò brevi occhiate in direzione di bliss che sembrava completamente concentrata su bander ormai credeva di sapere cosa stesse succedendo malgrado il suo peana alla libertà bander trovava irresistibile l'opportunità che gli si era presentata non poteva parlare con i robot su una base di parità intellettuale men che meno con gli animali parlare con i concittadini solariani era un'esperienza per lui spiacevole e le comunicazioni indispensabili dovevano essere qualcosa di forzato e assolutamente privo di spontaneità per quanto riguardava travis bliss e pelerath anche se bander li considerava dei semi umani violatori della libertà ma non più di robot e animali erano esseri di pari livello intellettuale o quasi la possibilità di parlare con loro rappresentava un lusso unico senza precedenti ecco perché bander aveva quell'atteggiamento di estrema apertura e loquacità penso travis e sicuramente bliss lo incoraggiava spingendo delicatamente la parte di bander in una direzione che comunque aveva già preso era probabile inoltre che bliss volesse farlo parlare il più possibile nella speranza che il solariano rivelasse qualche dato utile sulla terra travis era d'accordo e anche se l'argomento della discussione non lo avesse incuriosito poi tanto sarebbe stato al gioco senza esitare che funzioni hanno quei lobby cerebrali chiese travis sono trasduttori sono attivati dal flusso termico e lo trasformano in energia meccanica non ci credo il flusso termico è insufficiente piccolo semi umano tu non rifletti se vi fossero molti solariani ammucchiati insieme e se ognuno cercasse di sfruttare il flusso termico in tal caso sì la riserva calorica non basterebbe io invece dispongo di oltre 40.000 chilometri quadrati esclusivamente miei da questi 40.000 chilometri posso ricavare tutta l'energia termica che mi occorre indisturbato per cui la quantità è sufficiente mi sono spiegato è così semplice raccogliere il flusso termico su un'area così vasta il solo fatto di concentrarlo richiederà una quantità enorme di energia può darsi ma io non me ne rendo conto i lobby trasduttori concentrano in continuazione il flusso termico per cui l'energia meccanica per compiere un lavoro è sempre disponibile quando sollevato nell'aria le tue armi una parte dell'atmosfera illuminata dal sole ha perso una percentuale del calore eccedente che riversava nella porzione in ombra dunque per compiere il mio gesto sfruttato energia solare invece di usare congegni meccanici o elettronici mi sono servito di un apparato neuronico bander tocco piano uno dei lobby agisce con rapidità efficienza costantemente e senza sforzo incredibile mormorò pelorat per nulla ribatte bander pensiamo alla finezza dell'occhio e dell'orecchio al modo in cui sono in grado di mutare piccole quantità di fotoni e vibrazioni in informazioni un fenomeno incredibile per chi non vi si fosse mai imbattuto i lobby di trasduzione non sono più straordinari dell'orecchio e dell'occhio anche se per voi rappresentano qualcosa di poco familiare e cosa fate con i lobby continuamente in funzione chiese travis governiamo il nostro mondo ogni robot di questa ampia tenuta riceve la propria energia da me o meglio dal flusso termico naturale sia che un robot stia sistemando un contatto sia che stia battendo un albero l'energia deriva sempre dalla trasduzione mentale dalla mia trasduzione mentale e quando dormi il processo continua durante la veglia il sonno piccolo semi umano cessi di respirare tu quando dormi il tuo cuore cessa di battere di notte i miei robot proseguono nel lavoro e di conseguenza si verifica un lieve raffreddamento dell'interno di solaria globalmente si tratta di un cambiamento infinitesimale e siamo solo 1200 pertanto tutta l'energia che usiamo non accorcia in modo apprezzabile la vita del nostro sole né esaurisce il calore interno del pianeta non avete mai pensato di impiegarlo come arma bander fissò travis come se avesse di fronte un essere completamente alieno vorresti dire immagino che solaria potrebbe affrontare altri mondi con armi a energia basate sul processo trasduttivo ovvero perché dovremmo anche se potessimo battere le armi del nemico il che non è detto cosa otterremmo il controllo di altri mondi ma a che scopo visto che abbiamo un pianeta ideale già tutto per noi dovremmo estendere il nostro dominio sui semi umani e impiegarli nei lavori pesanti per questo abbiamo i robot che sono senza dubbio migliori abbiamo tutto non vogliamo nulla a parte essere lasciati in pace ascoltate vi racconterò un'altra storia racconta pure a noi travis ventimila anni fa quando le semi creature della terra cominciarono a mare nello spazio e noi ci ritirammo sottoterra gli altri mondi spaziali decisero di opporsi ai nuovi coloni così colpirono la terra già la terra ripete trevis cercando di mascherare la propria soddisfazione finalmente la conversazione aveva toccato l'argomento desiderato colpirono il centro una mossa abile in un certo senso se si vuole uccidere una persona non si colpisce un dito o un tallone ma il cuore i nostri compagni spaziali abbastanza simili agli esseri umani in quanto a passioni riuscirono a incendiare radioattivamente la superficie della terra mutandola in un mondo praticamente inabitabile ah ecco com'è successo esclamò pelerat agitando un pugno come se cercasse di afferrare saldamente una teoria finora incerta lo sapevo che non poteva trattarsi di un fenomeno naturale come hanno fatto non lo so fu la risposta indifferente di bander e in ogni caso gli spaziali non ne trassero alcun vantaggio e questo è il punto saliente della storia i coloni continuarono a diffondersi e gli spaziali si estinsero avevano cercato di competere e si estinsero i solariani si ritirarono rifiutandosi di competere adesso siamo ancora qui come i coloni che esistono tuttora aggiunse Travis con espressione caparbia sì ma non per sempre simili creature brulicanti devono combattere devono competere alla fine morranno forse saranno necessari diecimila anni ma noi possiamo aspettare e quando accadrà noi solariani completi solitari liberi avremo la galassia tutta per noi allora oltre al nostro mondo potremo usare o non usare qualsiasi altro mondo a nostro piacimento ma questa storia della terra intervenne pelerat schioccando le dita con impazienza ci ha raccontato una leggenda o è un avvenimento storico reale chi è in grado di stabilire la differenza semi umano pelerat tutta la storia è più o meno leggenda ma cosa dico nei vostri documenti posso vedere i documenti storici che riguardano la terra cerca di capire i miti le leggende la storia primitiva sono il mio campo sono uno studioso che si occupa di queste cose e soprattutto dei fatti collegati alla terra mi limito a ripetere quello che ho sentito dire non esistono documenti a questo proposito i nostri riguardano esclusivamente gli affari solariani degli altri mondi si fa menzione solo in quanto causa di interferenze moleste beh la terra sicuramente è stata un'interferenza molesta per voi intervenne pelerat può darsi ma moltissimo tempo dietro e poi la terra di tutti i mondi era il più ripugnante per noi se su solaria esistevano documentazioni storiche riguardanti la terra certamente sono state distrutte proprio per la ripugnanza che ispiravano travis si arroa i denti mortificato da voi che altri avrebbe dovuto distruggerle pelerat non si arrese cos'altro hai sentito a proposito della terra bander riflette per un attimo quando ero giovane ho sentito una storia da un robot riguardava un terrestre sceso un giorno su solaria e una solariana che se ne andò con lui e divenne una figura importante della galassia ma doveva trattarsi di una storia inventata ne sei sicuro chiese pelerat mordendosi un labbro in certe cose non si può avere alcuna certezza tuttavia mi pare al di là di ogni limite ragionevole il fatto che un terrestre possa aver avuto l'ardire di venire su solaria o che solaria possa aver consentito una simile intrusione ed è ancora più improbabile che una donna di qui per quanto all'epoca fossimo ancora semi umani abbia lasciato volontariamente questo mondo venite permettetemi di mostrarvi la mia dimora la tua dimora fece bliss guardandosi intorno non siamo già in casa tua niente affatto questa è un'antecamera una stanza di osservazione qui vedo i miei concittadini solariani quando devo le loro immagini appaiono sulla parete o tridimensionalmente nello spazio di fronte alla parete questo è un luogo di riunione pubblico pertanto non fa parte della mia residenza venite con me li precedette senza voltarsi a guardare se i tre lo seguissero ma i quattro robot lasciarono i rispettivi angoli e travis capì che se lui e i compagni non si fossero incamminati spontaneamente i robot li avrebbero obbligati garbatamente a farlo mentre gli altri due si alzavano travis mormorò rivolto a bliss lo hai fatto parlare tu bliss gli strinse la mano e annui comunque vorrei sapere che intenzioni ha aggiunse con una sfumatura inquieta nella voce seguirono bander i robot si tenero a rispettosa distanza ma la loro presenza era un deterrente continuo stavano percorrendo un corridoio e travis borbottò depresso su questo pianeta non c'è niente di utile che riguardi la terra ne sono sicuro solo un'altra variazione del tema della radioattività alzò le spalle dovremo raggiungere il punto indicato dalla terza serie di coordinate una porta si aprì davanti a loro rivelando un cubicolo piuttosto angusto bander disse venite semi umani desidero mostrarvi come viviamo travis sussurrò provo un piacere infantile nel fare l'esibizionista mi piacerebbe stenderlo con un pugno non cercare di essere ancora più infantile di lui l'uomo niblis bander li fece entrare nel camerino uno dei robot li seguì bander congedò gli altri robot con un cenno ed entrò a sua volta poi la porta si richiuse alle sue spalle è un ascensore disse pelarato soddisfatto come se avesse scoperto chissà cosa infatti convenne bander una volta trasferitici sotto terra non siamo più emersi veramente e non desideriamo tornare in superficie anche se di tanto in tanto trovo piacevole sentire il tepore del sole ma detesto le nubi o la notte all'aperto si ha la sensazione di essere sotto terra senza esservi davvero non so se rendo l'idea in un certo senso è una discordanza cognitiva che mi urta la terra costruita nel sottosuolo osservò pelarato gli abissi d'acciaio ecco come chiamavano le loro città e su trantor nel remoto periodo imperiale si costruiva sotto terra in modo ancora più massiccio con porellen si sviluppa nel sottosuolo ancora oggi è una tendenza comune a pensarci bene dei semi umani accalcati sotto terra e noi che viviamo in un fulgido isolamento nelle viscere del mondo sono due cose completamente diverse preciso bander su terminus le abitazioni si trovano in superficie disse travis e sono esposte alle intemperie aggiunse bander molto primitivo l'ascensore dopo la sensazione iniziale di minore gravità che aveva rivelato a pelarato cosa fosse in realtà lo stanzino non dava più alcuna sensazione di movimento travis si chiedeva fino a quale profondità sarebbe sceso quando ad un tratto si avvertì un lieve aumento di gravità e la porta si aprì di fronte loro c'era una stanza ampia e arredata con ricercatezza era illuminata in modo fioco anche se non si capiva da dove provenisse l'illuminazione sembrava che l'aria stessa fosse leggermente luminosa bander punto il dito e nella direzione indicata la luce divenne un po più intensa cambiò direzione e si ripeti lo stesso fenomeno poi posò la sinistra su una barra tozza di fianco alla porta con la destra fece un ampio gesto circolare e l'intera stanza si rischierò come se all'interno splendesse il sole ma senza che si avvertisse la minima sensazione di calore travis fece una smorfia e commentò a mezza voce quest'uomo è un charlatano bander replicò secco non quest'uomo bensì quest'abitante di solaria non sono certo del significato della parola charlatano ma dal tono direi che si tratta di un termine ingiurioso travis spiegò significa persona che manca di schiettezza e ricorre a certi effetti perché le sue azioni appaiano strabilianti mentre invece in realtà non lo sono ammetto di amare la teatralità ma quello che vi ho mostrato non è un trucco è qualcosa di reale batte sulla barra con la sinistra questa barra di conduzione termica si estende verso il basso per parecchi chilometri e nella mia tenuta fe ne sono in diversi punti barre come questa esistono anche nelle altre tenute servono a incrementare la velocità di diffusione del calore dalle parti interne del pianeta alla superficie e facilitano la conversione dell'energia termica in forza meccanica non ho bisogno di gesti della mano per produrre luce ma i gesti conferiscono all'azione anche di possente o forse come sostieni tu una sfumatura artificiosa che mi diverte hai spesso l'opportunità di divertirti con i tuoi piccoli gesti teatrali chiese bliss no rispose bander scuotendo la testa i miei robot sono indifferenti a certe manifestazioni e anche i concittadini solariani questa insolita occasione di incontrare dei semi umani ed esibirmi per loro è molto gratificante quando siamo entrati questa stanza era rischiarata da una debole luce rimane sempre accesa chiese pelorat sì è una perdita di energia trascurabile come il funzionamento costante dei robot la tenuta in perpetua funzione rimangono attivate anche le parti non impegnate in alcuna mansione e fornisci continuamente l'energia per tutto il sole e il nucleo del pianeta forniscono l'energia necessaria io sono semplicemente un veicolo non tutta la tenuta e produttiva per lo più è adibita a parco naturale e arricca di varie forme di vita animale innanzitutto perché così proteggo i miei confini e in secondo luogo perché apparezzo il valore estetico di tale disposizione in realtà i miei campi e le fabbriche sono una parte minima devono soddisfare le esigenze personali e fornire le cose di cui gli altri hanno bisogno e che io scambio per esempio ho dei robot in grado di fabbricare e installare le barre di conduzione termica molti solariani dipendono da me in questo settore e la tua casa chiese travis quanto è grande la casa in sì evidentemente era una domanda appropriata perché bander assunse un'area raggiante molto grande credo una delle più vaste del pianeta si estende per chilometri in ogni direzione i robot che se ne occupano sono numerosi quanto quelli che occupano le migliaia di chilometri quadrati della tenuta in superficie non sfrutterai del tutto un'abitazione del genere osservò pelarat può darsi che vi siano sale in cui non sono mai entrato e con ciò i robot mantengono ogni stanza pulita in ordine e arieggiata ma venite da questa parte attraversarono una porta e si ritrovarono in un altro corridoio davanti a loro c'era un piccolo veicolo scoperto che si muoveva su dei binari con un cenno bander li invitò a salire a bordo e a uno a uno montarono sul veicolo non c'era abbastanza spazio per tutti e quattro più il robot ma pelarat e bliss si appiccicarono l'una all'altra per far posto a trevis bander si accomodò davanti con aria disinvolta affiancato dal robot e la vettura partì senza alcun intervento evidente sui comandi a parte i gesti occasionali e armoniosi delle mani del solariano in realtà questo è un robot a forma di veicolo spiegò bander con atteggiamento negligente e indifferente procedevano mantenendo un'andatura da parata reale superando porte che si aprivano al loro arrivo e si richiudevano subito dopo il passaggio negli arredi ogni sala era diversa dalle altre come se i robot avessero ricevuto l'ordine di realizzare le più svariate combinazioni di fronte a loro il corridoio era boio e anche alle loro spalle ma il punto in cui la vettura si trovava di volta in volta era sempre inondato da una specie di fredda luce solare anche le stanze si illuminavano all'apertura delle porte e in ogni occasione bander muoveva la mano con grazia e lentezza il viaggio sembrava interminabile di tanto in tanto si ritrovavano a percorrere una curva dal che si capiva che la residenza sotterranea si estendeva in due dimensioni no tre pensò travis a un certo punto mentre imboccavano un tratto in discesa e dovunque andassero robot decine ventine centinaia impegnati tranquillamente in attività di cui per travis non era facile stabilire la natura superarono la soglia di un salone in cui diverse file di robot erano chine silenziosamente su numerose scrivanie cosa fanno bander chiese pelorat si occupano della contabilità tengono resoconti statistici finanziari e di tante altre cose che lascio ben volentieri alle loro cure questa tenuta non è del tutto inattiva circa un quarto dell'area coltivabile è piantata a frutteto inoltre un decimo è costituito da campi di grano i frutteti sono il mio vero orgoglio coltiviamo la miglior frutta del mondo tantissimi tipi su solaria quando si parla di una vera pesca si parla di una pesca bander quasi nessun altro si prende la briga di coltivare pesche abbiamo 27 tipi di mele e così via i robot possono fornirvi tutte le informazioni che desiderate perché tanta frutta chiese travis certo non puoi mangiarla da solo me ne guarderei bene la frutta a me non piace granché viene barattata con altre tenute in cambio di cosa minerali per lo più non vi sono miniere degne di nota nella mia tenuta e poi ottengo in cambio tutto quanto è necessario per mantenere un sano equilibrio ecologico ho una notevole varietà di forme di vita animale e vegetale qui sono i robot a provvedere a tutto immagino osservò travis sì lo fanno molto bene tutto questo per un solo solariano per la tenuta e il suo equilibrio ecologico si dà il caso che io sia l'unico solariano a visitare se voglio le varie parti della tenuta il che fa parte della mia libertà assoluta gli altri solariani immagino manterranno un equilibrio ecologico locale e avranno paludi aree montuose o tenute litoranea ritengo di sì a volte simili argomenti sono oggetto di riunioni rese inevitabili dalle questioni interne del nostro mondo dovete riunirvi spesso chiese travis stavano percorrendo un passaggio piuttosto stretto e lungo senza stanze laterali forse era stato edificato in una zona che non consentiva la costruzione di qualcosa di dimensioni maggiori e serviva solo come collegamento fra due ali della residenza riflette travis fin troppo spesso quasi una volta al mese devo trascorrere parte del mio tempo in una delle riunioni dei comitati di cui sono membro ad ogni modo anche se la mia tenuta è priva di montagne o di paludi i miei frutteti orti botanici e vivai per i pesci sono i migliori del mondo ma mio caro amico e cioè bander disse pelorot presumo che tu non abbia mai lasciato la tua tenuta per visitare le altre certo che no sbottò bander con aria offesa ho detto presumo precisò timidamente pelorot ma in tal caso come puoi essere certo che i tuoi siano i migliori se non ti sei mai informato sullo stato degli altri se non li hai mai visti lo capisco dalla richiesta dei miei prodotti negli scambi commerciali e i prodotti industriali le fabbriche chiese travis ci sono proprietà dove si fabbricano attrezzi e macchinari come ho detto nella mia tenuta produciamo le barre di conduzione termica che del resto sono abbastanza semplici e i robot i robot vengono costruiti un po ovunque in tutta la storia della galassia solaria è sempre stata l'avanguardia nella progettazione e nella costruzione dei robot ed è all'avanguardia anche oggi immagino disse travis attento a non conferire alla frase un tono interrogativo oggi fece bander con chi si può competere oggi ormai solo solaria costruisce robot i vostri mondi non li costruiscono se ho interpretato bene quello che ho sentito nelle trasmissioni iperonda ma gli altri mondi spaziali lo ripeto non esistono più proprio sicuro credo che non esista più un solo spaziale nella galassia se si eccetto a solaria dunque non c'è nessuno che conosca la posizione della terra e a chi interesserebbe la posizione della terra per l'ora ti intervenne a me interessa è il mio campo di studio allora dovrei studiare qualcos'altro ribatte bander non so nulla della posizione della terra non mi risulta che qualcuno l'abbia mai conosciuta e non darei una scheggia di roba metallo per conoscerla la vettura si fermò e per un attimo travis pensò che il solariano si fosse offeso comunque fu un arresto dolce e bander scese dal veicolo con la solita espressione divertita invitando i tre a smontare nella sala in cui entrarono l'illuminazione era tenue e rimase più o meno così anche dopo che bander l'ebbe ravvivata con un gesto la sala i metteva in un corridoio laterale fiancheggiato da stanze più piccole in ognuna c'erano uno o due vasi decorati accanto ai quali si trovavano a volte degli oggetti simili a proiettori cosa sono bander domandò travis le camere mortuari e degli antenati travis pelorat si guardò intorno interessato immagino che qui siano inumate le ceneri dei tuoi avi se per inumate intendi seppellite nel terreno rispose bander non hai usato l'espressione esatta certo siamo sottoterra ma questa è la mia residenza e le ceneri si trovano in essa come noi nella nostra lingua diciamo che le ceneri sono accasate o incasate esitò un istante quindi aggiunse casa è un termine arcaico che significa residenza travis si guardò intorno affrettatamente e questi sono tutti i tuoi antenati quanti sono quasi 100 rispose il solariano orgoglioso 94 per la precisione certo i più vecchi non sono solariani nel senso corrente della parola erano semplicemente maschi e femmine questi semi antenati sono stati posti in urne adiacenti dai loro discendenti immediati naturalmente io non vado mai nelle loro camere sarebbe vergognifero perlomeno il termine solariano è questo e non conosco l'equivalente in galattico può darsi che non esista e i film domandò bliss quelli sono proiettori vero diari rispose bander le storie delle loro vite scene dei predecessori nelle parti della tenuta che prediligevano si può dire quindi che non muoiono in tutti i sensi una parte di loro rimane io sono libero di unirmi ai ricordi quando desidero posso guardare tutti i film che voglio ma non quelli vergogniferi bander distolse lo sguardo no del resto abbiamo tutti questa macchia nella nostra ascendenza è una sventura comune anche gli altri solariani hanno camere mortuari chiese travis sì ma le mie sono decisamente le migliori le più elaborate e quelle conservate in modo perfetto la tua camera è pronta chiese travis certo è già stata costruita e completata quando ereditato la tenuta è stato il mio primo compito e quando sarò ridotto in cenere per essere poetici il mio successore come primo dovere provvederà all'allestimento di una sua camera mortuaria hai un successore l'avrò al momento opportuno la mia vita è lungi dall'essere esaurita quando dovrò partire vi sarà un successore adulto sufficientemente maturo da apprezzare la tenuta e dotato di lobby ben sviluppati per la trasduzione energetica un discendente immagino certo ma se accadesse una disgrazia chiese travis anche su solaria vi saranno incidenti e disgrazie no che succede se un solariano viene ridotto in cenere prematuramente e non ha un successore che prende il suo posto o perlomeno un successore abbastanza maturo capita raramente fra i miei antenati è successo una sola volta comunque basta ricordarsi che vi sono altri successori in attesa di tenute alcuni sono abbastanza maturi per ereditare ma hanno genitori ancora giovani per generare un secondo discendente e vivere finché sia maturo per la successione in caso di perdita prematura uno di questi successori vecchi ma giovani come sono chiamati qui riceverà la mia tenuta chi provvede all'assegnazione abbiamo un comitato direttivo che tra le sue scarse funzioni anche questa assegnazione di successori in caso di dipartita prematura il tutto si svolge olovisivamente ben inteso pelarat intervenne ma un momento se i solariani non si vedono di persona com'è possibile sapere che uno di loro è stato ridotto in cenere inaspettatamente o meno quando uno di noi viene ridotto in cenere l'energia nella sua tenuta viene a mancare se un successore non subentra immediatamente la situazione anormale viene infine individuata e si adottano misure correttive vi posso assicurare che il nostro sistema sociale funziona senza intoppi è possibile vedere parte di questi film chiese travis bander raggelò poi rispose sei scusato solo per la tua ignoranza quello che hai detto è brutale e osceno mi dispiace disse travis non voglio essere importuno ma ti abbiamo già spiegato che ci occorrono informazioni sulla terra alcuni dei tuoi film più vecchi secondo me dovrebbero risalire a un'epoca in cui la terra non era ancora radioattiva può darsi quindi che ci siano degli accenni delle informazioni non intendiamo violare la tua vita privata ma non potresti controllare i filmati o farli visionare ai tuoi robot per riferirci alla fine i dati importanti naturalmente se rispetti i nostri intenti e se ti fidi della nostra parola quando ti diciamo che faremo del nostro meglio per rispettare i tuoi sentimenti potresti lasciarceli vedere personalmente bander replicò gelido anche se non te ne rendi conto stai diventando sempre più offensivo comunque possiamo chiudere subito il discorso dal momento che non esistono film dei miei antenati semi umani non esistono la delusione di travis era sincera un tempo li avevamo ma credo siate in grado di immaginare cosa contenessero due semi umani interessati reciprocamente o addirittura bandersi schierì la voce e proseguì a fatica in contatto fisico ovviamente quel materiale degenerato è stato distrutto da un pezzo e quelli degli altri solariani distrutti ne sei sicuro sarebbe stata una follia evitare di distruggerli forse qualche solariano era un folle sentimentale o si è dimenticato di purgarli qualcosa in contrario se ti chiediamo di indicarci le tenute vicine bander fisso travis è stupito credi che gli altri saranno tolleranti come lo sono stato io né perché no bander ti accorgerai che non lo sono correremo il rischio no travis e adesso ascoltatemi bene tutti c'erano dei robot in vista e bander aveva corrugato la fronte che succede bander chiese travis di colpo inquieto è stato piacevole parlare con voi osservarvi in tutta la vostra stranezza è stata un'esperienza unica e mi ha deliziato ma non posso registrarla nel mio diario nel filmarla perché ho parlato con voi vi ho ascoltato vi ho condotto nella mia residenza nelle mie camere mortuarie tutte azioni disdicevoli noi non siamo solariani per voi altri abbiamo lo stesso valore di questi robot giusto è la giustificazione che uso con me stesso può darsi che per gli altri non sia una scusa valida e che importa sei completamente libero di fare quello che vuoi malgrado tutto la nostra libertà non è assoluta se fossi l'unico solariano del pianeta sarei completamente libero di compiere qualsiasi azione disdicevole ma ve ne sono altri e quindi pur se ci avviciniamo alla libertà ideale non la raggiungiamo su questo mondo ci sono 1200 individui che mi disprezzerebbero se sapessero quello che ho fatto se per questo non è necessario che lo vengano a sapere è vero me ne sono reso conto fin dal vostro arrivo l'ho tenuto presente mentre mi divertivo con voi gli altri non devono scoprire nulla bellora ti intervenne e se temi delle complicazioni quando visiteremo le altre tenute in cerca di informazioni sulla terra non diremo a nessuno di essere stati guidati è sottinteso bandar scosse il capo ho già rischiato abbastanza naturalmente non parlerò con nessuno di questo episodio e i miei robot non ne parleranno anzi ordinerò loro di dimenticare ogni cosa la vostra astronave verrà portata sottoterra e studiata nel caso possa contenere informazioni utili un momento protestò travis ma quanto tempo credi che possiamo aspettare mentre studierai la nostra astronave no è impossibile non è affatto impossibile perché ormai voi non potete più fare nulla mi dispiace vorrei parlare ancora con voi e discutere di altre cose ma la situazione sta diventando sempre più pericolosa no non è vero replicò travis deciso sì è vero piccolo semi umano temo sia giunto il momento di fare quello che i miei antenati avrebbero fatto subito devo uccidervi tutti e tre in superficie travis si girò di scatto verso bliss il volto della ragazza era inespressivo ma teso e i suoi occhi erano fissi su bandar con la massima intensità gli occhi di pelorot erano sbarrati increduli travis ignorando cosa avrebbe fatto o potesse fare bliss si sforzò di soffocare un senso atroce di smarrimento non tanto di fronte alla prospettiva di morire quanto al pensiero di morire senza sapere dove fosse la terra né perché avesse scelto gaia come futuro dell'umanità doveva guadagnare tempo disse cercando di mantenere la voce ferma e chiara ti sei dimostrato un solariano gentile cortese bandar non ti sei arrabbiato per questa nostra intrusione nel tuo mondo sei stato tanto premuroso da mostrarci la tua residenza e hai risposto alle nostre domande lasciandoci andare compiresti un'azione più consona al tuo carattere nessuno saprà che abbiamo fatto tappa su questo mondo e non c'è motivo perché noi torniamo siamo arrivati innocentemente solo in cerca di informazioni quel che dice è vero a mise bandar e finora vi ho concesso la vita anche se il vostro destino è stato segnato nell'istante stesso in cui siete penetrati nella nostra atmosfera entrando in contatto diretto con voi avrei potuto e anzi avrei dovuto uccidervi subito ordinando ai robot di sezionare i vostri corpi per ottenere qualche informazione interessante sulla fisiologia degli esterni non l'ho fatto ho ceduto alla mia curiosità e al mio carattere bonario ma ora basta non posso indugiare oltre ho già compromesso la sicurezza di solaria in effetti perché se per qualche debolezza mi lasciassi convincere a lasciarvi andare altri della vostra specie verrebbero sicuramente qui malgrado le vostre promesse comunque sappiate perlomeno una cosa la vostra morte sarà in dolore mi limiterò a scaldare leggermente i vostri cervelli disattivandoli non soffrirete ma cesserete di esistere alla fine dopo che sarete stati sezionati e studiati vi trasformerò in cenere con un lampo di calore e tutto si concluderà se dobbiamo morire disse travis ben venga una morte rapida in dolore ma perché ucciderci se non abbiamo commesso alcun reato il vostro arrivo è stato un reato e teoricamente no dal momento che non potevamo sapere di commetterlo e la società a definire cosa rappresenta un reato a voi potrà sembrare irrazionale arbitrario ma per noi non lo è questo è il nostro mondo e sul nostro mondo è nostro pieno diritto stabilire cosa sia punibile o meno stabilire che avete sbagliato e che meritate la morte bander sorrise come se fosse impegnato in una conversazione amena e proseguì non avete il diritto di lagnarvi appellandovi a virtù superiori tu hai un fulminatore un'arma che utilizza un raggio a microonde per produrre calore letale fa quello che anch'io intendo fare ma sono sicuro che agisca in modo più brutale e doloroso se non l'avessi scaricata e se non fossi così sciocco da consentirti libertà di movimento permettendoti di estrarla in un momento come questo non esiteresti a servirtene contro di me travis disse disperato evitando di guardare bliss per timore che l'attenzione di bander si spostasse su di lei ti chiedo di non farlo come atto di misericordia assumendo un'aria improvvisamente truce il solariano replicò prima devo essere misericordioso con me stesso il mio mondo perché questo avvenga voi dovete morire sollevò la mano e immediatamente su travis calò l'oscurità le tenebre lo inghiottirono e per un attimo assurdo travis pensò è forse questa la morte come se i pensieri avessero generato un eco sentì mormorare è questa la morte era la voce di pellorat travis provò a parlare e si accorse di riuscirci perché questa domanda chiese provando un enorme sollievo il fatto stesso di poterla formulare dimostra che non sei morto ci sono vecchie leggende su una vita dopo la morte sciocchezze borbotto travis bliss sei con noi ragazza non ci fu risposta di nuovo pellorat fece eco bliss bliss che è successo golan e bander deve essere morto e per questo che è venuta a mancare l'energia nella tenuta e che le luci si sono spente ma come vuoi dire che è stata bliss credo di sì spero che l'abbia fatto rimanendo in colume travis era in ginocchio e brancolava nell'oscurità assoluta della residenza sotterranea se si escludevano i baggiori occasionali invisibili ad occhio nudo degli atomi radioattivi che si spaccavano nelle pareti poi la sua mano si posò su qualcosa di caldo e morbido tastò e non riconosce una gamba la strinse era troppo piccola per appartenere a bander bliss la gamba scalciò costringendo travis ad abbandonare la presa bliss di qualcosa sono viva rispose la voce della ragazza stranamente distorta ma stai bene no al che la luce tornò a illuminare l'ambiente circostante debole come prima le pareti emanavano un lieve scintillio incostante bander era cartocciato in un ammasso indistinto lì accanto bliss dirigeva la testa la ragazza sollevò lo sguardo verso travis e pelerat il solariano morto annunciò le guance bagnate di lacrime perché piangi domandò travis stupito non dovrei dopo aver ucciso un essere vivente dotato di intelligenza e il raziocinio non è la mia intenzione travis si piegò per aiutarla ad alzarsi ma lei lo respinse allora pelerat le si inginocchiò accanto e disse con dolcezza subless nemmeno tu puoi riportarlo in vita raccontaci l'accaduto la ragazza si lasciò aiutare e rispose con voce spenta gaia è in grado di fare quello che bander era in grado di fare gaia può usare l'energia sparsa dell'universo e trasformarla in qualsiasi azione fisica mediante il semplice impiego dell'energia mentale e lo sapevo disse travis sforzandosi di assumere un atteggiamento che la calmasse anche se non sapeva di preciso come riuscirci ricordo benissimo il nostro incontro nello spazio quando tu o meglio gaia ha bloccato la nostra astronave ho pensato a quell'episodio quando bander mi ha bloccato dopo avermi sottratto le armi ha bloccato anche te ma ero certo che ti saresti potuta liberare volendo no se avessi provato non ci sarei riuscita quando la vostra astronave era bloccata da meno e gaia disse bliss mesta il mio mondo e io eravamo fusi in un'unica entità adesso ci separa una distanza iperspaziale che limita tanto la mia efficienza quanto quella di gaia e poi gaia ha certi poteri grazie alla forza complessiva di tutte le sue menti malgrado questo tutti i nostri cervelli uniti non possiedono i lobi di trasduzione che invece questo solariano ha non siamo in grado di utilizzare l'energia con la precisione e l'efficacia dimostrate da lui come vedi non posso far sì che l'illuminazione sia più intensa e non so per quanto tempo ancora riuscirò a tenere le luci accese senza stancarmi troppo bander era capace di fornire energia tutta la tenuta perfino quando dormiva ma tu l'hai neutralizzato perché non immaginava che avessi certi poteri e perché io non ho fatto nulla che potesse rivelarli così non sospettava di me la sua attenzione era concentrata interamente su di te travis perché eri tu che portavi le armi anche questa volta è stato provvidenziale che ti sia armato e io ho dovuto attendere l'occasione giusta per fermarlo con un unico colpo rapido inaspettato quando stava per ucciderci quando la sua mente era rivolta alla nostra morte su di te e ho potuto sferrare il colpo e ha funzionato a meraviglia come puoi dire una cosa tanto crudele travis io intendevo solo bloccarlo impedirgli di usare il suo trasduttore quando avesse provato a eliminarci se si fosse accorto di non poterlo fare ma che la luce cominciava a spegnersi ci sarebbe rimasto di sasso a quel punto avrei aumentato la stretta e lo avrei fatto sprofondare in un lungo sonno sospendendo l'intervento sul trasduttore l'energia non si sarebbe interrotta e noi saremmo potuti uscire da questa residenza per raggiungere l'astronave e abbandonare il pianeta e se il mio piano avesse funzionato al suo risveglio avrebbe dimenticato tutto quello che era successo dal momento in cui ci aveva visti Gaia non aveva alcun desiderio di uccidere dato che era possibile ottenere lo stesso risultato senza violenza. Cos'è andato storto Bliss? chiese Pellerat sottovoce. Non avevo mai incontrato nulla che sfomigliasse a quei lobby di trasduzione e mi mancava il tempo per manipolarli adeguatamente e studiarne il funzionamento. Ho colpito con una certa violenza per neutralizzarli ed è evidente che non era quella l'azione giusta. L'energia si riversa di continuo nei lobby in gran quantità ma in condizioni normali il cervello si autoprotegge riversandola all'esterno costantemente. Quando è interrotto lo sfogo l'energia si è accumulata subito nei lobby e in una frazione di secondo la temperatura interna è salita. Le proteine del cervello si sono disgregate in una reazione esplosiva e Bander è morto. Le luci si sono spente io ho tolto immediatamente la stretta ma era troppo tardi. Mi sembra che non avresti potuto fare diversamente cara. Osservò Pellerat. Magra consolazione dal momento che l'ho ucciso. Bander stava per uccidere noi insistette Travis. Un motivo valido per bloccarlo non per eliminarlo. Travis esitò. Non voleva esternare l'impazienza che provava perché non intendeva ferire Bliss già alquanto sconvolta. In fin dei conti era lei l'unica difesa di cui disponevano contro un mondo fortemente ostile. Bliss disse Travis è ora di guardare al di là di Bander. Dal momento che è morto in tutta la tenuta è venuta a mancare l'energia. Prima o poi gli altri solariani se ne accorgeranno e probabilmente presto. Saranno costretti a indagare e non credo che riuscirai a tener testa a un attacco combinato. Come tu stessa hai ammesso non potrai fornire ancora per molto l'energia limitata che riesci a darci adesso. È importante raggiungere la superficie e la nostra astronave senza perdere un solo istante. Ma come possiamo fare? Disse Pellerat. Abbiamo percorso parecchi chilometri seguendo un itinerario tortuoso. Scommetto che qui sotto siamo in un vero e proprio labirinto. Non saprei in che direzione andare per tornare in superficie e del resto il mio senso dell'orientamento è sempre stato piuttosto scarso. Guardandosi intorno Travis si rese conto che Pellerat aveva ragione. Ci saranno molte aperture che conducono in superficie. Non è necessario che troviamo proprio quella da cui siamo entrati. Ma non sappiamo dove siano. Come facciamo? Travis si rivolse di nuovo a Bliss. Non percepisci mentalmente nulla che possa aiutarci a individuare la via da seguire. I robot della tenuta sono tutti disattivati. Percepisco una debolissima traccia di vita subintelligente sopra di noi ma che la superficie fosse lassù lo sapevamo già. Beh allora dovremo cercare un'uscita disse Travis. Ci muoveremo a casaccio osservò Pellerat sgomento. Non ce la faremo mai. Può darsi di sì Yanov disse Travis. Se tenteremo avremo almeno una piccola possibilità. Restando qui saremo in trappola. Coraggio una probabilità è sempre meglio della rassegnazione. Un momento intervenne Bliss. Sì in effetti percepisco qualcosa. E cosa chiese Travis. Una mente. Un'intelligenza. Sì ma limitata credo. Quello che mi arriva con maggiore chiarezza comunque è qualcos'altro. Cioè? Chiese Travis frenando la propria impazienza. Un senso di paura. Una paura tremenda. Mormorò Bliss. Travis si guardò intorno con aria mesta. Sapeva da dove fossero entrati ma non si illudeva di riuscire a percorrere in senso inverso la strada fatta. Dopotutto non aveva prestato molta attenzione alle curve e alle deviazioni. Nessuno di loro aveva immaginato di dover tornare indietro senza aiuto e in quella debole luce tremola. Credi di poter attivare la vettura Bliss? Chiese Travis. Sì credo di sì Travis ma questo non significa che sia in grado di guidarla. Secondo me disse Pellerat. Bander la guidava mentalmente. Non l'ho visto toccare un solo comando mentre si muoveva. Bliss disse con dolcezza. Certo Pell la guidava mentalmente ma in che modo? In pratica era come se usasse dei comandi manuali. Io non conosco il funzionamento e quindi siamo al punto di partenza ti pare? E potresti provare. La sollecitò Travis. Se proverò dovrò concentrarmi unicamente su questo e dubito di riuscire a tenere accese le luci. La vettura non ci sarà di alcuna utilità al buio anche se riuscirò a guidarla. Neh e allora non ci resta che incamminarci a piedi. Temo di sì. Travis osservò l'oscurità fitta e sinistra al di là dell'isola di luce che arrischierava le immediate vicinanze. Non si vedeva nulla. Non si sentiva nulla. Percepisci ancora quella mente spaventata Bliss? Chiese Travis. Sì sai dirci dov'è. Puoi guidarci in quella direzione. La percezione mentale è una linea retta. Non viene deviata in maniera apprezzabile dai corpi materiali per cui posso dire che proviene da quella parte. Bliss indicò un punto della parete in ombra e disse. Ma non possiamo attraversare la parete per raggiungerla. Al massimo possiamo seguire i corridoi e cercare di stabilire in che direzione la percezione diventa più forte. In parole povere sarà come fare il gioco dell'acqua e del fuoco. Beh cominciamo subito. Per l'ora tesito. È un attimo Golan. Siamo proprio sicuri di voler trovare questa mente a chiunque appartenga. Se è spaventata probabilmente quello che la spaventa farà paura anche a noi. Travis scosse la testa spazientito. Non abbiamo scelta Yanov. È una mente spaventata o no e può darsi che sia disposta a indicarci come arrivare in superficie o che possiamo costringerla a indicarci il modo. È Bander. Lo abbandoniamo qui. Così. Fece poi la ratta a disagio. Travis gli prese il gomito. Andiamo Yanov. Non possiamo fare diversamente. Prima o poi qualche solariano rimetterà in funzione la residenza e un robot troverà Bander per occuparsi di lui. Dopo che noi saremo al sicuro mi auguro. Lasciò che Bliss li precedesse. La luce nello spazio intorno a lei era sempre più intensa e la ragazza si fermava a ogni porta, a ogni biforcazione del corridoio, cercando di captare il punto d'origine del senso di paura. A volte varcava una soglia o seguiva una curva per tornare indietro e provare un'altra rutta sotto lo sguardo impotente di Travis. Quando Bliss prendeva una decisione e avanzava in una direzione particolare, la luce di fronte a lei si accendeva. Travis notò che ora sembrava un po' più vivida. O perché i suoi occhi si stavano abituando a quel minimo chiarore o perché la ragazza aveva imparato a sfruttare la trasduzione con maggiore efficacia. A un certo punto, passando accanto a una delle barre metalliche inserite nel terreno, Bliss vi appoggiò la mano e ci fu un aumento evidente della luminosità. Bliss annui tra sé come se fosse soddisfatta. Non c'era nulla che avesse un aspetto familiare. Senza dubbio si trovavano in settori dell'enorme residenza sotterranea che prima non avevano attraversato. Travis continuava a cercare corridoi che si impennassero bruscamente in salita e studiava i soffitti delle sale in cerca di una botola. Niente da fare. La mente spaventata rimaneva la loro unica possibilità di salvezza. Procedevano immersi in un silenzio interrotto soltanto dal rumore dei propri passi. Immersi nell'oscurità, se si accettuava il chiarore circoscritto intorno a loro. Unici esseri viventi erano circondati dalla morte. Di tanto in tanto scorgevano la sagoma indistinta di un robot, seduto in piedi nell'ombra, comunque immobile. Una volta videro un robot steso su un fianco, braccia e gambe in posizioni goffe e strane. Quando si era interrotta l'energia doveva aver perso l'equilibrio, pensò Travis. Bander, vivo o morto, non poteva intervenire sulla forza di gravità. Forse in tutta quella smisurata tenuta i robot offrivano uno spettacolo simile e sarebbe stato proprio quello il particolare notato in breve tempo dalle tenute confinanti. O forse no, riflettete un tratto Travis. I solariani sapevano quando uno di loro stava per morire di vecchiaia e di decadimento fisico. In questo caso, il mondo sarebbe stato in preallarme, pronto all'evenienza. Bander, invece, era morto all'improvviso e nel fiore degli anni, senza che gli altri potessero prevedere la sua scomparsa. Dunque nessuno poteva saperlo e nemmeno aspettarselo. Nessuno avrebbe tenuto gli occhi aperti per rilevare la cessazione dell'energia nella tenuta. Eh, ma no. Travis respinse quell'ondata di ottimismo per non generare pericolosi accessi di fiducia. I solariani avrebbero notato l'interruzione di ogni attività e sarebbero intervenuti immediatamente. Erano troppo interessati alla successione per lasciar via libera alla morte. Sconsolato, Pelerat burbottò. La ventilazione non è più in funzione. In un sotterraneo del genere la ventilazione è fondamentale. Ed era Bander a fornire l'energia. Adesso si è bloccato tutto. Non importa, Yanov, disse Travis. In questo labirinto disponiamo di tanta aria da resistere per anni. E comunque siamo in un ambiente chiuso. Psicologicamente non è salutare. Per favore, niente crisi di claustrofobia. Bliss, ci stiamo avvicinando. Siamo molto vicini, Travis. La sensazione è più intensa e credo di aver individuato con precisione la direzione da seguire. Bliss avanzava piuttosto svelta, con sempre meno esitazioni, quando si trattava di stabilire il percorso dato. La, la, annunciò, è molto forte. Travis osservò asciutto. Adesso riesco a sentire anch'io. Tutti e tre si fermarono trattenendo il respiro. In effetti si udivano dei gemiti spezzati ogni tanto da singhiozzi. Entrarono in una sala e, mentre le luci si accendevano, videro che, a differenza delle stanze incontrate finora, quest'ultima era arredata con una profusione di mobili e colori. Al centro c'era un robot leggermente chino, le braccia tese in quello che sembrava un gesto affettuoso. Un robot del tutto immobile, naturalmente. Alle sue spalle ci fu uno svolazzare di indumenti, poi un occhio terrorizzato fece capolino su un lato e i singhiozzi ricominciarono. Travis si precipitò dietro il robot e, dal lato opposto, guizzò urlando una figuretta. Incespicò, cadde a terra e rimase lì, coprendosi gli occhi mentre scalciava in tutte le direzioni come se volesse tenere a distanza chissà quale minaccia e urlava più non posso. Fu l'osservazione superflua di Bliss. Travis si ritrasse perplesso. Che cosa ci faceva lì un bambino? Bander si era vantato tanto della propria solitudine assoluta, l'aveva ribadita con tale insistenza. Pellarat, meno propenso ad affidarsi a un ragionamento rigoroso di fronte a un avvenimento oscuro, intuì immediatamente la soluzione e disse «è il suo successore, immagino». «Il figlio di Bander», hanno i Bliss. «Ma sembra troppo giovane per succedergli. I solariani dovranno trovarne uno altrove». Osservò il bambino con una dolcezza ipnotica mentre i lamenti si attenuavano. Lui aprì gli occhi e guardò Bliss. I pianti si erano ridotti a qualche breve gemito. A sua volta la ragazza murmurava qualcosa. Suoni carezzevoli, parole spezzate che di per sé non significavano nulla ma che servivano a rafforzare l'effetto lenitivo dei suoi pensieri. Sembrava che testasse la mente sconosciuta del bambino cercando di portare un po' di ordine nel suo sconvolgimento interiore. Lentamente, senza staccare lo sguardo da Bliss, il bambino si alzò, vacillò un istante e si lanciò verso il robot silenzioso. Abbracciò una gamba metallica e cercò avidamente la sicurezza che il semplice contatto doveva trasmettergli. «Questo robot è la sua bambinaia o il suo custode. I solariani non si occupano dei propri simili neanche quando si tratta di un figlio», disse Travis. «Ed è un bambino ermafrodita», aggiunse Pelleroth. «Eh, per forza», disse Travis. Bliss, completamente concentrata sul piccolo solariano, gli si avvicinò ad agio, le mani parzialmente sollevate con i palmi rivolti verso di sé, per rendere chiaro che non aveva intenzione di afferrarlo. Il bambino la osservava in silenzio, aggrappato alla gamba del robot. «Su, piccolo, è tutto a posto», mormorò Bliss. «Sei bravo, dolce, tranquillo, al sicuro», si interruppe e disse sottovoce senza voltarsi. «Pell, parlagli nella tua lingua. Diggi che siamo robot venuti a prenderci cura di lui perché si è interrotta l'energia». «Robot!» esclamò Pelleroth ascioccato. «E dobbiamo presentarci così? Lui non ne ha paura e non ha mai visto un essere umano, anzi, forse non può nemmeno concepirne l'esistenza». «Non so se sarò in grado di esprimere certi concetti», disse Pelleroth. «Non so quale sia l'equivalente in lingua arcaica di robot». «Allora di robot, Pell, se non funziona di cosa di ferro, cerca di parlargli come puoi». Lentamente, una parola alla volta, Pelleroth parlò in arcaico. Il bambino lo fissò corrugando la fronte, come se si sforzasse di capire. Travis intervenne. «Visto che ci sei, forse potresti chiedergli come si fa a uscire di qui». «No», disse Bliss. «Non ancora. Prima la fiducia, poi le informazioni». Il bambino guardò Pelleroth, lasciò andare la gamba del robot lentamente e parlò con una vocetta acuta. «Va troppo in fretta per me», silagnò Pelleroth. «Chiedigli di ripetere piano», disse Bliss. «Sto facendo del mio meglio per calmarlo e allontanare le sue paure». Pelleroth ascoltando di nuovo disse. «Credo che ci stia chiedendo perché Gemby si è fermato. Gemby deve essere il robot». «Meglio esserne certo, Pell, chiedi». Pelleroth parlò, ascoltò, poi disse. «Eh sì, Gemby è il robot. Il bambino si chiama Fallon». «Bene». Bliss fece un sorriso radioso al bambino, puntò il dito nella sua direzione e disse «Fallon, bravo Fallon, Fallon è coraggioso». Quindi si posò una mano sul petto. «Bliss». Il bambino sorrise. Era molto carino quando sorrideva. «Bliss», disse facendo similare la S in modo non proprio perfetto. Intervene Travis. «Bliss, non puoi attivare il robot. Forse puoi dirci quello che ci preme sapere. Però Ratt è in grado di parlargli con la stessa facilità con cui riesce a parlare al bambino». «No, sarebbe un errore», rispose Bliss. «Il compito primario del robot è proteggere il bambino. Una volta riattivato ci noterà subito, giudicandoci come esseri umani estranei e forse attaccandoci all'istante. E in tal caso sarei costretta a disattivarlo di nuovo. Non otterremmo alcuna informazione e per il bambino sarebbe un altro trauma. E l'unico genitore che conosce non posso farlo». «Ma c'è stato detto che i robot non possono fare del male agli esseri umani», replicò Pellor Atmid. «È vero», ammise Bliss, «ma non sappiamo che tipo di robot abbiano progettato i solariani. Se anche avesse una programmazione innocua, si ritroverebbe a scegliere tra il bambino affidato e tre oggetti estranei alla tenuta. Forse non riconoscerebbe noi degli esseri umani, ma solo degli intrusi illegittimi. Mi pare ovvio, sceglierebbe il bambino e noi tre diventeremmo dei bersagli, no?» Tornò a rivolgersi al bambino. «Fallum», Bliss. Poi indicò «pel», «trev», «pel», «trev», ripete dolce il bambino. Bliss continuò ad avvicinarsi tendendo piano le mani. Il bambino la osservò, quindi arretrò di un passo. «Calmati, Fallum», disse lei. «Buono, Fallum», «tu, care, Fallum», «bravo», «bravo, Fallum». Fece un passo verso di lei e Bliss sospirò. «Bene, Fallum». Gli toccò un braccio nudo perché Fallum, come il genitore, portava solo una lunga veste aperta sul davanti, con un perizoma. Un tocco delicato. Bliss retrasse le dita, attese, poi toccò ancora, accarezzando ad agio. Il bambino socchiose gli occhi sotto il forte effetto calmante della mente della ragazza. Le mani di Bliss salirono lentamente, sfiorandogli le spalle, il collo, le orecchie, insinuandosi sotto i lunghi capelli castani in un punto della nuca. Bliss staccò le mani e annunciò. «I lobi di trasduzione sono ancora piccoli. La scatola cranica non si è ancora sviluppata. C'è solo uno strato abbastanza spesso di pelle nei due punti, che alla fine si dilaterà all'esterno e verrà protetto da una formazione ossea quando i lobi saranno cresciuti del tutto. Il che significa che per il momento il bambino non può controllare la tenuta né attivare il suo robot personalmente. Pell, chiedegli quanti anni ha». Dopo una breve conversazione, Pell Ratt disse «Ha 14 anni, se non ho capito male». «Per me ne dimostra 11». «Se mai», commentò Travis. Bliss intervenne. «Può darsi che la durata dell'anno usato su questo mondo non corrisponda all'anno galattico standard e poi gli spaziali sono noti per la loro longevità e se i solariani non fanno eccezione può darsi che, oltre alla longevità, siano caratterizzati da una fase di sviluppo più lunga della media. Quindi non possiamo basarci soltanto sull'età». Travis fece schioccare la lingua spazientito. «Basta coi discorsi antropologici. Dobbiamo raggiungere la superficie e dal momento che ci troviamo di fronte a un bambino può darsi che stiamo solo sprecando tempo. E se non conoscesse il modo per andare su, se non fosse mai andato all'esterno». «Pel», disse Bliss. Pelerat capì subito cosa volesse, al che seguì una conversazione particolarmente lunga e intensa con Fallon. Infine Pelerat riferì. «Il bambino sa cos'è il sole. Dice di averlo visto. Ha visto anche gli alberi, credo. Non mi è parso molto sicuro del significato della parola, almeno della parola usata da me». «D'accordo, Yanov, a noi Travis. Ma veniamo al dunque, per favore. Se ci porterà in superficie, noi forse riusciremo ad attivare il suo robot». «A dire il vero, io ho detto che lo riattiveremo. Credete che ne saremo capaci?» «A questo penseremo in seguito», rispose Travis. «Allora ha detto che ci guiderà?» «Sì, ecco, ho pensato che il bambino lo avrebbe fatto più volentieri, promettendogli di riattivare il robot. C'è il rischio di deluderlo, immagino». «Su, muoviamoci», disse Travis. «Tutte queste discussioni saranno inutili se ci sorprenderanno qui sottoterra». Pellerat disse qualcosa al bambino, che cominciò a camminare e poi si fermò voltandosi verso Bliss. Lei tese la mano e i due si avviarono affiancati. «Sono il suo nuovo robot», sorrise la ragazza. «Mi sembra abbastanza soddisfatto», commentò Travis. Fallon procedeva spedito e per un attimo Travis si chiese se fosse felice solo grazie all'intervento di Bliss o se fosse anche eccitato al pensiero di uscire in superficie, di avere tre nuovi robot o magari dalla prospettiva della riattivazione dei gembi. Non che avesse importanza. L'importante era che Fallon li guidasse fuori di lì. Il bambino si muoveva senza esitazioni e quando arrivavano a una biforcazione girava deciso. Sapeva davvero dove andava o si trattava solo di indifferenza infantile. Stava facendo un gioco senza uno scopo preciso. Ma dalla lieve sensazione di fatica Travis si rese conto che adesso procedevano in salita e Fallon, saltellando in testa al gruppetto, impettito, prese a indicare dinanzi e a far fuggiare qualcosa. Travis guardò Pellaroth che schiarendosi la voce e disse «Penso che stia dicendo porta». «Eh, speriamo che tu abbia capito bene». Il bambino si staccò correndo da Bliss. Indicò un tratto di pavimento che sembrava più scuro dell'area circostante. Vi balzò sopra, saltando più volte, poi si girò con un'espressione costernata e fece udire di nuovo alla sua vocetta stridula. Con una smorfia Bliss disse «Dovrò fornirla io l'energia. Questo compito mi sta logorando». Il suo viso arrossì leggermente mentre le luci si affievolivano, ma una porta si aprì di fronte a Fallon che scoppiò a ridere deliziato. Il bambino si precipitò all'esterno, seguito dai due uomini. Bliss uscì per ultima e si voltò mentre le luci si spegnevano e l'apertura si richiudeva. Poi si fermò per riprendere fiato. L'aria affaticata, bene, a noi Pelarat, siamo fuori. E l'astronave dov'è? Il chiarore crepuscolare si riversava su di loro. Dovrebbe essere in quella direzione, mi sembra, borbottò Travis. Sembra anche a me, convenne Bliss. Muoviamoci, li esortò prendendo Fallon per mano. Non si udiva alcun rumore, a parte il frusciare prodotto dal vento e i richiami degli animali. A un certo punto passarono accanto a un robot immobile ai piedi di un albero che stringeva un oggetto dalla funzione non ben identificabile. Pelarat incuriosito, mosse un passo in direzione del robot, ma Travis lo trattenne. Non sono affari nostri, Yanov, dobbiamo sbrigarci. Superarono un altro robot, più lontano del primo, e videro che era caduto a terra. Ci sono robot disseminati in ogni direzione per chissà quanti chilometri, immagino, disse Travis. Poi aggiunse in tono esultante. Ah, ecco l'astronave! Frettarono il passo, poi si arrestarono di colpo. Fallon emise un gridolino eccitato. Vicino all'astronave era posato uno strano velivolo di linea primitiva munito di un motore che doveva sprecare parecchia energia e che aveva un aspetto per nulla robusto. Accanto al velivolo, tra il gruppetto di esterni e la loro astronave, c'erano quattro figure umane. Eh, troppo tardi, disse Travis. Abbiamo perso troppo tempo. E adesso? Con espressione interrogativa, Pelarat disse. Quattro solariani? Impossibile. Non si avvicinerebbero l'un l'altro così. Questi sono immagini olografiche. Sono immagini del tutto corporee, ne sono certa, rispose Bliss. Ma non sono solariani. Le loro menti parlano chiaro. Quelli sono robot. Beh, avanti allora, disse Travis stancamente. Riprese ad avanzare verso l'astronave, ad andatura tranquilla, e gli altri lo seguirono. Cosa intendi fare? Chiese Pelarat un po' allarmato. Eh, se sono robot, devono obbedire agli ordini. I robot li stavano aspettando e Travis li studiò a mano a mano che la distanza diminuiva. Eh sì, dovevano essere robot. Le facce, che sembravano fatte effettivamente di carne rivestita di pelle, erano stranamente inespressive. Indossavano divise che non lasciavano scoperto un solo centimetro di corpo se si escludiva il volto. Perfino le mani erano nascoste da sottili guanti opachi. Travis fece un gesto brusco ed eloquente, invitandole a farsi da parte. I robot non si mossero. Sotto voce, Travis disse a Pelarat. Traducilo in parola a Yanov e sii deciso. Pelarat si schierì la voce e in un insolito tono baritonale scandì le parole sottolineandole con un gesto identico a quello fatto da Travis. Al che uno dei robot, che forse era leggermente più alto degli altri, replicò qualcosa con voce fredda e incisiva. Pelarat si rivolse all'amico. Se non sbaglio, ha detto che siamo solo degli esterni. Digli che siamo esseri umani e che devono obbedirci. Allora il robot parlò, in un galattico un po' particolare ma comprensibile. Ti capisco, esterno. Parlo galattico. Siamo robot guardiani. Dunque avrai sentito quel che ho detto. Siamo esseri umani e voi dovete obbedirci. Siamo programmati per obbedire soltanto ai signori, esterno. Voi non siete signori, non siete solariani. Il signore Bander non ha risposto alla normale procedura di contatto e noi siamo venuti a indagare direttamente. È nostro compito. Abbiamo trovato una nave spaziale di costruzione non solariana, numerosi esterni presenti e tutti i robot di Bander disattivati. Dov'è il signor Bander? Travis scosse il capo e rispose lentamente. Non sappiamo nulla di quanto vai dicendo. Lo computer della nostra astronave funziona in modo difettoso. Ci siamo ritrovati nei pressi di questo pianeta sconosciuto senza volerlo. Siamo scesi per verificare la nostra posizione e abbiamo trovato tutti i robot disattivati. Ma non abbiamo idea di che cosa possa essere successo. Non è una dichiarazione credibile. Se tutti i robot della tenuta sono disattivati e manca completamente l'energia, il signor Bander deve essere morto. È illogico supporre che la sua morte sia coincisa casualmente col vostro arrivo. Deve esserci un collegamento casuale. Travis ribatté per confondere le acque e affermare la propria estraneità e ignoranza, quindi anche la propria innocenza. L'energia non manca. Tu e gli altri robot siete in funzione. Il loro robot replicò. Siamo robot guardiani. Non apparteniamo a nessun signore. Siamo di tutto il mondo. Non ci controllano i signori e andiamo ad alimentazione nucleare. Ti chiedo di nuovo, dov'è il signor Bander? Travis si guardò intorno. Pellerat sembrava in apprensione. Bliss aveva le labbra serrate ma era calma. Fallon tremava ma la mano di Bliss gli si posò su una spalla e il piccolo solariano parve irrigidirsi. La sua faccia divenne inespressiva. Un intervento sedativo di Bliss. Il robot insistette. Per l'ultima volta. Dov'è il signor Bander? Non lo so, rispose Travis accigliato. Il robot fece un cenno con la testa e i due suoi compagni si affrettarono ad allontanarsi. Il robot disse. I miei compagni e guardiani perquisiranno la residenza. Nel frattempo voi sarete trattenuti e interrogati. Consegnami gli oggetti che porti al fianco. Travis arretrò di un passo. Sono innocui. Non muoverti più. Non ti ho chiesto se sono innocui o pericolosi. Ti ho solo chiesto di darmeli. No. E la robot avanzò e il suo braccio scattò troppo velocemente perché Travis potesse rendersi conto di quanto accadeva. La mano del robot gli calò sulla spalla, strinse, spinse verso il basso. Travis cadde in ginocchio. Il robot disse. Quegli oggetti. Tese l'altra mano. No. Anzi mo Travis. Bliss si lanciò in avanti e strasse il fulminatore dal fodero prima che Travis, bloccato dal robot, potesse impedirglielo e consegnò l'arma al guardiano. Ecco, se mi concedi un istante avrai il secondo oggetto. Adesso lascia andare il mio compagno. Stringendo le armi, il robot arretrò e Travis si raddrizzò lentamente massaggiandosi vigorosamente alla spalla sinistra. Aveva il viso contratto in una smorfia di dolore. Fallon piagnucolava sommessamente e Pelerat, distinto, lo prese in braccio stringendolo a sé. Fu ribonda, Bliss, disse a Travis con voce sibilante. Perché ti opponi a lui? Può ucciderti con un dito. Travis digregnò i denti, soffocando un'imprecazione. Perché non ti occupi di lui, eh? Ci sto provando, ma occorre tempo. La sua mente è compatta, rigidamente programmata e non offre appigli. Devo studiarla. Cerca di tergiversare. Non studiarla, distruggila, ribatte Travis con un filo di voce. Bliss lanciò una rapida occhiata al robot. Stava esaminando attentamente le armi, mentre l'altro robot sorvegliava gli esterni. Non sembravano interessati ai sussurri che Travis e la ragazza si scambiavano. No, niente distruzione, disse Bliss. Sul primo mondo abbiamo ucciso un cane e ne abbiamo fatto soffrire un altro. Sai benissimo quello che è successo su questo. Altra rapida occhiata ai guardiani. Gaia non massacra inutilmente, né la vita né l'intelligenza. Mi occorre tempo per trovare una soluzione incruenta. Indietreggiò e fissò il robot che disse. Questi oggetti sono armi. No, disse Travis. Sì, intervenne Bliss. Ma non sono più funzionanti. Sono del tutto prive di carica energetica. Davvero? Nei perché portate delle armi senza energia. Forse non è vero che sono scariche. Il robot ne strinse una nel pugno, sistemando con precisione il pollice. E così che si attiva? Sì, rispose Bliss. Aumentando la pressione si attiverebbe, se non fosse priva di energia. Invece? Ah sì, il robot puntò l'arma su Travis. Dunque se adesso l'attivassi non funzionerebbe? No, non può funzionare, rispose Bliss. Travis era pietrificato, incapace di aprire bocca. Aveva provato il fulminatore dopo che Bander lo aveva scaricato e in effetti l'arma era del tutto inservibile, ma il robot stava impugnando la frusta neuronica e quella Travis non l'aveva provata. Bastava che contenesse ancora un residuo minimo di energia e sarebbe stata sufficiente a stimolare i centri nervosi del dolore. Travis avrebbe vissuto un'esperienza assai più spiacevole e dolorosa della stretta d'acciaio del robot. Anzi, la stretta gli sarebbe sembrata un abbraccio affettuoso. All'accademia navale, come tutti i cadetti, Travis si era dovuto sottoporre a una lieve sversata neuronica, tanto per sapere cosa fosse. Gli era bastato e non aveva alcuna voglia di ripetere l'esperienza. Il robot attivò l'arma e per un attimo Travis si irrigidì istintivamente, rilassandosi un istante dopo. Anche la frusta era completamente scarica. Il robot fisso Travis, quindi getto via le armi. Come mai sono scariche? Perché portarle con sé, visto che non sono di alcuna efficacia? Eh, sono abituato al peso e le porto con me sempre, rispose Travis. Questo è assurdo, ripetì il robot. Consideratevi tutti in stato di fermo. Verrete sottoposti a un ulteriore interrogatorio e se i signori lo decideranno, sarete in seguito disattivati. In che modo si apre l'astronave? Dobbiamo perquisirla. Eh, perdereste del tempo per niente, disse Travis. Non capireste nulla. Se io non capirò, i signori capiranno. Nemmeno loro capiranno. Allora voi darete delle spiegazioni, così capiranno. Non spiegherò un bel niente io. Allora verrai disattivato. Disattivandomi non otterrete alcuna spiegazione. Eh, credo che verrai disattivato anche se spiegassi. Continua così, mormorò Bliss. Inizio a decifrare i meccanismi del suo cervello. Il robot la ignorò. Era opera di Bliss. Si domandò Travis augurandosi disperatamente di sì. L'attenzione fissa su Travis, il robot proseguì. Se creerai dei problemi, ti disattiveremo parzialmente. Ti danneggeremo. Dopodiché ci dirai quello che vogliamo sapere. D'un tratto, con una voce strazzata, Pellorat strellò. Un momento. Guardiano, non puoi farlo. Ho ricevuto istruzioni precise. Replicò il robot imperturbabile. Posso farlo. Naturalmente, limiterò i danni al minimo indispensabile per ottenere le informazioni desiderate. Ma non puoi. Assolutamente. Io sono un esterno, come questi miei due compagni. Ma questo bambino è un solariano. Protestò Pellorat guardando Fallon, che teneva ancora in braccio. Ti dirò cosa fare e tu dovrai obbedire. Fallon guardò Pellorat. Aveva gli occhi bene aperti, ma il suo sguardo era perso nel vuoto. Bliss scosse il capo bruscamente, ma Pellorat la fissò senza dar segno di aver capito. Il robot posò lo sguardo su Fallon per un istante. Il bambino non conta. Non ha i lobby di trasduzione. Non ha i lobby di trasduzione pienamente sviluppati. Insistette Pellorat ansimando. Ma a tempo debito le avrà. È un bambino solariano. È un bambino, ma senza lobby di trasduzione pienamente sviluppati non è un solariano. Non sono obbligato a seguire i suoi ordini né a proteggerlo. Ma è il figlio del signor Bander. Davvero? Come lo sai? Pellorat balbettò come faceva a volte quando si interrogava troppo. In questa tenuta quali altri bambini dovrebbero esserci? E chi ti dice che non ce ne sia una dozzina? Ne hai visti altri? Le domande le faccio io. In quel mentre l'attenzione del robot si spostò altrove. Il secondo robot gli stava toccando il braccio. I due robot inviati a perlustrare la residenza stavano tornando di gran carriera, con movimenti leggermente scomposti. Ci fu silenzio finché non arrivarono. Poi uno di loro parlò in lingua solariana. Tutti i robot si irrigidirono. Sembravano frastornati e abbattuti. Non ho trovato Bander, disse Pellorat prima che Travis potesse zittirlo con un cenno. Il robot si girò lentamente e disse pronunciando le sillabe in modo legato. Il signor Bander è morto. In base a quanto hai appena affermato è chiaro che eravate al corrente della cosa. Come è accaduto? E come possiamo saperlo? Rispose Travis in tono di sfida. Sapevate che era morto? Che l'avremmo trovato là? Se lo sapevate significa che siete stati là, siete stati voi a interrompere la sua vita. La pronuncia del robot stava migliorando. Dopo il primo impatto ora assorbiva il trauma. Travis si difese dicendo. E noi avremmo ucciso Bander. È impossibile. Quei suoi lobi di trasduzione avrebbe potuto annientarci in un attimo. Come fate a sapere quali sono i poteri dei lobi di trasduzione? Ne hai appena parlato. Ne ho parlato e basta. Non ho descritto le loro proprietà. E l'abbiamo saputo in sogno. Non è una risposta credibile. Come non è credibile pensare che siamo stati noi a causare la morte di Bander. Ribatte Travis. Bella rata giunse. E in ogni caso se il signore Bander è morto adesso è il signore Fallon a governare questa tenuta. Ecco il nuovo signore al quale dovete obbedienza. Ho spiegato già che un bambino privo di lobi di trasduzione sviluppati non è un solariano. Disse il robot. Pertanto non può essere un successore. Un altro successore dall'età appropriata arriverà sul posto non appena avremo riferito questo triste avvenimento. È il signore Fallon. Non c'è nessun signore Fallon. C'è solo un bambino e i bambini sono in soprannumero. Verrà distrutto. Bliss scattò rabbiosa. Non provarci. È un bambino. Non è detto che aspetti a me la sua distruzione materiale. Disse il robot. E sicuramente questa decisione non dipende da me. Bensì da quanto stabiliranno di comune accordo i signori. Comunque nei periodi in cui c'è un soprannumero di bambini è facile prevedere quale sarà la decisione. No non potete. Sarà indolore. Ma sta arrivando un'altra astronave. Per cui dobbiamo entrare in quella che era un tempo alla residenza di Bander. Allestire un consigliolo visivo e far nominare il nuovo successore. Poi deciderà cosa fare di voi. Datemi il bambino. Bliss strappò dalle braccia di Pelarat la figura semicomatosa di Fallon e la strinse assì. Non toccarlo. Ancora una volta nel braccio del robot scattò in avanti velocissimo tendendosi verso Fallon. Bliss lo battì sul tempo spostandosi di lato. Il robot continuava ad avanzare come se la ragazza fosse ancora dove era un attimo prima. Poi si piegò goffamente, oscillò sulla punta dei piedi e stramazzò a faccia in giù. Gli altri tre robot erano immobili, lo sguardo fisso nel vuoto. Bliss si inghiozzava, in parte di rabbia. Avevo quasi afferrato il sistema per controllarlo ma non mi ha dato il tempo. Ho dovuto colpire forte e ora sono disattivati tutti e quattro. Saliamo a bordo prima che la seconda astronave atterre. Sto troppo male per affrontare altri robot. Parte quinta. Melpomenia. Via da Solaria. La partenza si svolse in un susseguirsi di azioni frenetiche. Travis aveva raccolto le sue armi inservibili, aperto il portello e fatto strada ai compagni che si erano precipitati dentro. Solo a decollo avvenuto si accorse della presenza a bordo di Fallon. Probabilmente non ce l'avrebbero fatta se i solariani non fossero stati così arretrati nel volo. Il velivolo che sopraggiungeva impiegò un'infinità per abbassarsi e atterrare, mentre il computer della stella lontana portò l'astronave gravitazionale in quota praticamente all'istante. Anche se l'annullamento della gravità e dell'inerzia cancellò gli effetti altrimenti insopportabili di un decollo tanto rapido, rimasero gli effetti dell'attrito. La temperatura esterna dello scafo salì in modo impressionante rispetto a quella consigliata dalle norme di base della navigazione e dalle caratteristiche tecniche dell'astronave. Mentre si sollevavano videro la seconda astronave solariana che atterrava e parecchi altri mezzi in avvicinamento. Travis si domandò quanti robot avrebbe potuto affrontare Bliss e concluse che se fossero rimasti in superficie ancora per una quindicina di minuti sarebbero stati sopraffatti. Una volta nello spazio, perlomeno in una regione ai limiti dell'esosfera planetaria, Travis puntò verso il lato notturno del pianeta. Era vicinissimo, dato che si erano staccati dalla superficie al tramonto. Grazie all'oscurità la stella lontana si sarebbe raffreddata più in fretta e avrebbe potuto continuare ad allontanarsi seguendo una lenta rotta a spirale. Pelorat uscì dalla camera che divideva con Bliss. Il bambino dorme regolarmente adesso. Gli abbiamo mostrato il funzionamento della toilette e ha capito senza problemi. Non mi sorprende. Nella tenuta dovevano esserci servizi del genere. Io non ne ho visti, anche se mi sono guardato intorno per bene, replicò Pelorat convinto. Per i miei gusti eravamo rimasti fin troppo sul pianeta. Su questo siamo tutti d'accordo, credo. Ma perché abbiamo portato a bordo il bambino? Pelorat alzò le spalle con aria contrita. Eh, Bliss non ha voluto abbandonarlo. Era come se stesse salvando una vita per compensare quella che aveva spezzato. Non lo sopporta. Eh, lo so, disse Travis. Certo che è un bambino fatto in modo strano, commentò Pelorat. Eh, per forza. È un'ermafrodita. Ma ha i testicoli. E non potrebbe essere diversamente. È qualcosa che, beh, posso solo descriverla come una piccolissima vagina. Travis fece una smorfia. Eh, disgustoso. Non direi Golan, protestò Pelorat. È adatta alle sue esigenze. Produce un solo ovulo fecondato o un minuscolo embrione che poi matura in condizioni di laboratorio. Credo sotto la supervisione dei robot. E cosa accadrebbe se il sistema robotico si sfasciasse? Non sarebbero più in grado di produrre discendenti capaci di sopravvivere. Eh, qualsiasi mondo si troverebbe in guai seri se la sua struttura sociale crollasse. Certo. Non che scoppierei in un pianto dirutto per la scomparsa dei solariani. Beh, convenne Pelorat. Ammetto che non sembra un mondo molto attraente, almeno per noi. Ma gli aspetti che non condividiamo si limitano agli abitanti e alla struttura sociale. Tolti gli abitanti al robot avremmo un mondo che potrebbe crollare come succede ad Aurora, concluse Travis. Bliss si è ripresa, Yanov. È stremata. Adesso dorme. Per lei è stata un'esperienza terribile. E non è che io mi sia divertito tanto. Travis chiuse gli occhi e decise che aveva bisogno di dormire. Si sarebbe concesso un po' di riposo appena fosse stato ragionevolmente sicuro dell'inettitudine spaziale dei solariani. Finora il computer non aveva individuato alcun oggetto artificiale nello spazio circostante. Pensò con amarezza ai due pianeti che avevano visitato. Sul primo, cani selvatici ostili. Sul secondo, ermafroditi solariani ugualmente ostili. E nemmeno il minimo accenno alla posizione della Terra. Unico frutto di quella doppia visita, Fallon. Travis aprì gli occhi. Pelerat era ancora seduto dalla parte opposta del computer e lo osservava con espressione solenne. D'un tratto Travis disse con estrema convinzione. Non avremmo dovuto portare con noi il bambino solariano. Poverino, lo avrebbero ucciso. Può anche darsi, ma il suo posto era quello. Apparteneva a quella società. Era destinato fin dalla nascita ad essere eliminato dal momento che non aveva un'immediata utilità. Amico mio, che punto di vista cinico e crudele? È un punto di vista razionale. Non sappiamo come provvedere a lui. Può darsi che con noi soffra e alla fine muoia ugualmente. Cosa mangia? Quello che mangiamo noi, immagino. Se mai il problema è noi cosa mangiamo. Abbiamo scorte sufficienti. Eh, più che sufficienti. Anche calcolando il nuovo passeggero. Pelerat non sembrò particolarmente entusiasta. La nostra dieta è diventata piuttosto monotona. Su Comporellen avremmo dovuto fare rifornimento. Non che la loro cucina fosse eccezionale. E non abbiamo potuto. Se ricordi, siamo partiti con una certa fretta, come siamo partiti da Aurora e soprattutto da Solaria. Ma cos'è mai un po' di monotonia? Rovina il piacere, d'accordo, però ci mantiene in vita. Se fosse necessario potremmo procurarci delle provviste fresche. Eh, certo, Yanov. Con un'astronave gravitazionale e motori iperspaziali, la galassia è un posto piccolo. In pochi giorni possiamo raggiungere qualsiasi punto. Il fatto è che la metà dei mondi è stata avvertita e deve denunciare l'avvistamento di un'astronave come la nostra, quindi preferisco stare alla larga per un po'. No, hai ragione, ma Bander non voleva appropriarsi dell'astronave. Probabilmente non gli interessava affatto. I solariani devono aver rinunciato da un pezzo al volo spaziale. Il loro desiderio primario è quello di essere lasciati in completa solitudine. Se vogliono essere sicuri del loro isolamento, perché dovrebbero viaggiare nello spazio a pubblicizzare la loro presenza. Quale sarà la nostra prossima mossa, Gollum? Abbiamo un terzo pianeta da visitare. Pellarat scosse il capo. Ma giudicare dai primi due? Non è che mi aspetti granché da questo. Neh, nemmeno io per adesso, ma non appena avrò dormito un po', metterò al lavoro il computer per calcolare la nuova rotta. Travis dormì più a lungo del previsto, non che fosse un particolare importante. A bordo dell'astronave non c'erano il giorno e la notte, almeno non in senso naturale e il ritmo circadiano non funzionava mai alla perfezione. Gli orari erano arbitrari ed era abbastanza normale che Travis, Pellarat e soprattutto Bliss si trovassero un po' fuori fase per quanto riguardava i cicli naturali dell'alimentazione e del sonno. Mentre si strofinava, dato che bisognava evitare ogni spreco dell'acqua, era consigliabile togliersi la schiuma detergente strofinando piuttosto che sciacquandola, Travis si chiese se fosse il caso di dormire ancora per un paio d'ore. Poi si girò e si ritrovò a fissare Fallum, nudo come lui. Non poteva fare a meno di balzare all'indietro e, dato lo spazio personale ristretto, inevitabilmente andò a sbattere contro una superficie solida. Grugni! Fallum lo osservava incuriosito, indicando il pene di Travis. Forfugliò qualcosa di incomprensibile, ma l'atteggiamento complessivo del bambino sembrava esprimere un senso di incredulità. Per sentirsi tranquillo, Travis dovette coprirselo con le mani. Poi, con la sua voce tacuta, Fallum disse «Saluti!». Travis rimase un poco sorpreso, sentendo che il bambino parlava in galattico, ma dal tono si capiva che la parola era stata imparata a memoria. Fallum continuò con lentezza dolorosa «Bliss dice tu lavare me?». «Sì?». Travis mise le mani sulle spalle di Fallum «Tu resta qui». Indicò il pavimento e Fallum, naturalmente, guardò il punto indicato dal dito, mostrando di non capire affatto il senso della frase. «Non muoverti!» disse Travis, premendo le braccia del bambino contro il corpo, quasi a simboleggiare l'immobilità. Si asciugò in fretta e furia, infilò le mutande, quindi i calzoni. Uscendo gridò «Bliss!». A bordo dell'astronave era difficile che i passeggeri fossero separati da una distanza superiore ai quattro metri e Bliss si affacciò quasi subito dalla porta della sua cabina. Sorridendo disse «Mi hai chiamato, Travis?» O era il suono della brezza fra l'erba ondeggiante? «Non è il momento di fare dello spirito. Che significa?» Travis indicò alle proprie spalle col pollice. Bliss guardò e rispose «Direi che si tratta del piccolo solariano che abbiamo portato a bordo ieri». «Che tu hai portato a bordo ieri? Perché vuoi che lo lave?» «E pensavo che avresti gradito l'idea. È una creatura molto brillante. Sta imparando rapidamente le parole del galattico, sai? Una volta che gli ho spiegato qualcosa, non dimentica più. Naturalmente c'entra anche il mio aiuto». «Naturalmente». «Sì, lo mantengo calmo. Durante gli avvenimenti più sconvolgenti l'ho protetto con una specie di trans. A bordo dell'astronave ho fatto in modo che dormisse e adesso sto cercando di distrarlo un po' perché non pensi in continuazione a Gemby, il robot che ha perso e che evidentemente doveva amare moltissimo». «Insomma, vuoi fare in modo che alla fine si trovi bene tra noi, eh?» «Bello, spero. È adattabile dato che è giovane e io cerco di favorire il suo adattamento, influenzandone per quanto possibile la mente. Gli insegnerò a parlare in galattico». «Allora lavalo tu, chiaro?» Bliss fece spallucce. «Lo farò, se proprio insisti, ma vorrei che si sentisse ben voluto da tutti. Sarebbe utile se ognuno di noi se ne prendesse cura in qualche modo come un vero genitore. Mi pare che anche tu potresti collaborare. È solo entro certi limiti. E quando avrai finito di lavarlo, liberatene. Voglio parlarti». Bliss ribatte con un tono di colpo aggressivo. «Liberarmene? Cosa vorresti dire?» «Non dico di gettarlo all'esterno. Portalo in camera tua e fallo sedere in un angolo. Devo parlare con te». Travis la fissò incolerito per un attimo, quindi si spostò nella sala comandi e accese lo schermo. Solaria era un disco scuro con una striscia ricurva di luce sulla sinistra. Travis mise le mani sulla scrivania per entrare in contatto con il computer e si accorse che la sua rabbia svaniva subito. Bisognava essere calmi per un collegamento mentale con il computer e a lungo andare, per un riflesso condizionato, bastava il contatto manuale per ripristinare la serenità. Non c'erano oggetti artificiali intorno all'astronave in nessuna direzione, fino al pianeta stesso. I solariani, o il loro robot più probabilmente, non potevano o non intendevano lanciarsi all'inseguimento. Bene, Travis poteva uscire tranquillamente dall'ombra notturna. Continuando ad allontanarsi, sarebbe svanita comunque e il disco di Solaria sarebbe progressivamente diventato più piccolo di quello del suo sole, che era più lontano ma molto più grande del pianeta. Programmò il computer in modo che allontanasse l'astronave anche dal piano planetario, così avrebbero potuto accelerare con sicurezza maggiore. Dopodiché avrebbero raggiunto più in fretta una regione dove la curvatura dello spazio fosse abbastanza bassa da consentire un balzo senza grossi rischi. Come gli capitava spesso in circostanze simili, Travis si ritrovò a studiare assorto le stelle. Erano quasi ipnotiche nella loro silenziosa immutabilità. La distanza annullava qualsiasi turbolenza e instabilità, facendole apparire come semplici punti luminosi. Forse uno di quei punti era il sole intorno al quale ruotava la Terra. Il sole originale, con la S maiuscola, che coi suoi raggi aveva favorito all'inizio della vita l'evoluzione dell'umanità. I mondi spaziali orbitavano intorno a stelle vivide, ragguardevoli esemplari della famiglia celeste, eppure non figuravano nella mappa galattica del computer. Nulla escludeva che fosse così anche per il sole. E se fossero mancati soltanto i soli dei mondi spaziali, in seguito a quale antichissimo trattato per la tutela del loro isolamento? Forse il sole della Terra era compreso nella mappa galattica, ma senza alcuna indicazione che permettesse di distinguerlo dalla miriade di stelle dello stesso tipo e prive di pianeti abitabili. Nella galassia c'erano circa 30 miliardi di stelle simili al sole, ma soltanto una su mille aveva un pianeta abitabile. C'erano un migliaio di pianeti del genere, in un raggio di qualche centinaio di parsec rispetto alla posizione attuale della stella lontana. Travis doveva esaminare le stelle simili al sole a una a una affrontando una ricerca minuziosa. Oh, quell'originario non si trovava neppure nel settore dove erano adesso. Quanti settori giuravano che il sole fosse nelle loro vicinanze, convinti di appartenere al gruppo di colonie più antiche? Travis aveva bisogno di informazioni e finora non aveva raccolto alcun dato utile. Un attento esame delle rovine di Aurora non avrebbe fornito alcun risultato, ne era certo, ed era sicurissimo che i dai solariani non avrebbero ricavato nulla. Se avesse trovato il sole e quindi la Terra per un incredibile colpo di fortuna, una forza misteriosa non avrebbe potuto impedirgli di rendersene conto. Forse le difese terrestri erano totali. L'accanimento con cui il mondo delle origini voleva rimanere nascosto era un ostacolo insuperabile. Ma lui cosa cercava in sostanza? La Terra o una pecca del piano Selden che pensava, senza alcuna ragione precisa, di poter trovare laggiù. Il piano Selden operava ormai da cinque secoli e avrebbe condotto il genere umano al sicuro, e così diceva, nel grembo di un secondo impero galattico, più vasto del primo, più nobile e libero. Eppure lui, Travis, aveva votato contro tale soluzione, optando per Galaxia. Galaxia, un unico immenso organismo, mentre il secondo impero galattico, per quanto grande e vario, sarebbe stato semplicemente un'unione di organismi individuali, di entità microscopica rispetto al totale. Il secondo impero sarebbe stato l'ennesimo esempio del genere di unione che caratterizzava l'umanità fin dai primordi. L'esempio più grande e migliore, ma pur sempre una ripetizione del medesimo tipo di organizzazione. Ma se Galaxia, incarnazione di un tipo di organizzazione completamente diverso, rappresentava una soluzione migliore rispetto all'impero, doveva esserci un difetto nel piano, qualcosa che il grande Harry Selden si era lasciato sfuggire. Ammesso che questo fosse vero, come avrebbe potuto intervenire Travis per rimediare? Non era un matematico, non sapeva nulla dei meccanismi del piano, anzi, anche se glielo avessero spiegati, non avrebbe capito nulla. Conosceva solo gli assiomi fondamentali, cioè che l'indagine doveva occuparsi di un numero molto elevato di esseri umani inconsapevoli delle conclusioni raggiunte. Il primo assioma era evidentissimo e non presentava problemi, considerando il numero enorme degli abitanti della Galaxia. Il secondo era più che fondato dal momento che solo i membri della seconda fondazione erano al corrente dei particolari del piano e li custodivano gelosamente. Dunque, non restava che pensare a un presupposto implicito e scontato, talmente scontato da non venire mai citato né considerato, ma che poteva essere falso. Un presupposto che, se fosse stato errato come lui supponeva, avrebbe alterato l'esito grandioso del piano, in modo che Galaxia sarebbe stata preferibile all'impero. Ma se era così evidente, così scontato da non venire mai menzionato, come era possibile che il presupposto fosse sbagliato? E se nessuno ne parlava, se nessuno lo prendeva in considerazione, come faceva Travis a sapere che esisteva? Come poteva intuirne la natura una volta supposta alla sua esistenza? Travis era davvero l'uomo dall'intuizione infallibile, come sosteneva Gaia? Sapeva quale fosse la cosa migliore da fare in qualsiasi circostanza, anche se non sapeva perché la facesse? Aveva deciso di visitare tutti i mondi spaziali di cui aveva notizia. Era la strategia giusta. I mondi spaziali racchiudevano la risposta che cercava, o almeno l'inizio di una risposta. Cosa c'era su Aurora se non ruderi e cani selvatici, e presumibilmente altre creature pericolose, tari feroci, topi giganteschi, gatti predatori? Solaria era un pianeta vivo, ma ospitava soltanto robot ed esseri umani che trasformavano l'energia col cervello. Cosa centravano con il piano Selden due mondi del genere, a meno che non racchiudessero il segreto della posizione della Terra? E in caso di risposta affermativa, come rientrava la Terra nel piano Selden. Magari era una costruzione assurda del suo cervello, ipotizzò Travis. Aveva finito quel prendere troppo sul serio la storia della propria infallibilità. Un senso opprimente di vergogna calò su di lui, impedendogli quasi di respirare. Guardò le stelle remote, insensibili, e pensò, eh, devo essere il più grande sciocco della galassia. La voce di Bliss lo riportò al presente. Perché volevi vedermi, Travis? Qualcosa non va? Lui sollevò lo sguardo e per un attimo gli fu difficile scacciare lo stato d'animo deprimente. Fissando la ragazza rispose, no, no, è tutto a posto. Stavo solo riflettendo. Di tanto in tanto anch'io mi ritrovo a pensare. Si rendeva conto, con un certo disagio, che Bliss era in grado di leggere i suoi sentimenti. D'accordo gli aveva garantito di non sbirciare nella mente, ma non sapeva fino a che punto fidarsi della sua parola. Comunque lei parve accettare la risposta di Travis. Bella rata è confallum. Gli insegna frasi in galattico. Sembra che il bambino mangi quello che mangiamo noi senza eccessive obiezioni. Ma perché volevi vedermi? Beh, non restiamo qui. Per adesso il computer non ha bisogno di me. Se vuoi seguirmi nella mia cabina, puoi sederti sul letto e io sulla sedia. O viceversa. Non ha importanza. Si spostarono nell'angolo di Travis e Bliss l'osservò. Non sembri più infuriato. Controllo la mia mente. Nemmeno per sogno. Controllo la tua faccia. Non sono infuriato. Di tanto in tanto perdo la pazienza per un attimo, ma questo non significa che io sia infuriato. Comunque, se non ti dispiace, avrei delle domande da farti. Bliss si accomoda sul letto, stando ben eretta, con un'espressione solenne negli occhi castano scuro. I capelli neri, che le scendevano fin sulle spalle, erano acconciati con cura. Teneva le mani sottili sulle ginocchia, disinvolta ed era circondata da una vaga traccia di profumo. Travis sorrise. Ti sei agghindata, vedo. Probabilmente pensi che non mi metterò a sbraitare di fronte a una bella ragazza. Puoi sbraitare a tuo piacimento se credi che possa farti sentire meglio. Basta che non gridi con Fallon. Non ne ho intenzione. Anzi, nemmeno con te intendo gridare. Non abbiamo deciso che siamo amici. Gaia ha sempre avuto sentimenti di amicizia nei tuoi confronti, Travis. Solo sentimenti di amicizia. Non sto parlando di Gaia. Lo so che fai parte di Gaia e che sei lei, ma, in un certo senso, conservi una tua identità individuale. Mi rivolgo a qualcuno di nome Bliss, riferendomi il meno possibile a Gaia. Non abbiamo deciso che siamo amici, Bliss. Sì, Travis. Allora, come mai su Solaria, quando siamo usciti dalla tenuta e abbiamo raggiunto l'astronave, hai aspettato tanto prima di affrontare i robot. Sono stato umiliato. Mi è stato fatto del male, eppure tu non sei intervenuta. Sapevi che da un istante all'altro sarebbero potuti arrivare altri robot e avrebbero potuto sopraffarci numericamente. Eppure non hai fatto nulla. Bliss lo osservò seria e rispose in tono esplicativo, non difensivo. In realtà, ho fatto qualcosa, Travis. Studiavo le menti dei robot guardiani. Cercavo di scoprire il modo in cui controllarle. Lo so. Tu stessa mi hai detto che le stavi studiando. Solo non capisco lo scopo. Perché cercavi di controllare le menti se eri in grado di distruggerle, come hai fatto in seguito? Credi che sia semplice distruggere un essere intelligente. Travis increspò le labbra con un'espressione disgustata. Via Bliss. Un essere intelligente. Era solo un robot. Solo un robot? Bliss si infervorò leggermente. La solita giustificazione. Solo. Solo. Perché Bander avrebbe dovuto esitare a ucciderci. Eravamo solo esseri umani, privi di lobby trasduttori. Perché esitare ad abbandonare Fallon al suo destino? Era solo un solariano. Un esemplare immaturo per giunta. Se si comincia a ragionare in questo modo quando ci si vuole sbarazzare di qualcuno, allora si può distruggere facilmente tutto quello che si desidera. Perché c'è sempre qualcosa di classificabile con un comodo e solo questo e solo quello. E non esagerare, oppure si arriva sì a conclusioni assurde. La mia era un'affermazione perfettamente legittima. Quello era solo un robot. Non puoi negarlo. Non era un essere umano. Non era intelligente nel senso umano del termine. Era una macchina. Un'imitazione artificiale dell'intelligenza. È facile parlare così quando non si sa nulla di certe cose. Io sono Gaia, d'accordo? Sono anche Bliss. Ma sono Gaia. Un mondo che giudica ogni suo atomo prezioso e importante. È ancora più importante ogni agglomerato organizzato di atomi. Io, noi Gaia, esitiamo parecchio quando si tratta di disgregare un organismo, anche se siamo felici quando si tratta di trasformarlo in qualcosa di più complesso. Ma la trasformazione non deve avere ripercussioni dannose sulla totalità. La più elevata forma di organizzazione che conosciamo produce l'intelligenza e per arrivare a distruggere l'intelligenza devono esistere motivi validissimi. Non importa se è un'intelligenza meccanica o biochimica. Anzi, il robot guardiano rappresentava un'intelligenza che io, noi Gaia non avevamo mai incontrato. Era bellissimo studiarla. Distruggerla sarebbe stato inconcepibile se non in caso di emergenza assoluta. Travis replicò asciutto. C'erano in gioco tre intelligenze più grandi, la tua, quella di Pelerat, l'uomo che ami, e, se non ti dispiace, la mia. Quattro. Continui a tralasciare Fallon. Non erano ancora in pericolo comunque. Ascolta, immagina di trovarti di fronte a un dipinto, a un grande capolavoro artistico e che l'esistenza di questo dipinto significhi morte certa per te. Basta che tu prenda un pennello e che imbratti il dipinto con degli scarabocchi a caso per distruggerlo definitivamente ed essere salvo. Ma immagina invece di studiare il dipinto attentamente, di aggiungere una sfumatura di colore in un punto, una macchiolina in un altro, raschiare via un po' di colore in un terzo punto e via dicendo. In questo modo modificherai il dipinto abbastanza da sfuggire alla morte ed eviterai di distruggere un capolavoro. Naturalmente i ritocchi richiederanno una tensione minuziosa, un dispendio di tempo, ma disponendo del tempo necessario cercherai di salvare il dipinto oltre alla tua vita. Può darsi. Comunque alla fine tu hai distrutto il dipinto irrimediabilmente. Il pennello ha spazzato via qualsiasi sfumatura cromatica, qualsiasi forma e sei intervenuto all'istante quando a rischiare era il piccolo Ermafrodita, mentre di fronte alla situazione di pericolo di noi tre non avevi mosso un dito. Noi esterni non eravamo in pericolo immediato, mentre la situazione per Fallon era diversa a mio avviso. Dovevo scegliere tra il robot guardiano e Fallon e non avendo tempo da perdere ho scelto Fallon per forza. È di questo che si è trattato Bliss? Di un rapido calcolo con cui hai soppesato due menti? Di un rapido giudizio per stabilire quale fosse più complessa e di maggior valore? Sì. E se ti dicessi che avevi di fronte solo un bambino, un bambino minacciato di morte, può darsi che tu abbia provato un istinto materno improvviso e che abbia salvato Fallon per questo, mettendo da parte tutti i calcoli che avevi fatto fino a un attimo prima, quando in gioco c'erano solo tre vite adulte. Bliss arrossì leggermente. È possibile che il mio intervento sia stato influenzato da un sentimento simile, ma non è il caso di utilizzare quel tono beffardo. Era un intervento guidato anche da considerazioni irrazionali. Davvero? Se hai esaminato il problema razionalmente, forse avresti dovuto tenere presente che il bambino andava incontro a un destino comune e inevitabile nella sua società. Chissà quante migliaia di bambini sono stati eliminate per mantenere la popolazione entro il limite che i solariani ritengono ottimale per il loro mondo. Non è così semplice Travis. Il bambino sarebbe stato ucciso perché era troppo giovane per essere un successore ed era troppo giovane perché aveva un genitore morto prematuramente, morto in quanto ucciso da me. In una situazione in cui si trattava di uccidere per non essere uccisi. Non importa, sono stata io a uccidere il genitore. Non potevo assistere passiva e consentire che il bambino venisse ucciso in conseguenza di una mia azione. E poi la sua presenza permette di studiare un tipo di cervello mai visto su Gaia. Un cervello infantile. Non rimarrà infantile in eterno. Senza contare che ci sarà anche lo sviluppo dei due lobby trasduttori laterali. Grazie ad essi un solariano possiede capacità che tutta Gaia non potrà iguagliare. Per tenere accesa qualche luce, per attivare il congegno di apertura di un passaggio, mi sono logorata. Bander riusciva a fornire di energia una tenuta complessa quanto la città che abbiamo visto su Comporellen e molto più estesa. Ci riusciva anche nel sonno. Dunque, consideri il bambino un esemplare importante per uno studio scientifico del cervello? In un certo senso, sì. Io non la penso così. Secondo me abbiamo portato a bordo un pericolo. Un grande pericolo. In che senso? Si adatterà benissimo col mio aiuto. È intelligente e dimostra già un certo affetto per noi. Mangerà quello che mangiamo noi. Andrà dove andremo e io, noi e Gaia, ricaveremo conoscenze di valore inestimabile. E se si riproducesse? Non ha bisogno di un compagno. È autosufficiente. Non sarà in età feconda ancora per molti anni. Gli spaziali vivevano diversi secoli e i solariani non desiderano affatto incrementare il loro numero. Probabilmente la riproduzione tardiva è una caratteristica base della popolazione di Solaria. Fallon non avrà figli per parecchio tempo. E come lo sai? Non lo so. Mi limito a usare la logica. E io ti dico che Fallon si rivelerà un pericolo. Non è affatto sicuro. E tu non sei logico. Lo sento, Bliss. Senza un particolare motivo. E non sono io a insistere sull'infallibilità della mia intuizione. Sei tu. Bliss corrugò la fronte assumendo un'espressione turbata. Pelerat si fermò sulla soglia della sala comandi e guardò dentro, imbarazzato. Stava cercando di decidere se Travis fosse assorto nel lavoro o meno. Travis aveva le mani sulla scrivania, come faceva sempre quando entrava in contatto con il computer e teneva gli occhi fissi sullo schermo. Pelerat dedusse che era impegnato e attese pazientemente cercando di non muoversi e disturbarlo in alcun modo. Infine Travis sollevò lo sguardo verso Pelerat. Non sembrava del tutto consapevole della presenza dell'amico. Durante la comunione con il computer i suoi occhi erano sempre un po' appannati, vacui, come se vivesse in una dimensione diversa della normalità. Comunque rivolse a Pelerat un tardivo cenno di assenso, come se l'immagine avesse raggiunto i centri ottici con una certa difficoltà. Poco dopo staccò le mani, sorridendo, e tornò ad essere il Travis abituale. Con l'aria di volersi scusare, Pelerat disse «E temo di esserti di impaccio, Golan». «Nulla di grave, Ianov. Stavo verificando se siamo pronti per il balzo. Ci siamo quasi, ma penso che aspetteremo ancora alcune ore, giusto per scaramanzia». «La scaramanzia o altri fattori casuali possono influire». «Era semplicemente un modo di dire», disse Travis sorridendo. «Comunque, in teoria, i fattori casuali hanno un certo peso». «Cosa volevi?» «Posso sedermi?» «Certo, ma andiamo nella mia cabina». «Come sta Bliss?» «Benissimo». Pelerat si schieri la voce. «Sta dormendo di nuovo, sai che ne ha bisogno». «Eh, lo so. È per via della separazione iperspaziale». «Esattamente, amico mio». «Ne fallo». Travis si sistemò sul letto lasciando a Pelerat la sedia. «Sta leggendo i libri che ho scelto dalla mia biblioteca. Quelle che hai fatto stampare dal computer sulle leggende popolari. Non che capisca granché di galattico, ma pare che gli piaccia il suono delle parole. Lui continua a usare il pronome maschile, anche se non è esatto. Chissà perché poi». Travis alza le spalle. «Eh, forse perché tu stesso sei un maschio». «Eh, già. Comunque, Fallon è intelligentissimo». «Non ne dubito». «Belora tesitò». «Mi pare di capire che Fallon non ti stia molto simpatico». «Nulla di personale, Yanov. Non ho mai avuto dei bambini e in generale non mi sono mai piaciuti tanto. Invece, se ben ricordo, tu ne hai avuti. Un figlio. Ricordo che era bellissimo stare con lui quando era piccolo. Forse è per questo che preferisco usare il pronome maschile per Fallon. Mi riporta indietro di un quarto di secolo». «Non ho nulla in contrario, se ti piace, Yanov». «Piacerebbe anche a te, se provassi ad apprezzarlo». «Certo. E forse un giorno ci proverò». «Belora tesito di nuovo. So anche che devi essere stanco di discutere con Bliss». «A dire il vero, non credo che discuteremo poi tanto. Cominciamo ad andare molto d'accordo. L'altro giorno abbiamo avuto uno scambio di idee ragionevole, senza grida e accuse, sulla scarsa tempestività con cui ha disattivato i robot guardiani. E in fin dei conti Bliss continua a salvarci la vita. Quindi il minimo che possa fare è assumere un atteggiamento amichevole nei suoi confronti». «Sì, capisco, ma non intendevo discutere nel senso di litigare. Mi riferivo al continuo dibattito su Galaxia contrapposta ai mondi individuali». «No, intendevi questo? Immagino che il dibattito continuerà educatamente». «Golan, ti spiace se affronto l'argomento al posto di Bliss?» «Fai pure. Accetti personalmente l'idea di Galaxia o lo fai solo perché sei più felice se sei d'accordo con Bliss?» «In tutta onestà è una mia convinzione personale. Secondo me Galaxia è la soluzione che tutti dovremmo augurarci. Tu stesso hai fatto questa scelta e sono sempre più convinto che sia quella giusta». «Perché l'ho fatta io?» «Non è un motivo valido. Qualunque cosa sostenga Gaia può darsi che io sbagli, quindi non lasciare che Bliss ti persuada in favore di Galaxia basandoti solo su questo». «Secondo me non sbagli. È stata Solari a dimostrarmelo, non Bliss». «E come?» «Beh, innanzitutto, tu e io siamo isolati». «Un termine di Bliss. Preferisco che ci consideriamo individui. Semplice questione di semantica, amico mio. Indipendentemente dal termine che preferiamo usare, siamo chiusi nei nostri involucri privati che racchiudono i nostri pensieri. E ci occupiamo innanzitutto di noi stessi. La sola legge primaria è l'autodifesa, anche se questo può comportare l'offesa di tutti quelli che abbiamo intorno». «Certe persone, il risaputo, hanno dato la vita per gli altri. È un fenomeno raro. È ben più grande il numero delle persone che per qualche stupido capriccio privato hanno calpestato le esigenze e i bisogni altrui. Anche questo è risaputo». «Cosa c'entra con Solaria?» «Eh, perbacco. Su Solaria vediamo cosa possono diventare gli isolati o gli individui, se preferisci. I solariani accettano a malincuore l'idea di dividere un intero pianeta. Per loro una vita di isolamento completo equivale alla libertà perfetta. Non hanno alcun legame affettivo verso i figli. Anzi, se sono troppo numerosi, le uccidano. Si circondano di robot schiavi ai quali forniscono l'energia, in modo che quando muoiono anche le loro immense tenute muoiono simbolicamente. Ti pare un sistema amichevole, Golan? Puoi paragonarlo a Gaia, in quanto a giustizia, sollecitudine reciproca e bontà. Non ne ho affatto discusso con Bliss. È quello che penso io». «Ed è logico, conoscendoti, che tu la pensi così». Condivido il tuo parere. Secondo me la società solariana è orribile, ma non è sempre stata così. I solariani discendono dai terrestri e più recentemente dagli spaziali, gente che viveva in modo molto più normale. Per qualche motivo i solariani hanno scelto una via che ha portato a conseguenze estreme. Ma non si può giudicare in base a una situazione limite. In tutta la galassia, con milioni di mondi abitati, ti risulta che ce ne sia uno che abbia avuto in passato, o che abbia attualmente, una società come quella di Solaria, o una società che si avvicini anche lontanamente a quella solariana. E Solaria sarebbe arrivata a tanto se non fosse minata da una presenza così massiccia di robot? Pelleret accennò una piccola smorfia. «Riesci a demolire qualsiasi ragionamento, Golan. O meglio, sei sempre a tuo agio quando si tratta di difendere il tipo di galassia contro cui hai votato». «Non intendo demolire tutto. In effetti c'è un ragionamento logico alla base della scelta di galassia. E quando lo scoprirò, se lo scoprirò, me ne renderò conto e mi calmerò». «Se, dici, può darsi che tu non lo scopra». Travis fece spalluccia. «Che può dirlo? Sai perché sto aspettando qualche ora prima di effettuare il balzo? Perché sarei tentato di rimandare addirittura di alcuni giorni? Hai parlato di ragioni di sicurezza?» «Certo. Ma anche adesso il balzo sarebbe abbastanza sicuro. No, in realtà ho paura che i mondi spaziali di cui abbiamo le coordinate si rivelino una delusione completa. Due mondi su tre li abbiamo già esaminati, rischiando la vita entrambe le volte. Eppure non abbiamo trovato il minimo indizio utile circa la posizione della Terra. Anzi, il minimo indizio sull'esistenza della Terra. Adesso siamo di fronte alla terza possibilità. L'ultima. Se facessimo fiasco anche questa volta!» Bellarat sospirò. «Ci sono dei vecchi racconti popolari. Uno è proprio tra quelli che ho dato a fallo ma perché si esercitasse. Vecchi racconti in cui a una persona sono concessi tre desideri. Pare che il tre sia un numero significativo in queste cose. Forse perché il primo numero dispari e quindi il numero determinante è più piccolo. Sai, la vincita con due vittorie su tre possibilità. Comunque, il fatto è che in queste storie i desideri sono sempre inutili. Nessuno esprime quelli giusti, il che a mio avviso è un esempio di saggezza antica che ci insegna che la soddisfazione dei desideri deve essere ottenuta guadagnandosela e non si interruppe di colpo avvilito. «Scusa, amico mio, ti sto facendo perdere tempo. Ho il vizio di divagare quando comincio a parlare della mia materia. Dici sempre cose interessanti, Yanov?» «Comunque, capisco l'analogia. Ci sono stati concessi tre desideri. Finora ne abbiamo espressi due senza ottenere nulla. Ne rimane uno solo. Non so perché, ma sono sicuro di un nuovo fallimento ed è appunto per questo che voglio rimandarlo il più possibile, indugiando prima del balzo. «Cosa farai se falliremo ancora? Tornerai su Gaia, su Terminus. Oh no!» rispose Travis sottovoce. «La ricerca deve continuare. Non so come, ma deve continuare!» Pianeta morto. Travis era depresso. Le poche vittorie conseguite dall'inizio della ricerca non erano state definitive, ma erano servite solo a rimandare momentaneamente la sconfitta. Ora aveva prolungato l'attesa prima del balzo verso il terzo mondo, riuscendo a contagiare i compagni di viaggio col suo nervosismo. Quando decise finalmente di ordinare al computer di proiettare l'astronave attraverso l'iperspazio, Pellaro a terrafermo sulla soglia della sala comandi. Bliss era dietro di lui e Fallon stringeva la mano della ragazza, fissando Travis con un'espressione di grottesca solennità. Travis sollevò lo sguardo e commentò sfogando la propria inquietudine. «Bel quadretto familiare!» Ordinò al computer di effettuare il balzo in modo tale da rientrare nello spazio a una distanza dalla stella più grande del necessario. Si disse che era un comportamento dovuto alla prudenza dopo gli episodi avvenuti sui primi due mondi. Ah, non ci credeva. Sotto sotto, e lo sapeva, si augurava di arrivare nello spazio normale a una distanza notevole dalla nuova stella, per non essere costretto a stabilire subito se avesse un pianeta abitabile o meno. Gli sarebbero rimasti alcuni giorni di viaggio prima di appurare la verità e di dover fare i conti con l'eventuale sconfitta. Mentre il quadretto familiare lo osservava, Travis inspirò a fondo, emise un sibilo a denti stretti e impartì al computer le istruzioni finali. La disposizione delle stelle subì un mutamento silenzioso e lo schermo offrì un panorama più spoggio, perché erano giunti in un settore in cui le stelle erano più rade. E davanti a loro, quasi al centro, ne spiccava una dallo sfolgorio intenso. Travis sorrise. Era già una specie di vittoria, perché la terza serie di coordinate avrebbe potuto essere sbagliata. Invece ecco una stella di tipo G, dalle caratteristiche adatte. Si girò verso gli altri e annunciò, eccola, la terza stella. Sei sicuro? domandò Bliss sottovoce. E guarda, disse Travis, adesso passerò all'immagine equivalente della mappa galattica del computer. Se la stella sparirà, se non figurerà sulla mappa, allora non avremo più dubbi. Il computer eseguì il suo ordine e la stella si spense di colpo, scomparendo come se non fosse mai esistita. Il resto del campo stellare rimase identico a prima, ma estoso e indifferente. Ci siamo, a noi Travis. Eppure, fece procedere la stella lontana a una velocità dimezzata rispetto a quella che avrebbe potuto facilmente mantenere. Restava ancora l'interrogativo della presenza o meno di un pianeta abitabile e Travis non aveva alcuna fretta di conoscere la risposta. Dopo tre giorni di avvicinamento, la questione era ancora in sospeso. Però non del tutto forse, perché intorno alla stella ruotava un gigante gassoso. Era molto lontano dalla stella, sfumato di un giallo pallidissimo sul suo lato diurno, che dalla posizione della stella lontana apareva come uno spesso spicchio. A Travis non piaceva il suo aspetto, ma cercò di mascherare il fatto mentre parlava asciutto e conciso come una guida. C'è un gigante gassoso davanti a noi, è abbastanza spettacolare. Ha un paio di anelli sottili e due satelliti di considerevoli dimensioni visibili in questo momento. Quasi tutti i sistemi solari comprendono giganti gassosi, no? Disse Bliss. Certo, ma questo è particolarmente grande. Aggiudicare dalla distanza dei satelliti e dai loro periodi di rivoluzione dovrebbe essere una massa duemila volte superiore a quella di un pianeta abitabile. Che differenza fa? Osservò Bliss. I giganti gassosi sono giganti gassosi e le loro dimensioni non hanno importanza, vero? Si trovano sempre a notevole distanza dalla stella intorno alla quale orbitano e non sono abitabili per la loro mole e per questa distanza. Dobbiamo esplorare la regione più vicina alla stella se vogliamo trovare un pianeta abitabile. Travis esitò, poi decise di mettere le carte in tavola. Il fatto è che i giganti gassosi di solito svuotano un volume considerevole di spazio planetario. Il materiale che non incorporano nella propria struttura si consolida in grandi corpi celesti che formano poi i sistemi di satelliti. I giganti gassosi impediscono la formazione di altri corpi celesti entro un raggio notevolissimo. Per cui, più un gigante gassoso è grande, più è probabile che sia l'unico pianeta vero e proprio di un dato sistema solare. In pratica, avremmo solo il gigante e degli asteroidi. Vuoi dire che non ci sono pianeti abitabili? Eh, più aumentano le dimensioni del gigante gassoso, più diminuiscono le probabilità di trovare un pianeta abitabile. Questo gigante è così imponente da potersi quasi considerare una stella nana. Possiamo vederlo? chiese a Bellerath. Tutti e tre fissarono lo schermo. Fallon era nella camera di Bliss coi libri. L'immagine venne ingrandita finché la mezzaluna non occupò tutto lo schermo. Sopra il centro era soloccata da una sottile linea scura. L'ombra del sistema anulare è visibile oltre la superficie planetaria come una curva scintillante che penetrava per un breve tratto nell'auto notturno prima di scomparire nell'oscurità. Travis spiegò. La sedi rotazione del pianeta è inclinato di circa 35 gradi rispetto al piano di rivoluzione e gli anelli si trovano sul piano equatoriale naturalmente per cui a questo punto dell'orbita la luce della stella proviene dal basso e proietta l'ombra degli anelli al di sopra dell'equatore. Bellerath osservava estasiato. Sono sottili quegli anelli. In realtà sono di dimensioni superiori alla media fece notare Travis. Stando alla leggenda, gli anelli di uno dei giganti gassosi presenti nel sistema planetario della terra dovrebbero essere molto più ampi, luminosi ed elaborati di questi. Al confronto dovrebbero far scomparire il gigante stesso. E non mi sorprende, disse Travis. Quando una storia passa di bocca in bocca per migliaia d'anni. I particolari vengono ingigantiti, non credi? È stupendo. Guardate la mezzaluna. Sembra che si muova e si contorca, disse Bliss. Perturbazioni atmosferiche, spiegò Travis. Si può vedere con maggiore chiarezza scegliendo la lunghezza d'onda d'ottica adeguata. Ecco, ora approvo. Posò le mani sulla scrivania e ordinò al computer di operare una selezione dello spettro e di fermarsi sulla giusta lunghezza d'onda. La mezzaluna palida si trasformò in un caleidoscopio di colori che cambiavano al ritmo vertiginoso e abbagliavano la vista se si cercava di seguirli. Infine, l'immagine si stabilizzò su una tinta rosso-arancione e all'interno della mezzaluna si scorsero nette spirali in movimento che si attorcigliavano e svolgevano. «Incredibile!» mormorò Pellerat. «Delizioso?» commentò Bliss. «Credibilissimo!» riflettì con amarezza Travis. «E' tutt'altro che delizioso». Estasiati dalla bellezza dello spettacolo, Bliss e Pellerat dimenticavano che la presenza del pianeta che stavano ammirando faceva diminuire le probabilità di soluzione del mistero che assillava Travis. Dell'arresto, perché avrebbero dovuto preoccuparsi. Erano convinti che la sua decisione fosse giusta ed erano contenti così. In pratica lo accompagnavano nella ricerca senza provare un coinvolgimento autentico. Era inutile incolparli della loro buona fede. «Il lato notturno sembra scuro», disse Travis. «Ma se i nostri occhi fossero sensibili ai raggi luminosi, leggermente al di là della gamma limite, vedremmo una fascia di rosso intenso, cupo». «Il pianeta riversa nello spazio una quantità enorme di infrarosso, perché è così massiccio da essere quasi incandescente. Più che un gigante gassoso è una subostella». Attesi alcuni istanti, quindi proseguì. «E adesso lasciamo perdere il gigante e cerchiamo il pianeta abitabile, ammesso che ci sia». «Può darsi che ci sia, no?» disse Pelerat sorridendo. «Non arrenderti, amico mio». «Non mi sono arreso», ribatte Travis non troppo convinto. «La formazione dei pianeti è una materia troppo complicata perché ci si possa basare su regole precise. Siamo nel campo delle probabilità. Con quel mostro nello spazio le nostre opportunità diminuiscono, ma non fino a scendere a zero». «Prova a cambiare prospettiva», disse Bliss. «Dato che le prime due serie di coordinate ci hanno condotto su un pianeta abitabile, anche la terza serie, che ci ha già permesso di individuare una stella del tipo giusto, dovrebbe guidarci a un pianeta abitabile. Perché parlare di probabilità?» «Spero davvero che tu abbia ragione», disse Travis per nulla rincuorato. «Adesso ci sposteremo dal piano planetario e avanzeremo verso la stella». Il computer eseguì la manovra quasi simultaneamente. Travis si rilassò sul sedile di pilotaggio e per l'ennesima volta decise che le astronavi gravitazionali dotate di un computer così perfezionato presentavano un unico grande svantaggio. Dopo averne pilotata una, era impossibile tornare a governarne una del vecchio tipo. Come ci si poteva riabituare a tutti i calcoli necessari, a considerare l'accelerazione e a limitarla a livelli ragionevoli. Probabilmente lui se ne sarebbe dimenticato e avrebbe inserito energia fino a far spiaccicare contro le pareti interne tutti i passeggeri a bordo. Beh, lui avrebbe continuato a pilotare la stella lontana o un'astronave identica in tutto e per tutto, anche se l'idea di cambiare non gli andava affatto a genio. E dato che non voleva pensare all'ipotetico mondo abitabile, si soffermò a riflettere sulla propria decisione di spingere l'astronave sopra il piano planetario e non sotto. In mancanza di una ragione precisa per portarsi al di sotto di un piano, i piloti quasi sempre preferivano navigare al di sopra. Perché ostinarsi a prendere in considerazione due direzioni come il sopra e sotto? Nella simmetria dello spazio erano pure e semplici convenzioni. Comunque, Travis aveva sempre presente in che direzione un pianeta osservato ruotasse intorno al proprio asse e orbitasse intorno al proprio sole. Quando entrambi i movimenti erano in senso anti-orario, la direzione indicata dal braccio alzato di una persona era il nord, quella indicata dai piedi era il sud. E in tutta la galassia il nord corrispondeva al sopra e il sud al sotto. Una pura e semplice consuetudine che risaliva alle nebbie delle epoche primitive, che veniva seguita passivamente. Se si guardava una mappa conosciuta, col sud in alto, nulla si riconosceva. Bisognava girarla perché avesse un senso. Travis pensò a una battaglia combattuta da Bellariose, il generale dell'impero, tre secoli addietro. Bellariose aveva spostato la sua squadra sotto il piano planetario in una fase cruciale, cogliendo in preparata una formazione avversaria. C'erano state lamentele in quanto ritenuta una manovra sleale e naturalmente allagnarsi erano stati gli sconfitti. Una consuetudine fortissima e antichissima che doveva essere nata sulla Terra. Al che la mente di Travis tornò di colpo al problema del pianeta abitabile. Quello ratte e bliss continuavano ad osservare il gigante gassoso che ruotava lentamente sullo schermo. La parte illuminata si allargò e dato che Travis non aveva modificato la regolazione spettrale, i fenomeni superficiali di turbolenza si fecero ancora più violenti e ipnotici. Poi Fallon apparve all'improvviso in sala comandi e Bliss decise che il piccolo solariano doveva fare un sonnellino e che lei lo avrebbe imitato. Pelerat rimase e Travis gli disse «Devo abbandonare il gigante gassoso, Yanov. Voglio che il computer si dedichi al rilevamento di un eventuale segnale gravitazionale della giusta entità. Certo, amico mio, a noi Pelerat. Ma la questione non era così semplice. Il computer non doveva individuare soltanto un segnale gravitazionale di entità adeguata. Anche la distanza doveva esserlo. Sarebbero trascorsi parecchi giorni prima che Travis potesse avere una risposta». Entrò in cabina tutto serio, ma il termine giusto era «cupo». Qui sussultò per la sorpresa. Bliss lo aspettava e accanto a lei c'era Fallon, col suo perizoma e la veste lavati da poco. L'abbigliamento ordinario gli donava di più di una delle camicie da notte di Bliss debitamente accorciata. «Non volevo disturbarti mentre eri impegnato al computer», disse Bliss. «Ma adesso ascolta. Su, Fallon». Con la stessa vocetta melodiosa e acuta, Fallon disse «Ti saluto, protettore Travis, è con grande piacere che io ti accompagno nello spazio. Mi rende felice, anche per la bontà dei miei amici. Bliss è bello». «L'hai imparato bene a memoria e pronunciato quasi perfettamente». «Non è affatto un brano imparato a memoria», replicò Bliss. «Fallon l'ha composto personalmente e ha chiesto di poterlo recitare a te. Non sapevo nemmeno cosa ti avrebbe detto fino a poco fa». Travis si sforzò di sorridere. «In tal caso, davvero ottimo», commentò notando che Bliss evitava di usare i pronomi personali. Bliss si rivolse a Fallon. «Te l'avevo detto che a Travis sarebbe piaciuto. Ora vai da Pell. Se vuoi, puoi leggere ancora». Fallon corse via e Bliss disse «Insorprendente la rapidità con cui impara il galattico. I solariani devono essere particolarmente portati per le lingue». Pensa, Bandar parlava il galattico e lo aveva sentito solo nelle comunicazioni iperspaziali. I loro cervelli possiedono senza dubbio doni notevoli, a parte la trasduzione di energia. Travis sbuffò. «Non dirmi che Fallon continua a non piacerti», disse la ragazza. «Non è questione di piacermi o meno. Quella creatura mi fa sentire a disagio. È una sensazione orribile avere a che fare con un'ermafrodita». «Vea, Travis, è assurdo. Fallon è una creatura vivente accettabilissima. Pensa a quanto dobbiamo sembrare disgustosi noi a lui. Due metà incomplete, un maschio e una femmina, che per riprodursi devono sottostare a una goffa e temporanea unione». «Hai qualcosa in contrario, Bliss?» «Non fraintendermi. Sto cercando di vedere noi due dal punto di vista dell'ermafrodita. Quello che per noi è del tutto naturale, per loro è ributtante. Se Fallon ti ispira a ribrezzo, beh, sappi che è solo perché sei di vedute ristrette e provinciali». «Francamente, è seccante non sapere che pronome usare con quella creatura. È un difetto della nostra lingua. Fallon non ha colpa. Non esiste alcuna lingua umana che si sia sviluppata tenendo conto dell'ermafroditismo. E mi fa piacere che tu abbia toccato l'argomento perché io stessa ci ho pensato parecchio. Evitare un pronome particolare non mi pare una soluzione. Perché non ne scegliamo uno arbitrariamente? Quando penso a Fallon io penso a una femmina. Innanzitutto per la sua voce acuta e poi perché ha la capacità riproduttiva, una caratteristica basilare della femminilità. Bella Rata è d'accordo con me. Perché non ti adegui anche tu? Consideriamola tutti una lei». Travis fece spallucci. «Benissimo. Sembrerà un po' strano precisare che questa lei ha i testicoli. Comunque, d'accordo». Bliss sospirò. «Hai il brutto vizio di non prendere seriamente nulla. Ma mi rendo conto che sei sottoposto a una tensione notevole e ti concederò quest'attenuante. Comunque, usa il femminile quando parli di Fallon, per favore». «Lo farò». Travis esitò un attimo e poi, incapace di frenare la lingua, disse. «Ogni volta che vi vedo insieme, ho l'impressione che Fallon sia diventato… sia diventata una specie di figlia per te. Forse perché desideri un bambino e credi che Yanov non sia in grado di dartene uno?» Bliss spalancò gli occhi. «Yanov non è qui per fare dei figli. Credi che mi serva di lui come un comodo espediente per cercare di avere un bambino? Beh, sappi che per me non è ancora venuto il momento e quando arriverà dovrò mettere al mondo un bambino gaiano. Pelorath non possiede certi requisiti». «Intendi dire che Yanov dovrà essere messo da parte?» «Assolutamente. Si tratterà solo di un episodio temporaneo. Potrebbe anche avvenire per inseminazione artificiale. Immagino che potrai avere un bambino solo quando Gaia stabilirà che è necessario, quando si creerà un vuoto in seguito alla morte di una controparte umana del tuo mondo. Ho ragione». «Sì, è vero. Anche se ti sei espresso in termini molto brutali. Gaia deve essere ben proporzionata in tutte le sue parti». «Come Solaria». Bliss serrò le labbra impallidendo. «Niente affatto. I solariani producono più del necessario e distruggono l'eccedenza. Noi produciamo lo stretto necessario e non ci troviamo mai nella condizione di dover distruggere, proprio come tu sostituisci gli strati esterni morenti della pelle con nuovi strati, il cui numero di cellule non supera di una sola unità la quantità occorrente». «Certo, capisco. A noi, Travis. Spero comunque che tu tenga conto dei sentimenti di Yanov. Riguardo alla nascita di un figlio mio, non ne abbiamo mai discusso e non ne discuteremo nemmeno in futuro». «No, non mi riferivo a questo. Il fatto è che mi sembra sempre più attaccata a Fallon. Ecco, Yanov potrebbe sentirsi trascurato». «Non lo trascuro affatto. E anche Yanov è profondamente affezionato a Fallon, come a me. Lei è un altro fattore comune che rafforza il nostro legame, ci unisce ulteriormente. Non sarai tu a sentirti trascurato, eh?» «Io? Lo stupore di Travis era autentico. Sì, tu. Non capisco gli isolati come tu non capisci Gaia, ma ho l'impressione che ti piaccia essere al centro dell'attenzione su quest'astronave. Con l'arrivo di Fallon può darsi che tu ti senta in secondo piano. Sciocchezze. Come quando sostieni che forse sto trascurando Yanov. Senti, stabiliamo una tregua e smettiamola. Io cercherò di considerare Fallon una femmina e lascerò perdere la tua mancanza di riguardo per i sentimenti di Yanov». Bliss sorrisse. «Grazie. Tutto a posto, dunque». Travis fece per andarsene e lei lo fermò. «Aspetta». Lui si girò e un po' stancamente disse «Sì». «Travis, è evidente che sei triste e depresso. Io non sonderò la tua mente, ma potresti dirmi cosa non va. Ieri hai detto che in questo sistema c'è un pianeta adatto e sembravi abbastanza soddisfatto. C'è ancora, spero. Non è stata una scoperta errata, eh? C'è un pianeta adatto, lo confermo. Le sue dimensioni sono giuste. Travis a noi. E dal momento che è adatto le sue dimensioni sono giuste. Ed è anche una distanza ideale dalla stella. Beh, allora cosa c'è? Siamo abbastanza vicini da analizzare l'atmosfera, ma guarda caso, ho appena scoperto che questo pianeta non ne ha. Non ha atmosfera? Niente che si possa veramente definire tale. È inabitabile e non esiste nessun altro pianeta intorno a questo sole. Il terzo tentativo non è servito a nulla». Pellerat aveva un'aria cupa ed era evidentemente restio a interrompere il silenzio infelice di Travis. Rimase a guardare dalla soglia della sala comandi, sperando che l'amico si decidesse ad avviare la conversazione. Travis non lo fece, chiudendosi in un silenzio più ostinato che mai. Infine, superato il limite della sua portazione, Pellerat esordì timidamente. «Cosa stiamo facendo?» Travis sollevò lo sguardo, fissò Pellerat un istante, si voltò e rispose asciutto. «Stiamo puntando sul pianeta». «Ma sei privo di atmosfera?» «Il computer dice che non c'è. Finora mi ha sempre detto quello che volevo sentire e l'ho accettato. Adesso mi ha detto qualcosa che non mi sta bene, per cui intendo controllare. Ammesso che un computer possa sbagliare, beh, vorrei proprio che stavolta si sbagliasse». «Credi che abbia commesso un errore?» «No». «C'è qualche motivo per cui potrebbe sbagliarsi?» «Eh, non credo». «No, allora perché prendersi la briga di controllare?» Travis girò il sedile verso Pellerat. I lineamenti contratti in una smorfia disperata. «Non capisci, Ghanov? Non mi viene in mente nient'altro. Sui primi due mondi non siamo approdati a nulla, per quanto riguarda la posizione della Terra. E anche il terzo non promette niente. Cosa posso fare? Vagare di mondo in mondo, guardarmi intorno e chiedere «Scusate, dov'è la Terra?» Quel pianeta ha nascosto troppo bene le sue tracce. Non ha lasciato in giro il minimo indizio». «Comincio a pensare che, anche se esistesse qualcuno, in un modo o nell'altro la Terra riuscirebbe a farcelo sparire sotto gli occhi». «Bella Ratanui». «E anche io ho pensato la stessa cosa. Ti spiace se ne discutiamo. So che sei abbattuto, amico mio, e che non hai voglia di parlare, quindi se preferisci che ti lasci in pace lo farò». «No, parla pure», gemette Travis. «Tanto, cos'altro posso fare se non ascoltare?» «Eh, non sei molto incoraggiante. Comunque, magari ci sarà utile una chiacchierata. E quando sarai stanco, interrompimi tranquillamente, d'accordo?» «Ecco, può darsi che la Terra non adotti soltanto misure passive per nascondersi, che non si limiti a cancellare qualsiasi traccia che la riguardi?» «E se mettesse in giro prove false?» «Si operasse in maniera attiva per creare una barriera di oscurità, confondendo così le acque?» «Cioè?» «Beh, in parecchi posti abbiamo sentito parlare della sua radioattività, il che sarebbe un buon sistema per scoraggiare qualsiasi tentativo di localizzarla. In caso di radioattività effettiva, sarebbe inavvicinabile. E anche dei robot esploratori, se ne avessimo, potrebbero non sopravvivere alle radiazioni. Quindi, perché cercare? Eh, in questo modo, se anche la Terra non fosse radioattiva, rimarrebbe inviolata. A parte un avvicinamento accidentale, nel qual caso magari disporrebbe di altri mezzi per mimetizzarsi?» Travis abbozzò un sorriso. «E anche a me è venuta in mente la stessa cosa, Yano Fanzi. Ho pensato che la storia dell'inverosimile gigantesco satellite sia stata inventata e inserita a posteriori nelle leggende terrestri. Anche il gigante gastoso, col suo mostruoso sistema di anelli, può essere soltanto una costruzione immaginaria per confondere le idee. Può darsi che tutti questi particolari siano stati creati per spingerci a cercare qualcosa che non esiste, per far sì che attraversiamo il sistema planetario giusto, raggiungendo la Terra, e ci allontaniamo appunto perché mancano il satellite gigantesco o un pianeta con tre anelli e la crosta radioattiva. E arrivo a immaginare di peggio, amico mio. Pellorat sembrava demolarizzato. «Di peggio? Com'è possibile? Eh, non è difficile quando nel cuore della notte la mente comincia a frugare morbosamente nella dimensione smisurata dell'immaginario. In cerca di qualcosa che arrenda la disperazione più intensa. E se le capacità mimetiche della Terra fossero assolute? Se fosse in grado di annebbiarci la mente? Pensa. Potremmo oltrepassare lei e il suo satellite smisurato, il gigante gassoso e i tre anelli senza vedere né l'una né gli altri, né se fosse già successo. Ma se pensi queste cose come mai stiamo? Non dico di crederci sto parlando di fantasie assurde. Continueremo a cercare noi». Pellorat ebbe un attimo di esitazione. «Per quanto tempo? Un giorno o l'altro dovremo rinunciare? Mai!» sbottò Travis in tono rabbioso. «Continuerò anche a costo di passare il resto della mia vita spostandomi di pianeta in pianeta a chiedere scusate dov'è la Terra!» «Comunque, quando sarete stanchi basta che me lo diciate e riporterò te, Bliss e Fallon su Gaia. Dopodiché ripartirò da solo». «Oh no, sai che non ti abbandoneremo, Golan. Viaggeremo di pianeta in pianeta insieme a te, se è necessario. Ma perché?» «Perché devo trovare la Terra e la troverò». «Non so come, ma la troverò!» «Adesso ascolta. Sto cercando di raggiungere una posizione da cui sia possibile studiare il lato di orno del pianeta senza che il suo sole sia troppo vicino. Quindi lasciami solo per un po'. Pellorat tacque, però non se ne andò. Rimase ad osservare mentre Travis fissava l'immagine planetaria, illuminata per più di metà sullo schermo. Pellorat sembrava indistinta, ma sapeva che Travis, collegato al computer, poteva vederla in condizioni ben diverse. Di un tratto Travis murmurò. C'è della foschia. «Allora deve esserci per forza un'atmosfera!» esclamò Pellorat. «Non è detto. Non un'atmosfera vera e propria, sufficiente a consentire l'esistenza della vita, ma quanto basta formare un venticello che sollevi la polvere. È una caratteristica nota dei pianeti con un'atmosfera rarefatta. Può darsi che ci siano anche delle piccole calotte polari, una modesta quantità di ghiaccio acqueo condensato ai poli. È un mondo troppo caldo perché l'anidride carbonica possa esistere allo stato solido. Dovrò passare al rilevamento radar, così potrò lavorare meglio soprattutto sul lato notturno. Avrei dovuto farlo subito, ma con un pianeta privo d'aria e quindi di nubi, il rilevamento visivo diretto è stato quasi un riflesso automatico». Travis restò in silenzio a lungo, mentre sullo schermo si accavallavano le immagini riflesse del radar, formando una specie di costruzione astratta che avrebbe potuto essere opera di un artista del periodo cleoniano. Poi Travis disse «bene» e lasciò il resto in sospeso. Pellarath attese alcuni istanti, infine non poteva fare a meno di chiedere «bene cosa». Travis lo guardò «non ci sono crateri, pare». «Niente crateri, è un buon segno». «È qualcosa che non mi sarei mai aspettato», disse Travis sorridendo. «Ed è un ottimo segno, eccezionale forse». Fallon restò col naso incollato all'oblò dell'astronave, attraverso il quale una minuscola parte dell'universo era visibile direttamente, a occhio nudo, senza l'intervento filtrante di ingrandimento del computer. Bliss, che aveva cercato di spiegare tutto questo a Fallon, sospirò e si rivolse sottovoce a Pellarath. «Bello, caro, non so fino a che punto riesco a capire. Per lei, la residenza del padre e una piccola parte della tenuta rappresentavano tutto l'universo. Non credo che sia mai stata fuori di notte, né credo che abbia visto le stelle». «Davvero?» «Certo. Prima di mostrarle qualcosa, ho aspettato che disponesse di un vocabolario sufficiente a capirmi un po', ed è stata una fortuna che tu abbia potuto parlare nella sua lingua». «Il guaio è che non so farlo tanto bene», si scusò Pellarath. «In effetti, l'universo è un concetto piuttosto difficile da afferrare così a freddo. Mi ha detto che, se quelle luci ne sono grandi mondi, mondi come Solaria, è impossibile che stiano sospesi nel nulla. Secondo lei dovrebbero cadere». «E ha ragione, partendo da quel poco che sa. Ma fa domande intelligenti e gradualmente capirà. Perlomeno è curiosa e non ha paura». «Il fatto è, Bliss, che anch'io sono curioso. Hai notato com'è cambiato Golan non appena ha scoperto che non c'erano crateri sul pianeta verso cui siamo diretti. Non ho la più pallida idea di cosa possa significare un particolare del genere. E tu?» «Neanch'io. Comunque, lui è più esperto di noi in planetologia e senza dubbio sa quel che fa». «Eh già, ma vorrei saperne qualcosa anch'io». «Allora chiediglielo». «Pellarath fece una smorfia. Ho sempre paura di disturbarlo. Secondo me, Travis è convinto che dovrei sapere certe cose senza bisogno di delucidazioni». «Figurati, Pell. Lui non esita a rivolgerti delle domande quando si tratta di chiarire alcuni aspetti dei miti e delle leggende della galassia che potrebbero esserci utili. Tu sei sempre pronto a spiegare perché lui non dovrebbe esserlo. Vai a chiedergli quello che ti interessa. E se si seccherà, beh, sarà un'ottima occasione per abituarsi ad essere socievole. Cosa di cui ha bisogno? Mi accompagni?» «Voglio rimanere con Fallon e cercare di farle afferrare il concetto dell'universo. E se ti spiegherà qualcosa puoi sempre riferirmela in seguito». Pellarath entrò nella sala comandi circospetto e notò con piacere che Travis fischiettava tra sé, chiaramente di buon umore. «Golan». Travis sollevò lo sguardo. «Janov, entri sempre in punta di piedi. Guarda che non è reato disturbarmi. Chiudi la porta e siediti. Siediti e dà un'occhiata». Indicò il pianeta sullo schermo e continuò. «Ho trovato solo un paio di crateri, tutti molto piccoli». «Questo è un fatto importante, Golan?» «Importante come? Non lo immagini». Pellarath fece spallucce. «Per me è tutto un mistero. All'università studiavo storia, sociologia e psicologia come materie secondarie e in più lingua e letteratura, soprattutto antica. Mi sono laureato in mitologia. La planetologia è un campo che ignoro come qualsiasi altra scienza fisica». «Beh, non c'è nulla di male, Janoff. Quello che sai mi va benissimo. La tua conoscenza delle lingue antiche e della mitologia ci è stata di grande utilità e non c'è bisogno che te lo ripeta. La planetologia lasciala pure a me». «Nessun problema». Lo rassicurò Travis. Poi proseguì. «Vedi, i pianeti si formano in seguito alla fusione violenta di oggetti più piccoli. Gli ultimi oggetti che si scontrano lasciano come impronta dei crateri. Potenzialmente, ben inteso. Se un pianeta è abbastanza grande da essere un gigante gassoso, avremo essenzialmente un pianeta liquido sotto un'atmosfera gassosa e le ultime collisioni, grazie alla componente liquida, non lasceranno alcuna traccia». Sui pianeti più piccoli e solidi, indipendentemente dalla loro natura rocciosa o ghiacciata, i crateri invece sono impronte ben visibili, che rimarranno finché non interverrà un agente esterno a cancellarli. Esistono tre tipi di agenti di cancellazione. Chiamiamoli così. Prima, un mondo può avere una superficie ghiacciata che ricopre uno strato liquido. In questo caso, un oggetto di collisione penetrerà attraverso il ghiaccio e affonderà, ma il ghiaccio si riformerà per cicatrizzare la ferita, tanto per usare un'immagine. Un pianeta o un satellite di questo tipo sarà per forza molto freddo e non avrà caratteristiche di abitabilità. Secondo, se un pianeta ha un'intensa attività volcanica, allora un flusso costante di lava o una caduta di ceneri riempirà e cancellerà definitivamente qualsiasi cratere della superficie. Anche in questo caso è chiaro che il pianeta non sarà abitabile. Il terzo caso riguarda i mondi abitabili. Questi mondi possono avere calotte polari, ma la maggior parte degli oceani deve essere allo stato liquido. Possono avere dei vulcani attivi, ma i vulcani non devono essere in numero eccessivo né troppo concentrati. Questi mondi non possono cicatrizzare i crateri né riempirli. Ci sono comunque gli effetti dell'erosione. Il vento e l'acqua eroderanno i crateri e in presenza di forme di vita, beh, sappiamo che la stessa azione degli esseri viventi è fortemente erosiva. Chiaro? Pellorat riflette per un attimo. Golan, non ti capisco affatto il pianeta al quale ci stiamo avvicinando. Atterreremo domani, precisò Travis Allegro. Non ha oceani. Solo minuscole calotte polari. E non ha neppure un'atmosfera vera e propria. La densità dell'atmosfera corrisponde a un centesimo di quella di Terminus. E non ha forme di vita. Stanno ai rilevamenti, no. Allora, cosa può avere cancellato i crateri? Gli oceani. Un'atmosfera e delle forme di vita. Ascolta. Se il pianeta fosse stato privo di aria e di acqua fin dall'inizio, i crateri esisterebbero ancora. La loro assenza dimostra che un tempo l'aria e l'acqua non mancavano, che forse in un passato abbastanza recente esistevano degli oceani e un'atmosfera di dimensioni considerevoli. Inoltre, si vedono enormi bacini che una volta contenevano mari e letti di fiumi adesso prosciugati. Quindi l'erosione è avvenuta e non è cessata da molto tempo. Infatti, non si sono potuti formare molti crateri. Per la realtà sembrava dubbioso. Non sarò un paleontologo, ma direi che se un pianeta è abbastanza grande e da avere avuto un'atmosfera per qualche miliardo di anni, beh, mi pare impossibile che possa perderla così all'improvviso, no? Sono d'accordo. A noi, Travis. Comunque, prima che la sua atmosfera scomparisse, questo mondo ospitava indubbiamente la vita. Vita umana, ritengo. Immagino che fosse un mondo terraformato, come quasi tutti i mondi abitati della galassia. Il guaio è che non sappiamo in che stato fosse prima dell'arrivo dell'umanità, né cosa sia stato fatto per adattarlo agli esseri umani, o in quali circostanze la vita sia scomparsa. Forse si è verificata una catastrofe che ha risucchiato l'atmosfera, provocando la fine di tutto. Forse esisteva qualche tipo di squilibrio che gli esseri umani hanno tenuto sotto controllo finché sono rimasti qui, e che ha innescato un processo di disgregamento atmosferico quando se ne sono andati. Può darsi che troviamo la risposta quando atterreremo. Non che abbia molta importanza. Se si è estinto, a che importanza può avere che un tempo la vita ci fosse? Non vedo la differenza tra un pianeta inabitabile da sempre e uno inabitabile solo in un secondo tempo. Su un pianeta diventato inabitabile in un secondo tempo si trovano le rovine lasciate dai suoi vecchi abitanti. Su Aurora c'erano delle rovine, su Aurora ci sono stati 20.000 anni di piagge e neve, di gelo e disgelo, di vento e cambiamenti di temperatura. E c'era la vita, ricorda. Non abbiamo trovato esseri umani ma altre forme di vita. Le rovine subiscono lo stesso processo di erosione dei crateri, anzi lo subiscono più in fretta. E dopo 20.000 anni non rimaneva nulla che potesse esserci utile. Su questo pianeta invece, nonostante il tempo trascorso, forse 20.000 anni, forse meno, sono mancate le intemperie e la vita. Si sono avuti soltanto dei cambiamenti di temperatura, quindi troveremo dei resti in buono stato. Sempre che esistono, mormorò Pellerat dubbioso. Forse su questo pianeta non è mai esistita alcuna forma di vita o almeno di vita umana. Forse la scomparsa dell'atmosfera è stata causata da un avvenimento naturale e straneo all'opera dell'uomo. No, no, è inutile che cerchi di contagiarmi col tuo pessimismo, perché malgrado la distanza ho già individuato i resti di quella che a un tempo era sicuramente una città. Quindi, domani, atterriamo. Bliss disse preoccupata. Fallon mi è convinta che la riporteremo da Gemby, il suo robot. Brontolò Travis, studiando la superficie del mondo che scorreva sotto di loro. Poi sollevò lo sguardo e commentò. Beh, era l'unico genitore che conoscesse, no? Certo, io ora credo che siamo tornati su Solaria. Questo pianeta somiglia a Solaria. E come può saperlo lei? Dille che non è Solaria. Ascolta, ti darò un paio di videolibri illustrati. Mostrale un po' di immagini di mondi e spiegale che esistono milioni di pianeti come quelli. Il tempo non ti mancherà. Non so per quanto tempo dovremo esplorare la zona, Yanof e io, dopo che avremo scelto un obiettivo interessante e saremo atterrati. Yanof e tu? Sì. Fallon non potrebbe venire con noi nemmeno se volessi. E sarei un pazzo a volerlo. Su questo mondo sono necessarie le tute spaziali, Bliss. Non c'è aria respirabile e non abbiamo una tuta che vada bene a Fallon. Quindi tu e lei rimarrete sull'astronave. Perché proprio io? Travis piegò le labbra in un sorrisetto forzato. E lo ammetto, mi sentirei più sicuro se venissi anche tu, ma non possiamo lasciare sola Fallon a bordo. Potrebbe fare dei danni, anche involontariamente. E Yanof deve venire con me perché se ci fossero delle scritte arcaiche potrebbe essere in grado di decifrarle. Il che significa che dovrei restare qui con Fallon. Pensavo che l'avresti fatto volentieri. Bliss sembrava incerta. Sei stata tu a voler portare la creatura, non io. Personalmente sono convinto che ci creerà solo dei guai. Beh, se la sua presenza comporta delle limitazioni dovrai adattarti, chiaro? Bliss sospirò. Già, hai ragione. Perfetto. Dov'è Yanof? È con Fallon. Benissimo. Vai a sostituirlo. Voglio parlargli. Travis stava ancora studiando la superficie del pianeta quando Pelorat entrò schierendosi la voce per annunciare la propria presenza. Qualcosa non fa, Colin? No, sono solo un po' indeciso. È un pianeta strano e non so cosa sia successo laggiù. I mari dovevano essere estesi e aggiudicare dai bacini rimasti, ma erano poco profondi. Dalle tracce direi che fosse un mondo di disalazione o di canali. Ma può anche darsi che i mari non fossero molto salati. In tal caso si spiegherebbe l'assenza di consistenti depositi salini nei bacini. Certo, con la scomparsa degli oceani potrebbe essere scomparso anche il contenuto salino e questa avrebbe tutta l'aria di essere opera dell'uomo. Pelorat disse esitante. Scusa la mia ignoranza, Golan, ma tutte queste cose centrano con quello che stiamo cercando? No, non credo. Ma non posso fare a meno di essere curioso. Mi piacerebbe sapere come questo mondo è stato terraformato e com'era prima. Allora forse capirei cos'è successo dopo che è stato abbandonato o poco prima. Forse. Se sapessimo cos'è successo potremmo essere al riparo da sorprese spiacevoli. Che genere di sorprese? È un mondo morto, no? Direi di sì. In linea di massima. Pochissima acqua, atmosfera rarefata e irrespirabile e Bliss non capta alcun segno di attività mentale. Allora non dovrebbero esserci problemi, giusto? L'assenza di attività mentale non comporta necessariamente l'assenza di forme di vita. Ma comporta sicuramente l'assenza di forme di vita pericolose? Non lo so, ma non è per questo che volevo parlarti. Ci sono due città che potrebbero prestarsi a una prima esplorazione. Sembrano in buono stato, come tutte le altre. Qualsiasi cosa abbia distrutto l'aria e gli oceani evidentemente non ha toccato le città. Comunque sono piuttosto grandi e la più grande non dispone di spazi vuoti. Ci sono degli spazioporti ai margini, ma nel centro urbano vero e proprio nulla. La più piccola invece ha qualche spazio libero, quindi sarà più facile scendere nella zona che ci interessa. Bello Rat fece una smorfia. Vuoi che sia io a decidere, Golan? No, deciderò io. Mi interessa solo il tuo parere. Eh, per quel che può valere. Ecco, una città molto estesa, con uno sviluppo caotico, dovrebbe essere un centro commerciale o industriale. Una città più piccola o con spazi aperti dovrebbe essere invece un centro amministrativo. E a noi interessa soprattutto un centro amministrativo. Ci sono degli edifici monumentali. Cosa intendi per edificio monumentale? Pello Rat sorrise. Uno dei suoi sorrisetti impacciati e piuttosto rari. Non saprei di preciso. Le mode cambiano da un mondo all'altro e col trascorrere del tempo. Comunque, tendenzialmente un edificio monumentale dovrebbe avere un'aria imponente, inutile e dispendiosa, come quello che abbiamo visto su Comporellen. Travis sorrise a sua volta. È difficile distinguere bene dall'alto e anche la vista laterale in movimento è piuttosto confusa. Perché sceglieresti il centro amministrativo? Perché probabilmente è lì che troveremo il museo planetario, la biblioteca, gli archivi, l'università e via dicendo. Bene, allora andremo là, nella città più piccola e forse troveremo qualcosa. Abbiamo mancato il bersaglio due volte, ma può darsi che questa volta vada diversamente. Già, forse saremo tre volte fortunati. Travis corrugò la fronte. Dove hai trovato questa espressione? È antica. L'ho trovata in una leggenda. Credo che significhi successo al terzo tentativo. Sì, suona bene. D'accordo allora. Tre volte fortunati, Yanov. Muschio. Travis era grottesco nella sua tuta spaziale. L'unica parte che rimanesse all'esterno erano le fondine, non quelle che allacciava normalmente sui fianchi, bensì quelle più solide che facevano parte della tuta stessa. Travis infilò attentamente il fulminatore nella fondina di destra e la frusta neuronica in quella di sinistra. Le armi erano state ricaricate e questa volta nulla sarebbe riuscito a strappargliele, pensò Travis con rabbia. Bliss sorrise. Porti le armi anche su un mondo senza aria e, come non detto, non discuterò le tue decisioni. Bene, a noi Travis e si girò per aiutare Pelorat a infilare il casco, prima di mettere il proprio. L'altro, che non aveva mai indossato una tuta spaziale, domandò in tono piagnuculoso. Ma riuscirò davvero a respirare chiuso in questo aggeggio, Golan? Eh, te lo garantisco. Bliss rimase a osservare cingendo le spalle di Fallon mentre le ultime giunture venivano sigillate. La giovane solariana fissava allarmata le due figure in tuta, tremava e Bliss le diede una lieve stretta rassicurante. Il portello della camera stagna si aprì e i due entrarono agitando le braccia in segno di saluto. Poi il portello si richiuse, si aprì quello esterno e Travis e Pelorat sbarcarono goffamente sul pianeta morto. Era l'alba. Naturalmente il cielo era limpido e sfumato di porpora, ma il sole non era ancora sorto. All'orizzonte, leggermente più chiaro, si notava una lieve foschia. C'è freddo, esordì Pelorat. Tu hai freddo, fece Travis sorpreso. Le tute erano ben isolate e semmai l'inconveniente era che di tanto in tanto vi si accumulava troppo calore corporeo. No, assolutamente, rispose Pelorat. Ma guarda. Indicò qualcosa mentre la sua voce giungeva chiara a Travis via radio. Nella luce purpurea dell'alba, la facciata cadente di pietra dell'edificio verso cui si stavano dirigendo era coperta di brina. Con un'atmosfera rarefatta, disse Travis, la notte è molto fredda e il giorno caldissimo. Questa dovrebbe essere la parte più gelida della giornata e dovrebbero trascorrere parecchie ore prima che la temperatura salga troppo perché ci si possa esporre al sole. Fu come si avesse pronunciato una parola magica perché il bordo del sole affiorò all'orizzonte. Non guardarlo, disse Travis. La tua visiera è riflettente e filtra gli ultravioletti ma sarebbe ugualmente pericoloso. Volse le spalle al sole e lasciò che la propria ombra si allungasse sull'edificio. Il sole stava già sciogliendo la brina. Per alcuni istanti il muro diventò scuro macchiandosi di umidità poi scomparve anche quella. Gli edifici non sono tanto in buono stato visti da vicino. Osservò Travis. E sono pieni di crepe e si stanno sgretolando. È il risultato del cambiamento di temperatura immagino e del fatto che le tracce d'acqua gelano e si sciolgono ogni notte e ogni giorno magari da migliaia di anni. Ci sono delle lettere incise nella pietra sopra l'ingresso ma non è facile leggere con tutte queste crepe. Riesce a capire qualcosa Yanov? Dovrebbe trattarsi di una specie di istituto finanziario. Almeno mi pare di distinguere una parola che potrebbe essere banca. Sarebbe? È un edificio in cui i beni vengono depositati, ritirati, investiti, scambiati, prestati. Se non sbaglio. Un intero edificio adibito a questo. Senza computer. Senza il controllo completo dei computer. Travis alzò le spalle. Certi particolari della storia antica non gli interessavano. Perlustrarono la zona sempre più in fretta, soffermandosi in ogni edificio il minimo indispensabile. Il silenzio, l'area di morte che li circondava, erano deprimenti. Il collasso millenario che erano venuti a disturbare aveva trasformato quel posto in uno scheletro di città di cui non restavano che le costole. Erano abbondantemente nella zona temperata, ma Travis aveva l'impressione di sentire sulla schiena il calore del sole. Un centinaio di metri alla sua destra, Pelerat disse ad un tratto. Guarda qua! Travis sussultò. E non urlare, Yanov. Posso sentirti benissimo anche se parli sottovoce, a qualsiasi distanza. E che cosa c'è? Pelerat abbassando la voce disse. Questo edificio è il palazzo dei mondi. Cioè, credo che sia questo il significato della scritta. Travis lo raggiunse. Di fronte a loro c'era una costruzione di due piani. La linea del tetto era irregolare, ingombra di frammenti di roccia. Sculture crollate, forse. Ne sei certo? Chiese Travis. E se entriamo lo scopriremo. Salirono cinque ampi gradini e attraversarono una piazza in cui lo spazio si sprecava. Nell'area rarefatta, le calzature metalliche producevano una vibrazione frusciante più che un rumore vero e proprio. Adesso capisco cosa intendevi quando hai parlato di qualcosa di imponente, inutile e dispendioso. Borbotto Travis. Entrarono in un salone. La luce del sole penetrava attraverso alcune grandi finestre, illuminando l'interno in modo troppo vivido e fastidioso nei punti che colpiva, ma lasciando sacche di oscurità. Anche questo dipendeva dalla rarefazione dell'atmosfera. Al centro della sala c'era una figura umana, di grandezza superiore al naturale, apparentemente di pietra sintetica. Un braccio era caduto, l'altro era spezzato all'altezza della spalla e Travis riflettì che sarebbe bastata una lieve pressione per far cadere anche quello. Indietreggiò, come se temesse di cedere a una simile tentazione vandalica. Chissà chi è. Non vedo scritte. Senza dubbio doveva essere un personaggio famoso. Se chi ha collocato la scultura ha pensato bene di tralasciare un'indicazione. Pellerat guardava in alto e Travis seguì la direzione del suo sguardo. Su una parete erano incisi dei simboli che non fu in grado di leggere. «Sorprendente!» esclamò Pellerat. «Avranno forse ventimila anni, eppure trovandosi al riparo dal sole e dall'umidità sono ancora leggibili. Eh, non per me. Sono caratteri antichi e probabilmente elaborati. Vediamo. Sette, uno, due...» La sua voce si perse in un borbotteo confuso. Poi tornò comprensibile. «Sono riportati cinquanta nomi, e dal momento che i mondi spaziali dovrebbero essere stati cinquanta, è che questo è il palazzo dei mondi. Eh, sì, secondo me, quelli sono i nomi dei mondi, probabilmente in ordine di fondazione. Aurora è il primo, e Solaria l'ultimo. Come puoi notare ci sono sette colonne, con sette nomi nelle prime sei e otto nell'ultima. Si direbbe quasi che avessero progettato uno schema simmetrico, sette per sette, e che abbiano aggiunto Solaria in seguito. A mio avviso, amico mio, quella lista risale a un periodo precedente alla terraformazione e al popolamento di Solaria. E noi su quale pianeta ci troveremmo? Sapresti dirlo? Se guardi bene, vedrai che il quinto nome della terza colonna, il diciannovesimo, è scritto in lettere un po' più grandi delle altre. Gli autori di questo elenco dovevano essere abbastanza egocentrici per volersi porre in primo piano. E inoltre, quale sarebbe il nome? Per quel che riesco a leggere io? Melpomenia. È un nome che non ho mai sentito. Potrebbe rappresentare la terra. Pellorat scosse il capo deciso, anche se esternamente il casco non si muoveva. Nelle vecchie leggende la terra viene indicata con decine di nomi. E come sai, Gaia è uno di questi. Poi abbiamo Earth, Erda e molti altri. Sono tutti brevi. Non mi risulta che in questo caso esistano nomi lunghi e nemmeno che esista qualche nome corrispondente a una forma abbreviata di Melpomenia. Dunque siamo su Melpomenia e non è la terra. Eh già. Inoltre, come stavo per dire prima, un indizio ancora più significativo delle lettere più grandi è che le coordinate di Melpomenia vengono indicate con 000, il che è logico se si tratta di coordinate che si riferiscono al proprio pianeta. Quella lista dà anche le coordinate, chiese Travis frastornato. Ci sono tre cifre per ogni nome. Che altro potrebbero essere? Travis non rispose. Aprì un piccolo scomparto della tuta sulla coscia destra ed estrasse un minuscolo apparecchio collegato alla tuta da un cavetto. Lo accostò all'occhio e lo mise a fuoco inquadrando con cura le scritte sulla parete, muovendo le dita guantate con una certa difficoltà. Una telecamera? Fu la domanda superflua di Pellerat. Riverserà l'immagine direttamente nel computer di bordo. Travis scattò diversi fotogrammi da angolazioni diverse. Poi disse. Un attimo, devo salire più in alto. Aiutami, Yanov. Pellerat intrecciò le mani ma Travis fece cenno di no. Così non sosterrà il mio peso. Mettiti i carponi. Pellerat si inginocchiò a fatica e altrettanto faticosamente Travis, dopo aver riposto la telecamera nella tuta, montò sulle spalle dell'amico e da lì passò sul piedistallo della statua. Provò a scuotere ad agio la statua per stabilirne la solidità. Poi appoggiò il piede su un ginocchio piegato e lo usò come base per aggrapparsi alla spalla mutilata. Puntando i piedi contro alcune sporgenzi irregolari del torace, si sollevò e finalmente riuscì a sedersi sulla spalla, sbuffando. Non era certo un gesto riguardoso se si pensava alle persone scomparse che un tempo avevano venerato la statua e ciò che rappresentava. Travis se ne rendeva conto e cercò di sedere con la maggiore leggerezza possibile. «Cadrai? Ti farai male!» esclamò Pellerat ansioso. «Non cadrò e non mi farò male. Tu piuttosto vuoi farmi diventare sordo?» Travis prese di nuovo l'apparecchio e mise a fuoco. Dopo parecchi scatti tornò a riporlo e si calò con cautela finché i suoi piedi non toccarono il piedistallo. Salta a terra e le vibrazioni dell'impatto diedero evidentemente il colpo decisivo perché il braccio ancora intatto si sbriciolò senza che si sentisse alcun rumore, formando un mocchietto di frammenti sul pavimento. Travis raggelò. Per un attimo provò l'impulso di correre a nascondersi come se temesse l'arrivo del custode dopo aver rotto qualcosa di importante. Durò pochissimo ma fu una sensazione dolorosa. La voce di Pellerat era mesta come quella di chi è stato appena testimone, se non complice, di un atto vandalico. Comunque Pellerat cercò di consolare l'amico. «Non importa, Golan. Tanto sarebbe caduto da solo, comunque». Si avvicinò ai frammenti sul piedistallo e sul pavimento come se cercasse una prova ulteriore della fragilità della statua, prese uno dei frammenti più grossi e disse «Golan, vieni qui». Travis si portò accanto a lui e Pellerat, indicando un pezzo di pietra che apparteneva evidentemente al punto in cui il braccio si univa alla spalla, chiese «Cos'è questo?». Travis guardò. C'era una chiazza di lanugine verde vivo. Travis la sfregò con un dito staccandola facilmente. «Sembrerebbe muschio». «La forma di vita inerte e priva di mente di cui parlavi». «Non so fino a che punto, priva di mente». Scommetto che Bliss sosterrebbe che anche questo muschio è cosciente. Credi che sia questa specie di muschio a sgretolare la roccia?» «Sì, può darsi che influisca. Su questo mondo c'è parecchia luce e una certa quantità d'acqua. Una metà della sua atmosfera è costituita da vapore acqueo e il resto è azoto e gas inerti. La percentuale di anidride carbonica è infinitesimale, il che farebbe supporre l'assenza di vegetazione, ma l'anidride carbonica potrebbe essere così scarsa in quanto fusa per lo più nella crosta rocciosa. Ora, se lo strato roccioso contiene del carbonato, può darsi che questo muschio lo scinda con qualche secrezione acida e sfrutti poi l'anidride carbonica generata. Il muschio potrebbe essere la forma di vita principale rimasta sul pianeta». «Fascinante!» «Ne è sicuro. Ma fino a un certo punto. Le coordinate dei mondi spaziali sono molto interessanti e tuttavia quello che ci serve sono le coordinate della terra. Se non sono qui, potrebbero essere in un altro punto dell'edificio o altrove. Andiamo, Yanov!» «Senti!» «No, no!» disse Travis impaziente. «Parleremo dopo. Adesso dobbiamo vedere se questo palazzo può rivelarci qualche altra informazione preziosa. La temperatura sale!» controllò il minuscolo indice termico sul dorso del guanto sinistro. «Andiamo!» Attraversarono le stanze il più delicatamente possibile per paura di produrre vibrazioni troppo forti e causare ulteriori danni. I loro passi sollevavano un po' di polvere che ristegnava alcuni istanti e tornava a depositarsi nell'area rarefatta accanto alle loro impronte. Di tanto in tanto, in qualche angolo buio, si notavano altri esempi di formazione di muschio. La presenza di una forma di vita, per quanto di grado inferiore, non era abbastanza consolante e non alleviava la sensazione soffocante che provavano nell'esplorare quel mondo morto. Un pianeta che, a giudicare dai resti che li circondavano nella loro imponenza, un tempo era stato vivo e fiorente. D'un tratto Pellarat annunciò «Questo deve essere una biblioteca!» Travis si guardò intorno incuriosito. C'erano degli scaffali e ora che osservava più attentamente gli sembrava di vedere qualcosa di simile a dei videolibri, mentre a una prima occhiata frettolosa aveva pensato che si trattasse di semplice oggetti ornamentali. Ne prese uno con circospezione. Erano spessi e ingombranti, ma poi capì che si trattava soltanto degli astucci. Armeggiando con le dita, aprì finalmente il contenitore e all'interno vide parecchi dischi. Anche i dischi erano spessi e sembravano fragili, ma non era il caso di collaudarne la robustezza. «Incredibilmente primitivi!» disse Travis. «Hanno ventimila anni!» osservò Pellarat come a difendere i milpomeniani dall'accusa di arretratezza. Travis indicò il dorso del videolibro, dove erano presenti degli strani svolazzi ancora leggibili ma incomprensibili. «E il titolo? Che cosa c'è scritto?» Pellarat lo studiò. «Non sono molto sicuro, amico mio. Credo che una delle parole si riferisca alla vita microscopica. Una parola che sta per microrganismo, forse. E ho l'impressione che questi siano termini tecnici di microbiologia, che non capirei nemmeno in galattico standard. Probabile.» Borbottò Travis Cupo. «Ed è altrettanto probabile che non ci sarebbero di alcuna utilità, se anche riuscissimo a leggerle. A noi i germi non interessano. Fammi un favore, Ghanov. Dai un'occhiata ad alcuni di questi libri e vedi se c'è qualcosa con un titolo interessante. Intanto io darò un'occhiata ai visori.» «Perché sono visori?» chiese Pellarat. Si trattava di strutture cubiche e tozze, sormontate da uno schermo inclinato e da un prolungamento curvo sulla sommità. Forse una specie di bracciolo o forse un punto dove appoggiare un elettrotacquino. «Ammesso che esistessero su Melpomenia.» «Se questa è una biblioteca», rispose Travis, «devono pure esserci strumenti di lettura. A me sembrano proprio visori.» Spolverò piano uno schermo che per fortuna non si sbriciolò. Poi azionò i comandi, sempre con delicatezza, uno dopo l'altro. Non accadde nulla. Provò un altro visore, ne provò un terzo, con gli stessi risultati negativi. Prevedibile. Anche se fossero stati conservati in perfetta efficienza e per 20 millenni si fossero deteriorati ben poco grazie all'atmosfera rarefatta e a una minima presenza di vapore acqueo, c'era ugualmente il problema dell'alimentazione. L'energia immagazzinata, per quanto protetta da schermature, tendeva a desperdersi. Era un altro aspetto generale e inevitabile della seconda legge della termodinamica. E la rotta si portò alle spalle di Travis. «Golan?» «Sì?» «Ho qui un videolibro.» «Di che genere?» «Credo che sia una storia del volo spaziale.» «Perfetto, ma non ci servirà a nulla se non riesco a mettere in funzione questo visore.» «Potremmo portare il videolibro sull'astronope.» «Non saprei come adattarlo al nostro visore. Il sistema di scansione a bordo è sicuramente incompatibile.» «Ma tutto questo è proprio necessario, Golan? Se noi...» «Sì, Yanov, è necessario.» «Adesso non interrompermi. Sto cercando di decidere cosa fare. Potrei provare a dare energia al visore. Forse non occorre altro.» «E dove trovi l'energia?» «Beh...» Travis estrasse le armi e le osservò per un attimo, quindi ripose il fulminatore. Aprì la frusta neuronica e controllò il livello di carica. Era al massimo. Travis si stese sul pavimento e strense il visore cercando di spingerlo in avanti. Il visore si spostò leggermente e Travis studiò quello che aveva appena scoperto. Uno dei cavi doveva essere quello dell'alimentazione e sicuramente era quello che usciva dalla parete. Non si vedeva alcuna spina né una derivazione. Era difficile fare i conti con una cultura aliena e antica dal momento che anche le cose più semplici e scontate apparivano irriconoscibili. Tirò piano il cavo, poi più forte. Lo girò da una parte, poi dall'altra. Premette la parete nei pressi del cavo e il cavo vicino alla parete. Provò a testare il pannello posteriore seminascosto del visore, ma non cambiò nulla. Allora appoggiò una mano sul pavimento per drezzarsi e mentre si alzava il cavo che stringeva si staccò misteriosamente. Non sembrava rotto né lacerato. L'estremità era liscia come il punto della parete dove era fissato un attimo prima. Pallorat lo chiamò sottovoce. Gollon, posso? Travis agitò il braccio perentoriamente. No, no, Rayanov, per favore. Si accorse di avere della lanugine verde nelle pieghe del guanto sinistro. Doveva aver raccolto quel muschio dietro il visore, schiacciandolo. Il guanto sembrava lievemente umido, ma asciugò subito. E la macchia verdastra diventò marrone. Travis rivolse la propria attenzione al cavo, fissando l'estremità staccata. Sì, c'erano due forellini. Si potevano inserire dei fili lì. Si sedette sul pavimento, aprendo l'alimentatore della frusta neuronica. Depolarizzò uno dei fili e lo staccò. Poi, lentamente, lo infilò in un foro e spinse finché il filo si fermò. Quando provò a staccarlo con debole strattoni, il filo non si mosse. Sembrava bloccato. Allora depolarizzò l'altro filo e lo inserì nella seconda apertura. In questo modo, teoricamente, il circuito si sarebbe chiuso, fornendo energia al visore. Yanov, immagino che avrai maneggiato videolibri di ogni tipo. Vedi se riesce a inserire quello nel visore. È proprio necessario. Per favore, basta con le domande inutili. Non abbiamo molto tempo. Non voglio essere costretto ad aspettare che sia notte fonda e che l'edificio si raffreddi abbastanza da consentirci di tornare. Credo che vada inserito qui, Golan, ma... Bene, se è una storia del volo spaziale, dovrà iniziare con la Terra, dato che il volo spaziale è stato inventato là. Forza, vediamo se questo aggeggio funziona. Pellorat, con cura un po' eccessiva, inserì il videolibro nell'ovvia feritoia e cominciò a studiare i contrassegni dei vari controlli. Mentre aspettava, Travis parlò sottovoce, in parte per scaricare la tensione. Probabilmente anche su questo mondo ci saranno dei robot sparsi qua e là, e forse ancora funzionanti, grazie a un ambiente che garantisce il vuoto quasi assoluto. Il problema è che i loro alimentatori saranno scarichi da chissà quanto. Se anche venissero ricaricati, come reagirebbero i loro cervelli? Le leve e gli ingranaggi possono resistere ai millenni, ma i microinterruttori e gli altri congegni subatomici che hanno senza dubbio nel cervello? E quelli si saranno deteriorati per forza. E anche se non si fossero deteriorati, cosa potrebbe sapere un robot della Terra? Cosa? Il visore funziona, amico mio! Annunciò Pellorat. Nella penombra lo schermo cominciò a illuminarsi in modo tremolo, debolmente. Travis alzò un po' il livello di erogazione della frusta neuronica e la luminosità aumentò, mentre qualche macchia confusa scorreva sullo schermo. Va messa a fuoco, disse a Travis. Lo so, annui Pellorat, ma non riesco a regolarlo meglio di così. Il videolibro deve essersi consumato. Adesso le ombre scorrevano rapide e di tanto in tanto sembrava che apparissero dei brani scritti. Poi, all'improvviso, dopo un attimo di chiarezza, tutto tornò a confondersi. Torna indietro e blocca, Yanov. Pellorat stava già provando. Andò indietro, individuò il punto interessante, fece avanzare il videolibro e finalmente riuscì a fermare l'immagine. Travis cercò di leggere smanioso, ma dovette rinunciare e disse con una punta di frustrazione. Tu riesci a capire, Yanov. E non completamente, rispose Pellorat stringendo le palpebre. Riguarda Aurora, mi pare, parla della prima spedizione iper spaziale, il primo espandimento, dice. Proseguì e le immagini si annebbiarono e si sfocarono di nuovo. Infine disse, tutti i frammenti che riesco a decifrare parlano dei mondi spaziali Golan. Pare che non ci sia nulla sulla Terra. In tono amareggiato, Travis disse. No, logico. Anche su questo mondo, come su Trantor, è stato cancellato tutto. Spegni questa geggia. Ma non ha importanza, disse Pellorat spegnendolo. Perché? Possiamo provare in altre biblioteche? No, anche là non troveremo nulla. Le informazioni sono state cancellate ovunque, sai. Mentre parlava Travis guardava all'amico e infine lo fissò con un misto di orrore e ripugnanza. Cos'hai sulla visiera? Automaticamente Pellorat portò la mano guantata alla visiera. La staccò e guardò. Cos'è? Fece perplesso. Quindi guardò Travis e continuò con voce stridula. Anche la tua visiera ha qualcosa di strano, Golan. Travis si guardò intorno un istante come se cercasse uno specchio. Ma non ce n'erano e in ogni caso avrebbe avuto bisogno di una luce. Mormorò. Vieni al sole. Trascinò Pellorat nel raggio luminoso che penetrava dalla finestra più vicina. Nonostante l'effetto isolante della tuta spaziale, avvertiva il calore del sole sulla schiena. Guarda verso il sole, Yanov. Poi chiudi gli occhi. Capì subito cosa avesse di strano alla visiera. C'era del muschio che cresceva regogliosamente nel punto in cui il vetro della visiera incontrava il tessuto metallizzato della tuta. La visiera era orlata di lanugine verde e Travis si rese conto che anche la sua doveva essere in condizioni identiche. Passò un dito sul muschio che deriva al casco di Pellorat. Una parte si staccò macchiandogli il guanto. Mentre Travis osservava, il muschio che luccicava nel riflesso del sole sembrò irrigidirsi e dessiccarsi. Lui provò ancora e questa volta il muschio si sbriciolò staccandosi. Stava diventando marrone. Travis strofinò bene i bordi della visiera di Pellorat. Adesso pulisci la mia, Yanov, disse. E poco dopo. Tolto tutto? Bene, anche la tua visiera è a posto. Andiamo. Non ci resta altro da fare qui. Il calore del sole era fastidioso nella città deserta e senza aria. Gli edifici di pietra scintillavano in modo quasi doloroso. Travis tenne gli occhi socchiusi e cercò, se possibile, di costeggiare il lato in ombra delle strade. Si fermò di fronte a una crepa nella facciata di una costruzione. Una crepa abbastanza ampia da permettergli di infilare un dito. Quando ebbe ritratto il dito, lo guardò e mormorò. Muschio. E deliberatamente si portò al sole e alzò la mano per un po'. Il passaggio obbligato è l'anidride carbonica, disse Travis. Cresce dove trova l'anidride carbonica e in pratica la può trovare in mille posti. Noi stessi siamo un'ottima fonte di anidride, probabilmente la più ricca su questo mondo quasi morto. È probabile che tracce di questo gas filtrino attraverso i bordi delle visiere. Così il muschio cresce lì intorno. Eh sì. Il tragitto di ritorno all'astronave sembrò molto più lungo e naturalmente più caldo dell'andata. L'astronave era ancora all'ombra quando la raggiunsero. Per fortuna al momento di atterrare Travis aveva calcolato giusto almeno su quel particolare. Guarda! Esclamò Pellerat subito. Travis annui. I bordi del portello erano striati di muschio. Altra perdita, chiese Pellerat. Certo, da un punto di vista quantitativo insignificante, ma il muschio individua anche la più piccola fuoriuscita di anidride carbonica. Le sue spore devono essere dappertutto e se trovano qualche molecola del prezioso gas attecchiscono subito. Travis regolò la lunghezza d'onda della radio mettendosi in contatto con l'astronave. Bliss, mi senti? La voce della ragazza risuonò in entrambi i caschi. Sì, pronti a entrare. Avete avuto fortuna. Siamo qui fuori, ma non aprire il portello. Lo apriremo noi dall'esterno. Ripeto, non aprire il portello. Perché? Bliss, fai come ti dico, d'accordo? Discuteremo dopo. Travis estrasse il fulminatore, ne abbassò l'intensità fino al minimo e lo fissò incerto. Non l'aveva mai usato al minimo. Si guardò intorno, non c'era niente di abbastanza fragile su cui collaudarlo. Allora, nell'assoluta disperazione, lo puntò sul fianco dell'altura che riparava dal sole la stella lontana. Il bersaglio non diventò incandescente. Travis provò a toccare il punto colpito. Era caldo, ma è impossibile dirlo con sicurezza dato il tessuto isolante della tuta. Travis esitò ancora, poi decise che lo scafo dell'astronave doveva avere all'incirca la stessa resistenza del fianco della collina. Puntò il fulminatore sul bordo del portello e fece scattare brevemente il contatto, trattenendo il respiro. Parecchi centimetri di muschio diventarono subito scuri. Travis agitò la mano vicino al tratto annirito e il lieve spostamento dell'aria rarefatta fu sufficiente a disperdere i resti del vegetale. «Funziona?» chiese Pellorat ansioso. «Certo, ho trasformato il fulminatore in un debole raggio termico». Travis finì di disinfestare i margini del portello. Poi lo colpì per creare una vibrazione che provocasse il distacco del muschio ormai morto e un pulviscolo marrone scese lentamente a depositarsi al suolo. «Credo che possiamo aprire adesso», disse Travis. Servendosi dei comandi che aveva al pulso, emise l'onda radio che azionava il congegno di apertura. Il portello non si era ancora aperto del tutto quando Travis incitò l'amico dicendo «Non restare l'impalato, Ianof, entra! Non aspettare gli scalini, arrampicati!» Quindi seguì Pellorat, rorò col fulminatore gli scalini che si stavano abbassando e battì il segnale di chiusura del portello, continuando a tenere in funzione il raggio termico finché non si ritrovarono in un ambiente chiuso. «Siamo nella camera stagna, Bliss. Ci resteremo per qualche minuto. Mi raccomando, tu non fare nulla!» La voce di Bliss ribattì «Ditemi almeno qualcosa. Stai bene tu? E Pel? Sono qui, Bliss», rispose Pellorat. «Sto bene. Non c'è motivo di preoccuparsi. Se lo dici tu, Pel, ma dopo pretendo delle spiegazioni. Promesso», disse Travis e accese la luce della camera stagna. Le due figure in tuta spaziale si trovavano di fronte. «Stiamo pompando all'esterno tutta l'area del pianeta», spiegò Travis. «Quindi aspetteremo che l'operazione sia terminata. E l'area di bordo? La lasceremo entrare? Per un po', no. Anch'io sono ansioso di togliermi la tuta, Yanov, ma prima voglio che ci sbarazziamo delle spore che sono entrate con noi o che abbiamo addosso». Nell'illuminazione un po' scarsa della camera stagna, Travis puntò il fulminatore sui bordi interni del portello e passò metodicamente il raggio termico tutto intorno, ripetendo l'operazione un paio di volte. «Adesso tocca a te, Yanov». Pellarat si agitò allarmato e Travis lo tranquillizzò. «Forse sentirai caldo, nient'altro. Se il calore sarà eccessivo, dillo». Passò il raggio invisibile sulla visiera, in particolare lungo i margini, poi lentamente sullo resto della tuta. «Ura alza le braccia, Yanov. Ecco, appoggiale sulle mie spalle e alza un piede. Devo disinfestare le suole. L'altro piede adesso. Ne è caldo? Troppo caldo? Non sento esattamente un fresqualito di brizza, Golan. Bene. Allora fammi assaggiare la mia medicina adesso. Ma, Golan, io non ho mai impugnato un fulminatore. Devi farlo. Stringilo così e col pollice spingi questo piccolo pulsante. Stringi bene. Ecco fatto. Adesso punta il raggio sulla mia visiera. Muovilo in modo uniforme, non tenerlo troppo a lungo su un unico punto. Bene. Adesso il resto del casco, poi il collo». Travis continuò a guidare i movimenti dell'amico e, quando si trovò sudato da capo a piedi, per quella doccia termica, riprese in mano il fulminatore e controllò il livello di carica. «Ne rimane meno della metà», disse, e horrorò l'interno della camera stagna in ogni angolo finché l'arma non ebbe esaurito l'energia. Allora la ripose nel fodero e azionò l'apertura del portello interno. Accolse con sollievo il sibilo dell'aria che entrava. Era fresca e il suo potere convettivo avrebbe raffreddato in fretta le tute spaziali. Probabilmente era uno scherzo dell'immaginazione, ma Travis avvertì subito l'effetto refrigerante. Fantasia o meno l'accolse con piacere. «Giù la tuta, Yanov, e lasciala qui nella camera stagna». «Se non ti dispiace», disse Pelleroth, «innanzitutto gradirei una doccia». «Non credo sia possibile. Prima della doccia e prima di poter svuotare la vescica ho la sensazione che dovrai parlare a Bliss». Bliss aspettava con un'espressione preoccupata e alle sue spalle faceva capolino Fallon aggrappata a lei. «Cos'è successo?» domandò Bliss seria. «Misure preventive di disinfestazione», rispose Travis conciso. «Adesso accenderò gli ultravioletti. Presto, le lenti scure». Con gli ultravioletti in funzione Travis si tolse gli indumenti umidi a uno a uno e li rigirò scuotendoli. «Semplice precauzione. Fallo anche tu, Yanov. Bliss dovrò spogliarmi completamente. Se questo può metterti in imbarazzo, vai nell'altra cabina». «Perché dovrei essere imbarazzata? So come sei fatto e sicuramente non scoprirò nulla di nuovo. Ma perché questa disinfezione? Cosa c'è che non va?» «No, nulla. Solo una cosuccia che, se potesse diffondersi liberamente, causerebbe gravi danni all'umanità, credo». Era tutto sistemato. La luce ultravioletta aveva fatto la propria parte. Ufficialmente, stando ai complessi videomanuali di istruzioni che corredavano la stella lontana, gli ultravioletti erano stati installati appunto a scopo di disinfestazione. Travis comunque aveva il sospetto che la tentazione fosse sempre presente e che a volte si potessero usare per procurarsi una bella bronzatura, che su certi mondi era di moda. L'astronave decollò e Travis la fece avvicinare il più possibile al sole di Milpomenia. Girandola più volte, in modo da esporre tutta la superficie esterna a una dose massiccia di raggi ultravioletti. Infine, recuperò le due tute rimaste nella camera stagna e le esaminò finché non si ritenne soddisfatto. «Tutto questo per un po' di muschio», osservò Bliss. «Hai detto che era muschio, vero Travis?» «L'ho chiamato così perché mi ricordava del muschio. Comunque non sono un botanico. Posso dire soltanto che è di un colore verde intenso e che probabilmente si accontenta di pochissima energia luminosa. Perché pochissima? Il muschio è sensibile agli ultravioletti e non può crescere e tantomeno sopravvivere esposto alla luce diretta. Le sue spore sono ovunque e cresce in angoli nascosti, nelle crepe, alla base dei muri, nutriendosi dell'energia luminosa dei fotoni sparsi. Ovunque sia possibile una fonte di anidride carbonica». «E mi pare di capire che lo consideri pericoloso», disse Bliss. «Già? Se avessimo portato a bordo delle spore, le spore qui avrebbero trovato un'illuminazione abbondantissima e priva di dannosi raggi ultravioletti. Ne avrebbero trovato acqua in quantità e una fonte di anidride carbonica praticamente inesauribile». «Solo lo 0,03% della nostra atmosfera», disse Bliss. «Parecchia per le spore, più il 4% del nostro fiato. Potrebbero crescerci nelle narici e sulla pelle, alterare e guastare i viveri, produrre tossine letali. E anche riuscendo a distruggerle quasi tutte, le poche spore superstiti potrebbero infestare altri pianeti, una volta trasportati involontariamente da noi, cominciare a diffondersi su altri mondi». «Chissà quali disastri provocherebbero!» Bliss scosse il capo. «La vita non è necessariamente pericolosa solo perché è diversa. Sei sempre così pronto a uccidere, tu?» «Quello che parla è Gaia», osservò Travis. «Certo, ma spero di farmi capire ugualmente. Il muschio si è adattato alle condizioni esistenti su Melpomenia. Sfrutta piccole quantità di luce, ma troppa luce egli è fatale. Sfrutta tracce minime di anidride carbonica e può darsi che quantità maggiori lo uccidano. Quindi può darsi che non sia in grado di sopravvivere su altri mondi». «Ne avrei dovuto correre il rischio?» chiese Travis. Bliss alzò le spalle. «D'accordo, non stare sulla difensiva. Capisco il tuo punto di vista. Essendo un isolato probabilmente hai dovuto comportarti così. Non avevi scelta». Travis stava per ribattere quando la voce acuta di Fallon si intromise nel discorso, parlando in solariano. Lui si rivolse a Pelerat. «Cosa dice?» Pelerat cominciò a tradurre. «Dice che...» Ma Fallon, che aveva ricordato un attimo troppo tardi che la sua lingua non era capita da tutti, cominciò da capo. «C'era Jimmy laggiù». La pronuncia delle parole era esatta e Bliss si illuminò. Lo parla bene il galattico, vero? E ha imparato in pochissimo tempo. Sotto voce Travis disse «Preferisco non rispondere per non creare complicazioni. Spiega glielo tu, Bliss, che non abbiamo trovato nessun robot sul pianeta». «Le parlerò io», si offre Pelerat. «Vieni, Fallon». E le cinse le spalle. «Andiamo in camera nostra e ti darò un altro libro da leggere». «Un libro? Su Gemby?» «Eh, non proprio». E la porta si chiuse dietro di loro. «Bah!» Fece Travis spazientito osservando i due che si ritiravano. «Sprechiamo il nostro tempo facendo da bambinaia quella ragazzina». «Sprechiamo? Non mi pare che questo intralci la tua ricerca, Travis». «Assolutamente. E comportandoci così, instauriamo la comunicazione, allontaniamo le paure, le diamo un po' di affetto. Ti sembrano cose trascurabili?» «Di nuovo Gaia che parla». «Sì, e cerchiamo di essere pratici allora. Abbiamo visitato tre mondi spaziali e non abbiamo ottenuto nulla». «Travis a noi. Vero. Anzi, abbiamo scoperto che tutti e tre erano pericolosi. Su Aurora c'erano cani selvatici. Su Solaria esseri umani strani e letali. Su Melpomenia un muschio parassita. A quanto pare, quando un mondo viene lasciato a se stesso e indipendentemente dalla presenza dell'umanità, diventa un pericolo per la comunità interstellare». «Non puoi considerarla una regola generale». «Tre casi su tre sono certamente una percentuale significativa». «In che senso, Bliss?» «Ti rispondo subito e per favore ascoltami senza preconcetti. Nella galassia ci sono milioni di mondi e ognuno è composto interamente di isolati. Su ognuno gli esseri umani rappresentano la forma di vita dominante e possono imporre la propria volontà alle altre forme di vita, all'ambiente geologico e perfino ai propri simili. La galassia, ovunque, è una specie di galaxia molto primitiva dal funzionamento imperfetto. L'inizio di un'unità, è chiaro? Capisco cosa cerchi di dire, ma questo non significa che sarò d'accordo quando avrai finito di parlare. Non devi essere d'accordo per forza, ma devi ascoltarmi. La galassia può funzionare solo in quanto protogalaxia e più si avvicinerà a uno stadio adulto, meglio sarà. L'impero galattico è stato un tentativo di creare una protogalaxia più forte. Quando è crollato, la situazione è peggiorata rapidamente e si è avuta una tendenza costante a ricostruire il concetto di protogalaxia. La federazione della fondazione è un esempio di questa tendenza, come lo era l'impero del mulo. Lo stesso impero che la seconda fondazione mira a realizzare fa parte del disegno, ma anche se non ci fossero imperi e federazioni, anche se l'intera galassia fosse intumulto, si tratterebbe di un fermento di mondi collegati, coordinati e in un reciproca interazione, seppur di carattere ostile. Questa sarebbe di per sé una specie di unione, ben lontana dal caso peggiore. Che invece è? Eh, conosci già la risposta, Travis. L'hai vista. Se un mondo abitato dagli esseri umani si sfascia completamente, piomba nell'isolamento totale e perde qualsiasi legame con gli altri mondi abitati, allora degenera il mondo maligno. Una specie di cancro? Sì, non è questo Solaria? È contro tutti i mondi e i suoi abitanti sono gli uni contro gli altri. Se gli esseri umani scompaiono, si perde anche l'ultima traccia di disciplina. L'ostilità, la legge del tutti contro tutti, diventa una forza cieca, come nel caso dei cani, o una semplice forza degli elementi, come nel caso del muschio. Dovresti capire che più ci avviciniamo a Galaxia, più vediamo migliorare la società. Perché non puntare alla realizzazione finale, dico io? Travis riflette per un po', fissando Bliss in silenzio. Mmm, ci sto pensando, ma mi sembra errato supporre che la questione quantitativa sia senso unico. Cioè che se una cosa ha piccole dosi e positiva, aumentando la dose migliorerà sempre. Tu stessa hai fatto notare che forse quel muschio si è adattato a vivere con pochissima anidride carbonica e che troppa potrebbe ucciderlo, vero? Un essere umano alto due metri è avvantaggiato rispetto a uno alto metro, ma sta anche meglio di un individuo di tre metri. Un topo non starebbe certo meglio se avesse le dimensioni di un elefante. Non potrebbe vivere, e lo stesso discorso varrebbe per un elefante ridotto alle dimensioni di un topo. C'è un formato naturale, una complessità naturale e un optimum per ogni cosa, dalla stella all'atomo, per gli esseri viventi e per le società. Non dico che il vecchio impero galattico fosse l'ideale e che la federazione non sia esente da difetti, ma non mi sento di affermare che in quanto l'isolamento totale è negativo, l'unificazione totale è per forza positiva. I due estremi potrebbero essere ugualmente orribili e forse un impero galattico strutturato in modo antiquato è la soluzione migliore alla quale possiamo aspirare. Bliss scosse il capo. Chissà se credi davvero a quel che dici Travis. Vorresti sostenere che un virus e un essere umano sono due estremi insoddisfacenti e sceglieresti una soluzione intermedia, per esempio una muffa? No. Ma potrei sostenere che un virus e un superuomo sono altrettanto insoddisfacenti e come soluzione intermedia potrei scegliere un essere umano normale. Comunque è inutile discutere. Avrò la soluzione quando troverò la Terra. Su Melpomenia abbiamo scoperto le coordinate di altri 47 mondi spaziali. Intendi visitarli tutti? Sì, se necessario. Rischiando di incontrare nuovi pericoli su ognuno, lo confermo. Se servirà a trovare la Terra. Pellerat era uscito dalla cabina in cui aveva lasciato Fallon e sembrava stesse perdire qualcosa, ma fu bloccato dal rapido scambio verbale tra Bliss e Travis. Quanto tempo occorrerà? Chiese Bliss. Tutto il tempo necessario. Può darsi che troviamo quello che cerchiamo sul prossimo pianeta. O su nessuno. Lo sapremo solo provando. Finalmente Pellerat riuscì a inserirsi nella discussione. Ma che senso ha cercare Golan? Abbiamo già la risposta. Travis agitò brusco la mano per liquidare l'intervento dell'amico, poi riflettì per un attimo e si girò di colpo. Cosa? Ho detto che abbiamo già la risposta. Su Melpomenia ho provato a dirtelo almeno cinque volte. Ma eri talmente preso da quello che facevi. Che risposta abbiamo? Di che stai parlando? Della Terra. Adesso conosciamo la posizione della Terra. Credo. Il centro dei mondi. Travis fissò a lungo Pellerat con un'espressione di netta contrarietà. Poi chiese. Hai visto qualcosa che io non ho visto e non me ne hai parlato? No, rispose Pellerat docilmente. L'hai vista anche tu e, come ripeto, ho cercato di spiegarti, ma non eri dell'umore giusto per ascoltarmi. Beh, riprova. Non fare il prepotente con lui, Travis, sbottò Bliss. Non sto facendo il prepotente. Sto solo chiedendo delle informazioni e tu non trattarlo come un bambino. Per favore, smettetela di parlare fra voi e ascoltatemi, intervenne Pellerat. Ricordi, Golan, che abbiamo parlato dei primi tentativi di scoprire l'origine del genere umano. Del progetto di Yarif, sai, il sistema in cui si cercava di stabilire il periodo di colonizzazione dei vari pianeti, partendo dal presupposto che, assumendo come centro il punto d'origine, gli altri mondi avrebbero dovuto essere colonizzati con un'espansione uniforme in tutte le direzioni. In tal modo, spostandosi dai pianeti più recenti a quelli più vecchi, ci si dovrebbe avvicinare al mondo d'origine da qualsiasi direzione. Travis a noi. Mi ricordo che quel sistema non funzionò perché le date di colonizzazione non erano affidabili. Esatto, amico mio. Ma i mondi di cui si occupava Yarif facevano parte della seconda ondata espansionistica della razza umana. A quell'epoca il viaggio iperspaziale era già molto perfezionato e la colonizzazione deve essersi sviluppata in modo scomposto, frammentario. Non era difficile compiere grandi balsi e coprire distanze enormi e la colonizzazione non ha seguito necessariamente un criterio di simmetria radiale verso l'esterno. Questo fatto ha sicuramente acuito il problema della scarsa affidabilità delle date di colonizzazione. Ma pensa un attimo ai mondi spaziali, Golan. Appartengono alla prima ondata, quando il viaggio iperspaziale era ancora agli albori e, probabilmente, non ci si spostava per tratti smisurati. Mentre milioni di mondi sono stati colonizzati, forse in modo caotico, durante la seconda fase di espansione, appena cinquanta, probabilmente in modo ordinato, ne sono stati colonizzati durante la prima. I milioni di pianeti della seconda ondata sono stati colonizzati lungo un arco di ventimila anni, mentre i cinquanta della prima ondata in pochi secoli. Al confronto, quasi contemporaneamente. Presi insieme quei cinquanta mondi dovrebbero formare, grosso modo, una sfera simmetrica intorno al pianeta d'origine. Abbiamo le loro coordinate. Le hai fotografate dalla statua, ricordi? L'entità che distrugge le informazioni riguardanti la Terra, sia essa una cosa o una persona, se le lasciate sfuggire o non ha pensato che potessero fornirci l'informazione desiderata. Adesso, Golan, basta che tu corregga le coordinate in base agli ultimi ventimila anni di spostamenti stellari, poi troverai il centro. Dovresti arrivare abbastanza vicino al sole della Terra, o almeno dove era ventimila anni fa. Travis, che aveva seguito il monologo di Pellerat a bocca aperta, mi impiegò alcuni istanti a scuotersi. Ah, perché non ci ho pensato? Ho provato a dirtelo quando eravamo su Melpomenia. Certo. Scusa se non ti ho dato ascolto, Yanov. Il fatto è che non mi è venuto in mente. Travis si bloccò imbarazzato e Pellerat ridacchiò. Se potessi avere qualcosa di importante da dire. Già, in circostanze normali avresti avuto ragione, ma tieni presente che quello era il mio campo. Comunque, sei pienamente giustificato se decidi di non ascoltarmi. Non è vero, Yanov. Mi sento uno sciocco e lo merito. Ti chiedo ancora scusa e adesso corro al computer. Yanov e Travis si avviarono verso la sala comandi e, come sempre, il primo rimase ad osservare l'amico con un misto di meraviglia e incredulità. L'altro spostò le mani sulla scrivania e si trasformò in un organismo simbiotico uomo-macchina. Dovrò ipotizzare alcune cose, Yanov, spiegò Travis. Lo sguardo vacuo a causa della strana fusione con il computer. Che il primo numero sia una distanza in parsec e gli altri due siano angoli irradianti, cioè, in parole povere, che il primo numero indichi l'alto e il basso e gli altri indichino la destra e la sinistra. Dovrò supporre che l'uso del più e del meno nel caso degli angoli sia in galattico standard e che i tre zeri si riferiscano al sole di melpomenia. Mi sembra che vada bene. Davvero. Ci sono sei modi in cui disporre i numeri, quattro modi di disporre i segni. Le distanze possono essere espresse in anni luce invece che in parsec, gli angoli in gradi invece che in radianti. Ci sono 96 variazioni, come vedi. Inoltre, se le distanze sono in anni luce, non sappiamo la lunghezza dell'anno usato. E per finire, non sappiamo come abbiano misurato gli angoli. Immagino dall'equatore di melpomenia, in un caso, ma il loro meridiano fondamentale. Pellerat corrugò la fronte. Da come parli, sembra un'impresa senza speranza. No. Aurora e Solaria sono comparse nella lista e conosco la loro posizione nello spazio. Userò le coordinate e vedrò se riesco a individuarle. Se finirò nel punto sbagliato, correggerò le coordinate finché non mi daranno quello giusto e saprò da quali presupposti arrati sono partito. Una volta stabiliti i parametri esatti, potrò cercare il centro della sfera. E con tante combinazioni possibili non sarà un po' complicato decidere cosa fare. Come hai detto? Disse Travis sempre più assorto. Poi, quando Pelorat ripete la domanda, rispose, beh, è probabile che le coordinate seguano il sistema galattico standard. Il fatto che il meridiano fondamentale sia ignoto si può rimediare. I sistemi per localizzare punti nello spazio sono stati studiati molto tempo fa e parecchi astronomi sono convinti che risalgano a prima del volo interstellare. Per certi versi gli esseri umani sono estremamente conservatori e non cambiano quasi mai le convenzioni numeriche una volta che si siano abituati. Arrivano perfino a scambiarle per leggi di natura, credo. Ed è un bene, perché se ogni mondo avesse unità di misura proprie e le scambiasse ogni secolo, penso che il progresso scientifico si arresterebbe completamente. Era evidente che stava lavorando mentre parlava perché le sue parole non erano fluide. A un certo punto mormorò, silenzio adesso. Corrugò la fronte concentrandosi allo spasimo e solo parecchi minuti più tardi si rilassò e inspirò a fondo. Sottovoce annunciò, le misure sono valide, localizzato a Aurora, vedi? Pellorat fissò il campo stellare e la stella luminosissima quasi al centro. Ne sei proprio sicuro? La mia opinione non conta, il computer ne è sicuro. In fin dei conti siamo stati su Aurora. Abbiamo le sue caratteristiche, diametro, massa, luminosità, temperatura, dati spettrali, per non parlare della disposizione delle stelle vicine. Il computer dice che è Aurora. Allora possiamo fidarci della sua parola, immagino. Dobbiamo fidarci, credimi. Adesso regolerò lo schermo e il computer potrà mettersi al lavoro. Ha le 50 serie di coordinate e le userà una alla volta. Travis si stava già occupando dello schermo. Normalmente il computer operava nelle quattro dimensioni dello spazio-tempo, ma per l'utilizzo da parte degli esseri umani di solito lo schermo veniva usato bidimensionalmente. Ora lo schermo sembrò dilatarsi in un volume scuro dotato di profondità, oltre che di altezza e di ampiezza. Travis abbassò le luci quasi del tutto perché le stelle risaltassero con maggiore facilità all'osservatore. Adesso comincia, sussurrò. Un attimo dopo apparve una stella, poi un'altra e un'altra ancora. La panoramica cambiava a ogni nuova giunta. Era come se lo spazio si stesse spostando all'indietro per offrire all'occhio una vista sempre più ampia. Inoltre c'erano gli spostamenti verso l'alto o verso il basso, a destra o a sinistra. Ma alla fine, sospesi nello spazio tridimensionale, apparvero 50 puntini luminosi. Avrei gradito una disposizione sferica perfetta, osservò Travis. Questa sembra la struttura di una palla di neve compressa male in fretta e furia. Ed è un guaio. E crea qualche difficoltà, ma era inevitabile, immagino. Le stelle non sono distribuite uniformemente, quindi nemmeno i pianeti abitabili. Nella fondazione di nuovi mondi deve esserci per forza qualche irregolarità. Il computer porterà ognuno dei punti nella posizione attuale tenendo conto dello spostamento probabile degli ultimi 20.000 anni, il che comporterà solo una correzione minima. Poi le disporrà in modo da formare una sfera ideale. Troverà, in altre parole, una superficie sferica da cui la distanza di tutti i punti luminosi sia minima. A quel punto troveremo il centro della sfera e la Terra dovrebbe essere abbastanza vicina. Almeno, speriamo, non ci vorrà molto. Non ci volle molto. Travis, abituato ai miracoli del computer, rimase comunque stupito dalla sua rapidità. Aveva istruito la macchina perché emettesse una nota bassa e sonora dopo aver calcolato le coordinate del centro ideale. Non c'era alcun motivo per farlo, solo la soddisfazione di sentire quel suono e sapere che forse la ricerca era terminata. La nota arrivò nel giro di pochi minuti e fu come un lieve colpo di gong. Crebbe di intensità fino a creare una vibrazione avvertibile fisicamente e progressivamente si spense. Bliss apparve quasi subito sulla soglia. «Cosa succede?» chiese spalancando gli occhi. «Un'emergenza?» «Niente affatto», rispose Travis. Pellerat aggiunse smanioso. «Forse abbiamo localizzato la Terra, Bliss. Quel suono era il computer che ci avvertiva?» Bliss entrò. «Avreste potuto avvertire anche me?» «Mi dispiace, Bliss», si scusò Travis. «Non pensavo che sarebbe stato così forte». Fallon aveva seguito Bliss nella stanza e disse «Perché c'è stato quel suono, Bliss?» «Vedo che conosci il tuo nome», osservò Travis appoggiandosi allo schienale, stremato. Ora si trattava di controllare se quanto avevano scoperto esisteva anche nella galassia reale, di vedere se alle coordinate del centro dei mondi spaziali corrispondeva davvero una stella di tipo G. Anche questa volta Travis era restio a procedere, a compiere la verifica finale. «Sì», disse Bliss, «conosce il mio nome? E anche il tuo è quello di pelle. Che c'è di strano? Noi conosciamo il suo». «Nulla in contrario», disse Travis distrattamente. «Solo che questa bambina mi preoccupa. Può solo darci dei problemi». «Che ha fatto di male finora?» chiese Bliss. Travis allargò le braccia. «È una sensazione, la mia». Bliss gli rivolse un'occhiata sprezzante e spiegò a Fallon. «Stiamo cercando di trovare la terra, Fallon». «Cosa è la terra?» «Un altro mondo, ma un mondo speciale. È quello da cui partirono i nostri progenitori». «Dopo tutte le letture, sai cosa significa?» «Non è un termine galattico». Pelloretto intervenne. «È un termine arcaico per antenati. La parola progenitori ci si avvicina di più». «Molto bene», disse Bliss sorridendo. «Dunque, la terra è il mondo da cui partirono i progenitori. I tuoi, i miei, quelli di Pell e di Travis». «I tuoi e anche i miei?» «Fallon, sembrava perplessa». «Tutti e due i tipi». «Ce n'è un solo tipo», disse Bliss. «Abbiamo gli stessi progenitori, tutti quanti». «Mi sembra che si renda conto perfettamente di essere diversa da noi», osservò Travis. Bliss disse sottovoce. «Non dirlo. Dobbiamo fare in modo che si senta uguale, almeno nei tratti essenziali». «L'ermafroditismo è un tratto essenziale, direi». «Parlo della mente». «Anche i lobby di trasduzione sono tratti essenziali». «Via, Travis, non essere così pignolo. Se mettiamo da parte certi dettagli, Fallon è intelligente e umana». Bliss si rivolse alla bambina alzando la voce. «Rifletti su questo punto, Fallon. I tuoi progenitori e i miei sono gli stessi. La gente di tutti i mondi ha gli stessi progenitori che in origine vivevano sulla Terra. Questo significa che siamo tutti parenti, no? Ora, torna nella nostra stanza e pensaci». Dopo aver lanciato un'occhiata pensierosa a Travis, Fallon se ne andò, sollecitata da una pacca affettuosa di Bliss. «Travis», disse Bliss, «promettimi che in sua presenza eviterai qualsiasi commento che possa farle credere di essere diversa». «Te lo prometto. Non intendevo intralciare il processo educativo né subvertirlo. Comunque, lei è diversa». «Sotto certi aspetti. Come io sono diversa da te e come Pell è diverso da te». «E non essere ingenua, Bliss. Nel caso di Fallon le differenze sono molto più grandi». «Un po' più grandi. Sono molto più importanti le somiglianze. Lei e il suo popolo faranno parte di Galaxia un giorno. Ne sono certa». «D'accordo, non discutiamo». Travis si girò verso il computer senza troppo entusiasmo. «Intanto devo controllare la posizione ipotetica della Terra nello spazio reale. Ne ho paura». «Che genere di paura?». «Beh». Travis alzò le spalle ostentando un'area di non curanza. «Se non ci fosse alcuna stella adatta vicino al centro...» «Non ci sarai basta», rispose Bliss. «Forse è inutile controllare ora. Tanto potremo effettuare il balzo solo fra parecchi giorni. Giorni che trascorrerai tormentandoti. Controlla subito. Aspettando non cambierà nulla». «Travis serrò le labbra e, un attimo dopo, a noi...» «Hai ragione. Benissimo. Facciamolo!» Appoggiò le mani contro i contorni di contatto della scrivania e lo schermo si oscurò. «Io esco. Se il resto ti nervosirò», disse Bliss. E con un cenno della mano se ne andò. «Come prima cosa, borbotto Travis, controlleremo la mappa galattica del computer. Se il Sole della Terra si trovava nella posizione calcolata, la mappa non dovrebbe includerlo. E in tal caso noi...» Si interruppe sbalordito, mentre sullo schermo appariva un ammasso di stelle. Erano piuttosto numerose fiocche, con qualche scintillio più vivido sparso quella, disseminate abbastanza uniformemente sullo schermo. Ma verso il centro spiccava una stella più brillante delle altre. «Ci siamo!» esultò Pellerat. «Ci siamo, amico mio! Guarda com'è luminosa!» «Qualsiasi stella centrata sulle sue coordinate è luminosa», disse Travis cercando di frenare un'eccitazione iniziale che avrebbe potuto rivelarsi infondata. E in fin dei conti l'immagine è presentata a un parsec di distanza dal punto esatto delle coordinate. Comunque, quella stella non è certamente una nana russa, né una russa gigante. Aspettiamo i dati del computer. Alcuni secondi di silenzio. Dopodiché, Travis disse, classe spettrale G2, diametro 1,4 milioni di chilometri, massa 1,02 volte quella del sole di Terminus. Temperatura superficiale 6.000 assoluti. Rotazione lenta, poco meno di 30 giorni. Nessuna attività insolita, nessuna irregolarità. «Non sono caratteristiche tipiche del tipo di stella intorno al quale orbitano i pianeti abitabili», chiese Pellerat. «Sì, a noi Travis. Quindi sono anche le caratteristiche prevedibili del sole della Terra. Se è là che è nata la vita, è logico che il sole della Terra rappresenti il modello ideale. Dunque ci sono buone probabilità di trovare un pianeta abitabile in quel sistema». «E non c'è bisogno di fare delle ipotesi», disse Travis estremamente perplesso. «Stando alla mappa galattica, c'è un pianeta abitato, ma l'informazione è seguita da un punto interrogativo». L'entusiasmo di Pellerat crebbe. «Proprio come era logico aspettarsi, Golan, il pianeta abitato esiste, ma il tentativo di nasconderlo confonde i dati che lo riguardano, lasciando nell'incertezza chi ha redatto la mappa computerizzata». «No, non era affatto logico aspettarselo, ed è proprio questo che mi preoccupa. Avremmo dovuto aspettarci ben altro. Considerando l'efficienza con cui i dati sulla Terra sono stati fatti sparire, chi ha redatto la mappa non avrebbe dovuto sapere che in questo sistema c'è la vita, men che mai degli esseri umani. Anzi, non avrebbe nemmeno dovuto sapere che il Sole della Terra esiste. I mondi spaziali non figurano nella mappa perché il Sole della Terra dovrebbe esserci. Beh, comunque c'è. Che senso ha discuterne. Quali altre informazioni sono riportate? C'è un nome. Ah, quale? Alfa. Una breve pausa, poi Pellarat esclamò smanioso. «Ci siamo proprio, amico mio! Questo nome è la prova decisiva! Pensa al suo significato!» «Ha un significato! Per me è solo un nome, un nome strano. Non sembra galattico!» Non è galattico, infatti. È una lingua preistorica della Terra, la stessa lingua con cui è arrivato fino a noi nel nome del pianeta di Bliss, Gaia. E cosa significa Alfa? È la prima lettera dell'alfabeto di quell'antica lingua. Questo è un punto su cui esistono documentazioni valide. Nei tempi più lontani talvolta Alfa era usato come simbolo dell'inizio per rappresentare il primo di ogni cosa. Se un sole viene chiamato Alfa, è implicito che deve trattarsi del primo sole. E il primo sole è quello intorno al quale ruota il pianeta che ha dato origine alla vita umana, la Terra. Che ne dici? Ne sei certo. Certissimo. Nelle antiche leggende non si parla di qualche caratteristica insolita del sole della Terra? No. Quali caratteristiche insolite vuoi che abbia? È il sole modello per definizione e i dati forniti dal computer lo confermano. Il sole della Terra è una stella singola, vero? Beh, certo. Mi pare che tutti i pianeti abitati orbitino intorno a stelle singole. Lo pensavo anch'io. Il guaio è che la stella al centro dello schermo non è una singola. È doppia, binaria. La più luminosa delle due stelle del sistema binario è in effetti un modello perfetto e il computer ci ha fornito appunto i suoi dati. Attorno alla prima, ma con un periodo di circa 80 anni, ruota un'altra stella che ammassa pari a quattro quinti della prima. A occhio nudo è impossibile vedere le due stelle come corpi separati, ma con un ingrandimento adeguato sono sicuro che potremmo distinguerle. Ne sei proprio sicuro, Golan? Chiese Pelleroth smarrito. Lo dice il computer. E se siamo di fronte a una stella binaria, allora non può essere il sole della Terra. Travis interruppe il contatto con il computer e le luci riacquistarono un'intensità normale. A quella specie di segnale, Bliss rientrò nella sala seguita da Fallon. Beh, che risultati ci sono? Con voce incolore, Travis rispose, un po' deludenti. Nel punto dove mi aspettavo di trovare il sole della Terra ho trovato invece una stella binaria. Il sole della Terra è una stella singola, quindi le coordinate non corrispondono. E adesso che cosa facciamo, Golan? Chiese Pelleroth. Travis alzò le spalle. A dire il vero, non mi aspettavo che le nostre coordinate coincidessero con la posizione del sole della Terra. Nemmeno gli spaziali colonizzavano i mondi secondo uno schema sferico esatto. Può darsi che Aurora, il più vecchio dei mondi spaziali, abbia inviato a sua volta dei coloni, il che può avere contribuito a deformare la sfera. E può darsi che il sole della Terra non si sia mosso alla stessa velocità media dei mondi spaziali. Così la Terra potrebbe essere ovunque, disse Pelleroth. È questo che sto cercando di dire? No, non proprio ovunque. La discrepanza non può essere tanto grande. Il sole della Terra deve trovarsi in prossimità delle coordinate. La stella che abbiamo individuato con notevole precisione deve essere vicina al sole della Terra. È sorprendente, una stella vicina così simile a quella della Terra tranne per il suo carattere binario. Eppure? E in tal caso dovremmo vedere il sole della Terra sulla mappa, giusto? Vederlo vicino ad alfa, insomma. No, perché secondo me il sole della Terra non è riportato sulla mappa. È stato questo particolare a lasciarmi perplesso quando abbiamo avvistato alfa. Per quanto potesse somigliare al sole che ci interessa, vedendo che era riportato sulla mappa ho sospettato subito che non fosse quello che cercavamo. Perché non controlli le stesse coordinate nello spazio reale allora? Intervenne Bliss. Se vicino al centro apparirà una stella abbastanza luminosa, non riportata dalla mappa, una stella dalle caratteristiche simili ad alfa ma singola, potrebbe trattarsi del sole della Terra, giusto? Travis sospirò. Se fosse come dici tu, troveremmo senza dubbio il pianeta Terra e su questo sono pronto a scommettere tutti i miei averi. Ma anche stavolta non me la sento di provare subito. Perché potresti fallire? Travis annui. Comunque concedimi solo un istante per riprendere fiato, poi farò uno sforzo e controllerò. E mentre i tre adulti si guardavano, Fallon si avvicinò alla scrivania computer e fissò incuriosita i contorni delle mani tracciate sulla scrivania. Allungò una mano esitante verso quei segni, ma Travis la bloccò con un gesto brusco del braccio e con un altrettanto brusco non devi toccare Fallon. Fallon ebbe un sussulto e si strense a Bliss. È una situazione che dobbiamo affrontare, Golan, disse Pelorat. E se non trovassimo nulla nello spazio reale? Eh, saremmo costretti a ripiegare sul piano precedente e a visitare gli altri 47 mondi spaziali. E se anche non dovessimo concludere nulla? Travis scosse il capo, seccato, come a scrollarsi di dosso quella prospettiva. Abbassando lo sguardo disse, escogiterò qualcos'altro. Ma se non esistesse affatto un mondo dei progenitori? Al suono della voce acuta Travis alzò la testa di scatto. Chi è stato? Era una domanda superflua. Superato un primo attimo di incredulità, capì subito chi avesse rivolto alla domanda. Io? Rispose Fallon. Travis la fissò, leggermente corrucciato. Hai capito il discorso? State cercando il mondo dei progenitori, rispose Fallon. Ma non l'avete ancora trovato? Forse un mondo così non esiste alcuno. Non esiste alcun mondo così, la corresse Bliss. No Fallon, disse Travis serio. C'è stato un grande sforzo per nasconderlo. E se si cerca con tanto accanimento di nascondere qualcosa, significa che c'è qualcosa da nascondere. Mi capisci? Sì, rispose Fallon. Non lasci che tocchi le mani sulla scrivania. Se fai così significa che sarebbe interessante toccarle. Ma non per te, Fallon. Bliss, stai creando un mostro che ci distruggerà. Non lasciarla più entrare qui se non sono al computer. Neanche se ci sono, pensaci bene prima di farla entrare, d'accordo? Quell'incidente minore ebbe un effetto salutare su Travis perché sembrò scuoterlo, spronandolo a vincere la propria indecisione. Beh, è meglio che mi metta all'opera. Se rimarrò seduto qui, incerto sul da farsi, quell'essere grottesco si impossesserà dell'astronave. Le luci si attenuarono e Bliss protestò. Mi avevi fatto una promessa, Travis. Quando è presente lei, non devi chiamarla mostro né essere grottesco. Allora tienila d'occhio e insegnale un po' d'educazione. Dille che i bambini non dovrebbero mai farsi sentire, che dovrebbero farsi vedere il meno possibile. Bliss corrugò la fronte. Il tuo atteggiamento verso i bambini è semplicemente orribile. Ne può darsi, ma non è il momento di discuterne. Poi, in un tono che esprimeva un misto di soddisfazione e sollievo, Travis annunciò. Ecco alfa nello spazio reale. E sulla destra, leggermente in alto, c'è una stella luminosa quasi quanto alfa che non figura nella mappa del computer. Quello è il sole della Terra. Sono pronto a scommettere qualsiasi cosa. Bene, disse Bliss. Non pretenderemo nulla da te se perdi. Quindi perché non sistemiamo subito la faccenda? Visitiamo la stella non appena sarà possibile effettuare il balzo. Travis scosse il capo. No, questa volta non si tratta di indecisione né di paura. È questione di prudenza. Abbiamo visitato tre mondi sconosciuti e, per tre volte, ci siamo trovati di fronte a pericoli inattesi, venendo costretti a ripartire con la massima fretta. Stavolta la posta in gioco è troppo importante e non agirò in modo avventato, se possibile. Finora abbiamo solo qualche storia vaga di croste radioattive e questo non basta. Per una circostanza assolutamente fortuita e imprevedibile, a un parsec dalla Terra c'è un pianeta abitato e... Siamo davvero sicuri che alfa abbia un pianeta abitato? Intervenne Pellerat. Hai detto che il computer metteva un punto interrogativo dopo questo dato. Beh, comunque vale la pena di provare, rispose Travis. Perché non dovremmo dare un'occhiata a quel pianeta? Se sarà veramente abitato da esseri umani, cerchiamo di scoprire cosa sanno della Terra. Dopotutto, per loro la Terra non sarà qualcosa di remoto e leggendario. È un mondo vicino che brilla ben visibile nel loro cielo. Bliss disse pensierosa. Non è una cattiva idea. Se alfa è abitato e se gli abitanti non saranno i soliti, tipici, isolati, forse incontreremo della gente cordiale e, tanto per cambiare, troveremo del cibo decente. Gente amica e cibo decente, hanno i Travis. Per te va bene, Yanov. Decidi tu, amico mio, rispose Pellerat. Io ti seguirò ovunque tu vada. Troveremo Gemby, domandò Fallon all'improvviso. Bliss si affrettò a rispondere prima che potesse farlo a Travis. Lo cercheremo, Fallon. Allora è deciso, concluse Travis. Puntiamo su alfa. Due grandi stelle, disse Fallon indicando lo schermo. Esatto, disse Travis. Due. Bliss, per favore, sorvegliala. Non voglio che si metta a giocare con qualche strumento. Le strumentazioni l'affascinano, disse Bliss. Eh, lo so. Ma il suo fascino non mi affascina. Anche se, a dire il vero, sono rapito quanto l'è nel vedere contemporaneamente due stelle così luminose. Le due stelle brillavano davvero in modo incredibile. Lo schermo aveva aumentato automaticamente l'intensità di filtraggio per eliminare le radiazioni dannose alla retina. Di conseguenza, poche altre stelle erano visibili e le due gemelle regnavano altezzose in un isolamento pressoché totale. Il fatto è che prima d'ora non ero mai stato così vicino a un sistema binario, spiegò Travis. Davvero? Fece Pelloratto stupito. Com'è possibile? Travis rise. Ho viaggiato, Yanov, ma non sono il giraspazio che pensi. Io non ero mai stato nello spazio prima di incontrare te, Golan, ma ho sempre pensato che bastasse incominciare a viaggiare per... per raggiungere qualsiasi posto, lo so. È naturale. La gente legata ai pianeti ha un difetto. Per quanto sforzi la propria immaginazione, non riesce a cogliere la grandezza reale della galassia. Potremmo viaggiare per tutta la vita senza sfiorarne neppure una parte significativa. E poi, nessuno va mai nei sistemi binari. Perché? chiese Bliss. Su Gaia non siamo esperti d'astronomia come gli isolati che viaggiano nella galassia, ma, se non sbaglio, le stelle binarie non sono poi così rare. Eh, non lo sono, convenne Travis. Ci sono molte più binarie che stelle singole. Comunque, la formazione di due stelle vicine sconvolge i normali processi di formazione planetaria. Le binarie hanno meno materiale planetario e i pianeti che si formano intorno ad esse hanno spesso orbite instabili. È raro che presentino caratteristiche di abitabilità. I primi esploratori probabilmente hanno studiato da vicino molte binarie, ma dopo un po' si sono dedicati solo alla ricerca delle stelle singole, dato che a loro interessava scoprire mondi colonizzabili. E in una galassia con un'elevata percentuale di colonizzazione è normale che praticamente tutti gli scambi commerciali e le comunicazioni avvengano fra mondi abitati che orbitano intorno a stelle singole. Probabilmente nei periodi di attività militare a volte si fissavano basi su qualche piccolo mondo disabitato o dei sistemi binari che si trovava in posizione strategica, ma col perfezionamento del viaggio iperspaziale queste basi sono diventate inutili. Quante cose, non so, incredibile, disse Pellorat umilmente. Travis sorrise. Non lasciarti impressionare da quel che dico, Yanov. Sto solo ripetendo alcune delle centinaia di cose superfule che insegnavano in marina per inerzia. Pensa invece, tu conosci un'infinità di cose di mitologia, folclore, lingue arcaiche, tutte cose che io non so, che conoscete in pochi. Appunto. In ogni caso, le due stelle che abbiamo appena riconosciuto formano un sistema binario e una delle due ha un pianeta abitato, disse Bliss. Speriamo, Bliss. Le eccezioni si trovano sempre. E in questo caso c'è anche un punto interrogativo ufficiale che complica ulteriormente le cose. No, Fallon, quei pulsanti non sono giocattoli. Bliss, mettile le manette o portala fuori. Non farà nessun danno, protestò Bliss, ma attirò a sé ugualmente la solariana. Se ti interessa tanto quel pianeta abitabile, perché non siamo già là? Innanzitutto sono curioso e voglio osservare con comodo il sistema binario. E poi voglio essere prudente. Come ho già spiegato da quando abbiamo lasciato Gaia, ci sono capitati solo fatti spiacevoli che invitano evidentemente alla prudenza. Quale delle due è alfa? chiese Pelerat. Non ci perderemo, Yanov. Il computer sa benissimo quale è alfa e lo sappiamo anche noi. È la più calda, è la più gialla delle due, perché è la più grande. Quella a destra ha un colore che tende all'arancione, un po' come il sole di Aurora, se ricordi. Vedi? Eh sì, adesso che me lo dici? Bene, quella è la più piccola. Qual è la seconda lettera di quell'alfabeto antico di cui parlavi? Pelerat riflettei per un istante. Beta. Allora, quella arancione è beta, quella giallo chiaro è alfa. Ed è là che siamo diretti. Nuova Terra. Quattro pianeti, murmurò Travis. Tutti piccoli, più una scia di asteroidi. Nessun gigante gassoso. Qualcosa che non quadra, si informò Pelerat. Eh, non proprio, era prevedibile. Le binarie in orbita reciproca a breve distanza non possono avere pianeti in orbita intorno a sé. Al massimo i pianeti ruoteranno intorno al centro di gravità delle due stelle, ma, data la distanza, non dovrebbero essere abitabili. D'altro canto, se le binarie sono sufficientemente lontane, possono esserci pianeti in orbita intorno a ciascuna stella, sempre che siano abbastanza vicini all'una o all'altra. Stando ai dati del computer, queste due stelle hanno una distanza media di 3,5 miliardi di chilometri. E al periastro, il punto in cui sono più vicine, distano 1,7 miliardi di chilometri. Un pianeta in orbita a meno di 200 milioni di chilometri da una delle due stelle si troverebbe in posizione stabile, ma non può esserci alcun pianeta con un'orbita superiore. Quindi niente giganti gassosi, dal momento che un gigante dovrebbe essere situato a una distanza molto maggiore. Che importa. Tanto i giganti gassosi non sono abitabili. Può darsi che uno di quei pianeti lo sia. Solo il secondo, se non altro, perché è abbastanza grande da avere un'atmosfera. Si avvicinarono al secondo pianeta rapidamente. Nell'arco di due giorni la sua immagine si dilatò, prima ingrandendosi in modo misurato e maestoso e poi, visto che nessun astronave arrivava a intercettarli, a una velocità sempre crescente, quasi spaventosa. La stella lontana seguiva un'orbita quasi a un migliaio di chilometri dallo strato di nubi, quando Travis commentò Arcigno. Adesso capisco la presenza del punto interrogativo nella memoria del computer. Non c'è traccia di radiazioni, nessuna luce nell'emisfero notturno, niente onde radio. Lo strato di nubi sembra piuttosto spesso, fece notare Pelorat, ma le onde radio dovrebbero attraversarlo. Osservarono il pianeta che ruotava sotto di loro, un vortice maestoso di nuvole bianche che attraverso qualche squarcio lasciava intravedere lo sciabordio bluastro di un oceano. La massa nuvolosa è piuttosto elevata per un mondo abitato, disse Travis. Dovrebbe essere un mondo abbastanza tetro. Quello che mi preoccupa maggiormente, aggiunse, mentre si tuffavano ancora una volta nell'ombra notturna, è che non abbiamo ricevuto segnalazioni da eventuali stazioni spaziali. Come è successo su Comporhellen? chiese Pelorat. Come sarebbe successo su qualsiasi mondo abitato? Avrebbero dovuto fermarci per il solito controllo dei documenti, del carico e via dicendo. Bliss intervenne. Forse per qualche motivo non abbiamo sentito il messaggio. Il computer avrebbe captato qualsiasi trasmissione su qualsiasi frequenza, né poi. Noi stessi abbiamo inviato segnali, ma non c'è stata la minima reazione. Scendere sotto lo strato di nubi senza mettersi in contatto con le autorità spaziali di un mondo non è un gesto molto cortese, ma non vedo che altro possiamo fare. La stella lontana rallentò e si mantenne in quota incrementando la spinta antigravitazionale. Sbucò di nuovo sul lato diurno e rallentò ulteriormente. Travis, collegato al computer, trovò uno squarcio adeguato nello strato di nubi. L'astronave si abbassò penetrandovi. Sotto di loro, mosso da una lieve brezza, si agitava l'oceano, parecchi chilometri più in basso, estriato di schiuma candida. Abbandonarono l'aria illuminata dal sole, portandosi sotto una volta nuvolosa. La distesa d'acqua sottostante diventò subito grigia e la temperatura scese sensibilmente. Fallon, fissando lo schermo, parlò per alcuni istanti nella sua lingua ricca di consonanti, poi passò al galattico. Cos'è quello che vediamo sotto? È un oceano, rispose Bliss con voce carezzevole. È una grande massa d'acqua. Perché non asciuga? Bliss guardò Travis che rispose. C'è troppa acqua perché possa asciugarsi. Fallon, gemette. Non voglio tutta quell'acqua. Andiamo via. E cominciò a piagnucolare, mentre la stella lontana attraversava un ammasso di nuvole temporalesche e lo schermo diventava una macchia lattiginosa striata di gocce di pioggia. Le luci della sala comando si abbassarono e l'astronave prese a sobbalzare leggermente. Travis solevò lo sguardo sorpreso e gridò, Bliss, la tua cara Fallon è abbastanza adulta da poter usare la trasduzione. Sta servendosi dell'energia elettrica per cercare di manipolare i comandi. Fermala! Bliss abbracciò Fallon e la strinse. Va tutto bene Fallon. Non c'è niente di cui avere paura. È solo un altro mondo. Tutto qui. Ne esistono molti come questo. Fallon si rilassò un po' ma continuò a tremare. Bliss si rivolse a Travis. Non ha mai visto un oceano e può darsi che non sappia neppure cosa siano la pioggia e la nebbia. Non puoi essere un po' comprensivo. No, se manomette l'astronave è un pericolo per tutti. Portala di là e calmala. Bliss a noi. Vengo con te, Bliss, disse Pellerat. No, no, Peller, resta qui. Io calmo Fallon e tu cerca di calmare Travis. Dopodiché Bliss uscì. Non ho bisogno che qualcuno mi calmi, sbotò Travis. Mi spiace di aver perso il controllo ma non possiamo permettere che una bambina giochi coi comandi, no? Eh, certo, convenne Pellerat. Ma Bliss è stata accolta di sorpresa ed è in grado di controllare Fallon, che tra l'altro si comporta molto bene se si considera che è stata strappata dal suo mondo e dal suo robot. E volente o nolente è stata gettata in una vita che non capisce. Lo so, ma non sono stato io a volerla portare con noi. L'idea è di Bliss. Già, ma se non l'avessimo portata, Fallon sarebbe stata uccisa. Beh, chiederò scusa a Bliss più tardi e anche alla bambina. Ma Travis era ancora cupo in viso e Pellerat gli domandò garbatamente. Golan, amico mio, c'è qualcos'altro che ti preoccupa? L'oceano, rispose Travis. Erano usciti ormai da un pezzo dal temporale e le nubi non accennavano a diminuire. Cosa che non va? Eh, ce n'è troppo. Pellerat sembrò non capire al che Travis disse a Bruciapelo. Niente terra. Non abbiamo visto nessun lembo di terra emersa. L'atmosfera è perfettamente normale. Ossigeno e azoto in percentuale giusta. Dunque deve trattarsi di un pianeta modificato e devono esserci delle forme di vita vegetale per mantenere un livello adeguato di ossigeno. In natura atmosfere del genere non esistono, tranne sulla Terra, a quanto si crede, dove si è formata chissà come. Ma sui pianeti modificati ci sono sempre quantità ragionevoli di terraferma, fino a un terzo della superficie complessiva e mai meno di un quinto. Allora, com'è possibile che questo sia un pianeta modificato e manchi la terraferma? Forse, dato che appartiene a un sistema binario, è un pianeta atipico. Forse non è stato modificato, e la sua atmosfera si è formata in modo diverso da quanto avviene sui pianeti delle stelle singole. Forse qui la vita si è evoluta in maniera indipendente, come sulla Terra, ma in forme acquatiche. E anche se fosse così, noi non ne ricaveremo niente. Dalla vita marina non può nascere una tecnologia. La tecnologia si basa sempre sul fuoco, il che è impossibile in acqua. Un pianeta vivo ma privo di tecnologia non è quello che stiamo cercando. Capisco, ma io mi limitavo a fare delle riflessioni. Dopotutto, per quello che ne sappiamo, la tecnologia è stata creata una sola volta sulla Terra. Per il resto, i coloni l'hanno portata con sé. Non puoi dire che nasca sempre in un determinato modo, se hai un solo caso da studiare. Lo spostamento in acqua richiede forme aerodinamiche affusolate. Non possono esserci profili irregolari, né appendici come le mani. E i calamari hanno i tentacoli. E d'accordo, discutiamo pure, ma se pensi a una specie di calamari intelligenti e evolutisi indipendentemente in qualche angolo della galassia e in possesso di una tecnologia non basata sul fuoco, beh, ti rispondo che a mio avviso è assai improbabile. A tuo avviso, certo. Travis scoppiò a ridere. Molto bene, Yanov. Vedo che ricorri alla logica e vuoi punirmi per come ho trattato Bliss prima. Ammetto che stai facendo un buon lavoro e ti prometto che se non troveremo la terraferma, esploreremo il mare al nostro meglio, in cerca della tua civiltà di calamari. Mentre parlava, l'astronava entrò di nuovo nell'auto notturno e lo schermo diventò nero. Pelerat sussultò. Ma è sicuro? Continuo a chiedermelo. Cosa, Yanov? Viaggiare così, al buio. Potremmo perdere quota, precipitare nell'oceano e disintegrarci all'istante. Impossibile. Davvero. Il computer ci mantiene su una linea gravitazionale di forza. In altre parole, rimane sempre a una intensità gravitazionale costante rispetto al pianeta, il che significa che siamo sempre a un'altezza costante, o quasi, sopra il livello del mare. A che altezza? Cinque chilometri circa. Questo non mi consola, Golan. E se raggiungessimo la terraferma e ci schiantassimo contro una montagna senza vederla? Noi non vediamo, ma il radar dell'astronave vede tutto e il computer, se ci fosse una montagna, ci guiderebbe intorno a essa o sopra di essa. E se ci fosse una distesa di terra piatta? Al buio non la individueremmo. No, Yanov, la individueremmo ugualmente. Le onde radar riflesse dall'acqua sono diverse da quelle riflesse dal terreno. L'acqua è sostanzialmente uniforme, il terreno invece è scabro. Per questo motivo le onde riflesse dalla terra sono molto più confuse di quelle riflesse dall'acqua. Il computer noterà la differenza e se ci sarà terraferma in vista ce lo farà sapere. Rimasero in silenzio e un paio d'ore più tardi raggiunsero di nuovo il lato diurno, mentre l'oceano scorreva monotono sotto di loro, oscurato di tanto in tanto da qualche formazione temporalesca. In mezzo a una di queste perturbazioni il vento fece uscire di rotta la stella lontana. Il computer lasciò fare per evitare un inutile spreco di energia e per minimizzare la possibilità di danni fisici, spiegò Travis. Poi, superata la perturbazione, riportò l'astronave in rotta progressivamente. Probabilmente era il margine di un uragano, osservò Travis. E allora ti aggiunse. Ascolta, amico mio, ci stiamo solo spostando da ovest ad est o da est a ovest. In pratica stiamo esaminando l'equatore e nient'altro. Il che sarebbe stupido, vero? Noi stiamo seguendo una rutta circolare nord-ovest-sud-ovest. In questo modo sorvoliamo sia i tropici sia le regioni temperate e ogni volta che ripetiamo il giro la rutta si sposta verso ovest in quanto il pianeta ruota sul suo asse sotto di noi. Stiamo intersecando questo mondo in lungo e in largo, come vedi. E dato che finora non abbiamo avvistato la terraferma, le probabilità di trovare un continente di una certa estensione sono scese sotto il 10%, secondo il computer. Le probabilità di avvistare un'isola di una certa estensione sono scese sotto il 25% e diminuiscono a ogni giro. Sai che cosa avrei fatto? Disse Pelerat. Lentamente, mentre l'emisfero notturno li risucchiava per l'ennesima volta. Sarei rimasto ben lontano dal pianeta e avrei sondato l'emisfero rivolto verso di me con il radar. Eh già. Poi saresti passato sull'emisfero opposto e avresti fatto la stessa cosa. O avresti aspettato che ruotasse il pianeta. Questo si chiama senno di poi, Yanov. Non ci aspettavamo di avvicinarci a un pianeta abitabile senza fermarci a una stazione d'ingresso, dove ci avrebbero assegnato una rotta o ci avrebbero rifiutato l'accesso. E una volta superato lo strato dei nubi, ci aspettavamo di trovare quasi subito la terraferma. I pianeti abitabili sono terraferma. Beh, solo in parte. Non intendevo questo. Disse Travis in preda a un'eccitazione improvvisa. Sto dicendo che abbiamo trovato la terraferma. Zitto. Cercando di controllarsi, Travis appoggiò le mani sulla scrivania e si fuse con il computer. Un attimo dopo, annunciò. È un'isola lunga circa 250 chilometri e larga circa 65 per un'area approssimativa di 15.000 chilometri quadrati. Non è grandissima, ma è rispettabile. Più che un semplice puntino sulla mappa. Aspetta. Le luci della sala comandi si spensero. Cosa facciamo? Mormorò Pellerat come se l'oscurità fosse qualcosa di fragile che si potesse infrangere. Aspettiamo che i nostri occhi si abituino al buio. L'astronave è sull'isola, guarda. Vedi qualcosa? No, forse qualche piccola chiazza di luce, ma non ne sono sicuro. E anch'io le vedo. Ora inserisco il telescopio. Adesso la luce era visibilissima. Chiazze irregolari. È abitato, disse Travis. Forse è l'unica parte abitata del pianeta. Che facciamo? No? Aspettiamo che si aggiorno, così avremo alcune ore di riposo. E se ci attaccassero? E con cosa? Non rilevo in pratica alcuna radiazione, a parte i raggi luminosi visibili e un po' di infrarossi. È un pianeta abitato e gli abitanti sono certo intelligenti. Possiedono una tecnologia, ma è ovvio che si tratta di tecnologia pre-elettronica, quindi non credo che ci sia nulla da temere. Se dovessi sbagliarmi, il computer ci avvertirebbe in tempo. E quando sarà giorno? Atterreremo. Naturalmente. Quando scesero, i primi raggi mattutini del sole splendivano attraverso uno squarcio fra le nuvole, rivelando una parte dell'isola verdeggiante con l'interno segnato da una catena di colline basse e ondulate che si perdeva in lontananza in un alone color porpora. Mentre si abbassavano, videro boschetti isolati e qualche frutteto, ma la maggior parte erano fattorie ben curate. Immediatamente sotto di loro, lungo la costa sudorientale dell'isola, c'era una spiaggia di sabbia argentea, fiancheggiata sul retro da una fila irregolare di massi, oltre la quale si estendeva un prato. Di tanto in tanto si scorgeva una casa, ma gli edifici non erano raggruppati in maniera tale da formare un centro abitato vero e proprio. Infine, videro una rete di strade fiancheggiate da abitazioni sparse e poi, nell'aria fresca del mattino, un veicolo aereo in lontananza. Capirono che si trattava di un aereo e non di un uccello dal modo in cui isolcava l'aria. Era il primo segno indubitabile di una presenza evoluta fino a quel momento. Potrebbe essere un veicolo automatico, sempre che siano in grado di costruirne uno senza ricorrere all'elettronica, disse Travis. E infatti è probabile che lo sia, intervenne Bliss. Se ai comandi ci fosse un essere umano, si dirigerebbe verso di noi, non credi? Immagino che siamo uno spettacolo insolito, un apparecchio che si posa in superficie senza l'ausilio di razzi frenanti che eruttano fuoco. Mmm, uno spettacolo insolito su qualsiasi pianeta. A noi Travis meditabondo. Non possono essere molti i mondi che hanno assistito alla discesa di un veicolo spaziale gravitazionale. La spiaggia sarebbe un posto ideale per l'atterraggio, ma non voglio che il vento faccia inondare l'astronave. Scenderemo su quel tratto erboso dietro i massi. Almeno, commentò Pellerat, un'astronave gravitazionale non brucia il terreno altrui quando atterra. Si posarono dolcemente sui quattro cuscinetti ammortizzatori usciti dallo scafo durante la fase finale. I cuscinetti affondarono nel terreno sotto il peso dell'astronave. Ho paura che lasceremo dei segni, disse Pellerat. Per fortuna il clima sembra ragionevole, disse Bliss un po' circospetta. Caldo, oserei dire. Sul prato c'era una donna che osservava la discesa dell'astronave senza mostrare alcun timore né sorpresa. La sua espressione era di estremo interesse. Non indossava granché e questo confermava la bontà della valutazione climatica di Bliss. I sandali sembravano di tela e, avvolta intorno ai fianchi, portava una gonna con un motivo floreale. Le gambe erano nude e non indossava indumenti sopra la cintola. Aveva lunghi capelli di un nero lucente che le arrivavano quasi alla vita, la pelle di un colorito marrone chiaro, giochi stretti. Travis si guardò intorno e vide che nei paraggi non c'erano altri esseri umani. Stringendosi nelle spalle disse, beh, è prima mattina e può darsi che gli abitanti perlopiù siano in casa o dormano ancora. Comunque non mi pare un'area densamente popolata. Andrò a parlare con quella donna sempre che si esprima in modo comprensibile. Voi altri? Credo che possiamo scendere benissimo anche noi, replicò Bliss decisa. La donna mi sembra completamente innocua e in ogni caso voglio sgranchirmi le gambe, respirare un po' d'aria vera e magari cercare un po' di cibo locale. Voglio che Fallon si ambienti di nuovo su un pianeta e penso che a Pell piacerebbe esaminare la donna più da vicino. Chi io? Pellerat arrossì leggermente. Ne t'ha fatto Bliss, comunque sono il linguista del nostro gruppetto. Travis fece spalluccio. D'accordo allora, venite tutti. Ma anche se la donna ha un'aria innocua porterò le mie armi. Non credo che avrei occasione di usarle con lei né che sarei tentato di farlo, disse Bliss. Travis sorrise. È attraente, vero? Lasciò l'astronave per primo. Poi fu la volta di Bliss e di Fallon che scese cauta dalla rampa. Pellerat fu l'ultimo. La donna continuò ad osservare interessata senza spostarsi di un millimetro. Beh, proviamo, borbotto Travis. Staccò bene le mani dalle armi e disse, salute a te. La giovane riflette per un istante e quindi rispose, e io saluto te e di te compagni. Pellerat esclamò esultante, meraviglioso, parla il galattico classico con un buon accento. La capisco anch'io, disse Travis facendo oscillare una mano per indicare che la sua comprensione non era perfetta. Spero che lei mi capisca. Sorridendo, con un'espressione amichevole, continuò. Veniamo dallo spazio, veniamo da un altro mondo. Questo è bene, disse la giovane con una voce squillante da soprano. Viene codesta astronave dall'impero? Viene da una stella molto lontana e si chiama stella lontana. La giovane guardò la scritta sull'astronave. È quello che è scritto là? Se sì e se la prima lettera è S, allora vi dico è impressa rovesciata. Travis stava per obiettare, ma Pellerat intervenne estasiato. Ha ragione, la lettera S si è invertita circa duemila anni fa. Che occasione meravigliosa per approfondire il galattico classico e come lingua viva! Travis osservò attentamente la giovane donna. Non superava di molto il metro e mezzo di altezza e i seni, per quanto ben fatti, erano piccoli. Eppure non sembrava acerba. I capezzoli erano grandi, le areole scure, anche se questo dipendeva probabilmente dal colorito bruno della pelle. Mi chiamo Golan Travis, il mio amico è Yanov Pellerat, la donna è Bliss e la bambina si chiama Fallon. Dunque, sulla stella remota da cui provenite e usanza che agli uomini due nomi tocchino, io sono Hiroko, figlia di Hiroko. È tuo padre? chiese Pellerat. Al che lei alzò le spalle, indifferente. Il nome suo, così dice mia madre, è Small, ma non ha importanza, non lo conosco. Dove sono gli altri? domandò Travis. A quanto pare sei l'unica ad accoglierci. Molti uomini sono a bordo dei pescherecci, molte donne nei campi. Io ho presi una vacanza negli ultimi due giorni, così ora ho avuto la fortuna di vedere questo grande avvenimento. Ma la gente è curiosa e l'astronave sarà stata vista scendere in lontananza. Presto altri saranno qui. Ci sono molte altre persone su quest'isola. Più di venticinque migliaia, disse Hiroko molto orgogliosa. Ci sono altre isole nell'oceano. Altre isole, buon signore? fece la giovane piuttosto perplessa. Per Travis fu una risposta sufficiente. Quello era l'unico punto del pianeta abitato da esseri umani. Qual è il nome del vostro mondo? domandò Travis. È Alfa, buon signore. Ci insegnano che l'intero nome è Alfa. Alfa centauri. Se ciò ha significato maggiore per te, ma noi lo chiamiamo Alfa soltanto. E vedi, è un mondo dal volto ridente. Un mondo che? Travis si rivolse a Pelorat con area interrogativa. E intende dire un mondo bello? spiegò Pelorat. Eh, lo è, a noi Travis. Almeno qui e in questo momento. Guardò il cielo azzurro del mattino, con le nubi che si rincorrevano. Una bella giornata di sole, Hiroko. Ma immagino che non ci siano molte giornate come questa su Alfa. La ragazza si irrigidi. Quante ne vogliamo, signore? Le nubi vengono quando ci occorre pioggia, ma in molti giorni sembra bello che il cielo lassù sia limpido. In vero, un cielo favorevole e un vento calmo sono augurabili nei giorni in cui i pescherecci sono in mare. Dunque la tua gente controlla il clima, a Hiroko. Non lo facessimo, Golan Travis. Saremmo zuppi di pioggia. Ma come fate? Non essendo un ingegnere, signore, non posso dirtelo. E quale sarebbe il nome dell'isola su cui vivete tu e la tua gente? L'isola celestiale in mezzo al vasto mare di acque e da noi chiamato Nuova Terra. Al che Travis e Pelarat si fissarono strabiliati. Non vi fu il tempo di approfondire. Stavano arrivando altre persone, decine di persone. Probabilmente, penso Travis, quelle che non erano in mare o nei campi e che non si trovavano troppo lontane. Per la maggior parte arrivavano a piedi, anche se si vedevano due terramobili piuttosto goffe e antiquate. Sì, era una società a basso livello tecnologico che controllava i fenomeni atmosferici. Si sapeva che la tecnologia non procedeva necessariamente in modo compatto, che l'arretratezza di un settore non escludeva necessariamente un progresso considerevole in altri. Ma gli esempi di sviluppo non uniforme erano insoliti. Almeno metà delle persone che osservava l'astronave era anziana, uomini e donne. C'erano tre o quattro bambini e per il resto le donne erano in maggioranza rispetto agli uomini. Nessuno sembrava incerto o spaventato. Travis mormorò a Bliss. Li stai influenzando? Sembrano sereni. Non li influenza affatto, rispose Bliss. Non tocco le menti se proprio non devo. E fallo, ma che mi preoccupa. Per quanto i nuovi venuti fossero pochi, almeno per chi si fosse imbattuto nelle normali folle di curiosi che si trovavano su qualsiasi mondo della galassia, per Fallon rappresentavano una moltitudine. Del resto, aveva stentato ad abituarsi alla presenza dei tre adulti a bordo della stella lontana e ora aveva il respiro affannoso, gli occhi socchiusi, come se fosse in stato di shock. Bliss l'accarezzava con gesti ritmici e delicati, mormorando una specie di nenia per calmarla e sicuramente intervenendo con delicatezza sulle fibre mentali della bambina. D'un tratto Fallon inspirò a fondo, ebbe un sussulto violento e si scosse. Drizzò la testa, guardò i presenti con un'aria non più stranita come prima e infilò la testa sotto il braccio di Bliss. Pelorath sembrava in preda a un timore reverenziale e il suo sguardo si spostava continuamente da un alfano all'altro. Golan, sono tutti diversi tra loro. Anche Travis l'aveva notato. C'era un campionario assorto di colori, sia per quanto riguardava la carnagione, sia i capelli, compreso un tipo dei capelli rossi, gli occhi azzurri e le lentigini. Alcuni adulti, almeno sembravano tali, erano bassi come Hiroko. Un paio erano più alti di Travis. Un certo numero di maschi e di femmine aveva il taglio degli occhi uguale a quello di Hiroko, e Travis rammentò che sui popolosi pianeti commerciali del settore di Philly, gli occhi a mandorla erano la caratteristica della popolazione, ma lui non c'era mai stato. Gli alfani erano nudi sopra la cintola e i seni delle donne sembravano piccoli. Era la particolarità fisica più uniforme che Travis potesse notare. Bliss disse all'improvviso, Hiroko, la mia piccola non è abituata ai viaggi spaziali e si trova di fronte a troppe novità in una volta sola. Non sarebbe possibile farla sedere e magari darle da mangiare o da bere qualcosa? Hiroko sembrò perplessa, e Pelorat ripetì la richiesta di Bliss nel galattico più elaborato del periodo mediano dell'impero. Hiroko portò una mano alla bocca e si inginocchiò con movimenti aggraziati. Imploro da te perdono, stimata signora. Non ho considerato i bisogni di codesta bambina, né i tuoi. La stranezza di tale avvenimento mi ha troppo distolta. Vorresti tu, vorreste voi, voi tutti, come visitatori e ospiti, entrare nel refettorio per il pasto mattutino? Possiamo unirci a voi e fungere da vostri anfitrioni. Bliss rispose lentamente, scandendo bene le parole e sperando che questo facilitasse la comprensione. Siete davvero gentili, ma sarebbe meglio se solo tu facessi da anfitrione, per il bene della bambina che non è abituata a stare con molte persone. Hiroko si alzò. Sarà fatto come hai richiesto. Le guidò tranquilla attraverso il prato, mentre gli altri alfani sembravano soprattutto interessati agli abiti degli stranieri. Travis si tolse la giacca e la porse a un uomo che gli si era accostato e l'aveva toccata con area interrogativa. Ecco, disse Travis, guardala bene, ma restituiscimela. Poi rivolto a Hiroko. Fai in modo che la riabbia indietro, Hiroko. Oh, di certo sarà di nuovo in mano tua, stimato signore. Annuilla giovane, seria. Travis sorrise e proseguì. Si sentiva più a proprio agio senza giacca in quella brezza carezzevole. Non aveva visto armi addosso a chi lo attorniava e constatò con interesse che gli alfani non mostravano alcun timore né alcun disagio per quelle che portava lui. Non sembravano nemmeno incuriositi. Forse non sapevano che si trattava di armi. Da quanto aveva potuto osservare finora, Alpha aveva tutta l'aria di essere un mondo pacifico. Una donna, portandosi di fronte a Bliss, si girò a esaminare meticolosamente la sua camicetta, quindi chiese. Hai segni, stimata signora? Poi, come se fosse incapace di attendere una risposta, posò ad agio una mano sul petto di Bliss. Bliss sorrise. Li ho? Come hai appena scoperto. Probabilmente non sono belli come i tuoi, ma non li nascondo per questo motivo. Sul mio mondo è sconveniente che siano esibiti. E aggiunse sotto voce rivolta a Pelerat. Che te ne pare del mio galattico classico? Sei stata bravissima, Bliss. La sala da pranzo era spaziosa, con lunghi tavoli ai quali su entrambi i lati erano fissate delle panche. Chiaramente gli alfani consumavano pasti comunitari. Travis si sentiva un po' in colpa. In seguito alla richiesta di Bliss, tutto quello spazio era stato destinato adesso ad appena cinque persone e gli altri alfani erano stati relegati all'esterno. Alcuni si erano fermati in prossimità delle finestre. Erano semplici aperture nelle pareti, prive di qualsiasi protezione. Presumibilmente per osservare gli stranieri a tavola. Involontariamente, Travis si chiese cosa sarebbe successo in caso di pioggia. Di sicuro sarebbe arrivata solo in caso di necessità e sarebbe stata una pioggia lieve, senza raffiche di vento, pronta a cessare non appena ne fosse venuto meno il bisogno. Ergo, non sarebbe arrivata all'improvviso e gli alfani non sarebbero stati impreparati. La finestra di fronte a Travis si affacciava sul mare e, in lontananza all'orizzonte, gli sembrò di scorgere un banco di nubi simili a quelli che oscuravano gran parte del cielo, fatta eccezione per quel piccolo paradiso. Il controllo meteorologico presentava dei vantaggi. Furono serviti da una giovane che si muoveva in punta di piedi. Nessuno chiese agli ospiti cosa desiderassero. Vennero serviti e basta. C'erano tre bicchieri, uno piccolo di latte, uno medio di succo d'uva, uno grande di acqua. Ogni commensale ricevette due uova in camicia con pezzettini di formaggio e un piatto di pesce alla griglia e di patate arrosto accompagnate da foglie di lattuga. Bliss guardò scoraggiata la quantità di cibo che aveva di fronte, non sapendo da dove iniziare. Fallob non aveva problemi del genere. Beve avidamente il succo d'uva, quindi si lanciò sul pesce e le patate. Stava per usare le dita, ma Bliss le porse un grosso cucchiaio con estremità a rebbio che fungeva anche da forchetta e Fallob l'accettò. Pelorat sorrisse soddisfatto e si dedicò subito alle uova. Travis lo imitò dicendo, tanto per ricordare che gusto hanno le uova vere. Hiroko, trascurando la propria colazione e osservando deliziata con quanto appetito mangiavano gli ospiti, perché anche Bliss finalmente si era messa all'opera con lo stesso slancio dei compagni, infine chiese. È di vostro gradimento? Tutto ottimo, ma su quest'isola il cibo non scarseggia, o ci offrite un pasto così abbondante per cortesia? Hiroko ascoltò assorta ed evidentemente comprese il significato della domanda, in quanto rispose. No, stimato signore, la nostra terra è generosa, il mare è ancora di più, le anatre danno uova, le capre latte e formaggio, e abbiamo i nostri grani, ma soprattutto il mare è colmo di innumerevoli varietà di pesci, in copiosissima quantità. Tutto l'impero potrebbe mangiare alle nostre tavole senza esaurire il mare pescuoso. Travis sorrise tra sé. Evidentemente la giovane alfana non immaginava quanto fosse grande la galassia. Quest'isola è chiamata Nuova Terra, Hiroko, disse Travis. Dove può essere la vecchia? lei lo fissò confusa. Vecchia terra, hai detto? Imploro perdono, stimato signore, non riesco a comprendere. Prima che ci fosse una nuova terra, spiegò Travis, il tuo popolo deve aver vissuto altrove. Dov'è il posto da cui proviene il tuo popolo? Di questo non so nulla, stimato signore, rispose Hiroko, l'espressione solenne e turbata. Da una vita questa è la mia terra, e di mia madre, e della di lei madre, e delle madri venute prima. Di un'altra terra non so nulla. Ma, insistette Travis con garbo, perché chiamate questo posto Nuova Terra? Perché, stimato signore, rispose Hiroko altrettanto garbatamente, è da tutti chiamato così. Da che mente di donna ha raziocinio? Ma è una nuova terra, quindi una terra venuta in seguito. Deve esserci stata una vecchia terra, un mondo precedente, da cui questa ha preso il nome. Ogni mattina c'è un nuovo giorno, il che significa che prima c'è stato un vecchio giorno. Non capisci che non può essere diversamente? No, stimato signore, so soltanto come questa terra è chiamata. Null'altro io so. Ne seguo questo tuo ragionare, che noi qui chiameremmo astruso, senza offesa. Travis scosse il capo, frustrato. Travis mormorò a Pelerat. Ovunque andiamo, qualsiasi cosa facciamo, non otteniamo alcuna informazione. E sappiamo dov'è la terra, quindi che importa? Disse Pelerat muovendo appena le labbra. Voglio prima saperne qualcosa. Ehi, Hiroko è giovanissima, non può essere un pozzo di informazioni. Travis riflettì per un istante, poi a noi. Eh, giusto, Yanov. Rivolgendosi alla ragazza, disse. Hiroko, non ci hai chiesto perché siamo venuti sul vostro mondo. Lei abbassò gli occhi. Sarebbe scortese chiedere prima che abbiate mangiato e riposato, stimato signore. Ma adesso abbiamo mangiato, o quasi, e ci siamo riposati di recente, quindi ti dirò perché siamo qui. Il mio amico, il dottor Pelerat, è uno studioso del nostro mondo, un dotto, è un mitologo. Sai che cosa significa? No, stimato signore. Il mio amico studia le vecchie storie che si raccontano su ogni mondo. Queste storie si chiamano anche miti e leggende, ed è di questo che si interessa il dottor Pelerat. Su Nuova Terra ci sono dei dotti che conoscono le vecchie storie di questo mondo. Hiroko si concentrò corrugando leggermente la fronte. Non è una materia di mia conoscenza. Abbiamo nei dintorni un vecchio che ama parlare dei giorni antichi. Dove possa avere appreso queste cose non so, e ritengo possa averle inventate di sana pianta, o che le abbia udite da qualcuno che a sua volta le abbia inventate così. Forse è questa la materia di cui il tuo dotto compagno gradirebbe sentir parlare, ma non intendo forviarvi. È mio parere, e si guardò intorno come se volesse assicurarsi che nessuno la sentisse. Che il vecchio sia solo un gran chiacchierone, quantunque in molti lo ascoltino volentieri. Travis a noi. A noi interessano proprio questi chiacchieroni. Non sarebbe possibile portare il mio amico dal vecchio. Monolì è il suo nome. Da Monolì, allora, pensi sia disposto a parlare con il mio amico? Disposto a parlare? Dovresti chiedere semmai se sarà disposto a smettere di parlare? È solo un uomo e dunque, potendo, parlerà senza pausa per mezzo mese, senza offesa, stimato signore. Assolutamente. Adesso vorresti accompagnare il mio amico da Monolì? È sempre possibile farlo. Il vecchio passa tutto il tempo a casa, ed è sempre ben disposto a salutare orecchie attente. Travis suggerì. E forse una donna anziana potrebbe essere disposta a venire a sedersi con Bliss. Lei deve badare alla bambina e non può muoversi troppo, ma le farebbe piacere un po' di compagnia, perché, si sa, alle donne piace. Blaterare? Disse Hiroko divertita. Così dicono gli uomini, quantunque io abbia notato che gli uomini sono sempre i più grandi chiacchieroni. Quando tornano dalla pesca, fanno a gara l'un l'altro per vedere chi ingigantisce di più con la fantasia le proprie imprese o le prede. E pur se nessuno bada loro, pur se non sono creduti, non cessano. Ma basta, io stessa sto blaterando. Chiamerò un'amica di mia madre, una donna che ora scorgo attraverso la finestra, perché resti con la signora e la bambina dopo aver guidato il tuo amico, lo stimato dottore, dal vecchio Monolì. Se il tuo amico sarà avido d'ascolto come Monolì lo è di parola, faticherai a separarli. Vogliate perdonare la mia momentanea assenza ora? Quando Hiroko fu uscita, Travis si rivolse a Pellerat. Senti, cerca di scoprire il più possibile da quel vecchio e tu, Bliss, cerca di sapere il più possibile dalla donna che verrà qui. Ci occorrono informazioni sulla terra. E tu cosa farai? Domandò Bliss. Io rimarrò con i Hiroko e vedrò di trovare una terza fonte di informazioni. Bliss sorrise. Certo. Pell sarà con il vecchio, io con una vecchia. Tu ti sacrificherai e rimarrai con questa giovane seducente e seminuda. Mi sembra un'equa suddivisione dei compiti. Guarda caso, Bliss è equa. Già, dal tuo punto di vista, di sicuro. Hiroko rientrò e si sedette di nuovo. E tutto approntato. Lo stimato dottor Pellerat verrà condotto da Monolie e la stimata signora Bliss, insieme alla bambina, avrà compagnia. Mi vuoi dunque concedere, stimato signor Travis, l'onore di proseguire con te la conversazione. Forse riguardo a questa vecchia terra di cui... Blatero, concluse Travis. No, rispose Hiroko ridendo. Ma è stato giusto burlarmi. Finora ho mostrato solo scortesia nel rispondere alla tua domanda. Mi aggraderebbe fare ammenda. Travis chiese a Pellerat. Aggraderebbe? Me le piacerebbe molto, vuol dire. Mormorò Pellerat. E non c'è stata scortesia, Hiroko, disse Travis. Ma se servirà a tranquillizzarti, parlerò volentieri con te. Ti ringrazio per la tua bontà, disse Hiroko alzandosi. Anche Travis si alzò. Bliss, controlla che Yanov non si trovi in pericolo. Ci penso io. Tu invece hai le tue... e indico con un cenno le fondine. Eh, non credo che ne avrò bisogno, rispose Travis impacciato. Seguì Hiroko all'esterno. Il sole era alto nel cielo e c'era ancora più caldo. Come sempre, nell'aria si avvertiva un profumo strano. Travis ricordava quello debole di Comporellen, l'odore leggermente muschiato su Aurora e quello delizioso di Solaria. Su Melpomenia indossavano le tute spaziali all'interno delle quali si sentiva solo l'odore del proprio corpo. In ogni caso, il profumo scompariva in poche ore per la saturazione dei centri olfattivi del naso. Su Alfa si sentiva una calda fragranza di erba e Travis provò un certo disappunto al pensiero che sarebbe durata così poco. Si stavano avvicinando a una piccola costruzione che sembrava fatta di malta rosa chiaro. È la mia casa. Apparteneva un tempo alla sorella minore di mia madre. Entrò, invitando Travis a seguirla. La porta era aperta, o meglio, notò lui, non c'era alcuna porta. Cosa fate quando piove? Siamo preparati. La pioggia dura sempre due giorni, fino a tre ore avanti l'alba, quando è maggiore il fresco e il terreno si bagna meglio. Quando piove, mi basta tirare attraverso la soglia a questa tenda robusta e impermeabile. Mentre parlava, Hiroko tirò la tenda. Sembrava fatta di una specie di tela spessa. La lascerò così adesso, proseguì Hiroko. Tutti così sapranno che sono in casa ma non a disposizione, in quanto addormentata o impegnata in cose di importanza. Non sembra granché come mezzo per proteggere la propria intimità. È un'ottima protezione. Vedi l'entrata è coperta. Eh, ma chiunque potrebbe scostarla. In spregio ai desideri dell'occupante, fece Hiroko confusa. Si fanno cose simili sul tuo mondo. Sarebbe barbaro. Travis sorrise. Chiedevo soltanto. Hiroko lo condusse nella seconda delle due stanze e lo invitò ad accomodarsi su una sedia imbottita. Erano stanze anguste e spoglie che trasmettevano un lieve senso di claustrofobia e quest'ultima sembrava destinata ad essere solo un luogo dove appartarsi e riposare. Le aperture delle finestre erano piccole vicine al soffitto, ma disposte con cura lungo le pareti, alcune strisce di materiale speculare diffondevano la luce. Dalle due fessure del pavimento si alzava una corrente lieve e fresca. Non c'era traccia di illuminazione artificiale e Travis si chiese se gli alfani dovessero alzarsi all'alba e andare a letto al tramonto. Stava per domandarlo quando Hiroko lo precedette chiedendo. La signora Bliss è la tua compagna? Travis rispose cauto. Mi chiedi cioè se è la mia compagna sessuale? Hiroko arrossì. Ti scongiuro. Abbi riguardo per le convenienze della conversazione educata? Comunque sì, mi riferivo alle piacevolezze private. No, è la compagna del mio amico studioso. Eppure sei tu il più giovane e il più piacente. Beh grazie, ma lei è di un altro avviso. Preferisce di gran lunga il dottor Pellerat. Ciò mi sorprende molto. Lui non ti rende partecipe? E non gli ho mai fatto una richiesta del genere, ma sono certo che risponderebbe di no. Ne vorrei una risposta diversa. Hiroko a noi. Capisco. E il suo deretano? Il suo deretano? Sai, questo. E Hiroko si batte una mano sul grazioso posteriore. Ah, quello? Capisco, sì. Bliss ha proporzioni generose nella regione pelvica. Travis tracciò una curva con le mani e strizzò l'occhio. E Hiroko rise. Comunque a molti uomini piace quel genere di abbondanza fisica, aggiunse lui. Stento a crederlo. E da ingordi desiderare in eccesso ciò che è piacevole se preso con moderazione. Mi preferiresti tu se avessi seni grossi e pensolanti, coi capezzoli rivolti ai piedi. In verità ho visto seni simili, ma non ho visto frotte di uomini a correre. Le poverette afflitte da tale sventura devono coprire le loro mostruosità, come la signora Bliss. E le dimensioni eccessive non attraggono nemmeno me. Comunque sono sicuro che se Bliss copre i seni non lo fa per nascondere qualche imperfezione. Dunque tu non disapprovi il mio aspetto e la mia forma. Eh, sarei un pazzo se lo facessi. Sei molto bella. E sull'astronave, andando di mondo in mondo, cosa fai per procurarti il piacere, essendo a te negata la signora Bliss? Eh, nulla, Hiroko, non c'è nulla che possa fare. Di tanto in tanto penso al piacere e questo crea dei disagi, ma chi viaggia nello spazio sa benissimo che certe volte bisogna fare delle rinunce. Ci ripaghiamo dei disagi in altre occasioni. Se è un disagio, in che modo è possibile rimediare? Eh, ora che ne parli, il disagio che avverto è aumentato. Ma non credo che sarebbe cortese suggerire quale potrebbe essere per me la cura migliore. Sarebbe scortese se a suggerirla fossi io? Eh, dipende dal suggerimento. Io suggerirei di procurarci piacere a vicenda. Hiroko, mi hai portato qui perché arrivassimo a questo? Hiroko sorrise. Sì, è il mio dovere di padrona di casa ed è anche ciò che desidero. E in tal caso ammetto che anch'io lo desidero. Anzi, mi aggraderebbe molto. Lo spettacolo musicale. Pranzarono nella medesima sala in cui avevano fatto colazione. Era piena di alfani e con loro c'erano Travis e Pelorat, graditi ospiti. Bliss e Fallon mangiavano separate, più o meno in privato in una piccola dependence. C'erano parecchi tipi di pesce e una zuppa in cui galleggiavano pezzetti di carne, forse un capreto bollito. C'erano pagnotte da affettare, burro e marmellata, un'insalata abbondante, niente dessert e un'infinità di brocche di succhi di frutta. Travis e Pelorat, dopo la sostanziosa colazione, si limitarono a un pasto frugale, a differenza di tutti gli altri. Come faranno a non ingrassare? Si chiese Pelorat a mezza voce. Travis fece spallucce. Molti lavori pesanti, forse. Era una società in cui il decoro a tavola non aveva molto valore. C'era un frastuono di grida, risate, tazze battute con forza sul tavolo, tazze solide, evidentemente infrangibili. E le donne erano chiassose quanto gli uomini, per quanto in modo più stridulo. Pelorat era frastornato, ma Travis, che almeno per ora non avvertiva la benché minima traccia del disagio di cui aveva parlato con Ichiroko, si sentiva rilassato e di ottimo umore. Niente male quest'ambiente, disse Travis. Sembra che la gente si goda la vita e non abbia eccessive preoccupazioni. Controllano il tempo, hanno cibo volontà, una specie di età dell'oro che non finisce mai. Dovette gridare per farsi sentire e Pelorat gli urlò di rimando. Ma tutto questo baccano? Eh, ci sono abituati. Non vedo come facciano a capirsi in mezzo a tanto chiasso. Certo, i due ospiti non capivano nulla. A un volume così alto, la strana pronuncia, la grammatica arcaica e l'ordine delle parole della lingua alfana formavano un miscuglio incomprensibile. Per Travis e Pelorat era come ascoltare i rumori di uno zoo spaventato. Solo dopo il pranzo si riunirono a Bliss in una piccola costruzione che a Travis parve quasi identica alla casa di Ichiroko e che era stata assegnata agli ospiti come alloggio provvisorio. Fallon era nella seconda stanza, finalmente sola, e cercava di fare un sonnellino, spiegò Bliss. Pelorat guardò l'apertura morale che fungeva da porta e disse incerto. Non c'è molta privacy qui, come possiamo parlare liberamente. Ti assicuro che, una volta tirata la tenda, disse Travis, non saremo disturbati da nessuno. La tenda è una barriera impenetrabile che ha la solidità di una consuetudine sociale. Pelorat sollevò lo sguardo verso le finestre aperte. Possono sentirci, e non c'è bisogno che gridiamo. Gli alfani non staranno ad origliare, anche quando erano fuori dalle finestre della sala da pranzo a colazione, si mantenevano a rispettosa distanza. Bliss sorrisse. Nel tempo che hai trascorso con la piccola Ichiroko, hai imparato moltissimo sulle usanze alfane e sembri sicuro del loro rispetto per l'intimità altrui. Cosa è successo? Se hai capito che la mia situazione psicologica è cambiata in meglio e immagini il motivo, posso solo chiederti di lasciare in pace la mia mente. Sai benissimo che Gaia non toccherà la tua mente in alcuna circostanza, a meno che non si tratti di un'emergenza vitale. Comunque, non sono mentalmente cieca. Ho percepito quel che è successo a un chilometro di distanza. È un'abitudine cui non puoi rinunciare quando viaggi nello spazio, mio caro erotomane. Erotomane. Via Bliss. Due sole volte in tutto il viaggio. Due volte. Siamo stati solo su due mondi abitati da femmine umane funzionanti. Due su due. E in entrambi i casi è successo quasi subito dopo il nostro arrivo. Sai benissimo che su Comporellen non avevo scelta. Hai ragione. Ricordo che tipo era quella, disse Bliss. Eppure non credo che Hiroko ti abbia bloccato nella sua morsa d'acciaio, né abbia piegato il tuo povero corpo con la sua irresistibile forza di volontà. Certo che no. Ero perfettamente consenziente. Comunque, la proposta è partita da lei. Con una punta di invidia nella voce, Pelorat chiese. E ti capita sempre così, Golan? Certo, Pel, disse Bliss. Le donne sono impotenti di fronte al suo fascino. Eh, magari, disse Travis. Ma non è così. E sono contento. E ho altri interessi nella vita. Comunque, in questo caso sono stato irresistibile. Eh, in fin dei conti, siamo le prime persone provenienti da un altro mondo che lei abbia visto. Forse che gli alfani delle ultime generazioni abbiano visto. Da certe cose che Hiroko si è lasciata sfuggire, da certe osservazioni, ho capito che era abbastanza eccitata l'idea che potessi essere diverso dagli alfani, anatomicamente o in quanto a tecnica. Eh, poverina. Temo che sia rimasta delusa. Oh? Fece Bliss. Eh, anche tu sei rimasto deluso. No? Rispose Travis. Sono stato su parecchi mondi e l'esperienza non mi manca. E ho scoperto che la gente è sempre la stessa e che il sesso è sempre lo stesso. Se ci sono differenze apprezzabili, beh, di solito si tratta di cose banali e spiacevoli. I profumi che ho incontrato in vita mia. Ricordo che una ragazza non riusciva a combinare nulla se non c'era della musica suonata a tutto volume. Musica che era una cozzaia di suoni stridenti. Così lei suonava questa musica e allora ero io a non riuscire a combinare nulla. Beh, ve lo assicuro. Il vecchio sistema tradizionale mi va benissimo. A proposito di musica, disse Bliss, siamo stati invitati a uno spettacolo musicale dopo cena. Una manifestazione molto formale, pare, in nostro onore. Mi è parso di capire che gli alfani siano molto orgogliosi della loro musica. Travis fece una smorfia. Il loro orgoglio non renderà la musica più piacevole alle nostre orecchie. Ascolta, disse Bliss, sono orgogliosi perché pare che suonino con maestria degli strumenti estremamente arcaici. Estremamente, capito? Può darsi che grazie ad essi riusciamo ad ottenere qualche informazione sulla terra. Travis inarcò di colpo le sopracciglia. Un'idea interessante. A proposito, forse voi due avete già qualche informazione. Yanov, hai visto quel tale Monolì? Certo, rispose Pererat. Sono rimasto con lui per tre ore e Firocco non esagerava. Si è trattato di un monologo continuo da parte sua e quando mi sono allontanato per venire a pranzare, Monolì si è aggrappato a me e non mi ha lasciato andare finché non gli ho promesso che sarei tornato quanto prima ad ascoltarlo. E non ti ha raccontato nulla di interessante? Beh, anche lui, come chiunque altro, ha insistito sulla radioattività letale della Terra. Ha detto che gli antenati degli Alfani furono gli ultimi a lasciare il pianeta e che, se non fossero partiti, sarebbero morti. E Golan, la sua enfasi è stata tale che ho dovuto credergli per forza. Ne sono convinto. La Terra è morta e la nostra ricerca a conti fatti è inutile. Dalla sua sedia Travis fissò l'amico seduto su una beranda. Bliss, che sedeva accanto a Pererat, si alzò e guardò i due uomini. Infine Travis disse, lascia che sia io a giudicare l'utilità della nostra ricerca, Yanov. Riferiscimi quello che ti ha raccontato quel vecchio chiacchierone. In modo conciso, naturalmente. Pelerat cominciò. Mentre Monolì parlava, ho preso appunti. Mi è servito ad aumentare la credibilità del mio ruolo di studioso, ma non c'è bisogno che li consulti. Monolì parlava a ruota libera. Ogni cosa che diceva gli ricordava qualcos'altro. Ma, naturalmente, è da una vita che cerco di sistemare in modo organico le informazioni per ricavarne i dati rilevanti e significativi. Quindi, per me, è quasi un fatto istintivo riuscire a condensare un discorso lungo e incoerente trasformandolo. Travis intervenne garbato. In qualcosa di altrettanto lungo e incoerente? Vieni al punto, Yanov. Imbarazzato, Pelerat si schierì la voce. Sì, certo, amico mio. Cercherò di presentare un resoconto organico e cronologicamente ordinato. La Terra era la patria d'origine dell'umanità e di milioni di specie di piante e animali. Continuò ad esserlo per innumerevoli anni, fino all'invenzione del volo iperspaziale. Poi furono fondati i mondi spaziali che si staccarono dalla Terra, crearono culture indipendenti e giunsero a disprezzare e a opprimere il pianeta madre. Dopo un paio di secoli di questa situazione, la Terra riuscì a riguadagnare la propria libertà, anche se Monolì non mi ha spiegato di preciso come avvenne. Non ho osato fargli delle domande, anche se mi avesse lasciato la possibilità di interromperlo, perché così lo avrei fatto divagare ulteriormente. In effetti ha accennato a un eroe terrestre di nome Elia Balei, ma i riferimenti a quel personaggio erano così caratteristici dell'abitudine di attribuire a una singola figura, le imprese di intere generazioni che, francamente, sarebbe stato inutile cercare di... «Pel caro», disse Bliss. «Ti abbiamo capito perfettamente». Pellorath si fermò nuovamente a riflettere. «Oh, certo, scusate». La Terra avviò una seconda ondata di colonizzazione, fondando molti nuovi mondi. Il nuovo gruppo di coloni si dimostrò più forte degli spaziali, li sconfisse e, alla fine, fondò l'Impero Galattico. Durante le guerre tra colonie spaziali... Eh, no, non guerre, perché Monolia ha utilizzato il termine conflitto e lo ha ribadito. Dunque, durante il conflitto, la Terra diventò radioattiva. Travis osservò seccato. «Che assurdità, Yanov! Come può un mondo diventare radioattivo?» «Tutti i mondi lo suono leggermente al momento della formazione. Poi la radioattività decade lentamente. Un mondo non può diventarlo». Pellorath alza le spalle. «Sto solo riferendoti le parole di Monolia. E lui mi ha raccontato qualcosa che qualcun altro gli aveva raccontato dopo averla sentita da un altro ancora, e via dicendo. È la storia popolare, tramandata da chissà quante generazioni, con chissà quante distorsioni a ogni passaggio. Capisco. Ma non esistono libri, documenti primitivi in grado di fornirci una versione più precisa del racconto di Monolia. E in effetti sono riuscito a chiederglielo. E la risposta è stata no. Monolia ha detto in modo vago che nell'antichità c'erano sì dei testi sull'argomento, libri andati smarriti da un pezzo, ma che lui mi aveva raccontato il loro esatto contenuto. Eh, già, travisato e distorto. Sempre la stessa storia. Eh, su qualsiasi mondo andiamo, in un modo o nell'altro i documenti riguardanti la Terra sono scomparsi. Beh, secondo lui, come si sarebbe verificata la radioattività? Non me ne ha parlato dettagliatamente. Ha solo accennato alla responsabilità degli spaziali, ma ho capito che gli spaziali erano i demoni, ai quali i terrestri attribuivano la colpa di qualsiasi sventura. Una voce squillante lo interruppe. Bliss, io ho spaziale. Fallon era ferma sulla soglia tra le due stanze, i capelli arruffati, la camicia da notte, destinate in origine a dimensioni maggiori del suo corpo, scivolata su una spalla, a rivelare un seno non sviluppato. Ci preoccupiamo di chi può origliare da fuori e ci siamo scordati di chi origlia da dentro, disse Bliss. Fallon, perché dici così? Si alzò dirigendosi verso la solariana. Non ho quello che hanno loro, rispose Fallon e indicò i due uomini. Né quello che hai tu, Bliss, sono diversa. E perché sono una spaziale? Lo sei, Fallon, disse Bliss in tono carezzivole. Ma certe piccole differenze non hanno importanza. Vieni a letto. Fallon divenne docile, come accadeva sempre quando interveniva Bliss. Si girò e disse, sono un demone. Che cos'è un demone? Bliss disse girando la testa, aspettami, torno subito. Rientrò dopo alcuni minuti, scuotendo la testa. Dormirà finché non la sveglierò io. Avrei dovuto farlo prima, immagino, ma qualsiasi modificazione mentale deve essere giustificata da un'effettiva necessità. E aggiunse, quasi volesse difendersi. Non posso permettere che cominci a rimuginare sulle differenze tra il suo corredo genitale e il nostro. Un giorno dovrà sapere di essere un'ermafrodita, osservò Pelerath. Un giorno, a lui Bliss. Non ora. Continua a raccontare, Pell. Beh, la Terra diventò radioattiva, o almeno la sua crosta. All'epoca la Terra aveva una popolazione incredibilmente numerosa, concentrata in enormi città situate per lo più sottoterra. Questo è certamente falso, intervenne Travis. Deve essere l'effetto del patriotismo locale, che glorifica l'età aurea di un pianeta paragonandolo a Trantor, quando la capitale imperiale governava un sistema di mondi esteso per tutta la galassia. Pelerath esitò un istante, quindi disse, Golan, credimi, non deve insegnarmi il mio mestiere. Noi mitologi sappiamo benissimo che miti e leggende contengono elementi plagiati da altre fonti, lezioni morali, cicli naturali e cento altre distorsioni, e ci sforziamo di eliminarle per arrivare al fondo di verità che può esserci. La stessa tecnica va usata anche con le storie più credibili, perché nessuno scrive la verità pura e semplice, sempre ammesso che esista. Mi limito a riferirti più o meno a quello che mi ha detto Monolì, anche se è probabile che anch'io aggiunga delle distorsioni per quanto cerchi di essere obiettivo. D'accordo, continua Yanov, disse Travis. Non intendevo offenderti, e io non mi sono offeso. Le immense città, sempre che esistessero, crollarono con il progressivo aumento della radioattività, e la popolazione diminuì drammaticamente, trasferendosi nelle regioni relativamente prive di radioazioni. Per bloccare un nuovo aumento demografico si ricorse a un severo controllo delle nascite e all'eutanasia per persone oltre i sessant'anni. Orribile, commentò Bliss indignata. Eh, indubbiamente, convenne Pelarat. Ma è quel che facevano, stando a Monolì. Può darsi che sia vero, trattandosi di una cosa che non fa onore ai terrestri, ed essendo poco probabili, l'invenzione è l'aggiunta di particolari tanto poco lusinghieri. Dopo il disprezzo e l'oppressione da parte degli spaziali, ora i terrestri erano disprezzati e oppressi dall'impero. Questa potrebbe essere un'esagerazione dovuta ad autocommiserazione, un sentimento molto amaro. Per esempio, c'è quel caso. Sì, sì, Pelarat, un'altra volta. Continua con la Terra. Eh, chiedo scusa. L'impero, in uno slancio di generosità, accettò di portare via il terreno contaminato, e di sostituirlo importando del terreno non radioattivo. Va da sé che si rivelò un'impresa colossale di cui l'impero si stancò ben presto, soprattutto perché il periodo dovrebbe coincidere con la caduta di Kandar V. In seguito, l'impero ebbe cose assai più gravi di cui preoccuparsi. La radioattività continuò ad aumentare, la popolazione a diminuire, e infine l'impero, in un nuovo slancio di generosità, si offrì di trasferire quel che restava della popolazione su un mondo nuovo, e tutto per i superstiti. Qui, in definitiva, pare che una spedizione precedente, molti anni prima, avesse fornito l'oceano di forme di vita, in modo che, quando si misero appunto i piani per il trasferimento dei terrestri, su Alpha c'erano già un'atmosfera d'ossigeno e ampie risorse alimentari. L'impero galattico Alpha non interessava troppo, perché esiste una certa avversione naturale per i pianeti appartenenti a un sistema binario. I mondi abitabili nei sistemi binari sono rarissimi, e a mio avviso anche quei pochi vengono rifiutati perché si teme che abbiano qualcosa che non va. È una forma di pensiero ricorrente, c'è un caso notissimo. Del caso notissimo ce ne parlerai dopo, Yanov, disse Travis. Continua a parlare del trasferimento. Pelora Tubidi, accelerando leggermente il ritmo del discorso. A questo punto bisognava provvedere alla creazione del territorio vero e proprio. Nella parte meno profonda dell'oceano si cominciò ad accumulare il materiale scavato dagli abissi, fino a formare l'isola di Nuova Terra. Vennero aggiunti massi e banchi corallini, e seminate piante da superficie, in modo che il sistema di radici contribuisse alla stabilità del terreno. L'impero si era di nuovo imbarcato in un'impresa colossale. Forse all'inizio i piani prevedevano la formazione di continenti, ma una volta allestita a quest'unica isola, la fase della generosità imperiale era terminata. I terrestri superstiti furono portati qui. Le flotte imperiali trasferirono su Alfa uomini e attrezzature e non tornarono mai più. I terrestri di Nuova Terra si ritrovarono in un isolamento totale. Totale? Monolia ha detto che prima di noi non era mai venuto nessuno? Chiese Travis. Quasi totale. Anche accantonando la ripugnanza di carattere superstizioso verso i sistemi binari, e a che scopo venirci? Occasionalmente, a volte, arrivava un'astronave come la nostra, ma una volta partita è chiuso. Nessun altro contatto. Hai chiesto a Monolia la posizione della Terra? Domandò Travis. E certo, ma insiste nel dire che non la conosce. Se sa tante cose di storie terrestre, come fa a non conoscerne la posizione? Per la precisione, Golan, gli ho domandato se la stella a un parsec da Alfa non potesse essere il sole intorno a cui ruota la Terra. Monolia non sapeva cosa fosse un parsec. Io gli ho spiegato che a una breve distanza astronomica, breve o lunga, lui non sapeva dove fosse la Terra, ha detto. E ha detto di non conoscere nessuno che lo sappia, e che secondo lui è sbagliato cercare di trovarla, perché bisogna lasciare che continui a muoversi nello spazio in pace, per sempre. E sei d'accordo con lui? Chiese Travis. Pellarat scosse il capo mestamente. Non proprio, ma Monolia ha affermato che, dato il continuo aumento della radioattività, il pianeta deve essere diventato completamente inabitabile, poco dopo il trasferimento su Alfa. Ormai dovrebbe essere talmente radioattivo da non essere più avvicinabile. Sciocchezze! Sbottò Travis deciso. Un pianeta non può diventare radioattivo e continuare a incrementarne il livello. La radioattività può solo diminuire. Ma Monolia è così sicuro. Sono tante le persone incontrate su altri mondi che concordano sulla radioattività della Terra. Mi sembra inutile proseguire. Travis inspirò profondamente e, controllando poi il proprio tono di voce, disse Sciocchezze Yanov, non è vero. Beh, amico mio, non devi credere a qualcosa solo perché vuoi crederci. Quello che voglio non c'entra. Su tutti i mondi che visitiamo ci accorgiamo che qualsiasi documento riguardante la Terra è sparito. Perché sarebbero spariti se non ci fosse nulla da nascondere, se quello fosse un pianeta radioattivo, morto e inavvicinabile. Beh, non saprei, Golan. Eh, lo sai, invece. Quando ci stavamo avvicinando a Melpomenia, hai detto che la radioattività potrebbe essere l'altra faccia della medaglia. Distruggere i documenti per eliminare le informazioni precise. Divulgare la storia delle radiazioni per fornire informazioni imprecise. Eh, due sistemi per scoraggiare qualsiasi tentativo di ricerca della Terra. Non dobbiamo lasciarci ingannare e scoraggiarci. Se non sbaglio, disse Bliss, tu pensi che la stella più vicina sia il Sole della Terra? Che senso ha continuare a discutere dell'ipotetica radioattività? Perché non raggiungiamo la stella e controlliamo se c'è davvero la Terra e com'è? Perché i terrestri, rispose Travis, devono essere straordinariamente potenti, ne preferirei andarci disponendo di qualche dato sul pianeta e i suoi abitanti. Dal momento che continuo a non sapere nulla, avvicinarsi alla Terra rappresenta un pericolo. Sto pensando di lasciarvi qui su Alfa e proseguire da solo. Mettere a repentaglio una vita è più che sufficiente. No, Golan, disse Pellorat infervorandosi. Bliss e Fallon possono restare qui, ma io devo venire con te. Cerco la Terra da prima che tu nascessi. Non posso fermarmi quando la meta è così vicina. Quali che siano i pericoli davanti a noi. Bliss e Fallon non vi aspetteranno qui, disse Bliss. Io sono Gaia e Gaia può proteggerci perfino dalla Terra. Eh, lo spero, osservò Travis Cupo. Ma vi ricordo che Gaia non ha potuto impedire l'eliminazione dei vecchi documenti sul ruolo svolto dalla Terra nella sua fondazione. È successo agli albori della storia quando Gaia non era ancora ben organizzata e non rappresentava un organismo perfetto. Adesso le cose sono diverse. Eh, lo spero. Ma non è che tu abbia informazioni che noi non abbiamo. Stamattina ti ho chiesto di parlare con la vecchia che sarebbe venuta a farti compagnia. Ci ho parlato. E cosa hai scoperto? Sulla Terra nulla. Vuoto assoluto. Ma gli alfani sono dei biotecnologi molto progrediti. E cioè? Su questa piccola isola hanno fatto crescere e sperimentato moltissime varietà di piante e animali creando un equilibrio ecologico ideale. Malgrado il numero ridotto di specie di cui disponevano all'inizio hanno costruito un ambiente stabile e indipendente migliorando le forme di vita oceaniche che avevano trovato al loro arrivo. Nell'arco di alcuni millenni hanno aumentato il loro potere nutritivo migliorandone il gusto. Con la biotecnologia di cui dispongono hanno trasformato questo mondo in un paradiso dell'abbondanza e hanno dei progetti per se stessi. Ovvero? Sanno benissimo di non poter progredire oltre certi limiti dal momento che sono confinati sull'unico lembo di Terra esistente sul loro mondo ma sognano di diventare anfibi. Cosa? Diventare anfibi? Vogliono farsi crescere le peranchie oltre ai polmoni. Sognano di poter passare sott'acqua lunghi periodi di tempo di trovare zone poco profonde e costruire nuove strutture sul fondo dell'oceano. Mentre me ne parlava la vecchia era arraggiante ma ha ammesso che gli alfani lavorano a questo progetto da ormai parecchi secoli e che i progressi sono stati scarsi. Il controllo meteorologico e la biotecnologia disse Travis sono due campi in cui potrebbero essere più avanti di noi. Chissà che tecniche usano. Dovremmo rivolgerci ai loro specialisti disse Bliss e non è detto che quelli siano disposti a discuterne. Il nostro interesse primario è un altro disse Travis ma non sarebbe tempo sprecato se la fondazione cercasse di imparare qualcosa da questo mondo in miniatura. Su termini riusciamo a controllare le condizioni meteorologiche piuttosto bene osservò Pelorot. Il controllo è discreto su molti mondi ha consentito Travis ma si tratta sempre di un fenomeno che interessa a tutto il pianeta. Gli alfani invece controllano le condizioni meteorologiche di una piccola parte del loro mondo e devono adottare tecniche che a noi mancano. Nient'altro Bliss siamo stati invitati ma quanto pare quando non si dedica all'agricoltura e alla pesca questa gente ama festeggiare. Dopo cena stasera ci sarà lo spettacolo musicale di cui vi ho già parlato. Domani ci sarà una festa sulla spiaggia. Lungo l'intera costa pare si riuniranno tutti quelli che non saranno impegnati nei campi e festeggeranno il mare e il sole dato che nei due giorni successivi pioverà. La mattina dopo prima che cominci a piovere tornerà la flotta da pesca e verso sera ci sarà la festa alimentare con assaggi del pesce pescato. Pella ratta gemette i pasti sono già più che abbondanti chissà come sarà una festa alimentare. Sarà imperniata sulla varietà non sulla quantità se ho ben capito. Comunque noi quattro siamo invitati a partecipare a ogni festa soprattutto allo spettacolo musicale di stasera. Lo spettacolo musicale è con strumenti antichi chiese Travis. Esattamente. Tra parentesi antichi in che senso? Sono computer primitivi? No, no è questo il punto non si tratta di musica elettronica ma meccanica. Mi hanno descritto com'è sfregano delle cose e soffiano dentro certi tubi e percuotano delle superfici. È tutto per scherzo mi auguro disse Travis allibito. Niente affatto la tua Aichi Roku suonerà uno dei tubi di cui ora non ricordo il nome se non altro dovresti riuscire a sopportare il concerto. L'idea mi affascina disse Pelorat non so quasi nulla della musica primitiva e mi piacerebbe sentirla. Non è la mia Hiroko replicò gelido Travis ma secondo te useranno strumenti di origine terrestre? Credo proprio di sì rispose Bliss almeno le donne alfane dicono che sono strumenti che esistevano già molto tempo prima che i loro antenati venissero qui. In tal caso può darsi che valga la pena di sentire tutti quegli sfregamenti quei soffi e quei colpi riconobbe Travis forse ci forniranno qualche indizio utile riguardo alla terra. Stranamente la più eccitata alla prospettiva della serata musicale era Fallon si era lavata insieme a Bliss nella latrina esterna dietro l'alloggio che comprendeva un bagno con acqua corrente calda e fredda o meglio tiepida e fresca un lavabo e un water la latrina era pulitissima e nel sole del tardo pomeriggio perfino ben illuminata e accogliente. Come sempre Fallon era affascinata dal seno di Bliss e Bliss ora che Fallon capiva il galattico non poteva fare a meno di spiegarle che sul suo mondo la gente era fatta così al che inevitabilmente Fallon chiese perché? E Bliss dopo aver riflettuto un po' dovette ricorrere alla risposta universale dicendo perché sì? Terminato il bagno Bliss aiutò Fallon a indussare l'indumento intimo e la gonna fornite dagli alfani ma le sembrò abbastanza ragionevole lasciarla nuda dalla vita in su Bliss invece pur indossando gli indumenti alfani nella parte inferiore del corpo capì un po' stretti sui fianchi mise la propria camicetta era puerile fare troppo l'inibita e non voler mostrare i seni in una società dove tutte le donne lo facevano soprattutto se si considerava che il suo seno non era né grosso né cadente ma ben fatto come quelli che si vedevano su alfa eppure non se la sentiva proprio poi toccò ai due uomini ritirarsi nella latrina in modo tipicamente maschile Travis si lagnò del tempo eccessivo trascorso dalle donne in bagno Bliss fece girare Fallon per accertarsi che la gonna cadesse a pennello sulla figuretta a cerba di lei è una gonna molto graziosa Fallon ti piace? la ragazzina si guardò in uno specchio e rispose sì mi piace ma non avrò freddo con niente addosso e si passò le mani sul petto nudo eh non credo Fallon è un mondo abbastanza caldo questo ma tu porti qualcosa certo si usa così sul mio mondo ascolta Fallon durante la cena e dopo staremo con molti alfani credi di riuscire a resistere? Fallon sembro turbata e Bliss continuò io sarò seduta alla tua destra e ti stringerò Pell siederà a sinistra e Travis di fronte a te non permetteremo a nessuno di parlarti e tu non dovrai parlare a nessuno proverò Bliss e poi alcuni alfani suoneranno per noi della musica in modo speciale sai cos'è la musica? Bliss cominciò a canticchiare imitando come meglio poteva un brano di musica elettronica il viso di Fallon si illuminò vuoi dire? l'ultima parola era in solariano Fallon cominciò a cantare Bliss spalancò gli occhi era una melodia splendida anche se un po' orruenta e ricca di trilli esatto musica Fallon raccontò eccitata Gemby suonava musica di continuo suonava musica suon di nuovo una parola nella sua lingua Bliss ripetì la parola dubbiosa suon fliuto? Fallon rise non fliuto si dice sentendole confrontare direttamente Bliss capì la differenza tra le due parole ma capì anche che non sarebbe riuscita a pronunciare la seconda com'è fatto? il vocabolario di galattico ancora limitato di Fallon non era sufficiente per una descrizione accurata e i suoi gesti non evocarono alcuna forma chiara nella mente di Bliss Gemby mi ha insegnato a usarlo disse Fallon orgogliosa sai usavo le dita come faceva Gemby ma lui ha detto che presto l'avrei suonato senza è meraviglioso cara disse Bliss dopo cena vedremo se gli alfani sono bravi come lo era il tuo Gemby gli occhi di Fallon luccicavano e pregustando l'avvenimento musicale riuscì a superare l'abbondante banchetto malgrado la folla il baccano e i cori di risate che echeggiavano intorno a lei solo una volta quando venne rovesciato accidentalmente un piatto e si levarono grida divertite la ragazzina apparve spaventata e Bliss la tirò subito a sé in un abbraccio protettivo dovremmo chiedere se è possibile mangiare da soli d'ora in poi mormorò Bliss a Pellerat altrimenti dovremmo andarcene da questo pianeta è già abbastanza duro mangiare tante proteine animali isolate vorrei almeno poterlo fare in pace è solo un eccesso di buon umore disse Pellerat che avrebbe sopportato qualunque cosa a patto che fosse classificabile come comportamento e cultura primitiva poi la cena terminò e annunciarono l'inizio imminente dello spettacolo musicale la sala in cui si sarebbe svolto era grande quasi quanto la sala da pranzo e c'erano sedili pieghevoli piuttosto scomodi constato Travis per circa 150 persone in qualità di ospiti i visitatori vennero guidati in prima fila e molti alfani fecero commenti educati e lusinghieri sul loro abbigliamento i due uomini erano a torso nudo e Travis tendeva i muscoli addominali ogni volta che si ricordava di farlo e di tanto in tanto ammirava compiaciuto il proprio torace villuso Pellerat intento a osservare tutto quel che aveva intorno se ne infischiava del proprio aspetto la camicetta di Bliss attirò occhiate furtive di perplessità ma non suscitò alcun commento Travis notò che la sala era piena solo a metà e che il pubblico era formato per lo più da donne probabilmente perché gran parte degli uomini erano in mare Pellerat richiamò la sua attenzione con un colpetto di gomito hanno l'elettricità Travis guardò i tubi verticali sulle pareti e quelli sul soffitto erano debolmente luminosi florescenza commentò un sistema primitivo eh già ma funziona e nelle nostre stanze nella latrina ci sono questi oggetti credevo che fossero solo decorativi se scopriremo come farli funzionare e non dovremo più stare al buio avrebbero potuto dircelo commentò Bliss seccata che fosse una cosa risaputa disse Pellerat quattro donne uscirono da dietro un divisorio e si sedettero in gruppo nello spazio all'estremità della sala ognuna aveva uno strumento di legno lucido dalla forma identica e piuttosto strana le dimensioni cambiavano notevolmente uno era piccolo due leggermente più grossi il quarto molto più grande inoltre ogni donna reggeva una lunga bacchetta nell'altra mano il pubblico fischiò sommessamente al loro ingresso e le quattro donne si inchinarono ognuna aveva un nastro legato sui seni in modo abbastanza stretto quasi a impedire che intralciassero l'esecuzione Travis interpretò i fischi come un segno di approvazione e garbatamente aggiunse il proprio qualche fallo si produsse in un trillo ben più lacerante di un fischio e Bliss dovette zittirla posandole la mano sulla spalla prima che attirasse troppo l'attenzione le tre donne infilarono lo strumento sotto il mento mentre lo strumento più grande restò sul pavimento tra le gambe della quarta donna la lunga bacchetta nella destra del musicista veniva fatta scorrere sulle corde tese che attraversavano lo strumento per quasi tutta la lunghezza mentre le dita della sinistra si muovevano rapide e schiacciavano le corde su e giù quello era lo sfregamento che si era aspettato riflette Travis ma non produceva affatto un rumore molesto si susseguivano una serie di note dolci e melodiose ogni strumento forniva il proprio apporto e il tutto si fondeva in un piacevole amalgama non possedeva l'infinita complessità della musica elettronica la vera musica a giudizio di Travis ed era qualcosa di abbastanza ripetitivo eppure via via che l'orecchio si abituava allo strano sistema sonoro Travis cominciò a cogliere certe sfumature era necessario uno sforzo e Travis pensò con rimpianto alla precisione matematica e alla purezza timbrica della vera musica alla fine riconobbe che se avesse ascoltato spesso la musica di quei semplici oggetti di legno e probabilmente alla fine gli sarebbe piaciuta a tre quarti d'ora dall'inizio del concerto entrò in scena anche Hiroko notò subito Travis in prima fila e sorrise Travis sionì di buon grado al saluto del pubblico Hiroko era splendida portava una lunga gonna elaborata un fiore tra i capelli ed era a seno scoperto perché questo non avrebbe ostacolato l'uso dello strumento suonava un tubo di legno scuro lungo oltre mezzo metro e spesso un paio di centimetri Hiroko accostò lo strumento alle labbra e soffiò in un'apertura vicino all'estremità ricavandone una nota esile dolce che cambiò ripetutamente via via che le sue dita toccavano gli oggetti metallici posti lungo il tubo alla prima nota Fallon strense il braccio di Bliss e disse Bliss quello è un e a lei sembrò che la parola fosse fliuto Bliss scosse il capo e Fallon sottovoce insistette è proprio lui nel pubblico alcune teste si agitarono Bliss coprì la bocca di Fallon con la mano e si chinò a mormorare con una certa severità dopodiché Fallon ascoltò Hiroko in silenzio ma muovendo spasmodicamente le dita come se toccasse lei stessa gli oggetti sullo strumento l'ultimo a esibirsi nel concerto fu un uomo anziano che aveva appeso alle spalle uno strumento scanalato ai lati lo spingeva e tirava mentre una mano guizzava velocissima su una serie di oggetti bianchi e neri premendoli a gruppi Travis trovò quel suono fastidioso e barbaro spiacevolmente simile al latrato dei cani di Aurora non che il suono in sé fosse un latrato ma le emozioni che suscitava erano le stesse Bliss fu sul punto di coprirsi le orecchie e Pellerat aveva un'espressione corrucciata solo Fallon sembrava divertirsi perché batteva piano un piede quando se ne accorse Travis si rese conto stupito che il ritmo della musica era in perfetto sincronismo col piede della solariana finalmente il concerto terminò e in sala scoppiò un uragano di fischi sovrastati nettamente dai gorgheggi di Fallon il pubblico si divise in tanti gruppetti e la gente cominciò a chiacchierare o meglio a schiamazzare come facevano sempre gli alfani quando si riunivano pubblicamente i concertisti erano in fondo alla sala e parlavano con le persone che si avvicinavano per congratularsi dell'esibizione Fallon sfuggì alla stretta di Bliss e corse da Hiroko Hiroko strillò ansante lasciami vedere il cosa cara chiese l'alfana quello con cui hai suonato Hiroko rise vuoi dire il flauto piccolina posso vederlo Hiroko aprì un astuccio ed estrasse lo strumento era separato in tre parti ma lei lo montò svelta lo tesi a Fallon accostandole un'estremità alle labbra e disse ecco soffia qui lo so lo so disse Fallon e fece per prendere il flauto Hiroko si ritrasse di scatto soffia bambina ma non toccare Fallon sembrò delusa posso guardare almeno non lo toccherò eh certamente cara Hiroko tornò a mostrare il flauto e Fallon lo fissò poi l'illuminazione fluorescente della sala si affievolì e risuonò una nota di flauto un po' incerta e tremula Hiroko sorpresa per poco non lasciò cadere lo strumento e Fallon strellò l'ho fatto l'ho fatto già mi aveva detto che un giorno sarei riuscita a farlo Hiroko chiese sei stata tu a suonare sì io io ma come hai fatto bambina rossa per l'imbarazzo Bliss rispose mi spiace Hiroko ora la porto via no voglio che lo faccia ancora ribattei Hiroko alcuni alfiani si erano raccolti ad osservare Fallon corrugò la fronte come se facesse uno sforzo le luci si affievolirono e si udì un'altra nota di flauto stavolta limpida e ferma poi i suoni si rincorsero in modo bizzarro mentre gli oggetti metallici lungo il flauto si muovevano da soli è un po' diverso da disse Fallon mansimando come se il flauto che aveva prodotto il suono fosse stato il suo e non un movimento guidato dell'aria Pelorat disse a Travis e probabilmente prende l'energia dalla corrente elettrica che alimenta le luci a fluorescenza prova ancora lei sortò Hiroko con voce strozzata Fallon chiuse gli occhi le note adesso erano più lievi più sicure il flauto suonava da solo senza dita che lo manovrassero animato dall'energia trasdotta dai lobby ancora immaturi di Fallon le note dopo un inizio quasi a caso si disposero in una sequenza armoniosa tutti si erano raccolti intorno a Hiroko e Fallon la prima reggeva delicatamente l'estremità dello strumento col pollice e l'indice mentre la bambina a occhi chiusi dirigeva la corrente d'aria e il movimento dei tasti il paranucchio suonato mormorò Hiroko lo ricordo a noi Fallon cercando di non perdere la concentrazione non ha sbagliato una sola nota disse Hiroko al termine del pezzo ma non è giusto Hiroko non l'hai suonato giusto Bliss intervenne Fallon non è cortese non devi ti prego disse Hiroko perentoria non interloquire perché non è giusto bambina perché io lo suonerai diversamente mostrami dunque il flauto riprese a suonare in modo più complesso perché le forze che premevano i tasti agivano più rapidamente e creavano combinazioni più elaborate di prima la musica era infinitamente più viva coinvolgente vibrante Hiroko sembrava pietrificata e nella sala regnava un silenzio assoluto il silenzio continuò anche dopo che Fallon ebbe terminato il brano finché Hiroko respirando a fondo disse piccola non avevi mai suonato uno strumento come questo no rispose Fallon prima riusciva a usare solo le dita e con quelle è impossibile nessuno potrebbe farlo aggiunse senza avere l'aria di vantarsi puoi suonare qualcos'altro posso inventare sì vuoi dire improvvisare a quella parola Fallon corrugò la fronte e guardò Bliss lei annuì e la solariana rispose sì ti prego fallo la incitò Hiroko Fallon riflette per un paio di minuti poi cominciò lentamente con una successione di note molto semplice e sognante le luci fluorescenti andavano e venivano a seconda dell'energia necessaria ma pareva che nessuno si ne accorgesse perché sembrava un effetto della musica e non viceversa come se uno spirito elettrico obbedisse ai dettami delle onde sonore la combinazione di note si ripetì con un lieve aumento di volume poi un po' più complessa e in variazioni che senza perdere di vista il motivo di base diventavano sempre più trascinanti mozzafiato infine dopo la progressiva ascesa le note scesero vorticosamente come in una picchiata che riportò gli ascoltatori a terra pur lasciando in tutti un senso di euforia e leggerezza seguì un vero pandemonio di acclamazioni e perfino Travis abituato a un tipo di musica completamente diverso pensò con rammarico ecco non sentirò mai più una cosa del genere quando tornò la calma Hiroko porse il flauto a Fallon prendilo è tuo lei si protese in avanti smaniosa ma Bliss la fermò non possiamo accettare Hiroko è uno strumento prezioso ne ho un altro Bliss non buono come questo ma è giusto così uno strumento appartiene a chi meglio lo suona non ho mai sentito musica come la sua sarebbe assurdo che avessi un flauto che non so usare come si deve se sapessi suonarlo senza toccarlo Fallon prese il flauto e con un'espressione di gioia intensa lo strinse al petto le due stanze dell'alloggio erano illuminate da una lampada fluorescente ciascuna come la latrina erano fiocche e volendo leggere non sarebbero state sufficienti ma perlomeno gli ospiti non erano al buio adesso comunque induggiavano all'aperto il cielo era pieno di stelle un fenomeno che era sempre affascinante per un nativo di Terminus dove il cielo notturno era quasi privo di stelle a parte lo scroscio sfocato della nube galattica Hiroko li aveva accompagnati temendo che si smarrissero e inciampassero durante il tragitto aveva tenuto per mano Fallon e dopo aver acceso le luci dell'alloggio rimase fuori con loro continuando a stringere la ragazzina Bliss fece un altro tentativo perché aveva percepito benissimo che Hiroko era in preda sentimenti contrastanti davvero Hiroko non possiamo prendere il tuo flauto no affallo ma deve restare ma malgrado tutto Hiroko era ancora molto scossa Travis contemplava il cielo la notte era particolarmente buia un'oscurità appena scalfita dalla luce che filtrava dalle loro stanze e dalle scintille quasi invisibili delle case in lontananza Hiroko vedi quella stella luminosa come si chiama chiese Travis Hiroko sollevò lo sguardo e senza mostrare alcun interesse rispose quella stella è il compagno perché viene chiamata così attorni al nostro sole ogni 80 anni standard in questa parte dell'anno è una stella della sera è visibile anche di giorno quando è sopra l'orizzonte bene penso a Travis non è del tutto ignorante in astronomia sai che Alpha ha un altro compagno molto più piccolo molto più lontano di quella stella brillante non si può vederlo senza un telescopio nemmeno lui l'aveva visto non si era preso la briga di cercarlo ma il computer di bordo conteneva quella informazione nella memoria Hiroko rispose indifferente ci è stata insegnata a scuola e cosa mi dice di quella vedi sei stelle che formano una linea zigzag è cassiopea davvero sussultò Travis quale tutte l'intera linea zigzag cassiopea perché la chiamate così non so non so nulla di astronomia stimato Travis vedi la stella più bassa della linea zigzag quella più brillante delle altre come si chiama una stella non conosco il nome ma se si escludono le due compagne è quella la più vicina ad Alfa e ha un solo parsec di distanza tu lo dici disse Hiroko io questo non so non potrebbe essere la stella intorno alla quale ruota la terra Hiroko la osservò con un guizzo di interesse non so da nessuno ho mai sentito dire questo non credi che potrebbe esserlo e come posso rispondere nessuno sa dove sia la terra ora devo lasciarvi riprenderò il mio lavoro nei campi domani mattina prima della festa sulla spiaggia vi rivedrò là dopo il pranzo va bene? certo Hiroko lei si allontanò improvvisamente mettendosi quasi a correre nell'oscurità Travis la seguì con lo sguardo quindi raggiunse gli altri nell'alloggio secondo te mentiva a proposito della terra Bliss chiese Travis la ragazza scosse il capo no non credo è in preda a un'enorme tensione qualcosa che ho notato solo dopo il concerto ma prima che tu facessi quelle domande sulle stelle e perché si è privata del flauto? forse non posso dirlo di preciso Bliss si rivolse quindi a Fallon ora andrai nella tua stanza quando sarai pronta per coricarti andrai alla latrina userai il vasino e poi ti laverai le mani la faccia ai denti vorrei suonare Bliss solo un po' e pian capito Fallon e quando te lo dirò dovrai smettere sì adesso erano finalmente suoli Bliss sull'unica sedia e gli uomini seduti sulle rispettive brande a questo punto mi pare inutile fermarsi ancora su questo pianeta disse Bliss Travis alzò le spalle non abbiamo ancora discusso l'origine terrestre degli antichi strumenti e potremmo scoprire qualche indizio interessante inoltre ci conviene attendere il ritorno della flotta dei pescherecci forse gli uomini sanno qualcosa che chi rimane a casa non sa è poco probabile secondo me disse Bliss sicuro che non siano gli occhi scuri di Chirogo a trattenerti Travis sbottò spazientito non capisco che centri tu con le mie relazioni che ti dà il diritto di giudicarmi dal punto di vista morale la tua moralità non mi preoccupa penso alla nostra spedizione vuoi trovare la terra per poter decidere finalmente se sia giusta la tua scelta di galaxia a scapito dei mondi isolati io voglio che tu raggiunga una conclusione dici che per prenderla dovrai visitare la terra sei convinto che ruoti intorno alla stella luminosa lassù in cielo andiamoci allora d'accordo sarebbe utile disporre di qualche informazione in più ma mi sembra evidente che qui non ne otterremo non voglio rimanere solo perché ti piace Chirogo forse partiremo disse Travis lasciami riflettere e ti assicuro che lei non influenzerà la mia decisione intervenne Penrat secondo me dovremmo dirigerci sulla terra se non altro per scoprire se è radioattiva o no mi pare superfluo aspettare sicuro che non non siano gli occhi scuri di Bliss a stimolarti chiese Travis con una punta d'astio e un istante dopo no ritiro quel che ho detto a Yanov una reazione infantile eppure questo è un mondo incantevole Chirogo a parte ammetto che in altre circostanze eh sarei tentato di restare qui per sempre Bliss non credi che Alpha demolisca la tua teoria sugli isolati in che senso chiese Bliss hai sostenuto che ogni mondo veramente isolato diventi pericoloso e ostile perfino con Porellen confermò impassibile Bliss che è abbastanza al di fuori della rete principale di attività galattica e nonostante sia nominalmente una potenza alleata della federazione della fondazione ma non Gaia questo mondo è completamente isolato eppure non possiamo certo lamentarci della loro amicizia e ospitalità ci nutrono ci vestono ci offrono un tetto organizzano spettacoli in nostro onore e ci invitano a prolungare il nostro soggiorno che difetto hanno nessuno a quanto pare Chiroko ti offre addirittura il suo corpo Travis scattò rabbioso Bliss perché questo fatto ti disturba tanto Chiroko non mi ha offerto il suo corpo è stato uno scambio reciproco del tutto appagante e mi sembra che tu stessa non esiti a offrire il tuo corpo quando vuoi per favore Bliss intervenne Pellarat Golan ha ragione non c'è motivo di criticare i suoi piaceri privati a patto che non abbiano ripercussioni su di noi replicò Bliss ostinata non hanno alcuna ripercussione disse Travis partiremo te lo assicuro la sosta per cercare qualche informazione non sarà lunga comunque io non mi fido degli isolati nemmeno quando offrono doni Travis alza le braccia al cielo raggiungere una conclusione e alterare le prove perché si adattino a questa conclusione è tipico di non dirlo l'interruppe Bliss minacciosa non sono una donna sono Gaia non sono io a essere inquieta è Gaia ma è assurdo essere in quel mentre si udì un raspare alla porta Travis raggelò cos'è? chiese sottovoce Bliss fece spallucce apri e guarda sei tu a dire che un mondo amico è senza pericoli no? ma Travis esitò finché una voce sommessa all'esterno chiamò per favore sono io era la voce di Hiroko Travis spalancò la tenda la ragazza si affrettò a entrare aveva le gote bagnate che ho di ansimo che c'è? domandò Bliss Hiroko si aggrappò a Travis non ho potuto stare lontana ho provato ma era insopportabile andate tutti voi portate la bambina con voi presto allontanate l'astronave da Alfa finché è ancora buio ma perché? perché altrimenti morirete tutti per alcuni istanti i tre la fissarono pietrificati poi Travis domandò vorresti dire che la tua gente ci ucciderà mentre le lacrime scorrevano lungo le guance Hiroko rispose tu già sei avviato sulla strada che conduce alla morte stimato Travis e con te gli altri tempo addietro i dotti crearono un virus per noi innocuo ma letale per gli esterni noi siamo immuni gli scuotei il braccio disperata sei infetto com'è successo? quando abbiamo soddisfatto il piacere è un modo di spargere il contagio Travis protestò ma io sto benissimo il virus è ancora inattivo verrà reso attivo al ritorno della flotta da pesca secondo le nostre leggi tutti devono decidere perfino gli uomini decideranno senz'altro che bisogna farlo e vi tratterremo qui fino a quel momento due mattine da ora partite senza indugio mentre è ancora buio e nessuno sospetta perché lo fate? chiese Bliss Brusca per la nostra salvezza pochi siamo e abbiamo molto non vogliamo l'intrusione di esterni se uno arriva e diffonde la notizia altri ne verranno così quando di tanto in tanto un'astronave a terra dobbiamo fare in modo che non riparta allora come mai ci metti in guardia? domandò Travis non chiedere la ragione anzi la dirò poiché lo sento ancora ascoltate dalla stanza attigua giungevano le note sommesse dolcissime del flauto suonato da Fallon non sopporto la distruzione di quella musica perché anche la bambina morirebbe disse Chiroko è per questo che hai dato il flauto a Fallon perché sapevi che lo avresti riavuto quando lei fosse morta domandò Travis Arcigno Chiroko inorridì no questo non avevo in mente partite con la bambina e portate il flauto e che io più non lo veda nello spazio sarete salvi e il virus che hai in corpo lasciato in attivo morirà poco dopo in cambio vi chiedo di non parlare di questo mondo così che nessuno mai sappia che esiste non ne parleremo la assicurò Travis Chiroko sollevò lo sguardo sottovoce chiese posso baciarti un'ultima volta prima che tu vada no sono già stato contagiato una volta e mi pare più che sufficiente rispose Travis poi in tono meno rude aggiunse non piangere altrimenti ti chiederanno perché e tu non saprai cosa rispondere ti perdono malgrado quello che mi hai fatto per il gesto che compi nel salvarci Chiroko si drizzò si asciugò il viso respirò a fondo e disse ti ringrazio e uscì in fretta spegneremo la luce aspetteremo un po' poi ce ne andremo disse Travis Bliss dia Fallon di smettere di suonare ricordati di portare il flauto naturalmente usciremo e raggiungeremo l'astronave sempre che riusciamo a trovarla al buio la troverò disse Bliss a bordo ci sono i miei indumenti e anche se con intensità minore fanno parte di Gaia come me per Gaia è facilissimo trovare Gaia poi andò nell'altra stanza a prendere Fallon credi che siano riusciti a danneggiare l'astronave per bloccarci sul pianeta chiese Pellorat non possiedono la tecnologia necessaria rispose Travis accegliato quando Bliss rientrò tenendo per mano la piccola solariana Travis spense la luce rimassero seduti in silenzio nell'oscurità per un periodo di tempo in apparenza interminabile poi Travis aprì la porta lentamente il cielo sembrava un po' più nuvoloso ma c'erano ancora le stelle adesso Cassiopea era alta nel cielo e all'estremità inferiore brillava la stella che avrebbe potuto essere il sole della terra Travis uscì guardingo facendo segno agli altri di seguirlo e abbassando automaticamente la mano sul calcio della frusta neuronica era sicuro che non avrebbe dovuto usarla ma Bliss passò alla testa del gruppo tenendo per mano Pelorath che a sua volta teneva per mano Travis l'altra mano della donna era intrecciata a quella di Fallon che aveva con sé il flauto tastando ad agio il terreno nell'oscurità pressoché assoluta Bliss condusse gli altri verso il punto da cui giungevano debolissime le vibrazioni gaiane dei suoi abiti sulla stella lontana parte settima terra radioattiva la stella lontana decollò silenziosa alzandosi lentamente attraverso l'atmosfera lasciò l'isola buia sotto di sé e i puntini luminosi sulla superficie svanirono man mano che l'atmosfera diventava più rarefatta con l'aumentare dell'altezza la velocità dell'astronave crebbe e i lumini che brillavano in cielo si fecero più numerosi e vividi alla fine alfa si ridusse a uno spicchio illuminato avvolto in gran parte dalle nubi non possiedono una tecnologia spaziale attiva immagino non possono inseguirci disse pelrat questo non mi consola poi tanto osservò travis con l'espressione amara e il tono abbattuto sono stato contagiato ma è un ceppo inattivo preciso bliss si può attivare loro avevano un metodo quale bliss alza le spalle hiroko ha detto che rimanendo in incubazione il virus alla fine sarebbe morto in un corpo non adatto ad ospitarlo come il tuo e lei come lo sapeva fece travis rabbioso se l'affermazione di hiroko fosse una bugia detta a se stessa per avere la coscienza tranquilla il metodo di attivazione quale che sia potrebbe essere innescabile in modo naturale una sostanza chimica particolare un tipo di radiazione un e che ne so io potrei ammalarmi di colpo e anche voi tre morireste potrebbe accadere dopo che abbiamo raggiunto un mondo abitato facendo scoppiare una pandemia fuggendo i superstiti diffonderebbero il contagio su altri mondi guardò bliss tu non puoi fare nulla lentamente bliss scosse il capo non è facile ci sono dei parassiti anche nell'organismo globale di Gaia microorganismi vermi sono una componente benigna dell'equilibrio ecologico vivono e danno il loro contributo alla coscienza del mondo ma non si sviluppano in eccedenza vivono senza causare danni apprezzabili il guaio è che il virus che ti ha infettato non fa parte di Gaia Travis hai detto che non è facile date le circostanze non puoi farlo nonostante le difficoltà non puoi localizzare il virus e distruggerlo o se non ci riesci rinforzare le mie difese ti rendi conto di quello che mi chiedi Travis non conosco la flora microscopica del tuo corpo forse stenterei a distinguere un virus dai geni che si trovano normalmente nelle tue cellule sarebbe ancora più complicato distinguere il virus di Hiroko da quelli contro cui il tuo corpo è immunizzato ci proverò ma ci vorrà del tempo e non è detto che ci riesca impiega tutto il tempo necessario disse Travis prova certo bellora ti intervenne se Hiroko non ha mentito Bliss potresti cercare dei virus già indeboliti e accelerarne la scomparsa già convenne Bliss buona idea non sarà un trauma per te chiese Travis uccidendo quel virus distruggerà i preziosi frammenti di vita non fare dell'ironia replicò lei gelidamente ma ironia o meno quella che ha indicato è una difficoltà reale comunque non posso certo antiporre il virus a te li ucciderò se sarà possibile non temere in fin dei conti anche mettendoti in secondo piano e le sue labbra si contrassero come se reprimesse un sorriso dovrei tener conto dell'incolumità di Pellerat e di Fallon e dovresti avere più fiducia nei miei sentimenti per loro che per te giusto ti faccio notare inoltre che anche la mia incolumità sarebbe in pericolo non ho molta fiducia nel tuo amore per te stessa borbottò Travis saresti prontissima a rinunciare alla vita per qualche nobile causa comunque la tua preoccupazione per Pellerat è una garanzia sufficiente ma non sento il flauto di Fallon qualcosa non va no rispose Bliss sta solo dormendo un sonno del tutto naturale con cui io non ho niente a che fare e quando avrai ultimato i calcoli per il balzo di avvicinamento alla stella penso che anche noi dovremmo dormire un po' io ne ho molto bisogno e ho l'impressione che ne abbia bisogno anche tu Travis sì sempre che riesco a dormire sai Bliss avevi ragione riguardo a cosa gli isolati nuova terra non era un paradiso per quanto potesse sembrarlo la loro ospitalità e la loro amicizia immediata servivano solo a prenderci alla sprovvista per poter contagiare facilmente uno di noi e tutte quelle feste miravano a tenerci laggiù in attesa che tornassero i pescherecci e il virus si attivasse se non fosse stato per Fallon e la sua musica il loro piano avrebbe funzionato forse avevi ragione anche su questo parli di Fallon? sì io non volevo prenderla a bordo e la sua presenza mi ha sempre innervosito se adesso è qui è perché tu hai voluto ed è stata involontariamente lei a salvarci eppure eppure e nonostante tutto la presenza di Fallon continuo a preoccuparmi non so perché se può consolarti Travis non credo che dobbiamo attribuire tutto il merito a lei commettendo quello che gli alfaniani considererebbero un atto di tradimento Firoco ha adottato come giustificazione la musica della bambina forse ne è davvero convinta ma c'era qualcos'altro nella sua mente qualcosa che ho percepito in modo vago e non ho potuto identificare di preciso qualcosa di cui forse si vergognava e respingeva inconsciamente ho l'impressione che Hiroko provasse una specie di affetto per ti che non volesse vederti morto indipendentemente da Fallon e dalla sua musica lo credi davvero? Travis sorrise per la prima volta da quando avevano lasciato Alpha sì devi essere alquanto abile con le donne hai convinto il ministro Lysalor a lasciarci prendere l'astronave e a partire da compor Ellen hai contribuito alla nostra salvezza influenzando Hiroko onore al merito il sorriso di Travis si allargò beh se lo dici tu puntiamo sulla terra allora e scomparve nella sala comandi con passo quasi spavaldo Pelora ti induggiò un attimo e si rivolse a Bliss lo hai calmato eh? no Pel non ho mai toccato la sua mente l'hai fatto quando hai solleticato così sfacciatamente la sua vanità maschile è stato un intervento molto indiretto sorrise Bliss comunque grazie dopo il balzo la stella che avrebbe dovuto essere il sole della terra era ancora un decimo di parsec era il corpo celeste più luminoso che ci fosse ma continuava ad essere una stella fra le tante tenendo inseriti i filtri per facilitare l'osservazione Travis la studiava con espressione cupa ma non ci sono dubbi sembra proprio la gemella di Alpha eppure Alpha è nella mappa del computer mentre questa stella non c'è non sappiamo il suo nome non abbiamo alcun dato alcuna informazione sul suo sistema planetario ammesso che ne abbia uno se la terra ruota intorno al sole osservò Pelarat mi pare logico trovarsi di fronte a un'assenza completa di informazioni tutte le notizie che riguardano la terra sono state cancellate no? eh già ma il fatto potrebbe anche avere un significato diverso può trattarsi di un mondo spaziale non incluso nell'elenco su Melpomenia se la stella non avesse pianeti non sarebbe valsa la pena inserirla in una mappa galattica che ha un'utilità prevalentemente militare e commerciale Yanov non c'è qualche leggenda secondo cui il sole della terra si trova a un solo parsec da una stella gemella Pelarat scosse il capo spiacente Golan per qualche ricordo non c'è comunque la mia memoria non è perfetta controllerò non ha importanza il sole della terra ha qualche nome particolare esistono diversi nomi uno per ogni lingua suppongo continuo a dimenticare che la terra aveva molte lingue ma doveva averle per forza è l'unico modo per riuscire a spiegare l'esistenza di tante leggende beh adesso che facciamo da questa distanza è impossibile sapere qualcosa del sistema planetario dobbiamo per forza avvicinarci mi piacerebbe essere prudente ma a volte si può esagerare con la prudenza e non vedo alcun segno di pericolo potenziale un'entità così potente da cancellare in tutta la galassia le informazioni che riguardano la terra dovrebbe essere in grado di spazzarci via anche da questa distanza se non volesse proprio essere individuata eppure non è successo nulla è irrazionale rimanere qui in eterno soltanto perché avanzando potrebbe accadere qualcosa giusto il computer non rileva nulla che possa essere interpretato come pericoloso chiese Bliss quando dico che non vedo alcun segno di pericolo mi riferisco al computer e a occhio nudo è impossibile vedere qualcosa ovvio allora mi sembra di capire che cerchi solo un appoggio morale prima di prendere prima di prendere una decisione che consideri rischiosa d'accordo è il mio appoggio non abbiamo attraversato la galassia per fare dietro fronte senza una ragione precisa no? no rispose Travis tu cosa dici Yanov? sono pronto a proseguire se non altro per curiosità sarebbe insopportabile tornare indietro senza sapere se la terra è qui o meno bene tutti d'accordo dunque disse Travis non tutti disse Peleroth c'è Fallon Travis sgranò gli occhi intendi dire che dovremmo consultare la bambina e che valore avrebbe la sua opinione sempre che ne abbia una al massimo insisterebbe per tornare sul suo mondo non puoi fargliene una colpa disse Bliss infervorandosi e visto che avevano tirato in ballo la solariana Travis si soffermò ad ascoltare il suo flauto che suonava un ritmo di marcia trascinante ascoltate dove può aver sentito un brano al ritmo di marcia forse glielo suonava a gembi Travis scosse il capo ne dubito le avrà suonato ritmi di danza semmai nina nanne sentite Fallon mi preoccupa impara troppo in fretta io l'aiuto disse Bliss tienilo presente e poi è molto intelligente e da quando è con noi ha ricevuto tantissimi stimoli nuove sensazioni le hanno invaso la mente ha visto lo spazio nuovi mondi tanta gente per la prima volta il brano al ritmo di marcia di Fallon diventò sempre più selvaggio irruente ferocemente scatenato Travis sospirò beh è qui e suona qualcosa che sembra esprimere ottimismo e voglia d'avventura la considererò una specie di voto a favore d'accordo avanziamo e diamo un'occhiata al sistema planetario di questo sole se ci sarà disse Bliss Travis abbozzò un sorriso c'è un sistema planetario sono disposto a scommettere scegli tu la somma hai perso disse Travis assorto quanto denavi avevi deciso di scommettere e nemmeno un soldo non ho mai accettato la scommessa rispose Bliss meno male non lo prenderei volentieri il tuo denaro erano a circa dieci miliardi di chilometri dalla stella ma la sua luminosità era ormai pari a quella di un sole vero e proprio osservato da un pianeta abitabile adesso col telescopio si vedono due pianeti annunciò Travis dal loro diametro e dallo spettro della luce riflessa si tratta evidentemente di giganti gassosi l'astronave era al di fuori del piano planetario e Bliss e Pelerat fissando lo schermo dietro le spalle di Travis si ritrovarono a contemplare due minuscole falci di luce verdugnola la più piccola era leggermente più spessa Yanov disse Travis il sole della terra dovrebbe avere quattro giganti gassosi giusto e stando alle leggende sì quello più vicino al sole dovrebbe essere il più grande e il secondo dovrebbe avere gli anelli giusto sì Golan grandi anelli comunque dobbiamo tener conto delle distorsioni e delle esagerazioni che si sviluppano nel tramandare una leggenda anche se mancasse un pianeta con un sistema anulare straordinario e non dovremmo considerarla una prova sufficiente e concludere che questo non è il sistema planetario che cerchiamo i due pianeti che vediamo forse sono i più lontani e gli altri due si trovano probabilmente oltre il sole e troppo lontani per essere individuati sullo sfondo del campo stellare dovremmo avvicinarci ancora e spingerci al di là del sole è possibile dato che siamo avvicini alla massa della stella sì con una certa cautela e il computer può farlo e se a suo giudizio il rischio sarà necessario non effettuerà il balzo in tal caso minimizzeremo i rischi avanzando a piccoli balzi la mente di Travis impartì le istruzioni al computer e il campo stellare sullo schermo cambiò la stella diventò ancora più luminosa poi scomparve mentre l'elaboratore che seguiva le istruzioni ricevute frugava il cielo in cerca di un altro gigante gassoso lo individuò i tre si irrigidirono rimanendo strabiliati mentre la mente frastornata di Travis annaspava per chiedere al computer un ingrandimento maggiore incredibile esclamò Bliss da quell'angolazione il gigante gassoso era in parte illuminato attorno ad esso c'era un ampio anello curvo e luccicante di materia inclinato in maniera tale da ricevere la luce del sole sul lato osservato dall'astronave era più luminoso del pianeta stesso e lungo la superficie correva una sottile linea divisoria Travis richiese il massimo ingrandimento e l'anello si trasformò in una serie di anelli più piccoli e concentrici ora sullo schermo era visibile solo una parte del sistema anulare mentre il pianeta era addirittura scomparso Travis impartì un'ulteriore istruzione e in un angolo dello schermo si formò un riquadro che conteneva una minuscola immagine panoramica del pianeta e degli anelli è un fenomeno comune chiese Bliss stupefatto no rispose Travis quasi tutti i giganti gassosi hanno degli anelli di detriti ma di solito sono stretti e poco luminosi una volta ho visto un gigante gassoso che aveva degli anelli stretti ma abbastanza luminosi eppure non ho mai visto uno spettacolo del genere non mi è mai capitato di sentirne parlare è chiaro si tratta del gigante gassoso di cui parlano le leggende se è davvero unico disse Pelorat lo è per quel che ne so e per quel che ne sa il computer disse Travis allora questo deve essere il sistema planetario della terra un pianeta come quello non può essere il frutto di un'invenzione per descrivere una cosa simile bisogna averla vista Travis annui a questo punto sono disposto a credere a tutto ciò che affermano le tue leggende questo è il sesto pianeta e la terra dovrebbe essere il terzo giusto giusto Golan dunque nonostante una distanza dalla terra inferiore a un miliardo e mezzo di chilometri non siamo stati fermati Gaia ci aveva fermati durante l'avvicinamento Bliss intervenne eravate più vicini quando siete stati fermati da Gaia ma a mio avviso la terra è più potente di Gaia replicò Travis per cui questo fatto mi sembra è incoraggiante se non ci fermano forse significa che la terra non ha nulla in contrario se ci avviciniamo o forse significa che la terra non c'è aggiunse Bliss vuoi scommettere questa volta? chiese Travis con ariotruce secondo me intervenne Pellerat Bliss intende dire che forse la terra è radioattiva come sostengono in tanti e che nessuno ci ferma proprio perché non c'è vita no sbottò Travis sono pronto a credere a tutto quello che si dice tranne alla storia della radioattività avanzeremo e controlleremo di persona e ho la sensazione che nessuno ci ostacolerà i giganti gassosi erano ormai alle loro spalle appena oltre il gigante più vicino al sole il più massiccio come affermavano le leggende c'era una fascia di asteroidi oltre gli asteroidi c'erano quattro pianeti Travis li studiò attentamente il terzo è il più grande le sue dimensioni e la distanza dal sole sono adeguate potrebbe essere abitabile a Pellerat parve di cogliere una nota di incertezza nelle parole di Travis ha un'atmosfera oh sì il secondo il terzo e il quarto pianeta hanno tutti un'atmosfera e come nella vecchia favola infantile quella del secondo è troppo densa quella del quarto non lo è abbastanza ma quella del terzo è perfetta pensi che possa essere la terra penso sbottò Travis non ce n'è bisogno quella è proprio la terra con il satellite gigantesco di cui mi hai parlato davvero e sulla faccia di Pellerat sbocciò un sorriso senza precedenti assolutamente ecco guarda massimo ingrandimento Pellerat vide due falci una nettamente più grande e luccicante dell'altra quella più piccola è il satellite sì è piuttosto lontano dal pianeta ma gli ruota indubbiamente intorno alle dimensioni di un mondo nano il che per un satellite è notevole ha un diametro di almeno 2000 km cioè quanto i maggiori satelliti dei giganti gassosi non è più grande Pellerat sembrava deluso non sarebbe un satellite gigante certo un conto è un satellite di 2000 km di diametro in orbita intorno a un gigante gassoso un altro è che un planetoide di tali caratteristiche ruoti intorno a un piccolo mondo solido e abitabile il nostro satellite ha un diametro che è circa un quarto del pianeta vero e proprio essendo la Terra un mondo abitabile una differenza così ridotta è qualcosa di eccezionale Pellerat sorrise timido in questo campo so pochissime cose allora fidati della mia parola Yanov è qualcosa di unico in pratica stiamo osservando una specie di pianeta doppio mentre per lo più i pianeti abitabili sono satelliti dalle dimensioni di un sasso se il gigante gassoso con il sistema anulare occupa il sesto posto e questo con il suo satellite enorme si trova al terzo come affermavano le leggende il mondo che stai osservando deve essere per forza la Terra l'abbiamo trovata Yanov l'abbiamo trovata era il secondo giorno di avvicinamento e durante la cena Briss sbadiglio abbiamo impiegato più tempo ad avvicinarci ai pianeti e ad allontanarci che per tutto il resto abbiamo perso settimane in parte disse Travis perché i balsi troppo vicini a una stella sono pericolosi in questo caso ci muoviamo lentamente perché non voglio andare incontro a eventuali pericoli troppo in fretta non avevi detto che secondo le tue sensazioni nessuno ci avrebbe ostacolato certo ma non voglio rischiare tutto basandomi su un semplice presentimento Travis guardò il contenuto del cucchiaio prima di portarlo alla bocca e disse sapete sento la mancanza del pesce che c'era su Alfa abbiamo mangiato tre volte soltanto laggiù è un vero peccato convenne Pelerat siamo stati su cinque mondi disse Briss e ogni volta abbiamo dovuto andarcene così in fretta che non abbiamo avuto il tempo di arricchire le nostre scorte alimentari tanto per garantirci una certa varietà di piatti perfino quando erano pianeti con prodotti già pronti come con Porellen e Alfa e probabilmente anche non finì la frase perché Fallon sollevando lo sguardo ad un tratto la terminò per lei so l'aria non potevate prendere del cibo sul mio mondo là ce n'è tanto come su Alfa e il migliore lo so Fallon disse Bliss solo che non avevamo tempo Fallon la fissò seria li vedrò ancora Gemby Bliss dimmi la verità può darsi se torneremo su Solaria un giorno torneremo su Solaria Bliss esitò non sono in grado di dirlo adesso andiamo sulla terra giusto non è il pianeta su cui abbiamo avuto origine tutti su cui i nostri progenitori hanno avuto origine so dire antenati adesso disse Fallon sì stiamo andando sulla terra perché è normale voler vedere il mondo dei propri antenati secondo me c'è dell'altro sembrate tutti così preoccupati non ci siamo mai stati prima d'ora non sappiamo cosa può aspettarci secondo me c'è dell'altro Bliss sorrise cara adesso che hai finito di mangiare perché non vai in camera e ci suoni una piccola serenata col flauto lo fai sempre meglio su su diede una pacca sul sedere della piccola e Fallon obbedisvelta girandosi solo un attimo per rivolgere a Travis un'occhiata pensierosa Travis la seguì con lo sguardo evidentemente disgustato quell'essere legge nella mente non chiamarla quell'essere Travis scattò Bliss aggressiva legge nel pensiero lei tu dovresti saperlo no non legge nel pensiero non ne sono capaci nemmeno Gaia e i membri della seconda fondazione almeno nel senso di cogliere una conversazione o distinguere idee precise questo non è ancora possibile forse non lo sarà neppure in futuro noi siamo in grado di percepire interpretare e dentro certi limiti influenzare i sentimenti ma non è affatto la stessa cosa chi ti dice che lei non sia capace di farlo anche se in teoria è ancora qualcosa di impossibile come lo sai e l'hai detto tu stesso io dovrei saperlo forse ti ha influenzata per tenerti all'oscuro delle sue capacità blitz alzò gli occhi al soffitto ragiona travis anche se possiede doti insolite non potrebbe farmi nulla perché io non sono blitz sono gaia continui a dimenticartene hai idea della forza mentale rappresentata da un intero pianeta credi che un isolato per quanto dotato possa superarla non sei onnisciente quindi non essere troppo sicura di te la monitrevis ha cegliato quell'es fallom è con noi da poco in un periodo di tempo così breve io al massimo sarei riuscito a imparare i rudimenti di una lingua invece lei parla già il galattico alla perfezione e con un vocabolario praticamente completo sì so che l'hai aiutata ma vorrei che la smettessi ti ho detto che l'avrei aiutata ma ho anche detto che è intelligentissima tanto che mi piacerebbe farla diventare parte di Gaia se potessimo accoglierla tra noi mentre è ancora giovane con ogni probabilità riusciremo a sapere quanto basta sui solariani per assorbire il loro mondo ci sarebbe utile senz'altro i solariani sono esempi di isolamento patologico anche dal mio punto di vista non ci hai pensato non lo sarebbero più una volta fusi con Gaia secondo me ti sbagli la bambina solariana è pericolosa e dovremmo sbarazzarcene e come gettandola nello spazio uccidendola facendola a pezzi e aggiungendola alle nostre scorte alimentari oh bliss fece Perorat disgustoso e completamente fuori luogo disse Travis ascoltò per un attimo il flauto suonava impeccabilmente e loro avevano parlato sottovoce quando tutto sarà finito dobbiamo riportarla su solare e assicurarci che il pianeta resti per sempre fuori della galassia a mio avviso è un mondo che dovrebbe essere distrutto non mi fido lo temo bliss riflette per un istante poi disse Travis so che hai la capacità di prendere sempre la decisione giusta ma so anche che non hai potuto soffrire Fallon fin dall'inizio forse perché su solare sei stato umiliato ed è nato in te un odio intenso verso il pianeta e i suoi abitanti dato che non posso toccare la tua mente non sono in grado di affermarlo con certezza e ricordati se non avessimo portato con noi Fallon adesso saremmo morti su alfa e presumo sepolti lo so bliss ma nonostante questo e la sua intelligenza va ammirata non certo invidiata io non la invidio la temo la sua intelligenza Travis si umettò le labbra pensieroso non proprio cosa allora non so bliss se sapessi cosa temo forse non avrei questa paura ne è qualcosa che non capisco Travis abbassò la voce come se parlasse tra sé a quanto pare la galassia è piena di cose che non capisco perché ho scelto Gaia perché devo trovare la terra c'è una lacuna nella psicostoria se c'è qual è e soprattutto perché la presenza dei Fallon mi rende inquieto sfortunatamente non posso rispondere a queste domande disse Bliss si alzò e lasciò la stanza Pellorat la guardò poi disse la situazione non mi sembra tanto brutta Golan siamo sempre più vicini alla terra e una volta là avremo la soluzione di tutti i misteri fino a questo momento pare che nulla possa impedirci di raggiungerla preferirei che fosse vero il contrario cosa perché francamente accoglierei con piacere un segno di vita Pellorat spalancò gli occhi hai scoperto che la terra è radioattiva allora non proprio ma è calda un po' più calda del previsto è un fattore negativo non è detto e anche se è piuttosto calda non significa che sia un mondo inabitabile lo strato di nubi è spesso e quello è certamente vapore acqueo ora le nuvole e un oceano molto grande potrebbero mantenere la situazione ambientale entro limiti tollerabili nonostante le temperature che abbiamo rilevato dall'emissione di microonde non posso ancora dirlo con sicurezza solo che sì colan ecco se la terra fosse radioattiva questo fenomeno potrebbe spiegare la temperatura più alta del previsto ma questo discorso non vale in senso inverso giusto se è più calda del previsto non è detto che sia radioattiva no Travis abbozzò un sorriso forzato ma è inutile rimuginare Yanov tra un paio dei giorni disporremo di più dati e avremo una risposta sicura Fallon sedeva sul lettino immersa nei suoi pensieri quando Bliss entrò nella cabina Fallon sollevò lo sguardo per un istante poi abbassò la testa che cosa c'è Fallon chiese Bliss sottovoce perché Travis mi detesta tanto cosa ti fa pensare che ti detesti mi guarda sempre con insofferenza e la parola giusta è votarsi mi guarda sempre con insofferenza quando sono vicino a lui la sua faccia è sempre un po' contratta eh Travis sta affrontando una situazione difficile Fallon perché cerca la terra sì Fallon riflettì poi disse è insofferente soprattutto quando muovo le cose col pensiero Bliss serrò le labbra Fallon mi sembra di averti detto che non devi farlo soprattutto in presenza di Travis beh è successo ieri proprio in questa stanza lui era sulla soglia e io non l'ho notato non sapevo che guardasse comunque era solo uno dei videolibri di Pell e stavo cercando di farlo stare dritto su una punta non facevo niente di male così lo rendi nervoso Fallon non devi farlo nemmeno quando lui non c'è si nervosisce perché non è capace di farlo eh forse tu sei capace Bliss scosse lentamente il capo no però non ti nervosisci quando lo faccio e nemmeno Pell le persone sono diverse lo so disse Fallon con una vemenza che fece corrugare la fronte a Bliss cosa vuoi dire adesso che io sono diversa certo l'ho appena detto le persone sono diverse la mia forma è diversa e posso muovere le cose è vero e con una nota di ribellione nella voce Fallon sbottò io devo muovere le cose Travis non dovrebbe arrabbiarsi con me per questo e tu non dovresti impedirmelo ma perché devi muovere le cose è pratica esercizio Gemby diceva sempre che dovevo esercitare i miei lobby di trasduzione sì devo esercitarli e rafforzarli così una volta grande avrei potuto alimentare tutti i robot perfino Gemby Fallon chi alimentava i robot se non tu Bander conoscevi Bander certo l'ho visto molte volte sarei dovuta diventare il prossimo capotenuta e la proprietà Bander sarebbe diventata proprietà Fallon Gemby me l'ha detto tante volte vuoi dire che Bander veniva nella tua Fallon spalancò la bocca all'ibita e disse con voce strozzata Bander non sarebbe mai venuto nella si interruppe un attimo ansando poi continuò osservavo la sua immagine come ti trattava domandò Bliss esitante Fallon la fissò leggermente perplessa mi chiedeva se avevo bisogno di qualcosa se stavo bene ma Gemby era sempre accanto a me così non avevo mai bisogno di nulla e stavo sempre bene Fallon piegò la testa verso il pavimento poi coprendosi gli occhi con le mani gemette ma Gemby si è fermato perché anche Bander si è fermato credo perché dici una cosa del genere ci ho pensato Bander alimentava tutti i robot e se Gemby si è fermato se tutti gli altri robot si sono fermati vuol dire che deve essere successo lo stesso a Bander non è vero Bliss rimase in silenzio ma quando mi riporterete su Solaria alimenterò Gemby con tutti gli altri robot e sarò di nuovo felice ora si inghiozzava non sei felice con noi Fallon nemmeno un po' almeno qualche volta Fallon sollevò il riso rigato di lacrime e scosse il capo rispondendo con voce tremola io voglio Gemby commossa Bliss l'abbracciò oh Fallon come vorrei poter riunire Gemby e te poi si rese conto che anche lei piangeva Pellerot entrò e vedendole si bloccò cosa succede? Bliss si staccò da Fallon e cercò un fazzolettino per asciugarsi gli occhi scosse il capo e Pellerot ancora più preoccupato ripete insomma cosa succede? Fallon disse Bliss riposati un po' vedrò di pensare qualcosa per migliorare un po' la situazione ricorda io ti amo come ti amava il tuo Gemby prese Pellerot per il braccio e lo sospinse nella sala comune spiegando non è nulla per nulla si tratta di Fallon vero? sente ancora la mancanza di Gemby è moltissimo e noi non possiamo farci nulla posso dirle che le voglio bene ed è la verità non si può non voler bene una creatura così dolce e intelligente tremendamente intelligente troppo secondo Travis sai a volte Fallon vedeva Bander o meglio lo osservava in proiezione olografica comunque quel ricordo non la tocca ne parla in modo freddo distaccato e la capisco benissimo a parte il fatto che Bander era il proprietario della tenuta e Fallon sarebbe diventata proprietaria dopo di lui tra loro non c'era alcun legame nessun altro rapporto ma si rende conto che Bander era suo padre sua madre se siamo d'accordo a considerare Fallon una femmina la stessa regola vale anche per Bander come vuoi Bliss Fallon si rende conto del rapporto di parentela che c'era fra loro no non credo nemmeno che capirebbe o almeno non lo ha dato a vedere ma ragionando ha concluso che Bander è morto perché si è resa conto che la disattivazione di Gemby deve essere stata causata da una mancanza improvvisa di energia e dal momento che era Bander a fornire l'energia la cosa mi spaventa però Rat disse pensieroso perché Bliss in fin dei conti è soltanto una deduzione logica dalla morte di Bander si può dedurre qualcos'altro considerando la longevità e l'isolamento degli spaziali la morte deve essere un fenomeno raro e ignorato su Solaria l'esperienza naturale della fine deve essere limitata e del tutto assente dalla vita di una bambina solariana di quell'età se continuerà a pensare a Bander e al suo arresto improvviso Fallon comincerà a domandarsi perché ed essendo avvenuto quando noi siamo arrivati sul pianeta coglierà il rapporto fra le due cose causa ed effetto concluderà che noi abbiamo ucciso Bander non siamo stati noi Pell sono stata io questo non potrebbe saperlo ma dovrei dirglielo Fallon è già arrabbiata con Travis e lui è indiscutibilmente il capo della spedizione Fallon gli attribuirebbe la responsabilità della morte di Bander e io non posso permettere che Travis venga incolpato ingiustamente ma che importanza può avere Bliss la bambina non prova nulla per suo pap per sua madre è affezionata solo al robot Gemby la morte di sua madre ha provocato quella del robot per poco non ho confessato la mia responsabilità la tentazione era forte perché? per poterle spiegare tutto a modo mio per poterla calmare per impedirle di arrivare a scoprire col ragionamento questa azione in apparenza ingiustificata ma era del tutto giustificata si è trattato di legittima difesa ancora un istante saremmo morti tutti se non avessimo agito è quello che avrei voluto dirle ma non ci sono riuscita avevo paura che non mi credesse Pellorat scosse il capo e sospirò pensi che avremmo fatto meglio a non portarla con noi questa situazione ti rende così infelice no non dire una cosa simile scattò Bliss irritata sarei stata molto più infelice al ricordo di aver abbandonato una bambina innocente che sarebbe stata trucidata per colpa nostra sono le regole del mondo di Fallon ma Bliss Opel non cominciare a pensare come Travis per gli isolati è possibile accettare cose del genere e non pensarci più ma Gaia mira a salvare la vita non a distruggerla o ad assistere passivamente alla sua distruzione sappiamo tutti che ogni forma di vita è destinata a cessare per garantire la sopravvivenza di nuove forme ma questo non deve avvenire inutilmente senza scopo la morte di Bander per quanto inevitabile è già abbastanza dura da sopportare la morte di Fallon sarebbe stata qualcosa di intollerabile eh penso che tu abbia ragione Bliss comunque non ero venuto da te per parlare di Fallon si tratta di Travis Bliss mi preoccupa è in attesa di verificare gli ultimi dati decisivi riguardo alla Terra e non so se riuscirà a reggere la tensione a me non preoccupa a mio avviso ha una mente solida e stabile eh abbiamo tutti i nostri limiti senti la Terra è più calda del previsto me l'ha detto lui ho l'impressione che pensi che possa essere troppo calda per essere abitabile anche se sta cercando di convincersi del contrario eh forse ha ragione forse non è troppo calda per essere abitabile inoltre ammette che non è escluso che il calore possa derivare da una crosta radioattiva ma si rifiuta di credere anche a questa possibilità tra un paio di giorni saremo abbastanza vicini per conoscere la verità e se fosse radioattiva davvero beh dovrà accettare la realtà ma non so come esprimerlo in termini psicologici se alla sua mente Bliss attese quindi disse con un sorrisetto amaro saltasse un circuito ecco sì non potresti fare qualcosa per rinforzare le sue difese per mantenerlo equilibrato e padrone di sé no Bell Travis non è così fragile secondo me e inoltre Gaia ha deciso che la sua mente non deve subire alcun intervento ma è proprio questo il punto Travis possiede un'insolita capacità di esattezza decisionale e intuitiva se il piano fallisse quando siamo così vicini alla meta forse il trauma per quanto grave non distruggerebbe il suo cervello ma potrebbe minare la sua capacità di esattezza è molto insolita giusto potrebbe anche essere estremamente fragile Bliss riflette un attimo poi si strinse nelle spalle e forse allora lo terrò d'occhio nelle 36 ore successive Travis si rese conto in modo vago che Bliss e Pelorath sembravano seguirlo in ogni suo spostamento comunque non era un fatto sorprendente date le dimensioni ridotte dell'astronave lui aveva altro a cui pensare ora mentre sedeva al computer avvertì la loro presenza appena oltre la porta sollevò lo sguardo e li fissò in espressivo beh murmurò piuttosto impacciato Pelorath chiese come stai Golan chiedilo a Bliss mi fisse in continuazione da ore scommetto che sta frugando nella mia mente vero Bliss no non è vero rispose lei tranquilla ma se credi di aver bisogno del mio aiuto posso provare vuoi che ti aiuti no perché lasciatemi in pace adesso per favore spiegaci che cosa sta succedendo chiese Pelorath indovina la terra già quello che ci hanno ripetuto chissà quante volte è verissimo Travis indicò lo schermo la terra presentava il suo lato notturno ed eclissava il sole era un cerchio nero sullo sfondo del cielo stellato e la sua circonferenza era delimitata da una curva arancione spezzata quell'arancione è la radioattività disse Pelorath no è la luce del sole filtrata dall'atmosfera sarebbe un cerchio arancione perfetto se l'atmosfera non fosse così nuvolosa la radioattività non si vede le radiazioni perfino i raggi gamma vengono assorbite dall'atmosfera ma formano radiazioni secondarie più deboli che il computer è in grado di rilevare sono sempre invisibili a occhio nudo tuttavia il computer può tradurre in luce visibile qualsiasi particella o onda radioattiva e creare un'immagine della terra a colori contrastati il cerchio nero si accese di una debole luce azzurrognola disseminata a chiazze quanta radioattività c'è chiese Bliss abbastanza da escludere la possibilità di sopravvivenza umana di qualsiasi forma di vita rispose Travis il pianeta è inabitabile anche l'ultimo virus è scomparso da un pezzo possiamo esplorarlo chiese Pelerat certo indossandola tutta spaziale ne è per qualche ora poi saremo contagiati in modo irreversibile dalle radiazioni e allora cosa facciamo Golan cosa facciamo Travis fissò Pelerat con la stessa espressione vacua sai cosa avrei voglia di fare riportare te Bliss e la bambina su Gaia e lasciarvi là poi mi piacerebbe andare su Terminus restituire l'astronave e dimettermi dal consiglio così farai un enorme favore al sindaco Branno infine mi piacerebbe andare in pensione e lasciare la galassia al suo destino infischiandomene del piano Selden della fondazione della seconda fondazione e di Gaia la galassia potrebbe scegliere da sola la sua strada esisterà ancora quando sarò morto quindi perché dovrei preoccuparmi di quello che succederà dopo di me non parlerai sul serio spero disse Pelerat un po' allarmato Travis sospirò no ma come mi piacerebbe fare esattamente quello che ho detto dimmi cosa intendi fare sul serio mantenere l'astronave in orbita intorno alla terra riposare superare lo shock e pensare alla prossima mossa solo che sì o insomma quale può essere la prossima mossa che altro c'è da cercare da trovare il mondo vicino da quattro pasti consecutivi Pelerat e Bliss vedevano Travis solamente in quei frangenti per il resto del tempo o era in sala comandi o nella sua stanza e a tavola era taciturno teneva le labbra sigillate e mangiava poco al quarto pasto Pelerat ebbe l'impressione che l'atteggiamento dell'amico non fosse più cupo come prima Pelerat si schiarì la voce un paio di volte come se stesse per dire qualcosa e si trattenesse all'ultimo istante infine Travis lo guardò e chiese beh hai scogettato qualcosa Golan perché me lo chiedi sembri meno depresso sono ancora depresso ma ho riflettuto e molto possiamo conoscere le tue conclusioni chiese Pelerat Travis lanciò una rapida occhiata a Bliss la ragazza aveva lo sguardo incollato al suo piatto che usa in un cauto silenzio come se si rendesse conto che in un momento così delicato Pelerat avrebbe ottenuto risultati migliori di lei sei curiosa anche tu chiese Travis Bliss sollevò lo sguardo per un attimo sì certo Fallon imbronciata diede un calcio a una gamba del tavolo abbiamo trovato la terra Bliss le strinse una spalla Travis la ignorò e disse dobbiamo partire da un fatto basilare su vari mondi tutte le informazioni riguardanti la terra sono state cancellate il che ci porta a una conclusione inevitabile laggiù si nasconde qualcosa eppure i rilevamenti ci dicono che il pianeta ha un livello letale di radioattività e che questo rappresenta una copertura ideale nessuno può atterrarvi e da questa distanza cioè dal limite esterno della magnetosfera non risulta nulla ne sei certo chiese Bliss ho passato parecchio tempo al computer analizzando la terra in ogni modo immaginabile no non c'è più niente laggiù soprattutto io sento che non c'è più niente allora perché i dati che la riguardano sono stati cancellati è impensabile che possa esistere un nascondiglio più efficace quindi a che scopo confondere ulteriormente le acque e forse disse Pelrat un tempo c'era davvero qualcosa che nascondevano laggiù quando la terra non era ancora tanto radioattiva da essere inavvicinabile forse i terrestri temevano che qualcuno atterrasse e trovasse questa misteriosa entità nascosta per cui hanno cercato di cancellare le informazioni in tal caso si tratterebbe di una traccia ormai insignificante che risale a un passato di insicurezza no non credo replicò Travis se non sbaglio la cancellazione delle informazioni della biblioteca imperiale di Trantor è avvenuta di recente si rivolse a Bliss giusto Bliss rispose io noi Gaia abbiamo tratto questa conclusione dalla mente turbata dell'oratore Gandibal della seconda fondazione è stato quando lui tu e io ci siamo riuniti con il sindaco di Terminus dunque la cosa che è stata nascosta perché esisteva la possibilità di scoprirla deve essere nascosta anche adesso e deve esserci la possibilità di trovarla nonostante la radioattività della terra ma come chiese Pellerat apprensivo riflettiamo disse Travis forse la cosa non è più sulla terra ma è stata trasferita altrove quando il rischio radioattivo si è fatto troppo alto se anche il segreto non è più sul pianeta può darsi che il fatto stesso di averlo ritrovato permetta di dedurre qual è il nuovo nascondiglio di cui la necessità di tenere ugualmente nascosta la posizione terrestre la vogetta di Fallon si intromise nel discorso perché non troviamo la terra perché se non troviamo la terra Bliss dice che mi riporterete da Gemby Travis la fulminò con un occhiataccio e Bliss disse sottovoce ti ho detto che forse ti avremmo riportata Fallon ne riparleremo dopo adesso vai nella tua stanza e leggi o suona il flauto o fai quello che preferisci su vai vai Fallon imbronciata si allontano dal tavolo ma come puoi dire una cosa simile Golan disse Pellorad siamo arrivati abbiamo individuato la terra se quello che cerchiamo non è più lì saremo in grado davvero di dedurre dove si trovi è certo rispose Travis superato all'attimo di malumore provocato dalla bambina riflettiamo la radioattività della crosta terrestre è sempre più alta la popolazione diminuisce perché muore o perché emigra e il segreto qualunque sia si trova in pericolo come fare per proteggerlo non rimane che trasferirlo su un altro mondo altrimenti non sarebbe più di alcuna utilità per la terra probabilmente c'è una certa riluttanza e il trasferimento avviene all'ultimo momento bene Yanov ricordi il vecchio di nuova terra che ti ha martellato le orecchie con le sue storie monolì appunto riferendosi alla fondazione di nuova terra non ti ha detto che i superstiti della popolazione terrestre furono portati su quel pianeta intendi forse dire amico mio che quello che cerchiamo è su nuova terra che è stato portato lassù dai terrestri partiti per ultimi e non può darsi che sia così disse Travis nella galassia nuova terra è un mondo sconosciuto quasi quanto la terra e i suoi abitanti sono ansiosi di tenere alla larga i ficcanaso ci siamo già stati intervenne Bliss eppure non abbiamo trovato nulla perché non cercavamo nulla se non la posizione della terra Pelorat osservò perplesso ma noi cerchiamo qualcosa di tecnologicamente avanzato in grado di cancellare delle informazioni preziose sotto il naso della seconda fondazione e perfino scusa Bliss sotto il naso di Gaia gli abitanti di nuova terra sono capaci di controllare i fenomeni meteorologici sulla loro isola d'accordo e dispongono di alcune biotecnologie ma deve riconoscere che il loro livello complessivo è piuttosto basso Bliss a noi sono d'accordo con Pel stiamo giudicando in base a dati troppo scarsi ribatte Travis non abbiamo mai visto gli uomini della flotta da pesca a parte il punto dove siamo scesi non abbiamo visto nessun'altra zona dell'isola cosa avremmo potuto scoprire compiendo un'esplorazione più accurata non lo sappiamo in fin dei conti non avevamo riconosciuto le luci fluorescenti finché non le abbiamo viste in funzione e se il loro livello tecnologico sembrava basso sembrava ho detto sì fece Bliss scettica forse rientrava nella messa in scena allestita per mascherare la verità impossibile disse Bliss ma come sei stata tu a dirmi su Gaia che a Trantor il livello tecnologico è mantenuto volutamente basso per nascondere la presenza del piccolo gruppo di esponenti della seconda fondazione forse su Nuova Terra sono ricorsi alla stessa strategia vorresti dire che dovremmo tornare laggiù a farci contagiare stavolta in modo definitivo eh indubbiamente il rapporto sessuale è un veicolo di infezione piacevole ma non è l'unico Travis alza le spalle non è che smani dalla voglia di tornarci ma può darsi che dobbiamo farlo può darsi sì perché c'è un'altra possibilità cioè Nuova Terra ruota intorno ad Alfa Centauri stella che fa parte di un sistema binario Alfa Centauri A cioè il sole di Nuova Terra e Alfa Centauri B il suo compagno meno luminoso non potrebbe esserci un pianeta abitabile anche intorno alla seconda stella è troppo poco luminosa Bliss fece di no con la testa un quarto rispetto ad Alfa A è poco luminosa ma non troppo debole basta che il pianeta sia abbastanza vicino alla stella stando al computer ci sono dei pianeti intorno al secondo sole chiese Pelorat Travis sorrise e rispose ho controllato ci sono cinque pianeti di dimensioni medie nessun gigante gassoso e tra i cinque ce n'è un abitabile il computer non fornisce alcuna informazione dice soltanto che sono cinque e che non sono grandi oh fece Pelorat deluso e non è il caso di perdersi d'animo disse Travis i mondi spaziali non figurano nemmeno sulla mappa del computer le informazioni su Alfa Centauri A sono minime se non si sa quasi nulla su Alfa Centauri B beh potremmo interpretarlo come un segno positivo allora che intenzioni hai? chiese Bliss sbrigativa vuoi raggiungere Alfa B e se non approderemo nulla tornare ancora su Alfa A vero? sì e questa volta quando raggiungeremo l'isola di Nuova Terra sapremo cosa aspettarci esamineremo tutta l'isola prima di scendere e Bliss spero che userai i tuoi poteri mentali per proteggerci in quel momento la stella lontana sussultò leggermente come scossa da un singhiozzo in un misto di rabbia e stupore Travis urlo chi c'è ai comandi? ma conosceva già la risposta Fallon sedeva al computer completamente assorta le mani piccole dalle dita affusolate erano allargate al massimo per combaciare con i contorni leggermente luminosi di quelle tracciate sulla scrivania le dita di Fallon sembravano affondare nel materiale anche se in realtà era duro e sdrucciolevole più volte Fallon aveva visto Travis tenere le mani in quella posizione e aveva capito che così controllava l'astronave anche se in apparenza non faceva nient'altro di tanto in tanto lo aveva visto chiudere gli occhi quindi li chiuse anche lei dopo un attimo le parve di sentire una vocina lontana che risuonava nella testa attraverso i lobby di trasduzione e che percepiva in modo vago i lobby erano ancora più importanti delle mani si sforzò di nuovo le parole istruzioni chiese la voce in tono quasi supplichevole quali sono le istruzioni Fallon non disse nulla Travis non parlava mai al computer ma sapeva quale fosse la cosa che desiderava con tutta se stessa tornare su Solaria nella sua comoda e smisurata residenza da Gemby 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 voleva tornare e mentre pensava al mondo che amava lo immaginò sullo schermo visibile come tanti altri mondi che non le interessavano aprì gli occhi e fissò lo schermo desiderando che al posto dell'odiosa terra apparisse il suo pianeta immaginò che quello che vedeva ora fosse Solaria odiava la galassia vuota in cui l'avevano gettata contro la sua volontà le vennero le lacrime agli occhi e l'astronave tremò Fallon avvertì il tremito e a sua volta oscillò un po' poi sentì dei passi pesanti nel corridoio ed un tratto la faccia di Travis con tratta ostruì la visuale nascondendo lo schermo che racchiudeva la meta dei suoi desideri Travis Travis gridava qualcosa ma lei lo ignorò era stato lui a portarla via da Solaria uccidendo Bander era lui che le impediva di tornare pensando solo alla terra beh lei non lo avrebbe ascoltato ma avrebbe riportato l'astronave su Solaria e la forza della sua decisione fece tremare di nuovo la stella lontana Bliss afferrò il braccio di Travis no no si aggrappò a lui trattenendolo Pelorat fra stornato e pietrificato indugiava sulla soglia Travis urlava togli le mani dal computer Bliss non metterti in mezzo non voglio farti male non toccare la bambina intimo Bliss o dovrò farti male io ignorando le istruzioni lo sguardo inferocito di Travis si spostò da Fallon a Bliss allora levamela di torno subito Bliss lo spinse via con forza sorprendente forza trasmessale da Gaia riflette in seguito Travis Fallon disse Bliss via le mani da lì no strillò la bambina voglio che l'astronave vada su Solaria voglio che vada là là e fece un cenno in direzione dello schermo senza spostarsi di un millimetro Bliss posò le mani sulle spalle della bambina e subito Fallon cominciò a tremare la voce della ragazza divenne un mormorio su Fallon dia al computer di tornare come prima e vieni con me vieni con me le sue mani presero ad accarezzare la bambina che si abbandonò a un pianto dirutto Fallon staccò le mani dalla scrivania e Bliss stringendola sotto le ascelle la drizzò in piedi la fece girare e la tirò a sé lasciando che si sfogasse sul suo petto Bliss disse a Travis fermo sulla soglia spostati e non toccarci Travis si scansò la Gaiana si fermò un attimo per dire sottovoce sono stata costretta ad inserirmi per un attimo nella sua mente se avrò provocato qualche danno non potrò perdonarti tanto facilmente Travis avrebbe voluto ribattere che non gli importava un millimetro di vuoto cosmico della mente di Fallon che lui era preoccupato per il computer ma di fronte allo sguardo ostile di Gaia e quell'espressione che faceva raggelare il sangue non poteva dipendere unicamente da Bliss preferì tacere rimase zitto immobile finché Bliss e Fallon non furono uscite o meglio finché Pererath mormorò Colan stai bene non ti ha fatto male è vero Travis scosse il capo con vehemenza come per scrollarsi di dosso la paralisi momentanea che lo aveva bloccato tutto a posto il problema semmai è un altro chissà sia a posto il computer si sedette posando le mani dove pochi istanti prima le aveva posate Fallon beh chiese Pelorat ansioso Travis alzò le spalle pare che risponda normalmente può darsi che trovi qualcosa che non va in un secondo tempo ma per il momento niente di sospetto e aggiunse rabbioso il computer dovrebbe entrare in contatto solo con le mie mani ma nel caso di questo ermafrodita non si è trattato soltanto delle mani sono sicuro che i lobi di trasduzione ma cosa ha scosso l'astronave non dovrebbe succedere eh no è un'astronave gravitazionale e gli effetti inerziali non dovrebbero sentirsi ma quel piccolo mostro ha fatto qualcosa e secondo me ha impartito due ordini così forti e contraddittori che il computer è stato costretto a tentare entrambe le cose contemporaneamente nel tentativo di ottenere l'impossibile deve aver annullato per un attimo l'effetto antinerziale almeno credo che sia successo questo poi l'espressione di Travis si rilassò leggermente e forse è stato un bene perché ripensandoci le mie chiacchiere a proposito di alfa centauri a e b erano solo sciacchezze adesso so dove è stato trasferito il segreto della terra e l'oratto lo fissò ignorò l'ultima affermazione e tornò a un interrogativo precedente in che modo Fallon può avere ordinato due azioni contraddittorie ha detto che voleva far tornare l'astronave su Solaria sì certo ma cosa intendeva per Solaria la bambina non può riconoscerla dallo spazio non l'ha mai vista dall'esterno dormiva quando siamo fuggiti dal suo mondo e per quanto abbia letto i tuoi libri per quanto Bliss le abbia insegnato molte cose secondo me Fallon non è in grado di afferrare il concetto di una galassia che comprende centinaia di miliardi di stelle e milioni di pianeti abitati è cresciuta sotto terra in solitudine ed è già tanto se riesce ad assimilare con fatica il concetto di altri mondi ma quanti due tre quattro vedendo un pianeta è logico che le sembri uguale a Solaria anzi che sia Solaria dal momento che ha un desiderio disperato di tornare laggiù probabilmente Bliss ha cercato di calmarla dicendole che se non avessimo trovato la terra l'avremmo riportata su Solaria per cui Fallon deve essersi messa in testa che Solaria fosse vicina alla terra e cosa te lo fa pensare Golan è come se lo avesse detto lei stessa quando ci siamo precipitati qui ha gridato che voleva andare su Solaria e indicando lo schermo ha aggiunto là là e che cosa c'era sullo schermo il satellite gigantesco di questo pianeta non si vedeva quando mi sono allontanato dal computer per venire a mangiare allora appariva soltanto la terra perciò quando Fallon mi ha chiesto Solaria deve essersi figurato mentalmente il satellite e il computer l'ha inquadrato e credimi Yanov so bene come funziona questa macchina Pelorat osservò la falce di luce sullo schermo e disse mi di d'abbondo si chiama Luna in una lingua della terra ma chissà quanti altri nomi aveva nelle altre lingue immagina che confusione amico mio su un mondo con tante parlate pensa agli equivoci alle complicazioni Luna beh come nome non è affatto complicato ora che ci penso forse la ragazzina ha cercato istintivamente di muovere l'astronave servendosi dei lobby di trasduzione e sfruttando l'energia di bordo può darsi sia stato questo a causare il momentaneo sbandamento inerziale comunque non ha importanza grazie a questo incidente sullo schermo è apparsa la Luna eh sì mi piace il nome è apparsa ingrandita ed è ancora lì osservandola noto qualcosa di interessante cosa Golan le sue dimensioni di solito si tende a ignorare i satelliti sono così piccoli eh questo è diverso è un mondo ha un diametro di circa 3500 chilometri è un mondo non direi non può essere abitato anche se ha un diametro del genere è troppo piccolo non ha atmosfera basta guardare per capirlo la sua curvatura è molto accentuata come la linea interna di demarcazione tra l'emisfero diurno e quello notturno Travis Annui eh stai diventando un vero lupo dello spazio Yanov hai ragione non c'è aria e non c'è acqua ma questo significa soltanto che la Luna è inabitabile in superficie e sotto vuoi dire sottoterra chiese Pellorato Dubioso eh sì perché no le città della Terra erano sotterranee e mi hai detto Trantor idem buona parte della capitale di Comporellen è sotterranea come le residenze solariane abbiamo visto che è un fatto abbastanza comune ma nei casi che hai elencato si trattava di pianeti abitabili in superficie con tanto di atmosfera e oceani è possibile vivere sottoterra quando l'esterno è inabitabile via rifletti dove siamo noi adesso la stella lontana è un mondo microscopico dalla superficie inabitabile all'esterno non ci sono né aria né acqua eppure prosperiamo all'interno senza problemi la galassia è piena di stazioni spaziali e insediamenti di ogni tipo che come le astronavi sono abitabili solamente all'interno la luna può essere vista come una specie di gigantesca astronave con un equipaggio interno eh sì milioni di persone per quel che ne sappiamo piante animali è una tecnologia avanzata ascolta e dimmi se il mio discorso non è logico nei suoi ultimi giorni la terra è riuscita a mandare un gruppo di coloni su un pianeta del sistema di alfa centauri e con l'aiuto dell'impero ha cercato di terraformarlo seminando la vita negli oceani costruendo letteralmente la terraferma dove non esisteva se ha fatto questo allo stesso modo avrebbe potuto inviare un gruppo di coloni sulla luna e terraformare l'interno del satellite sebbene riluttante Peloratanui è possibile è certo se la terra aveva qualcosa da nascondere perché mandarla a più di un parsec di distanza dal momento che poteva nasconderla su un mondo vicinissimo e da un punto di vista psicologico la luna sarebbe stata certamente un nascondigio più efficace quando si pensa a un satellite si pensa automaticamente all'assenza di vita l'ho fatto anch'io con la luna sotto gli occhi i miei pensieri sono corsi figurati ad alfa centauri e se non fosse stato per Fallon Travis strinse le labbra scuotendo il capo credo che dovrò riconoscerle questo merito e in caso contrario ci pensere a Bliss ma amico mio se sotto la superficie della luna si nasconde qualcosa come faremo a trovarla? saranno milioni di chilometri quadrati e circa 40 milioni e dovremo setacciarli tutti cercando cosa? un'apertura? un portello stagno? presentata in questi termini sembrerebbe un'impresa colossale ma ricorda che non stiamo cercando solo degli oggetti stiamo cercando la vita a forme intelligenti e abbiamo Bliss individuare l'intelligenza e la sua specialità Bliss squadrò Travis con aria accusatoria finalmente sono riuscita a farla dormire è stata dura fallo ma era fuori di senno non credo di averle causato alcun danno per fortuna Travis replicò gelido potresti provare a levarle dalla testa la sua fissazione per gembi perché non intendo affatto tornare su Solaria levarle la fissazione una sciocchezza eh Travis ma che ne sai di certe cose non hai mai percepito una mente non hai la più palida idea della sua complessità o non parleresti di rimuovere un'idea fissa come se si trattasse di prendere marmellata da un vasetto beh almeno potresti indebolirla potrei indebolirla leggermente con ogni probabilità ma solo dopo un mese di infralettura accurata infralettura e che significa non si può spiegare a un non iniziato allora che cosa intendi fare con la bambina non lo so ancora bisognerà riflettere a fondo in tal caso disse Travis ti spiegherò cosa faremo noi so già quali sono le tue intenzioni tornare su nuova terra e abbordare di nuovo quella bella Ichiroko se questa volta prometterà di non contagiarti Travis rimase impassibile no ho cambiato idea andremo sulla luna che stando a Yanov è il nome del satellite sul satellite il mondo più a portata di mano non ci avevo pensato né io né nessun altro nella galassia non esistono satelliti degni di nota ma questo per le sue dimensioni è unico e soprattutto l'anonimato della terra si estende anche al satellite chi non trova la terra non trova nemmeno alla luna è abitabile in superficie no ma non è a radioattiva quindi non è inabitabile in assoluto con ogni probabilità ospita la vita brulica di vita sotto la superficie e naturalmente tu sarai in grado di dircelo quando saremo abbastanza vicini Bliss alza le spalle ci proverò ma come mai tutta un tratto ti è venuto in mente il satellite? Travis rispose sottovoce l'idea mi è venuta dopo che Fallon si è impadronita dei comandi e ha fatto una cosa Bliss aspettò maggiori delucidazioni quindi alzò di nuovo le spalle qualunque cosa abbia fatto ho la sensazione che non avresti avuto questa ispirazione se avessi dato retta ai tuoi impulsi me l'avessi ammazzata mai avuto intenzione di ammazzarla Bliss lei agitò la mano eh d'accordo stiamo puntando verso la luna adesso? certo per precauzione procediamo lentamente ma non ci saranno intoppi entro 30 ore dovremmo essere arrivate a destinazione la luna era una distesa desolata e Travis osservò la parte diurna che scorreva in basso un panorama monotono di crateri aree montuose e ombre nere nettissime che spiccavano nel chiarore solare il terreno presentava lievi cambiamenti di colore e di tanto in tanto ampi tratti pianeggianti butterati da piccoli crateri avvicinandosi al lato notturno le ombre si allungarono per fondersi con l'oscurità per un po' dietro di loro i picchi montuosi scintillarono più luminosi delle stelle poi scomparvero e sotto la stella lontana rimase solo il debole riflesso della terra una grande sfera bluastra illuminata per meno di tre quarti l'astronave infine superò anche la terra che scomparve sotto l'orizzonte e il panorama divenne di un nero assoluto poi apparvero nuove stelle brillanti da prima un paio e quindi altre sempre più fitte a formare quasi una massa compatta di colpo oltrepassarono il terminatore e furono di nuovo nel lato diurno il sole ardeva di uno splendore infernale lo schermo cambiò subito inquadratura filtrando il riflesso abbagliante del terreno sottostante data l'enormità di quel mondo Travis si rese conto che era assurdo sperare di trovare una via d'accesso all'interno abitato sempre che esistesse affidandosi soltanto all'esplorazione visiva si voltò verso Bliss seduta accanto a lui lei non osservava lo schermo aveva gli occhi chiusi e più che seduta era accasciata sulla sedia Travis chiedendosi se si fosse addormentata chiese sottovoce e non capì nient'altro Bliss scosse il capo no solo quella debole traccia meglio tornare là conosci la posizione il computer la conosce era come puntare su un obiettivo e non ci volle molto per individuarlo la zona in questione era nel lato notturno e a parte il lucore grigiastro e spettrale riflesso dalla terra non si distingueva nulla malgrado le luci della sala comandi fossero state spente per facilitare l'osservazione bellorata si era avvicinato e indugiava apprensivo sulla soglia non abbiamo trovato nulla Travis lo zitti alzando una mano osservava Bliss sapeva che sarebbero trascorsi giorni prima che la luce solare tornasse a illuminare quel punto ma sapeva anche che per quello che Bliss stava cercando non occorreva alcun genere di luce è qua disse lei sicura sì ed è l'unico punto l'unico che ho individuato abbiamo sorvolato tutta la superficie della luna gran parte beh nella parte che abbiamo esaminato non ho individuato nient'altro adesso è più forte come se ci avesse individuato e non mi sembra nulla di pericoloso percepisco una sensazione di benvenuto sicura è la sensazione che percepisco non potrebbe essere una finzione chiese Pelorat Bliss replicò con una leggera alterigia se fosse un trucco me ne accorgerei te lo assicuro Travis borbottò qualcosa a proposito della sicurezza eccessiva poi disse percepisci un'intelligenza spero è un'intelligenza molto forte soltanto che e la voce di Bliss assunse un tono strano soltanto che lasciami concentrare sussurrò Bliss poi sorpresa non è umana no fece Travis ben più sorpreso ancora robot come sussolaria no rispose Bliss sorridendo non è nemmeno robotica o è l'una o è l'altra nessuna delle due invece ti dico Bliss ridacchiava non è umana tuttavia è diversa da quella dei robot che ho incontrato finora Pelorat esclamò mi piacerebbe proprio vedere cosa è scuoteva forte la testa e aveva gli occhi spalancati dall'entusiasmo sarebbe davvero eccitante qualcosa di nuovo qualcosa di nuovo a noi Travis sentendosi improvvisamente rincuorato un lampo di intuizione parve sprezzarci dagli occhi scesero sulla superficie lunare trascinati da qualcosa che rasentava l'esultanza perfino Fallon si era unita al gruppo e con tipico abbandono infantile faceva salti di gioia come se tornasse su solaria Travis invece sperimentava un principio di equilibrio mentale che poneva nuovi interrogativi era strano che la terra o la parte di terra che si trovava sulla luna dopo aver fatto il possibile per tenere alla larga gli intrusi adesso li invitasse ad avvicinarsi che lo scopo fosse sempre lo stesso che si trattasse di un'applicazione della famosa tattica se non puoi tenerli alla larga attirali all'interno e distruggili ma quel pensiero scomparve travolto dal vortice di gioia che diventava sempre più intensa mano a mano che si avvicinavano alla superficie lunare per quanto intensa Travis riuscì ad aggrapparsi all'attimo di illuminazione che l'aveva colpito poco prima che iniziassero il tuffo verso il satellite della terra a quanto sembrava Travis non aveva alcun dubbio sulla destinazione dell'astronave adesso sfioravano la sommità delle alture ondulate e lui attaccato al computer non sentiva il bisogno di fare nulla era come se venisse guidato insieme alla macchina e provava un'immensa euforia perché il peso della responsabilità non gravava più sulle sue spalle procedevano paralleli al terreno verso un dirupo che si ergeva minaccioso come una barriera era una barriera scintillante di un fioco bagliore nel riflesso terrestre e nel raggio luminoso della stella lontana il pericolo di una collisione imminente non suscitò alcuna reazione in Travis e non provò la minima sorpresa quando si accorse che il dirupo davanti a loro si era spostato e che si era aperto un corridoio illuminato artificialmente l'astronave rallentò insinuandosi senza alcun problema nell'apertura quando si fu richiusa alle loro spalle ne apparve un'altra di fronte l'astronave penetrò nel secondo passaggio sbucando in una sala gigantisca che sembrava l'interno cavo di una montagna l'astronave si fermò e tutti si affrettarono verso la camera stagna e il portello nessuno nemmeno Travis pensò di controllare se all'esterno ci fosse un'atmosfera respirabile o anche semplicemente un'atmosfera l'area c'era comunque respirabilissima piacevole si guardarono intorno soddisfatti come gente che fosse tornata a casa e solo dopo un po' notarono la presenza di un uomo che aspettava educatamente che si avvicinassero era alto aveva un'espressione grave i suoi capelli erano color bronzo corti gli zigomi ampi gli occhi luminosi e i suoi vestiti ricordavano i costumi che si vedevano nei libri di storia antica anche se sembrava forte e vigoroso aveva un'area vaga di indefinibile stanchezza la prima a reagire fu Fallon lanciando un grido si precipitò verso l'uomo e agitando le braccia strillo gembi gembi non rallentò un attimo e quando fu abbastanza vicina l'uomo si chinò e la sollevò lei gli gettò le braccia al collo continuando a singhiozzare gembi gli altri si avvicinarono mostrando un maggior controllo e Travis disse scandendo bene le parole chissà se quell'uomo capiva il galattico le nostre scuse signore la bambina ha perduto il suo protettore e lo cerca disperatamente non so perché abbia pensato a lei dal momento che sta cercando un robot un essere mech l'uomo parlò per la prima volta il suo tono era pratico più che melodioso e conteneva qualche traccia di arcaismo ma parlava il galattico con estrema disinvoltura vi accolgo in amicizia disse con un atteggiamento senza dubbio amichevole malgrado l'espressione di solennità del volto e la bambina è più perspicace di quello che credete perché io sono un robot mi chiamo Danil Olivov la ricerca termina Travis era in uno stato di incredulità assoluta si era riavuto dalla strana euforia provata poco prima e poco dopo l'atterraggio forse impostagli dal sedicente robot che aveva di fronte era ancora bocca aperta perfettamente lucido e smarrito stupefatto aveva parlato in preda alla meraviglia comprendendo astento quello che diceva e quello che sentiva ma cercando di trovare nell'uomo nel suo aspetto e nel comportamento un indizio che ne rivelasse l'identità robotica ecco perché Bliss aveva individuato un'intelligenza che non era né umana né robotica bensì per usare l'espressione di Pelerat qualcosa di nuovo ed era stato un bene naturalmente perché a quel punto i pensieri di Travis avevano preso una rotta diversa e più chiara Bliss e Fallon si erano allontanate per esplorare il posto la proposta era stata della ragazza ma Travis aveva avuto l'impressione che fosse nata dopo una brevissima occhiata tra Bliss e Danil quando Fallon si era rifiutata di muoversi chiedendo di restare lì accanto all'essere che si ostinava a chiamare Gemby una parola seria di Danil e un gesto della mano erano bastati a vincere immediatamente la resistenza della bambina Travis e Pelerat erano rimasti lì non appartengo alla fondazione signori disse il robot come se quello spiegasse tutto una è Gaia e l'altra è una spaziale Travis restò in silenzio mentre venivano accompagnati verso alcune sedie dalla linea estremamente semplice disposte sotto un albero a un cenno del robot si accomodarono dopodiché anche il robot sedette con movimenti del tutto umani sei davvero un robot chiese Travis sì signore Pelerat era raggiante di gioia nelle vecchie leggende ci sono riferimenti a un robot di nome Danil sei stato chiamato così in suo onore sono quel robot rispose Danil non è una leggenda oh no disse Pelerat per essere lui dovresti avere mi giaia di anni ventimila disse Danil senza scomporsi Pelerat sembrò sconcertato e si voltò verso Travis che con una sfumatura di rabbia disse se sei un robot ti ordino di dire la verità non è necessario che mi si ordini di dire la verità signore io devo dirla dunque siete di fronte a tre possibilità sono un uomo e mento sono un robot programmato in modo tale da credere di avere ventimila anni ma non ho quell'età oppure sono un robot che ha davvero ventimila anni sta a voi decidere forse il problema si risolverà da solo continuando a parlare disse Travis asciutto e del resto si stenta a credere di essere all'interno della luna la luce e mentre lo diceva guardò in alto perché la luce era identica a quella del sole anche se in alto non c'era alcun sole e neppure un cielo ben definito luce e gravità non sembrano credibili questo mondo dovrebbe avere una trazione superficiale inferiore a 0,2 g per la precisione signore in condizioni normali la gravità superficiale dovrebbe essere di 0,16 g in ogni caso viene aumentata dalle stesse forze che danno la sensazione di una gravità normale sulla vostra astronave sia in caduta libera sia in fase di accelerazione anche i bisogni energetici fra cui la luce vengono fronteggiati gravitazionalmente benché a volte sia comodo usare l'energia solare ai nostri bisogni materiali provvede il terreno lunare esclusi gli elementi leggeri come l'idrogeno il carbonio e l'azoto che la luna non possiede per procurarceli catturiamo ogni tanto una cometa ne basta una al secolo per rifornirci adeguatamente dunque la luna è inutilizzabile in questo senso purtroppo sì signore i nostri cervelli positronici sono sensibili alla radioattività come le proteine umane usi il plurale e la residenza qui di fronte sembra molto grande magnificamente elaborata a quanto possiamo vedere ci sono altri esseri sulla luna uomini o robot sì signore sulla luna abbiamo un completo sistema ecologico e un'ampia e complessa cavità che lo ospita gli esseri intelligenti comunque sono tutti robot più o meno come me ma non ne vedrete neppure uno e questa residenza è usata solo da me identica a quella in cui vivevo ventimila anni fa che ricordi dettagliatamente vero certo signore sono stato costruito e ho vissuto per breve tempo sul mondo spaziale di aurora quello coi travis si interruppe sì signore quello con i cani ne sei al corrente sì signore come mai ti trovi qui se all'inizio vivevi su aurora signore sono venuto qui agli inizi della colonizzazione della galassia per impedire la creazione di una terra radioattiva con me c'era un altro robot di nome Giscard capace di percepire e modificare le menti come è Bliss sì signore il nostro tentativo non ebbe pienamente successo e Giscard smise di funzionare prima di cessare fece in modo che anch'io disponessi del suo talento e mi affidò il compito di badare alla galassia alla terra soprattutto perché soprattutto alla terra in parte per via di un uomo di nome Elijah Balei un terrestre Pellerat intervenne citato Golan è l'eroe culturale di cui ti ho parlato qualche tempo fa un eroe culturale signore ma il dottor Pellerat usa questo termine per indicare una persona alla quale erano attribuite molte cose disse Travis che forse nella storia reale sono state compiute da più uomini o in alternativa un personaggio inventato Daniel riflettì per un istante non è così signori Elijah Balei era un uomo autentico non so cosa dicono le vostre leggende ma nella storia reale senza di lui probabilmente la galassia non sarebbe mai stata colonizzata in suo onore ho fatto del mio meglio per salvare quel che potevo della terra dopo l'inizio della radioattività i miei compagni robot furono inviati in tutta la galassia nel tentativo di influenzare una persona qui un'altra là una volta riuscì a organizzare l'avvio del riciclaggio del suolo terrestre un'altra volta molto tempo dopo avviai col mio intervento la terraformazione di un mondo del sistema di alfa centauri in entrambi i casi non ho avuto completo successo non potevo modificare a mio piacimento le menti umane perché esisteva il rischio di danneggiare gli individui che avrei influenzato vedete a vincolarmi c'erano e ci sono tuttora le leggi della robotica sì non erano necessari i poteri mentali di daniel per cogliere l'incertezza presente in quel monosillabo la prima legge signore è questa un robot non può danneggiare un essere umano né attraverso l'inazione permettere che un essere umano venga danneggiato la seconda legge dice un robot deve obbedire agli ordini dati dagli esseri umani a meno che questi ordini non violino la prima legge la terza legge dice un robot deve proteggere la propria esistenza purché tale protezione non sia in contrasto con la prima o con la seconda legge naturalmente ve le espongo nell'approssimazione del linguaggio in realtà si tratta di complicate configurazioni matematiche dei nostri schemi positronici ti riesce difficile tener conto delle leggi certo signore deve essere così la prima legge è qualcosa di assoluto che inibisce quasi del tutto l'uso dei miei poteri mentali quando si ha a che fare con la galassia è improbabile che un'azione non sfoci in qualche conseguenza dannosa alcune persone e forse molte finiranno sempre col soffrire per cui un robot dovrà scegliere il danno minore eppure la complessità delle possibilità è tale che occorre tempo per compiere la scelta e neanche l'ora si può essere del tutto sicuri capisco disse Travis attraversando la storia galattica proseguì Daniel ho cercato di migliorare gli aspetti peggiori dei conflitti e dei disastri manifestatisi nella galassia può darsi che ci sia riuscito qualche volta e in parte ma se conoscete la storia saprete che i miei successi sono stati rari e di scarsa entità lo so disse Travis con un sorriso amaro appena prima della sua fine Giscard concepì una legge robotica che superasse la prima non trovando un nome più adeguato la chiamammo legge zero e si afferma un robot non può danneggiare l'umanità né attraverso le nazioni permettere che l'umanità venga danneggiata il che comporta automaticamente un cambiamento della prima legge in un robot non può danneggiare un essere umano né attraverso le nazioni permettere che un essere umano venga danneggiato purché questo non sia in contrasto con la legge zero e allo stesso modo vanno modificate anche la seconda e la terza legge Travis corrugo la fronte come si fa a decidere quel che è dannoso o meno per l'umanità presa complessivamente appunto signore in teoria la legge zero era la risposta ai nostri problemi in pratica era impossibile decidere un essere umano è un soggetto concreto i danni a una persona possono essere valutati osservati l'umanità è una strazione come comportarsi eh non lo so ammise Travis un momento intervenne Pelarat si potrebbe trasformare l'umanità in un organismo singolo Gaia è quello che ho cercato di fare signore organizzai la fondazione di Gaia trasformata in un singolo organismo l'umanità sarebbe diventata un oggetto concreto con riscontri visibili e immediati comunque creare un super organismo non era facile come avevo sperato innanzitutto bisognava che gli esseri umani dessero più importanza al super organismo che alla loro individualità quindi dovevo trovare una struttura mentale adatta trascorse parecchio tempo prima che pensassi alle leggi della robotica allora i Gaiani sono robot eh l'avevo sospettato fin dall'inizio in tal caso i suoi sospetti erano infondati signore sono esseri umani ma nei loro cervelli è stato inculcato saldamente l'equivalente delle leggi della robotica i Gaiani devono rispettare la vita rispettarla davvero ma superato questo ostacolo restava un altro problema serio un super organismo composto unicamente da esseri umani è instabile è necessario aggiungere altri animali piante e materia inorganica il super organismo più piccolo veramente stabile è un mondo abbastanza grande e complesso da possedere uno stabile sistema ecologico mi occorse molto tempo per capirlo e solo in quest'ultimo secolo la fondazione di Gaia si è conclusa e Gaia ha potuto cominciare ad evolversi in galaxia malgrado ciò anche questa fase richiederà molto tempo benché forse la strada da percorrere sarà più breve di quella già fatta perché adesso conosciamo le regole ma avevi bisogno di me perché decidessi al tuo posto è così Danil sì signore le leggi della robotica non permettevano né a me né a Gaia di prendere una decisione che rischiasse di danneggiare l'umanità cinque secoli fa quando trovare il metodo per superare le difficoltà che ostacolavano la creazione di Gaia sembrava un'impresa irrealizzabile ricorsi a una soluzione di ripiego e favorì lo sviluppo della scienza psicostorica ne avrei dovuto immaginarlo mormorò Travis sai Danil comincio a credere che tu abbia davvero ventimila anni grazie signore per l'ora ti intervenne un attimo anche tu fai parte di Gaia Danil è così che hai saputo dei cani su Aurora tramite Bliss in un certo senso signore sono alleato di Gaia anche se non ne faccio parte Travis in arcole sopracciglia come compore Ellen il mondo che abbiamo visitato subito dopo essere partiti da Gaia anche laggiù sostenevano di non appartenere alla federazione della fondazione ma di essere soltanto alleati Danil annui lentamente un'analogia pertinente direi in quanto collegato a Gaia posso sapere quello che Gaia sa per esempio tramite la donna Bliss al contrario Gaia non può essere al corrente di quello che so io e per questo conservo la mia libertà d'azione libertà necessaria finché Galaxia non avrà raggiunto una fase avanzata di sviluppo Travis fissò il robot e domandò e ti sei servito di Bliss come tramite per influenzare il nostro viaggio per plasmare gli eventi nel modo che ritenevi migliore Danil sospirò concedendosi un curioso atteggiamento umano non ho potuto far molto signore le leggi della robotica mi frenano sempre tuttavia ho alleviato il carico mentale di Bliss assumendo una piccola parte delle sue responsabilità perché potesse affrontare i lupi di Aurora e lo spaziale di Solaria con maggior prontezza e minor rischio per se stessa inoltre ho influenzato la donna di Comporelle né quella di Nuova Terra perché fossero ben disposte nei vostri confronti che non intralciassero il vostro viaggio Travis sorrise Mesto ma avrei dovuto capirlo che non era merito mio Danil accettò quella dichiarazione ignorando il rimprovero che Travis rivolgeva a se stesso al contrario signore in gran parte è stato merito suo le due donne erano ben disposte nei suoi confronti fin dall'inizio io mi sono limitato ad accentuare un impulso già presente in pratica il massimo che si può fare considerando le restrizioni delle leggi della robotica per quelle restrizioni e per altre ragioni solo con grandi difficoltà l'ho portata qui e solo indirettamente in parecchie occasioni ho rischiato seriamente di perderla adesso sono qui disse Travis cosa vuoi da me che confermi la decisione favorevole a Galaxia il volto di Danil solitamente inespressivo riuscì chissà come a esprimere un senso di disperazione no signore la sola decisione non è più sufficiente vi ho condotti qui come meglio potevo date le mie condizioni attuali per qualcosa di ben più serio sto morendo forse dipendeva dal tono pratico di Danil forse dal fatto che dopo ventimila anni di vita la morte non sembrava un avvenimento tragico soprattutto chi era destinato a vivere per meno di cent'anni in ogni caso Travis non provò alcuna compassione morire una macchina può morire posso cessare di esistere signore usi il termine che preferisce sono vecchio nessun essere senziente della galassia che viveva quando cominciai ad esistere è sopravvissuto fino ad oggi io stesso manco di continuità in che senso nel mio corpo signore non c'è una sola parte fisica che non sia stata sostituita più volte perfino il mio cervello positronico ha subito cinque sostituzioni ogni volta il contenuto del cervello precedente è stato impresso in quello nuovo fino all'ultimo positrone ogni volta il cervello nuovo aveva una capacità e una complessità superiori rispetto al vecchio e c'era spazio per una quantità maggiore di ricordi per una maggiore rapidità di decisione ed azione ma ma più un cervello è complesso più è instabile e più rapido è il suo deterioramento il mio ultimo cervello è centomila volte più sensibile del primo ma mentre il primo cervello è durato oltre diecimila anni quello attuale ha appena 600 anni ed è già senescente ormai ha raggiunto l'apice delle sue potenzialità ed è subentrato il declino la capacità decisionale è in rapido decadimento la capacità di esaminare e influenzare le menti a distanza iperspaziale sta diminuendo ancora più in fretta del resto non posso certo progettare un sesto cervello un'ulteriore miniaturizzazione cozzerebbe contro il muro del principio di indeterminazione e un'ulteriore complessità garantirebbe solo un decadimento quasi immediato pellerat sembrava estremamente turbato e certo gaia può andare avanti anche senza di te daniel ora che trevis ha deciso e ha scelto galaxia il processo ha richiesto troppo tempo signore disse daniel come al solito senza tradire alcuna emozione ho dovuto aspettare che gaia fosse una realtà compiuta nonostante le difficoltà impreviste quando è stato individuato un essere umano cioè il signor travis in grado di prendere la decisione chiave era ormai troppo tardi non creda che non abbia adottato qualche misura per prolungare la mia esistenza ho ridotto progressivamente le mie attività risparmiandomi per i casi di emergenza quando non ho più potuto contare sui miei interventi attivi per proteggere l'isolamento del sistema terra luna sono ricorso a mezzi passivi nell'arco di molti anni i robot antropomorfi che lavoravano con me sono stati richiamati alla base uno a uno il loro ultimo compito è stato quello di sottrarre dagli archivi planetari qualsiasi riferimento riguardante la terra e senza i miei compagni e me stesso in piena attività a Gaia mancheranno i mezzi essenziali per realizzare lo sviluppo di galaxia entro un periodo di tempo che non sia eccessivo sapevi tutto questo quando ho preso la mia decisione chiese Travis molto tempo prima signore Gaia naturalmente non lo sapeva ma allora sbottò Travis con rabbia a che scopo continuare a cosa è servito da quando ho preso la mia decisione ho perlustrato la galassia in cerca della terra e di quello che consideravo il suo segreto non sapendo che il segreto eri tu tutto per avere una conferma di quello che avevo stabilito bene l'ho avuta adesso so che galaxia è qualcosa di assolutamente essenziale ma che non servirà a nulla perché non hai lasciato la galassia e me al nostro destino perché signore stavo cercando una via d'uscita e ho continuato nella speranza di trovarne una credo alla fine di esserci riuscito invece di sostituire il mio attuale cervello positronico con un altro simile potrei fonderlo con un cervello umano non soggetto alle tre leggi e in grado di aumentare la capacità del mio intelletto introducendovi nuovi poteri è per questo che siete qui travis inorridi vorresti fondere un cervello umano col tuo sopprimere l'individualità della mente per formare una specie di gaia su scala ridotta sì signore non diventerei immortale forse ma viverei abbastanza a lungo per riuscire a realizzare galaxia e mi hai portato fin qui per questo vuoi che rinuncia alla mia individualità e ti offra la mia indipendenza dalle tre leggi della robotica la mia capacità di giudizio no? eppure un attimo fa ha detto che galaxia è essenziale per il benessere della razza umana anche se è essenziale occorrerebbe molto tempo per realizzarla e durante la mia vita io rimarrei un individuo invece realizzandola rapidamente ci sarebbe una perdita di individualità a livello galattico e la mia personale sarebbe soltanto una parte infinitesimale di un fenomeno di portata universale non accetterei mai di perdere la mia individualità se il resto della galassia conservasse la propria proprio come pensavo il suo cervello non si fonderebbe al meglio e in ogni caso è meglio che conservi una capacità di giudizio indipendente quando è che hai cambiato idea hai detto che sono qui per la fusione ho detto è per questo che siete qui al plurale mi riferivo a tutti voi bellorat si rigidì sulla sedia davvero dimmi daniel un cervello umano fuso con il tuo assorbirebbe tutti i ricordi ventimila anni di ricordi fino ai tempi leggendari certo signore bellorat respirò a fondo realizzerei il sogno della mia vita di studioso un premio per il quale rinuncerei volentieri alla mia individualità bene concedimi allora il privilegio di fondermi col tuo cervello travis intervenne sottovoce e blis bellorat esitò solo per un istante e blis capirà in ogni caso senza di me starà meglio dopo un po' daniel scosse il capo la sua offerta è generosa dottor bellorat ma non posso accettarla il suo cervello è vecchio e nella migliore delle ipotesi sopravviverà ancora due o tre decadi pur se fuso col mio mi occorre qualcos'altro ecco indico e disse l'ho richiamata blis stava tornando a passo svelto allegra bellorat scattò in piedi blis oh no non si allarmi dottor bellorat disse daniel non posso usare la signora perché mi fonderei con gaia mentre come ho già spiegato devo rimanere indipendente ma allora chi mormorò pelorat guardando la figura snella che correva alle spalle della ragazza travis disse il robot voleva fallum fin dall'inizio yanov blis tornò sorridendo chiaramente soddisfatta e non abbiamo potuto spingerci oltre i confini della tenuta ma questo posto mi ricorda moltissimo solaria naturalmente fallum è convinta che siamo a solaria le ho chiesto se daniel non sembrasse un po' diverso da gembi in fin dei conti gembi era di metallo fallum ha risposto no non proprio non so cosa intendesse dire con quel non proprio guardò fallum a breve distanza da loro intenta suonare il flauto mentre daniel ascoltava assorto e muoveva la testa a tempo il suono arrivava fino a loro lieve limpido e incantivole lo sapevate che quando siamo scesi dall'astronave lei aveva con sé il flauto ho l'impressione che non riusciremo a staccarla da daniel per un pezzo il commento fu accolto da un silenzio opprimente e bliss fissò all'armata i due uomini che succede travis rivolse un cenno in direzione di pelorat cedendogli la parola l'altro si schierì la voce e disse a dire il vero penso proprio che fallum resterà con daniel per sempre cosa bliss corrugò la fronte e fece per incamminarsi verso daniel ma pelorat la trattenne cara non puoi anche adesso daniel è più potente di gaia e fallum deve restare con lui se vogliamo che galaxia si realizzi lascia che ti spieghi golan per favore correggimi se sbaglio bliss ascoltò il racconto e la sua espressione mutò fin quasi alla disperazione in un tentativo di fredda razionalità travis ribadì tutto quadra bliss la bambina è una spaziale e daniel è stato progettato e costruito dagli spaziali la bambina è stata allevata da un robot e non conosceva nient'altro in una tenuta vasta come questo posto vasta e deserta la bambina ha poteri trasduttivi che saranno utili a daniel e viverà per tre o quattro secoli forse il periodo necessario per l'edificazione di galaxia con le guance arrossate e con gli occhi umidi bliss disse quel robot deve aver pianificato il nostro viaggio verso la terra in modo tale da farci passare su solaria a prendere una bambina che facesse al caso suo travis fece spallucce forse ha semplicemente approfittato dell'opportunità che gli si è presentata ora come ora non credo che i suoi poteri siano abbastanza ampi da consentirgli di manovrare le persone a distanze iperspaziali no non c'è stato nulla di casuale il robot ha fatto in modo che provassi un affetto molto intenso per la bambina che la portassi via invece di abbandonarla a morire ha fatto in modo che la proteggessi perfino da te dal momento che eri seccato e risentito per la sua presenza a bordo forse Danil si è limitato a far leva sulla tua etica gaiana comunque è inutile tormentarsi anche se potessi ripartire con Fallon dove la porteresti perché fosse felice come qui non su Solaria per farla uccidere crudelmente e nemmeno su qualche mondo affollato dove si ammalerebbe e morirebbe su Gaia forse eh le si spezzerebbe il cuore continuando a pensare al suo gembi e lo stesso avverrebbe se l'accompagnassi in un interminabile viaggio attraverso la galassia dove ogni pianeta le sembrerebbe Solaria inoltre con chi la sostituiresti per consentire a Danil di dedicarsi alla costruzione di galassia Bliss restò mestamente in silenzio con una certa timidezza Pell ratta le tese la mano Bliss mi ero offerto volontario per fondermi con Danil ma non ha accettato il mio cervello dicendo che sono troppo vecchio vorrei che avesse detto di sì così avresti ancora Fallon Bliss gli prese la mano e la baciò grazie Pell ma sarebbe stato un prezzo troppo alto anche in cambio di Fallon sospirò e si sforzò di sorridere forse quando torneremo su Gaia nell'organismo globale ci sarà posto per un bambino tutto mio e nel suo nome metterò le sillabe Fallon come se sapesse che la questione era risolta Danil si incamminò verso di loro affiancato da Fallon la bambina si mise a correre e li raggiunse per prima Bliss disse grazie per avermi riportata a casa da Gemby e per esserti presa a cura di me ti ricorderò sempre poi si lanciò tra le braccia della ragazza ti auguro di essere sempre felice disse Bliss anch'io non ti dimenticherò mai cara e si staccò dalla bambina a malincuore Fallon si rivolse a Pelerat grazie anche a te per avermi fatto leggere i tuoi videolibri quindi senza aggiungere altro e dopo una lieve esitazione tese la mano a Travis Travis la strinse per un attimo buona fortuna Fallon mormorò grazie per quello che avete fatto signori e signora disse Danil ora siete liberi di andare perché la vostra ricerca è conclusa per quanto riguarda il mio lavoro anch'esso si concluderà abbastanza presto e con esiti favorevoli un attimo non abbiamo ancora finito disse Bliss non sappiamo se Travis sia tuttora convinto che il miglior futuro per l'umanità sia Galaxia e non un gran conglomerato di isolati il signor Travis ha già chiarito questo punto poco fa signora ha scelto la soluzione Galaxia Bliss contrasse le labbra preferirei sentirlo da lui ma allora Travis qual è la tua decisione calmo Travis disse quale decisione preferisci Bliss bocciando Galaxia forse riavresti fallom sono Gaia devo conoscere la tua decisione e il motivo per amor di verità e basta Danil intervenne glielo dica signore la sua mente e Gaia lo sa è libera da qualsiasi interferenza ho scelto Galaxia non ho più alcun dubbio Bliss rimase immobile per diversi secondi come se volesse permettere che l'informazione raggiungesse tutte le parti di Gaia poi disse per chi ascolta sapevo fin dall'inizio che i futuri possibili per l'umanità erano due Galaxia o il secondo impero del piano Seldon e mi sembrava che si escludessero a vicenda per qualche motivo la realizzazione di Galaxia doveva essere collegata a un difetto di base del piano Seldon sfortunatamente non sapevo nulla del piano né i particolari a parte i due assiomi fondamentali primo perché l'umanità possa essere studiata statisticamente come gruppo di individui in interazione casuale il numero di esseri umani osservati deve essere sufficientemente grande secondo l'umanità non deve essere al corrente dei risultati delle equazioni psicostoriche prima del conseguimento di tali risultati dato che avevo già preso una decisione favorevole a Galaxia sentivo inconsciamente che dovevano esserci delle imperfezioni nel piano Seldon e che tali imperfezioni potevano trovarsi solo negli assiomi l'unica parte che conoscessi bene eppure a me sembravano giusti allora sono partito alla ricerca della terra perché sentivo che se era così ben nascosta doveva essere per un motivo preciso e dovevo scoprirlo nulla mi garantiva che una volta rintracciata la terra avrei trovato una soluzione ma ero disperato e non avevo alcuna alternativa e forse il fatto che Danil desiderasse un bambino solariano è stata la spinta di cui avevo bisogno per proseguire in ogni caso finalmente abbiamo raggiunto la terra poi la luna e tu hai captato la mente di Danil come voleva Danil stesso hai descritto la sua mente come non umana né robotica a posteriori si è rivelata una definizione sensata perché Danil ha una mente più perfezionata del cervello di qualsiasi robot mai esistito e non poteva essere percepita come un semplice strumento robotico ma non poteva essere avvertita neanche come una mente umana Pelorat l'ha descritta usando l'espressione qualcosa di nuovo e questo ha permesso anche a me di intuire qualcosa di nuovo tempo addietro Danil e il suo collega hanno elaborato una quarta legge della robotica che si pone alla base delle altre tre allo stesso modo di colpo ho intuito un terzo assioma fondamentale della psicostoria più importante rispetto agli altri due assioma così basilare da passare inosservato eccoci al punto i due assiomi già noti riguardano l'umanità e si basano su una constatazione implicita gli esseri umani sono l'unica specie intelligente della galassia e pertanto i soli organismi capaci di azioni significative nello sviluppo della società e della storia questo è dunque l'assioma dato per scontato c'è una sola specie intelligente nella galassia e questa specie è l'homo sapiens se ci fosse qualcosa di nuovo se ci fossero altre specie intelligenti di natura diversa il loro comportamento non sarebbe interpretabile matematicamente per mezzo della psicostoria e il piano seldon non significherebbe più nulla sono stato chiaro? capite ora? Pellorat intervenne eh sì ma volendo fare l'avvocato del diavolo amico mio continua gli esseri umani sono l'unica intelligenza della galassia e i robot e Gaia? chiese Bliss Pellorat riflette per un istante poi un po' impacciato rispose i robot non hanno avuto alcun ruolo significativo nella storia umana dopo la scomparsa degli spaziali Gaia non ha avuto alcun ruolo significativo se non di recente i robot sono stati creati dagli esseri umani e Gaia è stata creata dai robot sia i robot sia Gaia in quanto limitati dalle tre leggi non possono far altro che piegarsi alla volontà umana nonostante i 20.000 anni di lavoro di Danil e la travagliata formazione di Gaia basterebbe una sola parola da parte di Golan Travis un essere umano per vanificare tutto quanto dunque l'umanità è l'unica specie intelligente significativa della galassia e la psicostoria è ancora valida l'unica forma di intelligenza ripete Travis lentamente sono d'accordo eppure parliamo tanto spesso della galassia da non renderci conto che non è un riferimento sufficiente la galassia non è l'universo ci sono altre galassie per la rette blitz parvero a disagio Danilo continuò ad ascoltare con aria solenne e benevola accarezzando piano i capelli di Fallum Travis riprese ascoltate appena oltre il limite della via Lattea ci sono le nubi di Magellano dove nessuna astronave umana si è mai spinta più in là ci sono altri piccoli ammassi globulari e non molto lontano c'è la gigantesca galassia di Andromeda e oltre a quella miliardi di galassie la nostra ha dato origine a un'unica specie abbastanza intelligente da formare una società tecnologica ma cosa sappiamo delle altre? potremmo essere un caso atipico in alcune delle altre galassie forse in tutte possono esserci specie intelligenti rivali in lotta fra loro e incomprensibili per noi forse sono assorbite dalla loro rivalità reciproca ma se in una galassia una specie conquistasse il predominio sulle altre e avesse il tempo di prendere in considerazione il viaggio in galassie vicine da un punto di vista iperspaziale la galassia è un punto come un altro nell'universo non abbiamo visitato nessun'altra galassia e per quanto ne sappiamo nessuna specie intelligente ha visitato la nostra ma un giorno la situazione potrebbe cambiare si arriveranno degli invasori troveranno il modo di aizzare esseri umani contro altri esseri umani lottiamo fra noi da tanto tempo che siamo abituati alle dispute più assurde del letale gli invasori trovandoci internamente divisi ci sottometteranno o ci distruggeranno l'unica vera difesa è la realizzazione di galassia che non potrà essere aizzata contro se stessa e che sarà in grado di affrontare i nuovi venuti dispiegando tutte le sue forze il quadro che presenti è spaventoso faremo in tempo a realizzare galassia chiese Bliss Travis sollevò lo sguardo come a penetrare lo spesso strato di roccia lunare che li separava dalla superficie e dallo spazio fino a vedere le remote galassie che si spostavano piano attraverso distese inimmaginabili nella storia umana a quanto risulta nessun'altra intelligenza ci ha mai disturbato basta che le cose non cambino per pochi secoli un periodo trascurabile se si considera da quanto tempo esiste la civiltà basta che le cose non cambino ancora per poco e saremo al sicuro in fin dei conti e a questo punto Travis fu assalito da un turbamento improvviso che si sforzò di ignorare non è che il nemico sia già tra noi distolse lo sguardo per non incontrare gli occhi meditabondi di Fallon ermafrodita creatura trasduttiva e diversa che lo fissavano imperscrutabili grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti